Ho deciso di mettervi all'interno di questo videocorso totalmente gratuito sul mio canale, porca miseria, iscrivetevi se volete contenuti di altissimo valore. Ho deciso di mettervi all'interno di questo videocorso svariati moduli di altissimo valore, quindi ho deciso di mettervi veramente tantissimi moduli. In descrizione ci avete anche tutto il vostro riepilogo dei moduli, vi potete andare a prendere anche eventualmente le cose che vi servono, se volete schippare qualcosa, ritornare indietro, eccetera. Ci avete tutto in descrizione, in modo tutto completamente descritto, in modo super leggibile e professionale, ma soprattutto semplice per quanto riguarda il vostro studio in questa lezione. Vi ricordo di demolire il bottone del like, quindi lasciate un like a questo video e per un corso di così tante ore vi sto chiedendo semplicemente un like, quindi semplicemente fatelo, grazie. E quindi facendo un po' riepilogo dei moduli che troverete all'interno di questa lezione, abbiamo messo praticamente tutto ciò che vi serve per quanto riguarda la costruzione di un e-commerce. Non andate tutti quanti a vendere i prodotti che vi mostriamo, noi abbiamo scalati, abbiamo fatto tantissimi soldi con alcuni di questi prodotti, però l'obiettivo di questa lezione è spiegarvi la strategia in modo che sia riadattabile ad un vostro business. E vi ripeto che con queste strategie potete vendere veramente qualsiasi cosa. Ovviamente non sarò solo io all'interno di questa lezione, ma ho coinvolto parte del mio team, perché come ben sapete all'interno della nostra azienda abbiamo vari esperti. C'è l'esperto di Google, c'è l'esperto su Facebook, c'è l'esperto su TikTok, abbiamo l'esperto che ci gestisce per quanto riguarda il discorso Pinterest, abbiamo l'esperto su Snapchat, eccetera, eccetera, eccetera. E di conseguenza ho voluto esplicitamente mettere molti pezzi del mio team all'interno di questa lezione. Quindi ci avrete per ogni lezione l'esperto di riferimento che lavora all'interno della nostra azienda per generare determinati risultati. Quindi la persona che gestisce le Google Ads per miei brand multimilionari per quanto riguarda Google vi farà le lezioni su Google. La stessa cosa vale per Facebook, stessa cosa per TikTok, stessa cosa la persona del mio team di drop, di dropshipping, che mi cerca i prodotti e mi fa i test su quei prodotti, stessa persona vi farà la lezione per quanto riguarda la ricerca prodotto e tutte le dinamiche che ci sono all'interno di una buona strategia di ricerca prodotto. E così all'infinito per tutti i moduli che troverete all'interno di questo corso, all'interno di questo percorso formativo. Quindi se stavi pensando di comprare il corsetto scambino dal fuffaguro di turno, lascia perdere, c'è un corso gratuito qui. E ti ripeto che è il corso più lungo, più completo e più esaustivo in assoluto che puoi trovare in rete. Abbiamo addirittura umiliato totalmente il mercato anche americano dove ci sono dei corsi gratuiti, sì, ma lasciano il tempo che trovano. E in termini di tempo, in termini di qualità, potrai vedere tu stesso che questo è il percorso più completo in assoluto qui sul canale YouTube per quanto riguarda le vendite online. Non perdiamo ovviamente troppo tempo senza dileguarci troppo in chiacchiere ed entriamo subito all'interno del percorso. Mi raccomando, elimina tutte le distrazioni se hai il cane che abbaia, il gattino che miagola o familiari che ti stanno urlando nell'orecchio. Tira fuori tutto dalla camera, dalla stanza, dall'ufficio, qualsiasi cosa essa sia, isolati e goditi questa lezione gratuita. Bene ragazzi, dire che il mondo non stia cambiando sarebbe mentire. Ovviamente il mondo è sempre in continua evoluzione, sempre in continuo cambiamento. È una corsa all'evoluzione, ok? Andiamo avanti appunto grazie a questo. Sicuramente una data, un periodo che è degno di nota e che sicuramente rimarrà nella storia è proprio il periodo a cavallo tra il 2019 e il 2020, ovvero lo scoppio della pandemia. Ok? Se ne è sentito parlare in tutte le salse, in tutti i modi e via dicendo, noi ovviamente lo affronteremo dal punto di vista di evoluzione nel mondo e-commerce. Ok? E andremo a fare appunto una riflessione tutto su, incentrata su come si sta evolvendo, come si evolverà e come essere preparati. Ok? Perché bisogna essere preparati. Il modo in cui viviamo è completamente cambiato. C'è provato a pensare semplicemente a due anni fa, ok? Quando non si usavano le mascherine, non c'era bisogno del green pass, o di tutte queste, diciamo, precauzioni che sono state dovute prendersi appunto per sopperire a quella che è stato il covid, quella che è stata la pandemia e via dicendo. Quindi il modo di vivere lo potete, se ci riflettete un attimo, se tornate indietro con la testa due anni fa, capite bene che è veramente, veramente tanto cambiato. Nel giro di anche molto, molto poco tempo, ragazzi, semplicemente fino a due, tre anni fa neanche, se entriamo adesso nel terzo anno, da quando è scoppiata appunto la pandemia. E pensate le vostre abitudini, la vostra quotidianità, il vostro modo di vivere la vita, quanto è cambiato. Allo stesso tempo, ovviamente, se cambia il modo in cui viviamo, cambia il modo in cui compriamo, ok? Anche qua, ragazzi, esempi personali, ce ne sono veramente tanti, ma provate anche a pensare voi. A quanto compravate prima online e a quanto comprate adesso online, anche magari senza rendervene conto, ok? Tralasciamo magari le classiche cose, come va bene, i biglietteri, magari le prenotazioni, eccetera. Però pensate ai prodotti fisici, a quanti ne state acquistando online. Pensate anche all'arredamento, cioè ormai una volta cosa si faceva? Una volta, oddio, fino a due anni fa si andava la domenica con la famiglia all'IKEA per scegliere cose. Oggi si ordina online, l'IKEA arriva a casa e te lo montano, ok? Anche magari prima c'era questo servizio, però pensate a quanto più venga utilizzato ad oggi, ok? Proprio perché sono cambiate le nostre abitudini, è cambiato il nostro modo di vivere, ci siamo adattati ad una situazione. Allo stesso tempo, ok, ed è quello diciamo che ci interessa maggiormente, forse, se siete qui, è proprio il modo in cui facciamo business. Il modo in cui facciamo business, ragazzi, si è completamente rivoluzionato. Cioè, provate a chiedere a qualsiasi imprenditore, a qualsiasi persona che gestisce anche una piccola attività, e vi dicendo, dopo che magari sono stati fermi per mesi e mesi, appunto perché, per la questione del covid, eccetera, eccetera, come è cambiato il loro modo di lavorare, come è cambiato il loro modo di approcciarsi al lavoro. E loro vi diranno, se sono, minimo, onesti, che veramente è quasi, fa quasi paura vedere in così poco tempo quante cose sono cambiate, quante nostre abitudini nella nostra proprio quotidianità a livello personale è cambiato. Pensate per esempio all'ascesa degli NFT, ok? Ormai sono l'argomento caldo, sono sulla bocca di tutti. Le criptovalute, anche se esistevano da anni e anni prima, diciamo che sono tornate, tra virgolette, in trend, in grande stile, nell'ultimo periodo, ovviamente. L'e-commerce, ovviamente, ragazzi, è quello su cui ci andremo a concentrare, è quello su cui andremo a fare molti più ragionamenti, anche perché, vabbè, lo vedremo dopo. Il trading online, ovviamente, via dicendo, tutte le attività, ma oltre questo, pensate anche ai lavori, diciamo, tradizionali. Lo smart working, ok? Lo smart working, adesso è il termine del momento, provate ad andare anche a vedere, per esempio, su Google Trend, quanto è impennato, appunto, il trend della parola, delle keywords, smart working, nell'ultimo periodo. E vedrete che, dati alla mano, è veramente schizzato. Sicuramente avrete anche voi esempi proprio personali, familiari, interni a voi. Adesso andiamo a snocciolare un po' di dati e a capire, appunto, come questi dati si approcciano, poi, su effettivamente, su quello che noi possiamo fare e sulle azioni concrete che noi possiamo eseguire, per andare effettivamente a fare più profitto e andare effettivamente a entrare nel mondo online, ok? Il discorso è proprio questo, non è più un'opzione, è un obbligo, cioè, se voi non vi digitalizzate o comunque non entrate in quest'ottica che dovete essere a passo con i tempi, i tempi vi mangeranno, ok? Bene, le transazioni online hanno fatto un per 16, magari, visto così, non è un dato che può suscitare chissà quale stupore, ma potete stare tranquilli che per 16 è veramente una cifra enorme, ok? Ma veramente, veramente enorme, fa quasi impressione se uno mastica un po' di dati, comunque gli analisti sono, cioè, molto, molto impressionati da questi dati, gli acquisti online, di conseguenza, sono cresciuti nel corso del 2020 del 31%, ragazzi, il 31%, prima di quanto crescevano dell'1.9, cioè, capite che siamo passati dall'1.9 al 31%, cioè, già solo per questa ragione dovete iniziare un po' a stringere il sederino, ok? Se non siete già digitalizzati, ok? Stiamo, volenti o nolenti, entrando nella quarta rivoluzione industriale. Provate a pensare quali sono le aziende più potenti al momento, ad oggi. Amazon, Tesla, Facebook, TikTok, eccetera, eccetera. Ora, pensate che, per esempio, magari quella che un po' farà storcere il naso è proprio Tesla, perché dicono, ah come, Tesla vende macchine, eccetera. Bene, Tesla è l'unico, diciamo, brand automobilistico nel quale, appunto, tu puoi ordinarti la macchina online e fartela arrivare a casa. Magari molti lo sapranno, sicuramente sono anche mostri di marketing, per carità. Però, sicuramente, ci dà quella sensazione un po' strana di dire, cavolo, se posso ordinarmi una macchina online e farmela consegnare a casa, qualcosa sta cambiando, ok? E io direi, molto sta cambiando, non qualcosa. Quindi, siamo appunto entrati nella quarta rivoluzione industriale senza neanche rendercene conto, ok? Tra lockdown, stare in casa, eccetera, eccetera, le nostre abitudini sono completamente cambiate, magari molti non se ne rendono neanche così conto. Però se provate a fare un passo indietro a due anni fa, vi rendete conto anche voi che veramente sono tante cambiate le nostre abitudini, ok? Non dico impositivamente, negativamente, cioè non mi permetto di fare queste considerazioni, io dico semplicemente qualcosa è cambiato, o ci adattiamo o moriamo, ok? Ovviamente dal punto di vista del business, ok? Tutto ciò che abbiamo vissuto fino ad oggi, offline, ora lo viviamo, online, ok? Anche qua, ragazzi, ci sono un miliardo di esempi. Provate a pensare ai primi concerti fatti online, ok? Quando c'è stato il concerto su Fortnite di Travis Scott, che ha fatto, vabbè, un clamore allucinante. E man mano che andremo avanti, queste cose saranno molto più frequenti e diventeranno la nuova routine. Quindi, cosa andiamo ad analizzare? Appunto, come dicevo prima, noi dobbiamo concentrarsi sull'e-commerce. Anche perché, ragazzi, l'e-commerce è proprio la base, ok? Qualsiasi transazione che venga fatta online viene fatta su un e-commerce. Quindi, dove stanno i soldi? Nell'e-commerce. Ok? Questo è proprio un dato di fatto, ok? Andiamo a vedere, ci sono tre macro categorie, tre macro settori, ok? Che dominano, appunto, il business online e che devono essere assolutamente presenti e curati alla perfezione per essere profittevoli nel mondo digitale, ok? Nel mondo delle vendite online. Prodotto, metodo di vendita e marketing. Negozio fisico. Allora, andiamo un attimo a fare un ragionamento, ok? Come dicevamo prima, le esperienze che noi vivevamo offline, ora le stiamo vivendo online. Quindi, cosa significa? Che una volta, io... Una volta, fino a due anni fa, ok? Prendiamo, facciamo questo esempio. Io entravo in un negozio, avevo bisogno di un paio di scarpe, Entravo nel negozio e le compravo, ok? Oggi, allo stesso identico modo, voglio un paio di scarpe, apro il pc, vado, entro nel e-commerce, entro nel negozio, ok? Quindi, possiamo capire molto semplicemente che il negozio fisico è diventato uno store, un e-commerce. Come sono entrato io in quel negozio? Perché magari ho visto alla tv, la sponsor, vedete già, mi è... Sono entrato nell'ottica. La pubblicità di un paio di scarpe, delle nuove Nike, delle nuove Adidas, eccetera, eccetera, di qualsiasi marchio. Quindi, le vedo sulla pubblicità, mi piacciono, mi colpiscono, il giorno dopo vado ad acquistarle in negozio, ok? Oggi, invece, cosa succede? Mentre sono su Facebook, mentre sono su Instagram, mentre sono su TikTok, mentre sono su Pinterest, mentre sono a, diciamo così, cazzeggiare su internet, vedo una pubblicità delle stesse scarpe, magari del modello nuovo, che avevo visto due anni fa. E anche queste mi piacciono e mi colpiscono. Però, cosa cambia? Invece di dover andare il giorno dopo nello store, nel negozio, vado direttamente cliccando. Nello store, ok? Quindi, capite anche che il periodo, diciamo, di incubazione, dal momento in cui io vedo e manifesto un interesse, e manifesto una voglia, ok? Se così vogliamo chiamarla, al momento in cui, appunto, la vado a soddisfare, passa molto meno tempo, perché volendo io posso farlo immediatamente. Quindi, vedo una cosa, mi piace, la compro. Quello che viene rallentato è il delivery, ok? Ovviamente, se vado in negozio, ce l'ho subito, ok? Ovviamente vado lì, pago, la compro. Anzi, anche se, nell'ultimo periodo, non è neanche molto così, perché molti negozi hanno poche scorte, e quindi vai in negozio, te lo ordinano online, e poi lo viene a ritirare in negozio, oppure addirittura lo vai a ritirare a casa, ok? Questo sta succedendo molto, anche perché i negozi fisici si stanno ridimensionando, perché non gli serve più tanto magazzino se uno va in negozio per provarla solo, la scarpa, ok? Sperdiamo sempre l'esempio della scarpa, così siamo un po' più concreti, ok? Io posso tenermi tranquillamente un magazzino minimo, con le taglie, appunto, per tutti i modelli, quindi una taglia per ogni modello, dove tu nel negozio te lo vai solo a provare, e una volta comprato, ti può arrivare tranquillamente a casa, oppure te lo passa a ritirare il negozio. Quindi capite che anche i negozi si stanno ridimensionando, molti stanno chiedendo, molti non sopravviveranno, ok? Tornando a noi, la pubblicità televisiva, quindi, oppure, ancora peggio, diciamo, i cartelloni pubblicitari, o ancora, ancora peggio, il volantinaggio, si è trasformato in advertising. Ok, perché ho detto ancora peggio? Perché il cartellone pubblicitario, che tipo di controllo abbiamo noi sul cartellone pubblicitario? Nessuno. Non sappiamo a chi stiamo facendo vedere la nostra asserzione, ok? La nostra pubblicità. Non sappiamo, effettivamente, quante persone la vedranno, e non sappiamo se quelle persone hanno un minimo anche di interesse in quello che io gli vado a proporre. Eh, tanto peggio, ovviamente, il volantinaggio, ok, ragazzi, neanche da dire, ok? Il tutto si è spostato sull'advertising, ok? L'advertising ci restituisce dei dati sui quali noi possiamo andare a lavorare per andare a targetizzare meglio la nostra pubblicità. Cosa che, ancora ancora, nella pubblicità televisiva possiamo fare, ma in maniera molto risicata. Faccio un esempio. Se io ho un prodotto per bambini non vado a sponsorizzare, appunto, il prodotto non lo so, nel pomeriggio durante pomeriggio 5 di Barbara D'Urso, ok? Per dire. Anche perché, magari, in quella fascia di orario magari andrò, appunto, a mettere la mia pubblicità in un canale per bambini magari in un orario, appunto, pomeridiano, ok? Quando sono usciti da scuola e via dicendo. Quindi, un minimo di targetizzazione ce la possiamo avere però non riusciamo, effettivamente, a vedere quella pubblicità quanto ci ha portato in tasca. Cosa che, invece, con l'advertising riusciamo a vedere, riusciamo a calcolare e riusciamo ad ottimizzare. Ultima cosa, il prodotto venduto. Ovviamente, ragazzi, il prodotto è fondamentale. Cioè, noi dobbiamo proprio entrare nell'ottica che dobbiamo colmare buchi di mercato, ok? Proprio mancanze nel mercato che sono presenti che noi dobbiamo essere in grado di identificare attraverso tutto un ragionamento che poi andremo a vedere sicuramente nello svolgersi della lezione e che quindi devono, appunto, essere appetibili per il mercato. Anche perché, comunque, non neghiamocelo. Di concorrenza online ce n'è e non poca. Questi tre macrosettori che abbiamo, diciamo, siamo andati ad analizzare, ok? Negozio, marketing, prodotto, devono coesistere perfettamente ed essere perfettamente integrati in un business model, ok? In un modello di business. In qualsiasi, appunto, tipo di business. Va bene? Come abbiamo detto, il negozio si è trasformato nell'e-commerce, quindi non posso avere un negozio con le pareti scrostate, con un'assistenza che non assiste il cliente. Non posso avere un marketing vecchio stile con le pubblicità su Italia 1, eccetera, eccetera. Non posso avere un prodotto che è nessuno, al quale nessuno è interessato oppure, magari, una cosa molto, molto di nicchia oppure una cosa che non si vende online perché ci sono anche, ragazzi, prodotti che ad oggi, ok? Ad ora non si possono ancora vendere online. Per esempio, i farmaci, ok? A meno che, ragazzi, ovviamente se mi dite l'aspirina o la latechipirina, eccetera, eccetera ok, però se io ho bisogno di un farmaco specifico non lo compro online, vado in farmacia mi faccio consigliare da un esperto del settore che, in base ai miei sintomi, eccetera, eccetera prendere quello che è più appropriato per risolvere, appunto, il mio mal, il mio problema, eccetera, eccetera ok? Però abbiamo visto che una macchina si può comprare online ok? Quindi sicuramente si andrà il tutto a devolvere poi man mano nel tempo però noi concentriamoci sull'oggi, ok? Come dicevo prima, ragazzi l'e-commerce è la base di ogni business online ok? qualsiasi transazione fatta nel mondo digitale viene fatta su un e-commerce, ok? Cioè questo è un dato di fatto il biglietto aero lo comprate su un e-commerce, ok? Quindi per vendere qualsiasi cosa serve un ecosistema di vendita annesso, ok? Annesso e connesso è ben integrato sicura... poi, ovviamente come sempre andremo a vedere il tutto poi successivamente nel corso di questa mega lezione che abbiamo fatto, ok? Quindi ragazzi è importante capire che l'e-commerce sta proprio alla base di tutto abbiamo citato prima anche gli NFT, le crypto, eccetera un NFT dove si compra? Su un e-commerce le crypto dove si comprano? Su... ok possiamo prenderla un po' con le pinze però comunque è una specie, diciamola così di e-commerce, ok? quindi è chiaro che ciò che sta alla base del business online è proprio è proprio il nostro caro vecchio e-commerce Cosa possiamo vendere online? L'abbiamo visto prima abbiamo fatto forse un po' troppi esempi su prodotti fisici ok? Ci sono prodotti fisici prodotti digitali ok? Cosa anche che magari una volta era un prodotto fisico oggi diventa un prodotto digitale come gli e-book pensate che pensate a quante librerie nella vostra città o nel vostro paese eccetera eccetera hanno chiuso chiuso i battenti ok? proprio perché il tutto è stato sostituito da una versione digitale a un e-book ok? quindi ci sono prodotti fisici prodotti digitali servizi ok? come vendiamo anche noi servizi consulenze informazioni eccetera eccetera ok? quindi servizi di qualsiasi genere possono anche essere io posso anche fare un servizio di pulizia per dirvi e vendermi online ok? anche se è un servizio molto fisico per il quale è richiesta la presenza fisica per forza di cose io lo posso vendere online ok? informazioni le abbiamo dette prima e altro tanto altro ok? praticamente qualsiasi cosa tolte le categorie che abbiamo visto prima per ora può essere venduto online tranquillamente questo cosa significa? significa che l'e-commerce è la base di ogni business online ok? l'abbiamo detto l'abbiamo ripetuto e lo diremo all'unisono perché ragazzi è la verità dati alla mano qualsiasi transazione online viene fatta su un e-commerce cosa comporta questo? comporta che chi non si digitalizza o impara a digitalizzarsi ok? crollerà su se stesso cioè morirà ragazzi ci sono un sacco di professioni un sacco di figure professionali un sacco di posti di lavoro che andranno a sfumare letteralmente a sfumare il posto fisso abbiamo visto il posto fisso il lavoro sicuro eccetera eccetera ragazzi è una cosa che andrà veramente a distinguersi totalmente ciò che verrà premiato saranno solo ed esclusivamente le competenze tanto quanto che hai i titoli di studio va bene alcuni titoli di studio sì certo per fare il dottore non è che posso inventarmelo ok? non è che posso farlo da autodidatta ok? però tolte alcune professioni dottore avvocato commercialista insomma i liberi professionisti per i quali appunto è richiesto un titolo di studio ciò che ha a che fare con la medicina e via dicendo tutto il resto ragazzi si andrà veramente a rivoluzionare ok? e lo stiamo vedendo anche proprio in questi giorni con il famoso smart working che abbiamo prima citato ok? prima si stavano tutti in un ufficio si qualsiasi lavoro da ufficio ok? si stava tutti in un ufficio oggi si sta tutti in un ufficio virtuale ok? in call in zoom con zoom o varie piattaforme questo cosa significa? significa ragazzi che è inutile andare controcorrente è come andare a 180 all'ora contro un muro ci schiantiamo e moriamo andare controcorrente e obiettare la realtà dei fatti la realtà dei dati che abbiamo prima citato è controproducente ok? le eccezioni come abbiamo visto ci sono ci saranno molto probabilmente ma non sono abbastanza da poter inserire nel nostro calcolo delle probabilità noi non possiamo mettere la nostra vita in mano all'eccezione ok? al ciò che non si potrà digitalizzare ok? voi siete disposti a mettere in mano la vostra vita diciamo su un'eccezione? io no e penso che nessuno sano di mente lo sia perché a qualsiasi business interessa creare più profitto possibile ok? questa non è una domanda è un'affermazione ok? quindi se noi non ci mettiamo in testa che dobbiamo digitalizzarci perché? perché dobbiamo raggiungere più persone perché dobbiamo marginare di più ok? tutti gli argomenti che vedremo anche dopo perché dobbiamo fare più volume ok? noi non stiamo facendo impresa non stiamo facendo business ci stiamo stiamo facendo un hobby ci stanno divertendo ok? il business anche spesso è divertente però è un altro discorso diciamo che il discorso di qualsiasi business è generare più profitto più volume ok? per creare più profitto possibile bisogna prendere in considerazione il comportamento della massa altrimenti siamo fallimentari già in partenza e quindi perché e quindi a maggior ragione è inutile andare controcorrente perché se noi dobbiamo prendere cercare di prendere più pubblico possibile e il mondo dati alla mano ragazzi cioè sono dati che potete trovare veramente ovunque su giornali affermati o di economia e vi dicendo i dati dicono questo il trend è questo noi dobbiamo accettarlo e perché? perché dobbiamo prendere in considerazione il comportamento della massa e la massa va in questa direzione e noi non possiamo andare controcorrente perché se andiamo controcorrente è come se andassimo a schiantarci contro un muro ok? a meno che non abbiate la possibilità di investire milioni di euro su una nicchia ultra specifica e magari rimanere in perdita per anni fino a raggiungere il break even che magari non arriverà mai è meglio se vi iniziate a fare due domande ok? a capire un attimino a che punto siete per digitalizzarvi ok? sia che voi abbiate già un business avviato sia che voi non abbiate un business avviato sia che magari voi siete appena usciti da scuola e non sapete ancora magari cosa fare cioè dovete capire che il mondo sta andando in quella direzione ok? e se noi non accettiamo questo e quindi non ci facciamo accompagnare ok? in quella direzione noi saremo controcorrente ok? e se saremo controcorrente come abbiamo visto prima saremo già fallimentari in partenza ok? andiamo a vedere un po' di definire che cos'è un e-commerce e fare qualche ulteriore ragionamento proprio su degli aspetti quanto più in questo caso teorici ok? in questa prima parte ragazzi vogliamo un po' fare un'introduzione ok? farvi un po' capire che cos'è il mondo e-commerce perché bisogna digitalizzarsi perché è necessario proprio fare questo step per stare al passo coi tempi ok? provate a pensare quando era uscito internet appena uscito internet la gente ovviamente non avrebbe mai pensato che diventasse così enorme ok? così un fenomeno mondiale che rivoluzionasse proprio la nostra epoca ok? proprio la nostra epoca nella quale viviamo noi attualmente ok? perché rivoluzionario? beh ne abbiamo detto un po' in tutte le salse però sicuramente andare ad più in profondità nell'argomento può aiutare anche voi a capire tutta la serie di processi e meccanismi che stanno dietro a questo mondo perché? perché è accessibile a tutti qualsiasi sia il tuo capitale ok? proviamo a pensare all'avviare un negozio ok? esatto in che senso? prova a pensare a quanto costerebbe aprire un negozio fisico l'affitto di un negozio ok? o anche uno studio ragazzi perché cioè non è che andiamo a vendere solo prodotti perché è un avvocato che prodotto vende? vende la consulenza vende il suo sapere vende le sue competenze quindi o un negozio o uno studio ok? magari l'avvocato non ha bisogno di un negozio ha bisogno di uno studio cioè senza magari ovviamente quindi proviamo a pensare un affitto di un negozio o uno studio in una zona strategica magari di una grande città e vi dicendo saranno circa 2000 euro di affitto ok? ovviamente questi ragazzi sono valori diciamo un po' non vi dico campati in aria però fatto più o meno delle medie approssimative poi ovviamente c'è il negozio che ti costa 200 euro di affitto e c'è il negozio che ti costa 40-50 mila euro di affitto anche ok? magari l'hotel ok? un hotel se uno affitta un hotel la struttura proprio di un hotel ragazzi i prezzi sono questi ok? però teniamoci bassi ok? teniamoci quanto più realistici possibili 2000 euro di affitto mensile ok? perfetto la merce ok? viene subito dopo dopo ok? ho il negozio eccetera però cosa vendo? la merce i prodotti i servizi ok? ovviamente se in questo caso l'esempio di prima se sei un avvocato non hai della merce fisica però che cosa hai? hai il tuo sapere il tuo sapere quanto ti è costato forse era meglio parlare della merce ok? qui abbiamo preso uno stock minimo di merce circa 20.000 euro di prodotti eccetera eccetera poi ragazzi ripeto ci possono essere negozi che hanno stock da decine se non centinaia di migliaia magari anche milioni di euro pensate non lo so a chi produce yacht ok? a milioni decine di milioni magari di euro in stock in magazzino ok? però noi teniamoci sempre sul diciamo sul sul realistico ok? quindi circa 20.000 euro stavo dicendo se tu sei un avvocato se tu sei un libero professionista qual è la tua merce? il tuo sapere ok? pensa quanto ti è costato ok? quanto ti è costata l'università ma non solo in termini monetari anche e soprattutto in termini di tempo ok? ragazzi il tempo è una cosa che vale ancora più dei soldi perché il tempo non ci viene restituito se noi perdiamo 20.000 euro di stock ci può far girare ok? cioè ci dà fastidio è una bella perdita eccetera però 20.000 euro si recuperano nella vita 4, 5, 6 anni della tua vita per studiare non li recupererai mai più quindi è meglio che li fai fruttare ok? per quello dicevo dall'inizio forse è meglio 20.000 euro di stock ok? visto in questo senso perché il tempo è una cosa che non ci viene ridata indietro quindi che sia merce che sia diciamo una consulenza quindi delle competenze diciamo prendiamo 20.000 euro ok? più basato sulle merci ovviamente perché sicuramente è un percorso di studi che può costare anche di più soprattutto magari all'estero ma non in Italia che ci sono le università pubbliche sono anche molto buone la pubblicità bene abbiamo già più o meno affrontato prima questo discorso il volantinaggio ovviamente ragazzi mi viene quasi da ridere a pensare al volantinaggio ok? io stesso ho fatto volantinaggio sono stato pagato forse neanche 200 euro magari avessi preso 200 euro però abbiamo fatto un calcolo all'eccesso ed è una cosa veramente ragazzi abbastanza inutile ok? al giorno d'oggi inutile pensate provate anche già solo pensare a quanti meno persone ci sono in giro che fanno una passeggiata eccetera eccetera proprio perché per la questione del covid e via dicendo ok? quindi già il volantinaggio partiamo un po' sfigati in partenza cartellone pubblicitario molto costoso se lo vogliamo prendere ovviamente in un punto molto strategico e non possiamo targetizzare più o meno l'argomento che abbiamo visto prima circa 2000 euro pubblicità televisiva evitiamola anche di parlarne perché ragazzi hanno dei costi veramente veramente folli a meno che non si va su canali diciamo regionali o comunque cittadini cioè robe che eviterei quasi di parlarne ok? personale cioè ricordiamoci sempre che abbiamo due mani ok? non possiamo non siamo un one man show che facciamo tutto noi ok? quindi abbiamo due mani e dobbiamo prendere almeno un dipendente ok? nel negozio perché sennò ci dobbiamo stare dentro noi tutto il giorno tutti i giorni qualsiasi cosa succede dicendo ci dobbiamo ci siamo e ci dobbiamo essere sempre solo noi quanto possiamo dare un dipendente? ok? 900 euro al mese ok? già già stando molto bassi ok? non dico un part time ma un semi full time 900 euro al mese ci può stare e le tasse? ci sono ragazzi siamo in Italia ci sono le tasse sui dipendenti ok? un dipendente da 900 euro ti costerà 2000 1800 ok? circa euro perché comunque devi pagare i contributi devi pagare tutta una serie di tasse e il costo effettivo di un dipendente non è 900 euro quello che si mette in tasca lui ma è appunto circa il doppio ok? poi ovviamente ripeto ragazzi sono valori indicativi e giusto per fare un esempio ok? quanto più pratico in modo tale da semplificare un po' gli argomenti e renderlo un po' più leggero magari a te questo discorso non tocca perché hai già un'attività ok? avviata magari affermata magari ce l'hai già da anni magari è l'attività di famiglia che ti è stata passata di generazione in generazione giusto? bene e se io fossi il tuo diretto competitor ok? quindi apro il tuo stesso negozio con i tuoi stessi prodotti o con i tuoi stessi servizi nella stessa via però a differenza tua io mi inizio a sponsorizzare online ok? sponsorizzandomi online cosa succede? succede che inevitabilmente attiro più clienti nel negozio ok? perché? perché non sono legato alla unica visibilità che ho nella mia via nella via anche se la via del centro della città la via migliore dove aprire il negozio eccetera eccetera non sono limitato a quella visibilità e allo stesso tempo vendo anche sul mio store online quindi come se aprissi un'altra sede ok? quindi in sostanza cosa posso fare? generare più incassi perché non sono legato solo alla visibilità ok? che appunto è quella della via va bene? oltre questo potrei appunto valorizzare meglio la mia attività investendo su di essa perché comunque se vendo anche un altro canale di vendita ok? quindi aumento le mie vendite è come se aprissi un altro negozio questo negozio ovviamente ha costo molto molto più basso non dovrei pagare l'affitto non dovrei pagare la merce perché ce l'ho già per il mio negozio principale eccetera 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 è come se aprissi un'altra vetrina ok? facendo questo genero più profitti genero più incassi e quindi allo stesso tempo posso investire di più nell'attività per farla crescere ok? per abbassare i prezzi e quindi per essere ancora più competitivo rispetto a te che sei sulla stessa via e di conseguenza portarti magari magari anche a chiudere ok? e come se aprissi l'ho accennato prima una sede succursale ok? quindi come se aprissi un altro negozio come se avviassi una mini catena mini ovviamente catena il mio negozio online a costo praticamente zero dove? nel centro commerciale del mondo ok? che è internet ok ragazzi il paragone può sembrare magari un po' esagerato però se provate a rifletterci effettivamente è così se io ho un negozio fisico e mi creo l'e-commerce ho effettivamente un'altra vetrina cioè non sono non ho solo la visibilità appunto delle persone che mi passano davanti dicono cavolo bella questa vetrina ci entro no o praticamente posso vendere a tutto il mondo è come se aprissi la vetrina ok? nel centro commerciale del mondo non sarebbe una figata? però diciamo torniamo un po' a quei piedi per terra parliamo concretamente di fatti quanto costa creare un e-commerce o digitalizzarsi? ok? quindi parliamo di costi ok? abbiamo visto i costi dell'attività diciamo offline di un'attività offline che è ipotetica e ragazzi sono ripeto costi ipotetici tirati giù giusto per fare l'esempio ok? quindi parliamo un attimino dell'e-commerce quanto ci costa un e-commerce? quindi quanto costa il mio tra virgolette affitto? praticamente nulla ok? parliamoci chiaro perché io una volta che ho creato appunto l'e-commerce che ho comprato il dominio e che pago magari il mio piano Shopify non ho praticamente più costi ok? guardate i nostri clienti in agenzie ragazzi il mantenimento di uno store quanto gli costa? 80 euro al mese circa con la miriade di app integrate ok? all'interno quindi passiamo da 2000 di affitto ad 80 euro al mese ok? a fronte di un fatturato che i ragazzi che stanno sono più bassi diciamo attualmente in agenzia sui 60 mila euro mensili con percentuali nette quindi nonostante essendo in Italia ok? nonostante dovendo pagare comunque le tasse perché ragazzi sull'e-commerce non è che non si pagano le tasse si pagano lo stesso le tasse però capite che se io ho un costo di 80 euro per il mio affitto e incasso 60 mila euro eh i margini ci sono il netto c'è e se lo scorda un negozio offline ok? a parità ovviamente di attività eccetera eccetera bene a questo punto entra in campo l'advertising ok? quindi sicuramente avrete pensato eh sì ma c'è il costo delle ads il costo dell'advertising eccetera eccetera bene ragazzi cioè se uno si affida ad un esperto del settore ok? nel momento in cui viene spesa una certa cifra si rientra dell'investimento ok? cioè nel senso non è che si va a spendere a cavolo per un cartellone pubblicitario che non si sa quante persone ci porterà in negozio che non si sa se l'abbiamo fatto vedere alle persone giuste che non si sa effettivamente a quante persone l'abbiamo fatto vedere che non sappiamo effettivamente nulla con l'advertising appunto possiamo tracciare tutto e possiamo capire effettivamente dati alla mano quanto sta portando e quindi aggiustare ok? la spesa in base a quanto stiamo incassando quindi sarà tutto proporzionale ok? e capite bene che se io da quegli 80 euro al mese di affitto scusatemi da quei 2000 euro al mese di affitto scendo ad 80 quanto mi rimane da spendere in advertising? è la differenza tutta quella differenza io posso prenderla e di investire in advertising perché non ho più quel costo fisso e quindi posso permettermi di prendere più persone di prendere di far entrare più clienti nel mio negozio di far entrare più clienti in contatto con la mia realtà con la mia attività ok? quindi ragazzi è tutto proporzionato cioè non è che se spendiamo 80 euro di store e se incassiamo 60.000 euro spendiamo non lo so 50.000 in advertising perché se no il gioco non ne varrebbe la candela ok? se facciamo 60.000 euro di fatturato possiamo spendere 6 7 8 9 10.000 euro ok? in advertising però sappiamo effettivamente quella spesa quella precisa spesa quanto ci ha portato in tasca ok? quindi questa è una cosa molto importante ragazzi che non è da sottovalutare cioè ripeto non è il cartellone pubblicitario che noi mettiamo lì e non sappiamo vediamo se porta forza no qua ci sono i dati parlano i dati ok? allo stesso modo ok? se non abbiamo un'attività già avviata prendiamo per esempio i casi studi dei nostri studenti ok? che magari si affacciano per la prima volta al mondo del business e magari andari magari in una banca e chiedere un finanziamento per aprire il proprio bar per aprire il proprio negozio per aprire quello quell'altro uno ci fa indebitare ok? ovviamente non è che dico no Dio non bisogna indebitarsi eccetera usare sfruttare i soldi che le finanziarie le banche eccetera ci possono mettere a disposizione è una se si fa nel modo giusto può creare veramente tanta ricchezza ok? un sacco di grandi imprenditori sono partiti proprio con soldi non loro comunque delle banche dicendo quindi non è quello il discorso però capite bene che a fronte di magari 40 50 mila euro di asticella ok? di target iniziale per appunto partire con la nostra attività noi riusciamo a partire con molto molto di meno cioè provate già a pensare solamente all'esempio dell'affitto che avevo fatto prima cioè da 2000 ragazzi passiamo ad 80 euro ok? da 20 mila di stock di merce passiamo a zero se agiamo in dropshipping se comunque sfruttiamo il modello di business che è il dropshipping ok? quindi guardate i nostri studenti che con investimenti minimi ok? sopportabili con lavori anche da 1000 1200 euro al mese molti studenti che vengono in consulenza hanno un lavoro offline e riescono tranquillamente a gestire il tutto perché d'altra parte c'è anche appunto questo aspetto che noi riusciamo a gestire completamente interamente il tutto dal pc da casa nei momenti morti nei momenti liberi ok? quindi anche con lavori da 1000 1200 euro al mese riescono ad avviare un proprio business ok? un proprio store e cambiare effettivamente quello che è la loro vita ok? quello che è l'approccio alla loro vita quello che è il concetto di di lavoro ok? per loro e molti è già successo poi effettivamente lasciano anche il lavoro offline ok? perché arrivati a certi livelli uno tira un attimo le somme dice cavolo io sto 8 ore al giorno se sto 8 ore al giorno e sto 8 ore al giorno al lavoro al lavoro e poi magari me ne sto altre 3-4 ore sull'e-commerce pensa se dedicassi 8 anzi 10-12 ore solamente interamente all'e-commerce cosa potrei fare? ragazzi noi in azienda ad oggi generiamo veramente decine di milioni di euro in vari settori ovviamente all'anno ok? su base annua programmi di affiliazione vendita di servizi infobusiness e-commerce cripto nft abbiamo ovviamente come è ovvio che sia come giusto che sia essendo appunto degli esperti nel settore le mani in pasta un po' ovunque diciamo che è una cosa che però non consiglio assolutamente di fare a chi è alle prime armi o comunque anche chi ha già un po' più di esperienza ma non ha ancora una certa stabilità e una certa soprattutto capacità e diciamo capitale alle spalle ok? effettivamente perché ragazzi noi per arrivare a coprire tutti i settori cioè uno ce n'è voluto di tempo due è richiesta veramente tanta quantità di denaro per poter avviare anche altri business in diversi settori ok? cioè quindi è un po' il discorso che diciamo che volessimo catturare tanti tanti conigli insieme ok? due conigli insieme probabilmente non non riusciremo ok? se invece noi ci concentriamo ok adesso ho preso un esempio un po' così però è per farvi capire se noi cerchiamo di prendere due conigli contemporaneamente non ce la facciamo ok? se noi però ci concentriamo su uno magari lo riusciamo a prendere ho molta più probabilità di prenderlo ok? proprio è il gioco della probabilità quindi ragazzi concentratevi su una cosa alla volta su cosa principalmente noi da cosa siamo partiti? ovviamente ragazzi dall'e-commerce ok? perché appunto siamo arrivati a coprire tutti questi settori proprio partendo dall'e-commerce da una singola attività ok? chi troppo vuole non la stringe ok? questo è un vecchio detto però è ancora valido e soprattutto molto attuale ok? si inizia a fare mille cose differenti non ne porterai mai nessuna a termine ok? quindi e a maggior ragione ragazzi come abbiamo detto prima l'e-commerce è proprio la base ok? è la base di tutto quindi da dove partire? dall'e-commerce ok? per mettere poi le basi e le fondamenta per creare poi effettivamente diverse entrate ok? come poi siamo arrivati noi nel corso degli anni con tanti soldi alle spalle soldi generati inizialmente dall'e-commerce e anche tuttora ovviamente perché l'e-commerce anziché trading Amazon FBA cripto eccetera eccetera in effettivi dicendo questa forse potrebbe essere la domanda la must ok? la macro domanda bene andiamo a analizzare Amazon FBA ad oggi eh ragazzi vi ripeto se voi mi dicevate magari 5 anni fa sono partito con Amazon a costo 0 ok? oggi non è più fattibile ok? soprattutto chi lo fa seriamente lo sa lo può confermare tranquillamente ok? costi di stock allucinanti zero controllo sulla piattaforma ok? se ci banna Amazon noi non vendiamo più niente ok? perché siamo alle loro dipendenze ok? e diciamo che non acquisiamo nessuna skill monetizzabile effettivamente in altri settori se non appunto sempre in Amazon ok? perché effettivamente non andiamo a sviluppare chissà quale strategia chissà quale cioè ripeto sulla piattaforma ok però skill applicabili ad altri settori ragazzi non ne troviamo cioè perché se io riesco ad aprire un e-commerce perché so farmi la grafica so farmi il copy so farmi le ads so farmi qualsiasi altra cosa l'assistenza magari inizialmente me la faccio io capite quante skill sto apprendendo? cioè veramente tante che poi posso anche eventualmente monetizzare in altri settori crypto world ragazzi crypto inutile dirlo cioè ci sono un sacco di video anche di Luca sul canale dove ne parla siamo entrati nel mondo crypto quando ce lo potevamo permettere ok? cioè un mercato super instabile ultra volatile pieno di truffe poi proprio per la natura in sé delle crypto perché sono nate proprio per evitare il tracciamento del denaro via dicendo e diciamo che c'è il pericolo di perdere tutto il capitale in un batter d'occhio ok? ancora peggio sicuramente peggio del trading ok? perché abbiamo visto di tutte shitcoin crypto ponzi via dicendo cioè non è sicuramente un settore per neopiti ok? dovete già masticarne ok? di mondo online trading difficoltà sicuramente nel generare grandi volumi in poco tempo senza rischi ok? quasi impossibile senza rischi ovviamente di rischi c'è anche sull'e-commerce però un conto è rischiare 80 euro di abbonamento che poi non è neanche quello perché abbiamo preso diciamo un esempio più dispendioso magari sono 30 euro di abbonamento Shopify e 100-150 euro per testare le campagne quindi ragazzi con 200 euro ve la cavate col trading più o meno ok? perché ovviamente anche per il trading servono formazioni di base è veramente impegnativa e rischio di perdere tutto in pochi minuti in due operazioni ok? oltre al fatto che se parto con un capitale ridotto ovviamente i volumi e i margini eccetera saranno bassissimi e se devo usare capitale di altre persone eh devo avere credibilità quindi devo avere uno storico altrimenti chi mi dà i soldi meno che non siate miliardari o milionari insomma e-commerce andiamo a vedere l'e-commerce il costo di entrata è effettivamente bassissimo cioè ragazzi dati alla mano e così ripeto come dicevo prima c'è il costo di Shopify che per il primo periodo di prova è gratuito e quindi volendo potete testare anche il costo zero a livello di piattaforma c'è il costo dell'advertising e basta ok? con praticamente il costo dell'advertising 150 200 250 se volete fare un test approfondito in ads capite effettivamente se la vostra attività funziona o meno ok? potrebbe funzionare o meno e ovviamente un mercato stabile e facilmente controllabile ok? perché nel momento in cui magari dite vabbè se domani Shopify chiude ragazzi io mi creo lo store su WordPress mi creo lo store su QuickFunnel ci sono un sacco di piattaforme ok? non è come per esempio su Amazon come dicevamo prima che se Amazon dice che tu non puoi vendere più quel prodotto tu non lo puoi più vendere e stop silenzio e qua invece possiamo siamo sicuramente molto più liberi ma molto più liberi ok? è un settore ovviamente come ultimo punto che sta letteralmente esplodendo come abbiamo visto prima ragazzi quelli non è che sono dati che ci siamo inventati noi eh cioè potete trovarli su qualsiasi testata giornali televisioni provate a ricordare nel periodo del covid magari al telegiornale quanto diceva quanto si parlava dell'online il boom dell'online le vendite online eccetera eccetera cioè quindi è realtà è presente ok? è ora adesso non è tutto oro quel che luccica ok? non vi vogliamo illudere ragazzi d'accordo? cioè non è un gioco è un business cioè stiamo investendo tempo stiamo investendo risorse stiamo investendo soldi e appunto ragazzi cioè non è che vogliamo illudervi che si lancia allo store si fa le ads c'è il pulsante magico clicchi due bottoni bam diventi milionario no non è così è un processo è un business ragazzi è un business non è un gioco l'e-commerce è semplice ok? perché è effettivamente semplice abbiamo visto che con 150-200 euro con uno store su Shopify che ormai basta dedicarci non so addirittura mezza giornata una giornata 24 ore ragazzi Giorgio tira fuori uno store in 24 ore ad oggi è uno store anche con gli attributi ok? è tutta questione di skill ok? è semplice ma non è facile ok? è semplice generare denaro online sì è facile no serve la costanza ragazzi la costanza ovviamente serve in qualsiasi tipo di business ok? voi più siete costanti meglio è non so se avete presente il film di di McDonald's lui ragazzi ha tirato avanti fino a 50 anni fino a che non è riuscito a svoltare la sua vita quindi sicuramente la costanza premia addirittura anche premia sulla bravura perché se uno è molto bravo ma non è costante io magari non oggi magari non domani magari non dopodomani ma stai a vedere che tra un tot di tempo ok? tra un anno due anni io ti batterò perché io sono costante a differenza tua ci sono molti ragazzi che magari fanno i primi profitti eccetera eccetera si sentono arrivati e poi falliscono completamente mentre ci sono invece altri che partono a rilento partono hanno difficoltà proprio a partire ok? hanno magari difficoltà a fare i primi store a fare le prime ads a fare i primi soldi magari non è genero magari il primo anno il secondo anno poi però la costanza premia ok? ragazzi è matematico è proprio il calcolo delle probabilità più io provo più ho possibilità di riuscire meno ci provo meno possibilità di riuscire proprio matematico esperienza ragazzi l'esperienza e la costanza vanno a braccetto più io ho costanza più accumulo esperienza e più esperienza accumulo più accumulo skill ok? skills quindi sicuramente l'esperienza è direttamente proporzionale alla costanza che io ho allo stesso tempo scusatemi l'esperienza è una cosa anche che i ragazzi possiamo comprare ok? tanti ragazzi ok? vengono in consulenza proprio per cosa? per comprare esperienza comprare tempo è come se vi metteste nella macchina del tempo ok? è come io avendo iniziato due anni fa è come se mi mettessi nella macchina del tempo e andassi avanti di due anni tutte le esperienze tutti gli errori tutti i soldi bruciati tutte le cose che mi sono servite per creare il la mia strada il mio processo ok? il nostro anche a livello aziendale ok? l'esperienza e quindi l'esperienza si può anche comprare formazione ok? formazione anche questa ragazzi la formazione ve la potete fare o voi come state facendo guardando questo video quindi già ottimo che siete arrivati a questo punto anche se siamo all'inizio e anche qui la formazione ce la possiamo o fare noi da autodidatti quindi testando bruciando anche soldi ragazzi succede e business si bruciano soldi per testare per formarsi si usano soldi si bruciano soldi ok? anche qua possiamo o farcela da autodidatti o comprarla ok? molto semplicemente io io stesso ma tutte le persone che lavorano all'interno delle aziende ragazzi hanno fatto e usato sprecato anche vorrei quasi dire un sacco di soldi in consulenze ok? in consulenze in formazioni in corsi di formazione Luca stesso l'ha detto più e più volte quanti corsi quanti soldi ha buttato in formazione anche spesso inutile di scarsa qualità ok? però fa tutto parte dell'esperienza spirito imprenditoriale ok ragazzi si fa business non stiamo non è il chiosco della non so della limonata cioè è business bisogna avere uno spirito imprenditoriale ok? bisogna proprio mettere in conto che siete degli imprenditori non siete dei dipendenti non siete che qualcuno non è che qualcuno vi dice cosa fare come farlo come non farlo siete voi che in base a tutti gli aspetti che abbiamo visto prima esperienza formazione eccetera eccetera sviluppate il vostro spirito imprenditoriale ok? tutto nasce dall'idea dallo spirito imprenditoriale di trasformare un qualcosa in un business ok? quindi mi raccomando può sembrare banale ma fidatevi che non lo è e spesso le cose diciamo più che sembrano più banali sono poi effettivamente quello che fanno la differenza come detto prima non è che cioè saper fare le ads saper fare lo store non c'è il tasto magico ok? una volta che io so fare le ads e una volta che io so fare lo store e che sono sicuro che quei due aspetti sono coperti alla perfezione qual è l'unica variabile? la mia scelta del prodotto il prodotto ok? quindi fa tutto parte del spirito imprenditoriale esperienza eccetera 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 tutto il resto ads, store ecosistema online vi dicendo è un contorno è una cosa che si può apprendere ok? che si può studiare sono nozioni tecniche che chiunque che studia che impara a farlo lo riesce a fare mentre il ragionamento lo spirito imprenditoriale eccetera eccetera sono cose che vengono da dentro ok? che vengono dalla nostra testa e che quindi nessuno ci può diciamo tra virgolette insegnare se non appunto seguendo comunque un mentore o essendo spronati vi dicendo ok? cioè quindi lo spirito imprenditoriale ragazzi è una cosa veramente molto molto importante che anche molti ragazzi in consulenza magari sottovalutano però fidatevi che è la cosa veramente veramente importante ok? tutto il resto è un contorno aggiornamento costante come detto ragazzi è un business in evoluzione è un settore che sta volando che si sta evolvendo a una velocità allucinante e che se noi non siamo in costante aggiornamento eh rimaniamo indietro ragazzi rimaniamo indietro proprio come il negoziante sulla mia stessa via che non si è voluto digitalizzare dell'esempio di prima ok? aggiornamento costante oggi siete fortunati ragazzi perché gratuitamente vi daremo un assaggio ok? ovviamente possiamo darvi tutto di tutto quello che è stato fatto in oltre sette anni di attività online da parte di Luca da parte di noi che comunque collaboriamo a stretto contatto con lui e da parte di tutta l'azienda ok? quindi avrete gratuitamente sette anni di attività online di esperienza di attività online ok? buonasera a tutti ragazzi io sono Giorgio Allegrini store manager e top consulente ufficiale della Valor International e benvenuti nella lezione di cosa vendere online e come venderlo questa lezione sarà una lezione prettamente teorica e l'abbiamo voluta creare per aprirvi un po' la mente su tutto quello che è il mondo online tantissimi ragazzi ad oggi ci entrano in consulenza in mentorship con la mente molto chiusa dalla lezione precedente avrete già potuto capire quante cose si possono fare online quanto l'e-commerce sia proprio la base della vendita di qualsiasi cosa alla fine e-commerce vuol dire vendere qualcosa online e vendere qualcosa online lo si fa attraverso un ecosistema quindi apprendere queste competenze o di conseguenza se si è una realtà già presente offline digitalizzandosi si va incontro appunto a delle tematiche molto importanti che ormai caratterizzano tutto quello che è il mondo odierno oggi appunto vi vorrei far capire in maniera specifica quante cose possiamo andare a fare online e quanti tipi di ecosistemi diversi possono esistere e andremo anche a trattare le 5 caratteristiche principali che un ecosistema vincente deve avere in qualsiasi caso online e queste 5 caratteristiche le potete ritrovare in qualsiasi ecosistema che vende qualsiasi cosa da un biglietto aereo a un sistema per la spesa online ad un prodotto a un servizio a un personal branding e via dicendo partiamo quindi dal principio online possiamo vendere qualsiasi cosa ma veramente qualsiasi cosa ad oggi vengono venduti qualsiasi tipo di prodotti servizi qualsiasi tipo di esperienza anche ovviamente se partiamo dal basso o comunque se non abbiamo capitali che sono pari a decine di milioni in su non possiamo ovviamente entrare su qualsiasi tipo di mercato ok bisogna usare la testa e lavorare in maniera strategica quindi dobbiamo considerare innanzitutto che online ci sono molti fattori che influiscono sulle nostre strategie e ovviamente quando andiamo a strutturare un ecosistema dobbiamo anche iniziare a medesimarci in quello che è l'utente finale perché come diciamo sempre non esiste un tasto magico per diventare ricchi il business online è strettamente correlato al business offline ok stiamo andando a ragionare con delle persone con degli esseri umani che hanno delle emozioni che hanno delle abitudini esseri umani che sono diversi fra di loro quindi ci sono tanti tipi di persone e via dicendo prima cosa che dobbiamo considerare online è che l'utente è frenetico ok quando utilizziamo il telefono siamo frenetici nel senso che immaginatevi anche solo il momento in cui stiamo guardando instagram ci veniamo bombardati costantemente da contenuti di qualsiasi tipo passiamo da vedere un gattino che salta a una persona che va in macchina e via dicendo quindi oltre a essere bombardati abbiamo questo diciamo impulso frenetico di scrollare di passare da una pagina all'altra vi sarà capitato sicuramente nella vita di uscire magari da instagram e subito dopo rientrarci senza neanche un determinato motivo scorrere le storie in maniera impulsiva perché siete arrabbiati oppure anche solo distogliere l'attenzione dopo magari pochissimi secondi da qualcosa che stavate guardando perché vi esce fuori un pop up vi esce fuori una notifica questo è un comportamento frenetico rispetto quello che sia offline quindi di conseguenza dobbiamo tenerne conto in maniera molto molto diciamo importante considerate anche appunto che non c'è il contatto umano ok quando noi entriamo in un negozio entriamo da qualsiasi parte abbiamo il contatto con una persona umana che ci spiega che ci guarda negli occhi che ci parla che ci fa provare delle emozioni ok quando siamo online tutto questo non avviene ok quindi bisogna sempre andare a compensare in altre maniere questi quattro fattori vi faccio una premessa ve li sto elencando per farvi capire quanto questo lavoro sia anche di testa ok quanto bisogna ragionare su quello che si fa bisogna ragionare sul comportamento dell'utenza bisogna ragionare sui tipi di persone con i quali ci possiamo andare a interfacciare con le quali si interfacceranno con il nostro ecosistema ok quindi dobbiamo considerare appunto che essendo che non c'è l'emozione umana prodotti per esempio tanto complicati oppure prodotti tra virgolette spaventosi ora vi spiego meglio che cosa intendo con spaventosi potrebbero essere molto difficili da vendere prodotti anti complicati vuol dire per esempio immaginiamoci di aver inventato un integratore veramente rivoluzionario ok che ha delle specifiche molto particolari che ovviamente sulla carta è veramente un prodotto vincente nel senso che a parità degli altri integratori sul mercato il nostro è cento volte meglio però quanto può essere efficace off online comunicare una cosa di questo genere quanto è complicato comunicarla in maniera da essere subito percepiti come l'integratore del secolo ok questo è un piccolo esempio oppure prodotti spaventosi ovviamente considerate che nella prossima lezione andrete a fare un lavoro molto più approfondito sulla ricerca prodotto però un prodotto spaventoso può essere per esempio diciamo una culla per bambini oppure un seggiolino per bambini ancora meglio il seggiolino per bambini è un prodotto che in genere suscita un po' di timore nella persona che lo acquista perché c'è di mezzo la sicurezza del proprio figlio quindi è un prodotto che di base suscita delle emozioni forti e online un prodotto di questo genere sarebbe un po' complicato da vendere perché c'è bisogno di molta emotività c'è bisogno di una persona che rassicura l'utente nel momento in cui va ad acquistarlo perché ovviamente dovrai legare tuo figlio a questo diciamo seggiolino e questo seggiolino dovrà restare su un'auto che ha una possibilità di essere anche incidentata ok quindi una persona online è difficile che acquisti un prodotto simile soprattutto anche perché è un prodotto che non si acquista tutti i giorni è un prodotto che si acquista bene o male due o tre volte nella propria vita ok poi dobbiamo considerare anche che ci sono colossi già presenti sul mercato ok quindi quando dico che si può vendere di tutto sì è vero si può vendere di tutto ma ovviamente dobbiamo considerare il budget che abbiamo in tasca perché ovviamente non possiamo per esempio andare a vendere un prodotto come un telefono ok un telefono diciamo che è impossibile quasi da vendere online perché dietro ha bisogno di un ecosistema veramente saldo ci sono degli dei colossi ormai che governano il mercato mondiale della telefonia come apple come huawei come samsung andare a creare un proprio telefono costerebbe tantissimo e lanciarlo poi online sarebbe altrettanto difficile oppure prendiamo anche un telefono già creato dalla cina chi mai lo comprerebbe ok oppure facciamo un altro esempio durante il covid c'è stato il fenomeno di fare la spesa da casa ok tantissime persone ci hanno provato nessuno ci è riuscito ma perché perché è ovvio le persone sono abituate a fare la spesa da carrefour dalla cop dal conad da tutti quei diciamo quei grandi colossi che governano il mercato e ovviamente anche loro appena hanno capito la situazione si sono buttati online e chi ha provato di conseguenza a farlo ha fallito miseramente perché ovviamente si andava a scontrare contro colossi veramente veramente affermati sul mercato un'altra questione importante potrebbe essere anche un prodotto che nasce in dropshipping ok quindi immaginiamoci piccola parentesi ancora prima di parlare di questo argomento l'e-commerce è un diciamo soprattutto se partite da zero questo discorso diciamo è prettamente indirizzato alle persone che partono da zero io vorrei farvi capire che non si diventa milionari con un singolo prodotto si diventa milionari acquisendo le competenze per strutturare più prodotti per strutturare più ecosistemi ok bisogna diventare bravi a strutturare l'ecosistema in sé e poi andremo a parlare anche appunto dell'ecosistema che già Gabriele vi ha anticipato quando parlo di ecosistema parlo di creazione store lancio advertising e ricerca prodotto vincente quindi bisogna diventare bravi in questi tre settori non sperare che un prodotto ci porti diciamo alla ricchezza più totale ovviamente ci sono casi studio dove questo è possibile ed è già successo però dobbiamo sempre pensarla in maniera generale ovviamente possiamo fare una start up di qualsiasi tipo lanciare sul mercato un prodotto rivoluzionario però mettiamo un caso un esempio tutti quanti voi avete visto in passato il prodotto la pistola per massaggiatori questo prodotto è partito dal dropshipping le persone hanno iniziato a vendere in dropshipping e mettiamo caso di essere la prima persona che vende questo prodotto quindi lanciamo il prodotto sul mercato e iniziamo ad andare virali facciamo 5-6000 euro al giorno arriviamo a un fatturato medio anche di mezzo milione quindi con un netto magari al 40% stiamo già fatturando un bel po' di soldi netti mettiamo caso che siamo riusciti a fare 200.000 euro netti nell'arco di 4-5 mesi come è già successo e tutti quanti voi l'avete potuto vedere a un certo punto Ronaldo stesso ha lanciato la propria pistola massaggiatrice sul mercato in quel momento un colosso è arrivato e ha spazzato via tutta quanta l'attenzione che ci poteva essere sul vostro prodotto e l'ha concentrata su di sé in quel momento cosa possiamo fare? possiamo fare possiamo attuare due strategie in realtà tre ovviamente non tutto è perduto quindi noi continueremo a fare le nostre vendite perché ovviamente Ronaldo avrà un target di mercato molto più alto venderà un prezzo più alto e vi dicendo però ovviamente quel prodotto pian piano andrà sempre di più a scemare ok? vi farò anche un altro esempio dopo di questa casistica per capire quanto è comune questa cosa e quanto non bisogna spaventarsi ma prenderla come la realtà dei fatti e agire di conseguenza quindi in quel caso possiamo fare tre cose chiudiamo lo store e ci concentriamo su un altro prodotto iniziamo a scalare un altro versante per fare altri 200.000 euro netti possiamo continuare a vendere questo è una cosa che sicuramente è intelligente e diciamo lo teniamo come un evergreen faremo saremo su quei 2.000 euro al giorno e lo scaliamo in questo modo oppure andiamo da Messi e gli proporiamo una collaborazione per far guerra a Ronaldo capite bene che la cosa è impossibile se partiamo da zero ok questo per farvi capire appunto che non possiamo sempre vendere qualsiasi cosa possiamo farlo ma non è intelligente farlo poi dobbiamo considerare anche che non sono presenti tutte le fasce di età sul mercato quindi mettiamo caso prodotti per bambini quindi giocattoli ok non dico prodotti per bambini che acquistino i genitori ma dico proprio giocattoli veri proprio quindi cose che sceglie un bambino da acquistare sono prodotti che si vendono solo in determinati cioè se proprio vogliamo venderli si vendono solo in determinati periodi ok questi periodi per esempio sono Natale ok a Natale possiamo andare a lavorare su questo tipo di di nicchia perché c'è tanto movimento a livello di acquisto giochi e via dicendo però usualmente durante tutta la fase dell'anno è difficile far andare bene uno store di giocattoli ok possiamo magari far andare bene uno store di giochi educativi con una comunicazione inerente dedicata ai genitori ok quindi andremo a targetizzare i genitori dai 40 in su e appunto con tutta una comunicazione basata sul rendi più intelligente tuo figlio ok oppure prodotti per anziani un prodotto per anziani per esempio come magari un apparecchio acustico come magari una carrozzina prodotti di questo genere non si vendono online ok è molto difficile che un anziano abbia instagram o guardi il telefono sono tutte pubblicità che generalmente si vanno a trovare sul sulla tv ok andando avanti ovviamente questo discorso non vale per le aziende già presenti sul mercato offline questo era un discorso per chi vuole iniziare dall'e-commerce ok perché se sei un'azienda già online ci sono delle dinamiche delle strategie completamente diverse ok per esempio abbiamo molta più social proof quindi qualsiasi prodotto si vada a vendere abbia in Italia soprattutto c'è tantissimo questo fenomeno che se hai uno store online e di conseguenza hai anche un punto vendita fisico le persone sono veramente molto ma molto più invogliate da acquistare da te e questa cosa può essere sfruttata a 360 gradi si può lavorare sulla zona ok quindi magari non possiamo andare a operare sul mercato mondiale perché ci sono colossi veramente potenti però possiamo iniziare a farci conoscere in tutta la zona perché comunque ci sono tantissime persone che ancora ad oggi prediligono anche andare a comprare una cosa fisicamente ok soprattutto magari nella nicchia vestiare anche se anche qua c'è una contraddizione perché noi stessi abbiamo tanti store che vendono vestiti ok quindi questo per farvi capire anche che c'è spazio per tutti online e per tutti i tipi di strategie basta applicarle nella maniera corretta studiando e avendo esperienza oppure bisogna anche considerare il fatto appunto che un'azienda offline prima vi ho fatto l'esempio per esempio della spesa da casa ci sono tantissime persone che durante il periodo del covid facevano stock di cibo e cercavano di venderlo online fallendo miseramente però mettiamo caso invece una pasticceria ok una pasticceria è vero che diciamo non è un prodotto che si acquista generalmente online ok è un prodotto inusuale da acquistare su una piattaforma store però a un pasticcere non costa nulla perché lui ogni giorno gli fa i pasticcini ogni giorno crea i suoi prodotti ogni giorno ha il suo core business avviato che vende e genera denaro quindi aprire un ecosistema online potrebbe portargli solo ancora più valore ok valore a livello di immagine valore a livello di vendite ok noi stessi abbiamo collaborato con nicchie di questo tipo e tutt'oggi vendono veramente veramente molto bene ok perché magari hanno la loro clientela fidelizzata che ovviamente non hanno tutti i giorni il tempo di andare oppure magari gli viene voglia in un determinato momento dove non possono appunto recarsi a comprare o hanno una giornata particolarmente piena e allora acquistano online il prodotto ovviamente come vi ho fatto capire ci sono strategie infinite di applicazione ma veramente infinite adesso ne tratteremo quattro che sono le principali ma questo vi deve insegnare appunto che una volta imparato le basi dell'e-commerce online una volta capite le strategie effettive su come si struttura un e-commerce su come si lancia una campagna advertising efficace su come si va a ricercare un prodotto su come si ragiona su questo prodotto anche in base all'utenza che ci si deve interfacciare poi dopo ci possiamo veramente sbizzarrire la fantasia porta sempre veramente ottimi risultati se applicata in maniera corretta per esempio la base è vendere un prodotto fisico tramite il traffico a pagamento ok ovviamente questo cosa vuol dire vuol dire lavorare con tutta quella nicchia di prodotti che sono o problem solver o prodotti in hype che noi andiamo a strutturare in maniera diciamo più economica oppure prodotti di uso comune con dei valori aggiunti prodotti invece che sono inerenti a comportamenti usuali che però innovano il mercato quindi adesso andiamo magari a fare un esempio anche pratico per farvene vedere alcuni eccoci qua il primo può essere un prodotto di uso comune però con una comunicazione innovativa questo è un prodotto che abbiamo venduto noi in prima persona quindi non stiamo parlando di aria fritta questo prodotto ha generato oltre 100.000 euro di vendite e perché era vincente perché un reggiseno è un prodotto comune ok un prodotto che le persone acquistano normalmente le ragazze sono abituate ad acquistare reggiseni ogni stagione ogni anno però noi cosa abbiamo fatto con questo reggiseno gli abbiamo dato quel valore aggiunto qual era questo valore aggiunto era il fatto che questo reggiseno oltre che essere un po' carino perché c'è il suo pizzo e in Italia questo è anche un fattore che è molto incisivo è un prodotto che risolve un problema ok qual è questo problema a tantissime ragazze soprattutto in Italia dove ci sono molte donne con il seno abbondante capita di arrivare a fine giornata con i segni sulle costole e questo secondo alcuni studi ovviamente noi non siamo tutologi quando abbiamo visto questo prodotto ci siamo andati ad informare abbiamo visto se i segni o un reggiseno stretto con i ferretti potessero causare problemi ed effettivamente sì questo prodotto può causare dei problemi noi cosa abbiamo fatto abbiamo preso questi problemi e ne abbiamo fatto tesoro per creare una comunicazione efficace quindi tutta la comunicazione per esempio era basata sul compra questo reggiseno perché i segni i segni sulle tue costole possono voler dire una cattiva circolazione oppure se fino ad oggi hai mal di schiena e le hai provate tutte magari è perché hai un reggiseno stretto che ti fa male con i ferretti con i gancetti eccetera eccetera questo reggiseno è studiato appositamente per migliorarti la postura e via dicendo ok perché ovviamente è come se fosse un top ok molto comodo non crea problemi e addirittura ha delle fasce rinforzate sulla schiena che ti permette di avere leggermente una postura migliorata poi un altro prodotto può essere questo anche qua prodotto di uso comune perché comunque le ciabatte ogni anno bene o male le compriamo perché si rompono perché si rovinano che sono prodotti comunque che è bello è normale che le persone quando vanno al mare si comprano le ciabatte nuove non magari ogni anno ma ogni due ogni tre ok questo prodotto però aveva un valore aggiunto anche qua qual era il valore aggiunto in questo caso il fatto che era un prodotto che era in hype in quel periodo magari alcuni di voi sanno che easy in collaborazione con adidas aveva lanciato queste ciabatte che erano la nuova moda del momento queste ciabatte costavano un occhio della testa quindi non tutti se le potevano permettere e allora noi cosa abbiamo fatto abbiamo lanciato la ciabatta tra virgolette fake perché ovviamente non ha marca non ha niente semplicemente una ciabatta con uno stile molto molto simile sul mercato per tutta quella fascia di persone che non se ne possono permettere l'acquisto e ovviamente è andata virale e ha fatto tantissimi ordini ok questo per farvi anche capire quanto online bisogna stare al passo con i tempi non basta semplicemente prendere guardare e fare bisogna guardare i trend del momento bisogna considerare appunto che ci sono degli influencer a livello mondiale che governano il mercato ok se un influencer come Kim Kardashian dice che quello fa schifo tantissime persone la andranno ad ascoltare se un influencer come Kenny West studia una ciabatta di questo genere e la lancia sul mercato siamo quasi sicuri al 100% che andrà virale ok soprattutto se quell'anno nessuno si è concentrato su quella nicchia di prodotti ok un altro prodotto può essere l'epilatore a luce pulsata ok un prodotto che è vero non è di uso comune perché nessuno fino all'anno scorso aveva l'epilatore in casa tutti quanti andavano dall'estetista a farlo però è comune farsi la ceretta è un comportamento comune quindi noi abbiamo preso un comportamento comune e l'abbiamo implementato in maniera tale che le persone potessero risolverselo a casa ok quindi non c'era più fatti la ceretta rasati con il rasoio ci siamo messi tra due problemi molto grandi ok quindi la ceretta qual è il problema? fa male è noiosa fai un casino tremendo ok non so se avrai mai capito di guardare una donna fare la ceretta è piena di prodotti in giro c'è la cera calda eccetera eccetera e non penso neanche faccia così bene a livello proprio di sensazione dall'altra parte cosa c'è? c'è l'estetista l'estetista che ti propone un servizio di epilazione a luce pulsata quindi un prodotto un servizio costoso che non tutti si possono permettere cosa abbiamo fatto? ci siamo messi in mezzo in questo caso abbiamo creato un prodotto che non costa tanto per quello che è è vero magari uno lo può vendere costa 29 dobbiamo triplicare il prezzo 369 ti costa 100 euro lo compri una volta ce l'hai per sempre un trattamento di epilazione ti può costare anche 70-80 euro lo devi fare ogni tot ok questo lo compri una volta e ripeto ce l'hai per sempre e non fa male non crea fastidio è un prodotto che ti puoi portare ovunque al posto che portarti tutta quanta diciamo l'attrezzatura per andare a farti la ceretta in vacanza oppure magari un altro per farvi un esempio molto molto banale che è per farvi capire quanto bisogna iniziare a pensare ai tipi di persone viviamo in un mondo in cui ormai la maggior parte delle famiglie si separano ok potrete vedere voi stessi che la maggior parte delle persone che avete accanto giovani hanno i genitori separati ok quindi magari una persona una ragazza che ha genitori separati un prodotto del genere se lo porta tranquillamente avanti indietro da una casa all'altra ok e di questi esempi ne possiamo fare all'infinito io ora vi ho preso i più classici ok quindi questi sono per esempio tre esempi di prodotti che si possono andare a strutturare ok poi tornando a noi prodotto fisico tramite strategia virale cosa vuol dire vuol dire che in questo tipo di prodotto abbiamo lavorato con l'advertising advertising facebook advertising google advertising tiktok quindi investiamo del denaro su un sistema che ci sponsorizza tramite i social riceviamo traffico convertiamo questo traffico attraverso uno store uno store manipolante che abbia delle caratteristiche ben specifiche che dopo andremo a vedere prodotto fisico tramite strategia virale cosa vuol dire vuol dire che andiamo a vendere un prodotto che abbia un effetto wow e che vada virale sul mercato ok quindi un prodotto che andiamo a vendere tramite video ok video tiktok video instagram video youtube immagini pinterest eccetera eccetera ovviamente tutto questo viene spiegato anche nei nostri corsi perché appunto come vi ho detto ci sono varie strategie che possiamo andare ad attuare alcuni di questi prodotti per esempio sono un costume cambia colore immaginatevi una persona che vede per la prima volta un video ben fatto di ragazzi che si buttano l'acqua addosso e il costume gli cambia colore un ragazzo ne viene impressionato e gli piace e compra questa cosa con la formula visto piaciuto ok è un effetto wow perché magari lui stava vedendo non capiva diciamo il nesso del video e noi lo sorprendiamo con questo costume che cambia colore oppure anche qua un prodotto per creare maschere ok una ragazza normale è abituata a comprare le maschere lusegetta oppure andare dall'estetista a farsi le maschere noi gli facciamo vedere un prodotto di questo tipo questo è un prodotto effetto wow perché magari immaginatevi il video della ragazza che mette dentro la frutta da sopra e da sotto esce la maschera una ragazza dice cavolo rivoluzionario bello voglio farlo anch'io perché si inizia già a pensare in testa cavolo posso fare la maschera con le fragole posso fare la maschera con la frutta che abbia un certo principio attivo per curare un certo problema perché magari le maschere che ho usato fino ad oggi non funzionano e vi dicendo ok online poi ci sono tantissimi youtuber che hanno fatto video con maschere divertenti quindi la maschera alla coca cola eccetera eccetera quindi vedete si possono creare contenuti virali contenuti che facciano ridere anche alle persone oppure prendiamo caso un incenso questo è un prodotto che le persone vedono e acquistano perché gli piace quindi persona è su instagram vede questo prodotto e dice cavolo che bello lo vorrei anche io in camera e subito sotto gli diamo la possibilità di acquistarlo ok è un prodotto che di per sé non ha nessuna utilità non ha nessun nessuno scopo ben specifico però è bello ok è bello l'abbiamo valorizzato con una bel video con una bella strategia virale e quindi viene acquistato guardate anche questi qua correlati come sono belli oppure un'altra cosa può essere questo prodotto qua questo è un prodotto di base stupido ti crea semplicemente l'effetto che quando apri l'acqua te la colora il video non è per niente valorizzato ok però immaginatevi un contenuto al buio dove la persona apre l'acqua e c'è appunto magari l'apre in slow motion esce l'acqua colorata è un effetto wow una persona lo compra anche solo per dire cavolo ma fammelo provare voglio vedere anche io magari lo vuole provare di notte eccetera eccetera cioè non ha nessun tipo di scopo questo prodotto però è un prodotto che ti fa dire cavolo ma come fa a fare come fa a fare questa luce perché l'acqua è colorata lo va a vedere e lo acquista anche solo per il gusto di acquistarlo magari perché quella giornata quel giorno ha avuto una brutta giornata e ricordatevi sempre lo shopping e tantissime persone fanno shopping compulsivo ok tornando a noi prodotto fisico tramite strategia virale quindi come sia per diciamo concludere il discorso questo prodotto lo si va a vendere solo tramite creazione video quindi è un prodotto che addirittura non comporta l'investimento di budget se non l'ordine del prodotto e di conseguenza ovviamente la creazione di video quindi magari se dobbiamo andare a creare se dobbiamo andare a vendere un incenso oppure se dobbiamo andare a vendere un un costume dovremmo investire almeno quanto meno sul andare a fare i video in una piscina ok un incenso creiamo una piccola zona per fare i video oppure diciamo che il il prodotto dell'acqua colorata lì investiamo facendo tanti video in tanti posti diversi prodotto digitale tramite traffico a pagamento prodotto digitale ragazzi è semplicemente un prodotto che possono che viene scaricato tramite un download quindi un template quindi può essere un filtro vi è capitato sicuramente di vedere online quelle creative dove c'è l'immagine di una persona e fanno vedere prima e dopo l'applicazione del filtro ok prima la faccia normale quasi un po' brutta quindi viene accentuato anche la bruttezza della persona in quel momento poi scorre il filtro e diventa quasi un modello ok quello è un prodotto digitale che viene venduto tramite traffico a pagamento abbiamo anche lì un sacco di fattori positivi abbiamo il fatto che possiamo andare a ROAS semplicemente non abbiamo il costo prodotto quindi abbiamo dei ROAS ottimi abbiamo il fatto che non dobbiamo fare stock e un sacco di altre prerogative positive ok ovviamente poi un altro tipo può essere le applicazioni le applicazioni esiste un mercato enorme delle applicazioni quindi persone che a prezzi miseri ti fanno delle applicazioni e poi tu le vai a vendere online ok quindi su questo diciamo che la strategia è strettamente correlata a un prodotto fisico con traffico a pagamento però abbiamo delle dinamiche di investimento diverse prodotto strutturato tramite personal branding cosa vuol dire? vuol dire che io non per forza un prodotto fisico lo devo vendere per forza di cose tramite ads per esempio un percorso di allenamenti anzi questo in realtà è un prodotto digitale mettiamo caso in questo caso un prodotto fisico quindi una una linea di vestiti se io la correlo a un influencer che è ben inserito nell'alta moda ho tantissime possibilità di venderlo in maniera efficace ok o addirittura prendo un influencer veramente tanto 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 amato dalla propria utenza e gli faccio la maglietta gli faccio la maglietta dedicata ok magari un influencer simpatico un influencer che fa tante battute creo tante magliette con tutte le sue battute ok per farvi capire una strategia oppure prendiamo anche per esempio una guida in un prodotto digitale o ancora meglio un percorso di allenamenti vendere un percorso di allenamenti così a caso è quasi impossibile perché non c'è una base di credibilità sul prodotto quindi cosa facciamo in questo caso prendiamo e lo affianchiamo a un personaggio famoso mettiamo caso vado a prendermi un person un bodybuilder con uno due milioni di follower gli propongo una collaborazione gli dico senti guarda io sono bravo in e-commerce tu hai un pubblico strettamente correlato al progetto che voglio fare a me serve della credibilità su questo progetto mettiamoci in collaborazione io strutturo l'ecosistema online mi occupo dell'advertising investo sul progetto a livello monetario tu investi a livello di immagine quindi ti fai strutturare il prodotto sulla tua immagine prendi e fai delle storie dedicate eccetera quando fai uno shooting quindi io ti pago lo shooting però poi tu ci metti il tempo per farlo ok e vi dicendo quindi vedete ho creato un prodotto attraverso la collaborazione con una celebrity del web oppure una guida specifica in questo caso magari non abbiamo una celebrity ok però vogliamo andare a vendere una guida nutrizionale cosa ha bisogno questa guida nutrizionale di una fonte anche qua di credibilità veramente diciamo verticale ok non possiamo prendere un influencer che fa diciamo che fa vedere i piatti che crea perché non ha nessuna base di studi veramente concreti ok magari possiamo farlo sulle ricette si con un influencer di questo genere vedete già solo parlando quante idee vengono fuori però in questo caso vogliamo vendere proprio una guida nutrizionale quindi mi vado a prendere una nutrizionista offline magari una nutrizionista anche che è possibile che abbia una pagina social magari non è così famosa perché non è una nicchia che attira troppo però sicuramente ci saranno delle nutrizioniste online gli vai lì e gli dici appunto guarda io voglio offrire questo servizio voglio vendere questa guida è un prodotto digitale gli si spiega tutti i vantaggi di un prodotto digitale quanto può fatturare eccetera eccetera e ci si mette in collaborazione ok idem per un preset cioè per un set di preset digitali come posso fare i preset ormai sono stati macinati sul mercato da anni ovviamente c'è gente che ancora li vende molto bene però come posso fare in questo caso allora per andare a distruggere la concorrenza prendo e mi affianco a un fotografo professionista fotografi professionisti virali su web ce ne sono tantissimi anche lì vado a strutturare una collaborazione ok quindi io imprenditore studio un prodotto e lo valorizzo al meglio con una figura presente sul mercato allo stesso tempo al contrario ci sono persone un'entità del web che invece fanno l'esatto contrario quindi io divento l'esperto in una determinata cosa ok e poi vendo prodotti tramite me ok questo fenomeno si è visto tantissimo con l'anno scorso e anche due anni fa con l'esplosione del mondo pokemon dove le persone su gruppi telegram vendevano attraverso la propria immagine quindi facevano delle live immaginatevi di fare una live avere tutti quanti prodotti attorno a sé e li fai vedere e live le persone acquistano ok tutte queste ragionamenti tutte queste cose ve lo sto dicendo per farvi capire quanto di base l'e-commerce con l'e-commerce si possa fare qualsiasi cosa ok però tutte queste cose che vi sto dicendo hanno una base e-commerce perché queste persone si stanno strutturando tramite un gruppo telegram che viene sponsorizzato tramite advertising tramite influencer marketing tutte strategie e-commerce sono diciamo nicchie e strategie tanto diverse però tutte quante correlate allo stesso settore l'e-commerce un altro esempio che vi posso fare sul momento è Kabi tutti quanti la maggior parte di voi conoscono Kabi l'influencer italiano che è diventato più famoso di Chiara Ferragni in un solo anno e ha fatto collaborazioni con chiunque nel mondo Kabi cosa ha fatto? ha sfruttato il suo essere un influencer di nicchia generale di nicchia divertente creando uno store di prodotti virali ok ha creato il suo store vendendo prodotti di qualsiasi genere in maniera che sono prodotti che non hanno un problem solver vero e proprio ma sono prodotti virali simpatici da vedere che una persona acquista giusto per ridere e ha lanciato il suo ecosistema di vendita ok ha usato una strategia totalmente inversa ok a quella che potremmo utilizzare noi questo vi può far capire veramente veramente tante cose ovviamente per vendere online ci sono delle caratteristiche necessarie che ogni ecosistema deve avere poi dopo andremo a vedere anche in che percentuale noi li chiamiamo i 5 capisaldi da rispettare per la costruzione dell'ecosistema questi 5 capisaldi li abbiamo strutturati noi nell'arco degli anni dopo tanti di tanti tantissimi test soldi spesi diciamo prodotti andati male ecosistemi e progetti falliti perché ovviamente dovete considerare che il fallimento fa parte della crescita ok noi non siamo arrivati qua ad essere i migliori in Italia senza aver mai fallito anzi è proprio stata la nostra costanza nel testare ritestare attualmente testiamo oltre di 40 prodotti al mese per trovare quelli vincenti da andare a proporre sul mercato e tutto questo lavoro è servito per poi strutturare i 5 capisaldi da rispettare sempre per la costruzione dell'ecosistema che noi in tutti questi anni abbiamo visto che se ci sono queste 5 caratteristiche che ovviamente non basta che ci siano devono essere diciamo strutturate in maniera efficace ok perché adesso andremo a capire un po' meglio quello che sto dicendo il primo è il valore percepito ok quindi per concludere un attimo il discorso di prima se noi abbiamo un valore percepito basso ok va bene che abbiamo valorizzato il prodotto ma se l'abbiamo fatto male ma se l'abbiamo fatto male la cosa non conta quindi non basta dire sì ho pensato al valore percepito l'ho aumentato un po' no dobbiamo farlo bene in maniera diciamo esagerata quasi cosa vuol dire valore percepito spesso faccio questo esempio anche tutti i ragazzi che arrivano in mentor prendete una penna big prendiamo questa penna e la possiamo comprare a un euro e la rivendiamo tale quale su un e-commerce a un euro e cinquanta prendiamo invece questa penna placchiamola d'oro quindi da un euro che la paghiamo adesso la pagheria la paghiamo due euro creiamoli un effetto speciale attorno con delle belle grafiche creiamo uno store total black che ci sta bene con l'oro prendiamo e andiamo a creare un mockup per chi non sapesse cos'è un mockup è una grafica di un packaging virtuale che possiamo creare tramite tanti siti ve ne do uno per esempio smart mockup maker potete andare a cercare quindi contestualizziamo questo prodotto facciamo vedere che c'è un packaging alle persone piace il packaging guardate Apple che concentra tantissimo anche il suo marketing sui vari packaging aumentiamo il valore percepito del prodotto da un euro e cinquanta che la pago e da prima che la potete vendere a un euro e cinquanta due euro adesso la posso vendere a venti euro perché ho aumentato drasticamente il valore percepito del prodotto ok idem possiamo vedere questa cosa tra Apple e Huawei c'è stato un po' di tempo fa il fattore che Huawei aveva le stesse identiche caratteristiche di Apple tra gli e quali cioè non c'era santo che cascava erano quelle le caratteristiche e i dati non mentono però Apple continuava a vendere di più e continua a vendere di più tutt'oggi perché? perché Apple è valorizzato al meglio perché Apple cura il dettaglio perché quando entra la Apple è un ecosistema a sé cioè non esiste un negozio la Huawei non è come la Apple cioè la Huawei è un negozio normale anzi solitamente Huawei li trovi maggiormente nei negozi correlati come Media World vi dicendo invece la Apple ha dei suoi store molto diciamo con dei loro concept ok hanno valorizzato il prodotto al massimo vi consiglio piccolo topic di guardare per esempio il film di Steve Jobs perché è diventata famosa l'Apple perché ogni volta il design del telefono lo rifanno nei minimi dettagli e se non è perfetto a livello visivo loro lo rifanno lo rifanno lo rifanno idem per il sistema di utilizzo io stesso compro Apple perché è veloce da usare è semplice è dinamico e loro si concentrano tantissimo sulla user experience la valorizzano al meglio la stessa cosa dobbiamo fare noi sul nostro store perché le persone acquistano da noi e non acquistano da Aliexpress perché il prodotto su Aliexpress detto in parole povere fa schifo è brutto da vedere non ti viene voglia di acquistarlo noi invece lo prendiamo e lo valorizziamo lo rendiamo appetibile lo rendiamo sexy lo rendiamo bello idem per lo store io vedo tantissimi ragazzi che mi arrivano in consulenza oppure B2B che arrivano da noi e non fanno mezza vendita perché semplicemente hanno uno store brutto è brutto da vedere immaginatevi di entrare in un negozio e questo negozio è disordinato sporco puzza la commessa all'interno è scortese i prodotti sono tutti buttati lì non è organizzato non vi viene voglia di acquistare se invece è un negozio perfetto ordinato pulito e tutto quanto messo in maniera logica vi viene molta vi voglia di acquistare il valore percepito è una cosa che fa veramente tanto tanto la differenza ok bisogna creare degli store belli degli store accattivanti ok non basta creare uno store basta non c'è il tasto magico c'è una persona soprattutto gli italiani come dicevo prima acquistano perché una cosa è bella anche solo quindi se noi valorizziamo il prodotto al meglio siamo già un passo avanti rispetto al competitor le barriere emotive quindi una persona di base quando acquista un prodotto quando acquista un qualsiasi cosa si pone delle domande queste domande sono domande di qualsiasi genere ma hanno una scala gerarchica ok immaginatevi di entrare adesso piccolo esempio poi partiamo appunto con la vera spiegazione online immaginatevi di entrare in un negozio dovete dovete acquistare un prodotto per le vostre scarpe perché le avete sporcate ci tenete molto a queste scarpe andate dalla commessa e gli dite guarda ho le scarpe sporche e le avete portate questo prodotto funziona e avete il prodotto in mano e lei dice non lo so provala voi cosa fate lasciate il prodotto e dice grazie arrivederci buona giornata perché perché ovviamente non volete rischiare di rovinare ultimamente le vostre scarpe lei non ha abbattuto la barriera emotiva della vostra indecisione sul fatto che quel prodotto fosse specifico ed efficace per il vostro tipo di scarpa e allora l'avete lasciato lì lei non è riuscita a chiudere la vendita se quella commessa iniziava a dirvi si guarda funziona per questo prodotto e in più iniziava a bombardarvi anche del fatto che c'è un'offerta del fatto che ha delle specifiche particolari vi dava sempre più risposte senza che neanche voi la chiedevate in un attimo avevate il prodotto nel sacchetto ed eravate uscita al negozio con un po' di soldi meno sul conto ok questo per farvi capire che la commessa del negozio offline è direttamente proporzionale alla comunicazione che abbiamo online ok quindi questo che cosa vuol dire vuol dire che noi online dobbiamo abbattere le barriere emotive in maniera efficace ok in maniera gerarchica proprio quindi per esempio qual è la prima domanda che si può porre un utente appena entra sul nostro sito perché devo acquistare questo prodotto e subito noi come gli rispondiamo attraverso una manipolazione gli facciamo capire che c'è un problema nella sua vita come per esempio il reggiseno e non deve essere un problema esistenziale una ragazza non si alza alla mattina e dice cavolo io devo assolutamente cambiare il mio reggiseno no una ragazza un po' come tutti noi italiani ci abituiamo alla scomodità quindi continua ad usare il suo reggiseno noi invece abbattiamo la sua barriera emotiva facendogli capire che c'è di meglio ok c'è di meglio quei segni rossi il maliziano possono finire ok non deve per forza abituarsi alla scomodità ok poi ovviamente questa persona si porrà anche altre domande per esempio si pone la domanda del mi è convinto si va bene potrebbe essermi utile ma che caratteristiche ha questo prodotto lo posso lavare in lavatrice è comodo elastico ci sono di tutte le taglie e gli rispondiamo anche lì subito dopo si può porre la domanda ok bene mi piacciono anche le caratteristiche però in quanto mi arriva il prodotto l'assistenza ce l'ho anche post acquisto il prodotto è assicurato nel senso che se mi arriva a casa rotto me lo cambiate più risolviamo queste barriere emotive sullo store in maniera efficace e soprattutto in maniera diciamo concisa cioè non è che dobbiamo fare dei papiri ok dobbiamo comunicare in maniera breve ed efficace poi andremo a vedere la cosa anche nell'aspetto pratico più avanti quindi questo è una cosa molto importante se noi non abbattiamo le barriere emotive e ovviamente questo ragazzi questi discorsi non valgono per tutti i prodotti perché ovviamente su un prodotto virale che barriere emotive abbiamo su un vestito che barriere emotive abbiamo però comunque su un vestito abbiamo la barriera del c'è il cambio taglia quindi le barriere emotive sono differenti per ogni tipo di prodotto voi dovete immedesimarvi nell'utente dire ok ok l'utente è un utente che deve acquistare un vestito che domande si può fare questa cosa noi la facciamo per chiunque anche per i B2B ok anche per persone che lavorano offline quindi per esempio una persona si può chiedere ok io l'acquisto online ma poi posso venire in negozio a cambiarlo oppure si mi piace questa cosa ma posso venire in negozio a provarla e vi dicendo quindi sempre abbattere le marriere emotive in maniera gerarchica quindi prima facciamo capire all'utente dove si trova e perché deve acquistare il nostro prodotto poi gli diamo le caratteristiche principali di come si usa come è fatto e poi parliamo dei servizi customer experience non tutti cioè dobbiamo considerare una cosa di base noi dobbiamo vendere a più persone possibile perché vogliamo fare più soldi possibili ok questa è la base se vogliamo vendere a più persone possibili ovviamente dobbiamo considerare un aspetto veramente fondamentale che è quello del fatto che non tutti hanno una customer experience uguale quindi io magari che sono un ventenne conosco perfettamente lo store so che le tre lineette in alto a sinistra sono un menu lo apro me lo vado a spulciare un quarantenne e ve lo dico per esperienza personale perché abbiamo fatto dei test su questo abbiamo preso dei casi studio gli abbiamo dato in mano vari store e abbiamo guardato non gli abbiamo detto ti piace o non ti piace lo store perché il ti piace o non ti piace viene definito dalle ads e le ads che ci portano nello store persone interessate al nostro prodotto noi guardavamo come si comportavano ok i loro comportamenti e abbiamo notato che da una fascia dai 40 in su le persone si comportavano in un certo modo quindi per esempio sulla landing page scorrevano solo su e giù e se c'era il prodotto acquistabile nell'home page allora lo acquistavano se non c'era uscivano ok dicevano ok bello come acquisto tac lì avete finito perché un conto noi che facciamo un test e ci dicono come acquisto una persona online dice ok come acquisto non lo so ciao esco ho altro di meglio da fare creiamo sempre una customer experience dedicata a tutti quanti idem un ventenne entra sul nostro store guardano un page dice ok bella ma ora voglio vedere qualcosa di ancora più bello vado sulla pagina prodotto poi la pagina prodotto fa schifo e lui è un passo più lontano dall'acquisto rispasto che è un passo più vicino a livello emozionale ok perché gli abbiamo fatto vedere qualcosa di più brutto e lui sa che l'home page è solitamente un posto dove si riassume il brand e sulla pagina prodotto poi abbiamo le informazioni quelle diciamo succulente quelle specifiche ok e ovviamente poi customer experience sempre dedicata ai ventenni facciamo anche delle pagine correlate ok creiamo delle pagine magari che parlano della scienza del nostro prodotto dell'utilizzo creiamo delle pagine per i testimoni e via dicendo social proof allora social proof è una cosa che in tutti i nostri corsi viene spiegata e rispiegata e rispiegata online viene spiegata e rispiegata e rispiegata però secondo me fino ad oggi nessuno ha veramente mai capito perché le persone cioè innanzitutto come si può fare social proof che si può fare sì con gli influencer ma si può fare anche tramite dei copy tramite copy che andremo a vedere poi nella lezione pratica quindi parlare di clienti soddisfatti parlare delle recensioni e via dicendo ok e perché lo dobbiamo fare perché dobbiamo fare capire agli altri utenti che questo prodotto è stato acquistato da tante altre persone perché di base nessuno si vuole sentire una cavia se noi se io percepisco che questo prodotto non è stato acquistato da nessuno e attenzione parliamo di prodotti di uso comune non parliamo di prodotti come può essere il disco di un cantante dove ne esistono solo 100 copie autografate allora tutti lo vogliono per primo parliamo di un prodotto normale immaginatevi un frullatore immaginatevi di andare ad una persona e dice guarda sei la prima persona ad acquistarlo buon divertimento tu dici guarda tientelo pure che ancora si stacca la lama mi arriva in faccia ma coltella ok l'idea per un'auto utilitaria immaginatevi se arrivasse al concessionario e vi dicono costa 1000 euro in meno ma non è mai stata testata da quest'auto dici ok tientela pure spendo anche 2000 euro in più guarda pur di avere un po' di sicurezza mentre vado in giro ok quindi nessuno vuole sentirsi solo ad acquistare una cosa per un fattore proprio che è anche di sicurezza nei suoi confronti anche un fattore di sicurezza nel mettiamo caso non sia una sicurezza vitale sicurezza nel fatto che funzioni questo prodotto se viene acquistato da tante persone allora funziona ok allora mi sento più sicuro ad acquistarlo perché vedo che tante persone lo acquistano e comunque lasciano anche recensioni positive per questo noi nei nostri store facciamo veramente tante 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 recensioni ultimo caposaldo non per importanza sfruttare la realtà dei fatti allora stiamo facendo impresa come ho detto bisogna sempre 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 paragonarsi al mondo offline e valorizzare ogni tipo di aspetto del nostro brand e nascondere i difetti negativi è un po' come ho già fatto in passato questo esempio come uscire con una ragazza se esci con una ragazza parlerai dei tuoi aspetti positivi esporrai quello che è il meglio di te mostrerai quello che è il meglio di te ok oppure come anche a livello fisico una persona bassa non mette un vestito tanto larghi perché i vestiti larghi lo rendono ancora più basso per farvi capire sfruttare la realtà dei fatti vuol dire prendere gli aspetti peculiari del vostro brand e esporli al meglio in Italia c'è questa paura di base che le persone dicono adesso acquisto e poi nessuno mi caga più se voi una persona acquista e vi scrive voi gli rispondete la risposta è sì quindi perché non valorizzare questo aspetto e spiegare nello store che avranno anche un'assistenza post acquisto se il prodotto arriva a casa rotto voi glielo cambiate sì o no la risposta è sì anche perché ve lo fa l'agent gratuitamente in questo caso o se siete un brand offline per non giocarvi la faccia lo fate di base ma è proprio per legge bisogna farlo di base se arriva il prodotto a casa rotto dobbiamo cambiargielo e tantissime persone si chiedono questa cosa perché non parlarne? perché a parità di brand vinco io che parlo di queste piccolezze rispetto a un altro competitor oppure anche qua vedremo via solo vi faccio un piccolo spoiler abbiamo deciso di trattare in questo in questo video lezione un prodotto particolare che è un frigo ok? un frigo per i trucchi che può essere utilizzato in altre mille maniere prendiamo questo prodotto in due versioni la versione col caricatore da computer e la versione con il caricatore la presa a muro in entrambi i casi posso fare una comunicazione estremamente efficace nonostante abbiano due caratteristiche completamente diverse in uno posso dire guarda te lo puoi portare in macchina se hai un lungo viaggio perché lo puoi attaccare al computer non hai caricatore tra le scatole non hai a lavoro lo puoi attaccare proprio di fianco al computer perché non devi andarti a cercare una presa e via dicendo invece su un prodotto come quello della presa a muro posso fare una comunicazione del tipo bello hai il cavo che ti sta leggermente tra le scatole però tu pensi veramente che un caricatore da telefono abbia un vattaggio abbastanza potente da raffreddare quello che ci metti dentro te lo dico io la risposta è no perché e gli fai vedere uno studio del vattaggio che un frigorifero portatile necessita e lì in quel momento l'utente ha un momento di epifani ok e si rende conto che se compra l'altro per quanto più bello poi non gli servirà nulla in entrambi i casi ho sfruttato la realtà dei fatti e l'ho portata a mio favore ok questo è veramente molto importante da fare oppure anche qua abbiamo vediamo che c'è una grande barriera emotiva sulla spedizione offriamo una spedizione gratuita lo so si vende anche con la spedizione a pagamento ed è giustissimo farlo anzi dobbiamo marginare di più quindi è giusto usare una strategia di spedizione che andremo a vedere anche più avanti però se abbiamo una spedizione veramente lunga cosa facciamo? prendiamo e ci sacrifichiamo per il periodo di test e offriamo una spedizione gratuita e lo usiamo come specchietto per le allodole perché solitamente anche qua questa cosa non deriva da una cosa a caso deriva da un ragionamento basato su un comportamento umano se una persona riceve qualcosa di gratuito generalmente non si porne domande su questa cosa ok quindi se noi offriamo una spedizione gratuita magari una persona su tre non si pone la domanda di ma quanto ci mette ad arrivare dice ah è gratuito è bella e continua clic e clicca il tasto ok questo è veramente molto importante per finire la percentuale di importanza di questi capisaldi varia da progetto a progetto come vi ho detto prima abbiamo un problem solver ovviamente ci sarà tanto valore percepito sì ma la comunicazione le barriere emotive saranno il fulcro di quel prodotto ci dovremo concentrare al 100% sulle barriere emotive abbiamo un prodotto virale ovviamente le barriere emotive sono quel che sono magari c'è la spedizione magari c'è l'assistenza magari sono le classiche barriere emotive però su cosa ci dobbiamo concentrare tanto sul valore percepito anche su un vestito ok non è un prodotto virale ma un vestito un brand i brand di vestiario lavorano solo sul valore percepito poi è vero c'hanno le barriere emotive di posso cambiare la taglia eccetera eccetera allora vanno a lavorare anche su questi aspetti ma l'aspetto principale è quello del del valore percepito aumentiamo questo benedetto valore percepito per rendere appetibile il prodotto al pubblico ok spero che questa diciamo fase teorica vi sia stata d'aiuto perché è veramente importante che apriate la testa siamo nel 2022 l'e-commerce è la base di ogni cosa ok è la base per un ecosistema che già esiste offline per valorizzarsi e non morire ok perché come aveva già fatto Gabriele gli esempi prima se il nostro diretto competitor inizia a lavorare offline potrà migliorare la sua vetrina potrà mangiarsi il mercato potrà abbassare i prezzi perché vende di più potrà allargarsi e distruggere a me che sono il suo diretto competitor sulla via bisogna imparare ad avere fantasia se siete degli imprenditori a livello di business perché ormai le persone si stanno abituando al mondo online le cose le vedono le stravedono quindi la loro customer experience cresce di giorno in giorno e quindi noi dobbiamo crescere di conseguenza e dobbiamo essere sempre un passo avanti quindi trovare strategie innovative per vendere ok ovviamente anche le strategie old school continuano a funzionare però abbiamo veramente tante 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 tipologie nuove di vari commerce ok bisogna soltanto usare la testa per questo è tutto ci vediamo alla prossima sezione bene ragazzi veniamo al uno dei punti forse il punto più importante quando si va a pensare di iniziare un'attività in dropshipping o comunque vendita online ok parliamo sempre di questo soprattutto inerente al dropshipping ok quindi proprio specificatamente proprio per quello che riguarda il dropshipping non prendiamo in considerazione i private label o magari i servizi queste cose qua perché ovviamente non questo tutto questo ragionamento che andremo a fare non può essere applicato ok a tutto quindi rimaniamo focus sul dropshipping allora il discorso è che una volta che noi sappiamo fare lo store fatto bene noi sappiamo fare la strategia di ads diciamo prima fase di testing fatta bene possiamo capire le creative ovviamente anche di conseguenza diciamo possiamo dire che sappiamo effettivamente testare un prodotto al meglio in drop bene perché allora alcuni studenti anche che ragazzi che vengono in consulenza con noi con Luca eccetera eccetera alcuni funzionano quindi alcuni fanno vendite e altri invece no l'unica variabile capite bene che come vi ho detto prima se io lo store se io le creative se io la strategia di ads rimane unicamente il prodotto perché sono così certo di questa cosa perché vedendo veramente tante casistiche di anche ragazzi in consulenza che come dicevo prima alcuni vanno in profitto altri no con le medesime strategie con le medesime informazioni è proprio il fattore del prodotto ok quindi ragazzi mettiamoci bene in testa questa cosa qua la ricerca prodotto non è una una cosa da fare così a cavolo oppure vedo il prodotto dico ah bello lo provo a vendere no bisogna ragionarci molto sopra e proprio come quando costruite una casa si partono dalle fondamenta se le fondamenta sono fatte male la casa crolla ok quindi dobbiamo dare molta molta importanza a questo aspetto che è proprio quello della ricerca prodotto ok perché getta proprio le basi del nostro store va bene e altra cosa così iniziate anche entrare nell'ottica che per vendere online non c'è il pulsantino magico che voi schiacciate non c'è la strategia ads che fino ad oggi non è stata svelata e voi non sapete basta mettere due cose sulle ads e schiacciare il pulsante pubblica e magicamente fate i milioni online non funziona così ragazzi bisogna ragionare bisogna usare la testa le competenze tecniche sono fondamentali ma sono tali sono competenze tecniche la differenza la facciamo con la nostra testa perché io posso insegnare a 100 persone a fare le ads a fare lo store a fare le creative però non tutte 100 con uno store cioè con un test andranno in profitto ok solamente quelle che applicano e comunque riflettono e applicano appunto il ragionamento che andremo a vedere allora possono avere una possibilità possono fare un test quantomeno veritiero avere la possibilità di almeno escludere proprio il fattore prodotto ok quindi togliere dalla variabile il fattore prodotto ok per questo ragazzi è molto importante che questa lezione scusatemi che questa parte ok della mega lezione venga veramente interiorizzata al meglio andiamo a vedere quali sono i capisaldi ok quali caratteristiche diciamo deve avere il prodotto poi le andremo a analizzare e sviscerare man mano che appunto il prodotto deve avere per poter essere venduto in dropshipping allora prima fra tutti ragazzi vedete la naturalezza cosa si intende con naturalezza si intende appunto proprio mettere a proprio agio il cliente farlo entrare in un stato mentale nel quale lui appunto si ritrovi quasi a casa ok quasi gli sembra un'azione quotidiana ok quindi il prodotto deve essere appunto una cosa che risulta naturale acquistare e risulta naturale acquistare online ok vi faccio un esempio ma magari vi riesco a carire un po' meglio le idee allora voi comprereste mai un farmaco online che un farmaco non tipo tachipirina o queste cose qua che già conosciamo e già sappiamo non lo comprereste mai io non lo comprerei mai ma penso neanche voi proprio per il fattore che io devo andare a parlare col farmacisto me lo devo far prescrivere dal medico ok poi magari lo posso anche comprare online ma visto così di primo acchitto non lo comprerei mai ok quindi stesso discorso cioè questo discorso lo applichiamo diciamo al nostro ragionamento perché perché se un prodotto è naturale se un prodotto magari io ho già tot di quei prodotti ok simili a quello o comunque nella stessa uguali ma magari di un colore diverso come potrebbe essere per esempio un reggiseno ok quindi una forma diversa o un colore diverso io ne ho già ne ho già altri quindi so come funziona eccetera 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 ok quindi punto 2 basse barriere emotive ragazzi cosa sono le barriere emotive sono semplicemente tutti quei dubbi quelle perplessità quegli aspetti non chiari ok che un lead un possibile un cliente quindi un possibile cliente potrebbe avere quando entra in contatto con il nostro store con la nostra creativa ancora prima ok quindi dobbiamo cercare di ridurre al minimo per questo dico naturalezza perché vedremo anche dopo i prodotti ragazzi che funzionano di più sono quelli i più banali che voi potete prendere in considerazione e sono sicuro che poi molti di voi magari diranno oddio ma questo è un prodotto che io non avrei mai pensato eccetera eccetera invece sono quelli proprio quei prodotti lì che in Italia si vendono molto molto bene nulla di rivoluzionario cosa si intende? allora ragazzi non è che stiamo facendo la start up innovativa che abbiamo i miliardi di finanziamento i milioni di finanziamento eccetera eccetera vogliamo semplicemente generare dei soldi online attraverso vendite ok quindi non dobbiamo pensare oddio ma voglio il prodotto rivoluzionario che non è ancora stato testato sul mercato eccetera anche perché rischiate di darvi proprio la zappa sui piedi ragazzi perché se un qualcosa non è stato già testato e voi siete i primi a doverlo comprare io capite bene che partite di svantaggio perché se cioè proprio partiamo già in contraddizione col primo punto che è la naturalezza perché se un prodotto è nuovo e rivoluzionario non è naturale comprarlo qualcosa di familiare anche qua ecco ragazzi ovviamente tutti i punti si intersicano tra loro io ho cercato di dividerli per darvi per cercare di avere un ordine mentale anche vostro però ovviamente uno viene incastrato nell'altro e viceversa ok quindi qualcosa di familiare anche qua come dicevo prima sulla naturalezza se io ho già un qualcosa in casa se io ho già un reggiseno se io ho già una scarpa se io ho già una t-shirt se io ho già una ciabatta mi è familiare magari ne ho già altre però quella particolare che ho visto mi piace e quindi me la compro anche qua poi andremo a vedere dopo più nel dettaglio il tipo di ragionamento che viene fatto e via dicendo l'ultimo punto sono le domande per acquisto ok non dico attenzione non è che dico il cliente non deve avere domande per acquisto eccetera eccetera no dipende che domande però ok se le domande per acquisto sono che taglia prendo che colore prendo allora ok perché perché per la taglia facciamo una guida alle taglie molto ben dettagliate fatta molto bene vedremo anche magari con con Giorgio dopo nel caso appunto andassimo a scegliere un prodotto che abbia le taglie ok quindi faremo una guida alle taglie molto ben dettagliate daremo un'assistenza per questo quindi la loro domanda viene immediatamente risolta dalla comunicazione e dall'assistenza mentre per quanto riguarda il colore ragazzi questo è un aspetto che gioca molto a nostro favore perché perché noi possiamo andare a offrire dei bundle ok quindi prendi tutti i colori e ti scontiamo che agli occhi e scontiamo il prezzo ovviamente e agli occhi del cliente ragazzi questo fa aumentare molto il valore percepito perché questo perché se io prima un singolo prodotto lo pago fatemi dire 30 euro ok e se invece ne compro due quindi mi piace il prodotto però non so che colore prenderlo facciamo che ne prendo due così prendo entrambi i colori mi viene scontato ulteriormente il prezzo e questa è una cosa che io apprezzo come cliente perché perché il mio valore percepito di 30 euro per due prodotti sarebbe 60 euro e se io lo offro a 50 nella mia testa sto risparmiando nella testa del lead sto risparmiando 10 euro quindi mi conviene oppure a 30 euro il pezzo singolo più 5 euro di spedizione perfetto prendi due pezzi la spedizione te la regaliamo noi prendi tre pezzi la spedizione oltre che regalati la spedizione ti facciamo anche un 5% questo è un aspetto ragazzi win win perché perché il cliente è felice che sta risparmiando nella sua testa e noi in drop ricordiamo sempre qual è il costo che incide di più è proprio il costo della spedizione oltre che vabbè il prodotto però ragazzi spesso molto spesso paghiamo di più la spedizione che il prodotto ok in drop shipping quindi io vado a risparmiare tanto sulla spedizione perché invece di pagarne una di pagarne due ne pago solamente una ovviamente anche dipende dal prodotto ragazzi però nella maggior parte dei casi è così quindi invece di pagare due spedizioni ne pago solamente una posso mettere all'interno due prodotti io a margine di più faccio più soldi faccio più netto incasso più netto e il cliente è felice quindi una situazione win win una situazione ottimale da dove partire? allora ragazzi da dove vogliamo partire se non dall'Italia? ok penso che la maggior parte delle persone che guarderà questo video è italiana o comunque nata cresciuta in Italia e quindi ci vive ok pensiamo come un italiano noi sappiamo anche qual è il budget di un italiano medio ok e soprattutto ne conosciamo la mentalità quindi riusciamo a ragionarci sopra ok dopo andremo a vedere anche più nel dettaglio tutti gli aspetti del ragionamento come farlo i punti da rispettare e via dicendo però cerchiamo sempre di partire dall'Italia questo perché uno siamo avvantaggiati ok perché possiamo poi dopo andremo a vedere bene in che modo in che modalità eccetera eccetera perché possiamo tra virgolette copiare i trend americani e importarli in Italia ok in che misura però nella misura in cui noi facciamo sempre un ragionamento su bene un italiano medio lo comprerebbe dopo andremo a vedere anche che punti rispettare come andarlo a fare nel pratico insomma questo è solo diciamo un assaggio ok quindi partire dall'Italia sì l'Italia è un ottimo mercato è molto scalabile e si è evoluto molto post covid durante il covid eccetera eccetera quindi è un buon mercato ok soprattutto per il fatto che noi sappiamo come ragiona il possibile cliente e quindi sappiamo come poterlo andare a manipolare quindi vediamo a chi ci riferiamo ok quando vendiamo in drop a qual è il nostro cliente tipo ok in linea generale per qualsiasi prodotto noi andiamo a vendere ripeto in drop che sia vendibile che sia scalabile il cliente tipo ovviamente ragazzi l'italiano medio ok l'italiano medio deve sapere fin da subito che cos'è il prodotto ok come vi dicevo prima naturalezza come funziona e deve essere un prodotto che possibilmente viene acquistato spesso anche lì vi facevo l'esempio prima con reggiseno quanti reggiseni una ragazza ha nell'armadio non penso che non ne abbia nessuno che ne abbia solo uno che ne abbia due ne ha un tot però in quel caso che formula vale vale appunto la formula visto piaciuto andremo a vedere anche dopo ovvero io facciamo un esempio proprio su di me se io ho una decina 15 20 30 40 70 t-shirt ok magliette e vedo che ne esce una nuova di un brand magari carino che mi piace eccetera eccetera me la compro anche se non ne ho bisogno perché ne ho già un tot però me la compro perché mi piace ok quindi ci riferiamo proprio all'italiano medio dobbiamo basare appunto tutti i nostri ragionamenti sul fattore lo comprerebbe sì o no bene a quanto lo posso mettere che budget ha un italiano medio e dobbiamo iniziare a fare tutti questi ragionamenti che ci risultano anche facili ragazzi cioè non dovete perderci troppo la testa è molto semplice basta immedesimarsi ok e il fattore che noi viviamo e siamo cresciuti comunque quotidianamente siamo in Italia questo ci aiuta veramente tanto ok per questo anche dicevo di partire dall'Italia cosa vendere allora ci sono possiamo dire due macro creativogorie una è il classico ormai visto e rivisto da anni ormai il problem solver dopo andremo a vedere un attimino che cosa si intende quali sono quali non sono quali vanno quali non vanno perché detto così non vuol dire nulla e i prodotti brodo non ish quindi senza nicchia ok in pratica partiamo dal problem solver problem solver è il prodotto che risolve il problema giusto bene provate a dirmi ovviamente in linea ipotetica quale prodotto non risolve un problema ragazzi anche per dirvi l'ultimo orologio che ha comprato Luca o qualsiasi altro orologio che ha comprato Luca da centinaia di migliaia di euro risolve un problema che è quello di segnare l'ora ok però capiamo bene che quindi detto così il problem solver è un prodotto che risolve un problema non vuol dire nulla ok anche il patec da 300 mila euro 300 250 mila euro risolve il problema di farmi vedere l'ora però lo risolve anche un caso da 10 euro ok quindi non basta non basta dobbiamo andare più in profondità con il ragionamento e con appunto gli aspetti che dobbiamo andare che ci interessano per poterlo vendere bene online appunto ragioniamo non dobbiamo risolvere un problema e basta ok va bene risolve un problema tutti i prodotti risolvono un problema dobbiamo farlo ok ma ad un prezzo e ad un investimento di tempo minore della soluzione tradizionale qua diciamo vi sto iniziando a dare un assaggio ok del tutto andiamo a vedere proprio un caso studio famoso ok che è proprio iSmile penso che chiunque si sia mai interessato a vendita online o diciamo fare soldi online eccetera eccetera abbia visto il caso studio di iSmile ok brand che è diventato comunque milionario con i classici kit sbiancanti ok se non lo conoscete ragazzi andate su Instagram cercate iSmile il primo che vi uscirà addirittura con spunta blu quindi figuratevi è proprio lui ok era anche quello che aveva preso il grosso influencer mi ricordo McGregor al tempo quando era proprio in ultra hype risolve un problema certo il problema dei denti gialli però se noi ci pensiamo bene questo è un problema che aveva già la soluzione ci sono addirittura centri dentistici proprio che sono stati creati sviluppati proprio solo per questo tipo di problema ok appunto il problema dei denti gialli bene cosa dava in più iSmile rispetto che il classico dentista il classico studio eccetera eccetera proprio quello che dicevo prima permette di risparmiare tempo in prima battuta ok perché perché se io devo prendere andare dal dentista prenotare e lo chiamo e prenoto e vado lì e magari devo fare due tre sedute e magari becco traffico quella volta eccetera eccetera diventa una rottura di scatole non da poco un dispendio di tempo non da poco altro aspetto da non sottovalutare anzi perché dicevamo prima appunto il budget di italiano medio eccetera eccetera è l'aspetto economico l'aspetto la leva economica ragazzi è una leva fortissima di vendita ok dopo andremo a vedere anche come come andare a vendere come si vende eccetera eccetera quindi se io posso offrire la soluzione al tuo problema a un prezzo nettamente inferiore a un con un investimento di tempo nettamente inferiore e con un risultato che arriva prima inevitabilmente perché non devo andare ogni volta a fare il a fare dal dentista a farmi lo sbiancamento ma me lo faccio ogni giorno ogni singolo giorno da casa ok quindi capiamo bene che la leva le leve di vendita che il prodotto problem solver più che altro non deve risolvere un problema deve risolvere sì il problema ma risolverlo in maniera più rapida in maniera più economica e in maniera che ci faccia risparmiare del tempo ok ci sono altri mille esempi ragazzi io adesso ho preso quello che è più diciamo più noto ok però se voi provate a cercare qualsiasi prodotto che è andato come anche per esempio il correttore posturale che mi è venuto così in mente che è un prodotto che ha fatto migliaia e migliaia di vendite centinaia di migliaia di vendite in passato rispetta questi criteri ragazzi ok rispetta questo ragionamento che avevamo appena fatto che è il fattore proprio di dover risolvere un problema con meno tempo e con meno investimento di soldi e con risultato più rapido garantito più rapido ok proprio perché io lo indosso tutti i giorni il correttore posturale io il kit di Aismile me lo faccio tutti i giorni quindi mi arriva il risultato prima quindi riassumiamo il prodotto Broad deve essere più economico più comodo e più rapido nello far ottenere il risultato ok punto nient'altro non deve risolvere il problema eccetera anche perché ragazzi cioè sono proprio queste le leve più potenti da utilizzare proprio il fattore economico comodo e rapido punto l'italiano medio ma qualsiasi cliente in generale qui non prendiamo solo l'esempio dell'Italia vuole questo economico comodo e rapido stop attenzione ricordiamoci che siamo in Italia non dobbiamo inventarci i problemi dobbiamo semplicemente colmare il gap con quelli esistenti quindi con problemi che già esistono e con problemi che hanno già soluzioni alle quali noi possiamo andarci a offrire la nostra più economica eccetera eccetera come abbiamo detto prima ecco prima dicevo prendiamo i trend dall'America eccetera eccetera bene teniamo presente però che in America sono molto più consumisti di noi quindi comprano molto più di noi hanno carte di credito molto spesso non di debito come noi quindi gli arriva il conto a fine mese guadagnano di più in media eccetera 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 quindi il problema non ce lo dobbiamo inventare deve essere un problema reale tangibile i denti gialli sono un problema reale il correttore posturale che mi fa per chi è dolore alla schiena è un problema reale che anche se andiamo a cercare su google trend tipo dolori nella schiena problemi nella schiena vediamo che c'è riscontro se andiamo a cercare su google trend non lo so come stamparsi le etichette non troviamo niente quindi da questo cosa potete capire che l'etichettatrice è quella automatico che ti stampa le etichette e ragazzi non si vende in Italia ok si può vendere si vende bene in America ma non si vende in Italia non si venderà mai in Italia quindi mi raccomando ragionamento 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 come andare a vendere i prodotti quali sono le leve di vendita come strutturare la comunicazione all'interno dello store delle ads eccetera 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 metodo tradizionale o problem solver non compro cosa significa mettiamo davanti il lead il cliente ecco il possibile cliente non alla domanda compro o non compro ma alla domanda compro questo prodotto che mi risolve il problema eccetera eccetera tutto ciò che ci siamo detti prima oppure compro magari un pacchetto da un dentista o da una clinica specializzata eccetera eccetera ok quindi non compro o non compro ma cosa compro ok quindi capite bene che proprio cambia cambia proprio come noi ci poniamo nei confronti del cliente ok e che quindi lo portiamo inevitabilmente a scegliere la soluzione che più gli conviene ok perché l'italiano medio ragiona così ciò che conviene di più e per il brod come abbiamo visto prima quindi per il prodotto brod senza nicchia cosa vale vale la formula appunto visto piaciuto più la manipolazione facciamo un esempio pratico anche qui prima vi accennavo il reggiseno bene il reggiseno è un prodotto che noi abbiamo venduto veramente veramente tanto un paio di anni fa siamo riusciti a scalarlo veramente tanto perché perché è vero che vale la formula visto piaciuto però se noi ci attacchiamo dell'ulteriore manipolazione allora lì abbiamo fatto centro perché se io ti offro un reggiseno a un prezzo buono di mercato un prezzo buono che è carino tu sei già incubata nel senso che sai già cosa è il reggiseno sai come funziona bene questo qui ti piace perché è carino esteticamente e in più noi cosa avevamo fatto dato che il reggiseno che vendavamo era uno di quelli diciamo senza gancetti da palestra eccetera eccetera ci abbiamo agganciato la manipolazione quindi siamo andati a fare delle ricerche per capire se effettivamente c'erano dei problemi legati a il il segno rosso dei ferretti il il fattore della circolazione eccetera eccetera e tu e questo ce l'ha confermato una ricerca banalissima in internet e da lì abbiamo attaccato la manipolazione oltre al fatto che è anche un ottimo diciamo hook un ottimo aspetto per attirare l'attenzione perché se voi vedete una creative con la faccia magari i segni rossi di un reggiseno con scritto sopra anche tu arrivi a fine giornata che i segni rossi del reggiseno troppo stretto la persona si fermerà a guardare e noi l'abbiamo inizia il processo di incubazione del lead quindi noi l'abbiamo attirato abbiamo attirato la sua attenzione il lead inizierà a leggersi la creative il copy e poi andrà sul sito quindi l'abbiamo preso con un amo ok se così vogliamo dire quindi con l'amo del fattore e gli abbiamo dato soprattutto un aspetto reale perché gli abbiamo detto anche tu arrivi a fine giornata nel 90% dei casi tutte le donne arrivano a fine giornata che hanno i segni rossi del reggiseno ok quindi il cliente cosa si sente si sente proprio preso in causa quindi questo è un aspetto molto importante uno stesso un medesimo ragionamento se non vogliamo farlo sul sul reggiseno possiamo farlo per le fontanelle per i gatti ragazzi che sono state vendute e rivendute online in drop eccetera eccetera anche lì su cosa si basa la comunicazione su cosa si basa la manipolazione in questo caso sapevi che i gatti preferiscono bere acqua corrente sai cosa può portare al gatto essere disidratato eccetera 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 ok quindi penso che questo aspetto sia abbastanza chiaro il prodotto prod va benissimo vale la formula visto piaciuto se ci affianchiamo anche della manipolazione si può fare anche per dirvi a delle scarpe ok delle scarpe normalissime ti aiutano a migliorare la postura devono essere belle perché vale la formula visto piaciuto in più ci mettiamo un pizzico di manipolazione che non fa mai male questo è una slide che ho voluto inserire perché molti studenti nelle consulenze nelle mentorship eccetera eccetera ci pongono proprio questa domanda ma perché uno dovrebbe comprare dal mio store se c'è amazon eccetera 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 bene togliamoci dalla testa ragazzi che amazon sia un competitor diretto di store in droppo ok proprio leviamocelo dalla testa non è così non è così assolutamente ok partiamo da un mio esempio personale e poi andiamo a sviscerare un po' la cosa allora allora io l'ultimo prodotto che ho comprato su amazon è il caricatore di questo pc con il quale sto registrando la lezione con il quale lavoro eccetera eccetera perché ho comprato il caricatore su amazon perché mi è scivolato il pc è atterrato proprio sul caricatore che era inserito in quel momento e si è storto appunto il lightning proprio il cavetto che si va a infilare dentro ok quindi prima cosa che ho fatto ho un'esigenza perché mi serve il computer per lavorare quindi devo averlo carico eccetera eccetera ho un'esigenza vado a colmarla andando su amazon quindi sono io che prendo e vado su amazon ok cosa accade in drop l'esatto opposto ragazzi siamo noi che con le nostre credit con le nostre ads andiamo dal cliente a dirgli anche tu arrivi a fine giornata con i segni rossi del reggiseno perché molto probabilmente una donna che arriva a fine giornata con i segni rossi del reggiseno ormai ci ha fatto l'abitudine quindi non va a cercarsi su amazon o magari non fa neanche questo ragionamento forse mi serve un reggiseno senza ferretti così elastico non mi lascia i segni rossi e magari mi aiuta anche con la circolazione ok magari una non fa questo ragionamento mentre io ho fatto questo ragionamento perché dicevo cavolo senza pc non lavoro ok capite bene qual è la grossa differenza tra amazon e il drop e questo è anche il motivo perché io non andrò mai a comprare un caricatore una chiavetta un adattatore una cosa in drop perché è una cosa che mi serve una volta mi serve in quel momento per colmare una mia esigenza ok oltre al fatto che con amazon poi mi arriva il giorno dopo molto probabilmente con il drop ma neanche se abbiamo un magazzino nostro riusciamo ad avere queste tempistiche ok quindi questo ragazzi è un aspetto molto importante che dovete tenere da conto proseguiamo appunto non è il nostro competitor ok la gente acquista su amazon prodotti per i quali sa già di aver bisogno ok è una ricerca consapevole è un po' anche il risorso che si vede su google ads perché google ads non è magari ha i buoni ROAS eccetera eccetera ma non è così scalabile perché si basa non è scalabile diciamo a livelli per dirvi come facebook ok perché si basa su una ricerca consapevole ok la gente acquista su amazon proprio perché sa già di avere bisogno in drop siamo noi invece che andiamo dal cliente noi facciamo notare l'esigenza al cliente oppure lo colpiamo con la bellezza tra virgolette del nostro prodotto come vi dicevo prima vale la formula gli sto piaciuto non c'è una vera e propria esigenza di comprare un reggiseno ok a meno che non ci agganciamo anche della manipolazione anche ragazzi non solo manipolazione ok anche della manipolazione il prodotto deve essere bello di base più manipolazione tips se proprio devo consigliarvi una categoria detto che ne abbiamo viste due quelli broad sicuramente ragazzi sono i migliori perché perché uno un reggiseno io lo posso vendere a qualsiasi donna invece il kit di aismile prendiamo sempre quell'esempio o la fontanella per il gatto lo posso vendere solo a chi ha un gatto lasciate stare che in italia un sacco di persone hanno un gatto però perché togliersi tutte quelle altre persone tutte quelle altre donne che possono comprare un reggiseno e che magari non hanno un gatto ok capite cosa intendo torniamo un attimino indietro è molto importante capire questo aspetto qua perché perché i prodotti broad hanno dalla loro anche la scalabilità di mercato ragazzi come vi dicevo prima quante donne ci sono in italia che hanno già un reggiseno tantissime quante donne ci sono invece che hanno un gatto e che sono disposte magari a spendere soldi per quel gatto di meno sicuramente ok una spende molto più volentieri magari 30 euro per un reggiseno o per un set da tot reggiseni ok invece che magari spenderne 70 per far bere il gatto ok quindi lasciate stare anche qui che gli italiani in generale spendono molto per i propri animali domestici però non sono neanche così stupidi quindi se proprio voglio darvi una tips i prodotti broad sono i prodotti migliori soprattutto in questo momento post covid eccetera eccetera la gente si è molto più abituata a comprare online checklist sicuramente magari se vi siete scottati con altri percorsi o con altri corsi o magari avete acquistato vecchi in passato corsi andava veramente tanto la cosa della checklist ragazzi seguite la checklist troverete sicuramente il prodotto vincente eccetera eccetera io vi dico ragazzi che la checklist è completamente obsoleta bisogna usare la testa perché magari ci sono prodotti che il vostro guru di riferimento ha messo in checklist e magari ci sono aspetti su prodotti che poi noi abbiamo scalato a centinaia centinaia di migliaia di euro che cozzano appunto con questa famosa checklist quindi io vi sconsiglio assolutamente di basarvi solo su quei criteri perché non sono abbastanza perché non cioè dobbiamo usare la testa ragazzi siamo degli imprenditori parliamoci chiaro se ci fosse la checklist che tu li segui tutti tutti troverebbero prodotti vincenti il mercato il mercato sarebbe saturo e allora a quel punto sì che tutti andrebbero su amazon ok dato che non è così perché viviamo in un mercato competitivo nel mercato libero c'è competizione la differenza ragazzi la fa la testa non sicuramente questa famosa checklist eccetera eccetera cosa dobbiamo tenere a mente quando andiamo a fare la nostra ricerca prodotto ok ho fatto un po' un sunto oltre ovviamente al fattore a tutti tutti gli aspetti che abbiamo visto prima nel dettaglio primo scalabilità più un prodotto potrebbe essere comprato da chiunque meglio è perché abbiamo semplicemente una questione matematica più possibili clienti un altro aspetto è la reperibilità cosa intendo con reperibilità è facilmente acquistabile in un negozio fisico tradizionale eccetera eccetera se la risposta è sì allora iniziate a farvi qualche domanda ripeto il reggiseno voi mi direte è facilmente acquistabile in qualsiasi negozio sì è vero ma non quel tipo di reggiseno non quel tipo fatto con fatto così non quel tipo senza quella chiusura non quel tipo che magari può essere sia elegante sia comodo allo stesso tempo ok quindi prestate attenzione anche a questo aspetto della reperibilità anche se ovviamente come vi dicevo prima ormai la gente è molto più abituata ad acquistare online terzo punto facciamo un check su google trend ok cosa significa poi lo andremo a vedere dopo nel pratico quindi non vi preoccupate andremo a vedere se le keyword collegate a quel prodotto sono in uptrend o in downtrend ok se ovviamente ok adesso vi faccio un esempio un po' del cavolo però per rendere l'idea se io d'inverno vado a cercare quindi dicembre magari vado a cercare materassino gonfiabile oppure ciambella di quelle ciambella gonfiabile di quelle lì che si usano al mare eh non è che avrò così tante ricerche se la vado a cercare invece a giugno o ad agosto cioè capite bene che le ricerche saranno molto molto più molto 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 di più proprio a livello di numeri ok altro step anche questo lo andremo a vedere dopo nel dettaglio quindi non vi preoccupate andare a controllare gli ordini su Aliexpress ok se un prodotto è stato tanto ordinato quindi se ha fatto più di 500 1000 2000 vendite vuol dire che c'è mercato ok altro aspetto che andiamo a vedere sono le recensioni ok questo quasi tutti quasi tutti i prodotti che sono stati tanti venduti hanno quasi tutti recensioni positive ok quindi cerchiamo di prendere quelle dalle 4 stelle e mezza in su andiamo anche a leggercele proprio le recensioni altro punto check su facebook controlliamo proprio andiamo a ricercare anche questo andremo a vedere dopo quindi non vi preoccupate andiamo a ricercare su facebook proprio le parole chiave vedere se ci sono competitor se trovate un prodotto interessante e cercate in inglese magari anzi mi consiglio in inglese così vedete subito cioè avete più più opzioni perché se cerchiamo solo in italiano in italiano soprattutto si parla solo in italia quindi non è che siamo molto avvantaggiati se vediamo che non c'è nessuno che vende eh ragazzi magari voi dite ah cavolo vuol dire che c'è mercato e quindi posso spingere mi vuol dire che magari non c'è mercato se nessuno lo sta spingendo già ricordiamoci sempre il punto che abbiamo visto prima all'inizio nulla di rivoluzionario non è che stiamo vendendo la cura al cancro se stessimo vendendo quello cioè non saremo sicuramente i primi ok quindi se non c'è nessuno che lo sta vendendo io qualche dubbio me lo farei sorgere ok ultima domanda è un italiano medio lo comprerebbe come all'inizio cosa facevamo noi tanto che ci aiutava veramente veramente molto era proprio chiedere magari ai genitori tu lo compreresti magari ai ai nonni già più o meno no però ai genitori io chiedevo tanto a mia madre mio padre voi lo comprereste a mio zio ok che più o meno all'età dei miei genitori ai miei zii in generale cioè chiedevo più o meno all'età di un target dai 35 in su se l'avrebbe comprato online non da uno store in drop non è che gli chiedi scusa tu lo compreresti no lo compreresti online e così riusciamo un attimino capito a dare una un boost un boost al ragionamento a capire effettivamente se c'è richiesta o meno andiamo a vedere i metodi di ricerca facciamo solo una preview al volo prima di andare poi entrare proprio nel vivo che lo faremo lo faremo in live i canali sono youtube e facebook di base facebook si intende anche ovviamente instagram però youtube e facebook youtube abbiamo due opzioni ci sono quella serie di video che penso di molti di voi conosciate che sono i sell this now ok c'è proprio un canale dedicato a questo ok e che fa vedere tutti i prodotti in trend e via dicendo ok questo è un metodo che ti fa vedere veramente tanti prodotti però su magari un video che ti fanno vedere dieci prodotti magari ne trovate uno o nessuno che potrebbe essere scalabile ma non perché lo dico io perché avete applicato il ragionamento che abbiamo visto fino adesso ok un altro metodo è cercare i prodotti cercare con le keyword must have under under x dollari tot dollari ok must have potete cercarli anche in nicchia must have dog under tot dollari ok oppure must have dog direttamente li vedrete tanti video dopo li andremo a vedere anche insieme di persone di influencer eccetera che spingono i video e che li vendono su amazon con affiliazione ok anche qua non spaventatevi se li vendono su amazon ragazzi amazon non è ripeto non non è un competitor diretto quindi non succede nulla se il prodotto c'è anche su amazon ok quindi andate tranquilli su facebook anche qua possiamo andare a cercare frasi da dropshipper direttamente nella barra di ricerca filtriamo per video magari in inglese anzi senza magari anche sempre in inglese così almeno abbiamo la competizione dall'america e qua la checklist serve solo per capire se un prodotto e la checklist ovviamente tra virgolette si intende ragionamento serve per capire più che altro se il prodotto è importabile in italia o meno ok non a livello di logistica ma a livello appunto di ragionamento e via dicendo ok quindi cerchiamo frasi dopo lo andremo a fare insieme quindi non vi preoccupate cerchiamo frasi da dropshipper e sappiamo effettivamente che sono dei prodotti che stanno già vendendo ok quindi non stiamo ipotizzando noi sono prodotti che già vendono c'è solo da capire se possiamo portarli in italia o meno anche qua my ad finder per vedere prodotti che già vendono in maniera un po' più implicita in maniera un po' più dettagliata perché riusciamo a vedere tutta una serie di cose come l'ad library da quanto tempo inserzionano tutte le inserzioni attive prendiamo spunto per le creatività per i copi eccetera eccetera lo vediamo anche questo successivamente quindi questo è quanto e adesso ci vediamo direttamente all'atto pratico ok perfetto ragazzi allora passiamo all'atto pratico abbiamo visto diciamo l'aspetto teorico ora proviamo ad andare a fare una ricerca prodotto insieme partiamo dal primo metodo con youtube andiamo con i must have va bene io adesso ho messo must have dogs potrei mettere must have pets 2021 anche o anche senza mettere niente e poi andiamo di filtri possiamo mettere come filtro per esempio questo mese potrebbe essere interessante allora vediamo già che lui cosa ci consiglia direttamente da tiktok compilation buono vuol dire che già qualcuno sta spingendo o comunque c'è interesse su questo prodotto dalla piattaforma tiktok anche questa è ottima per trovare nuovi prodotti ora però andiamo a vedere un'altra cosa 11 visual siamo veramente bassi qua dovete fare un po' di scrematura ragazzi perché trovate un po' la qualunque per esempio must have pets under mettiamo 50 dollars 50 dollars top 10 pets no qui ci ha preso gli animali togliamo il 50 dollars vediamo un attimo questo di solito anche funziona molto bene con per esempio i prodotti beauty vediamo ecco per esempio il primo amazon finds un buon canale anche tiktok trends non è male possiamo andarcelo a vedere ok ce ne sono un po' di tutti anche il canale must have non è male insomma dobbiamo fare un po' di scrematura ok ragazzi quindi partiamo col primo e andiamo a scorrere il video direttamente in questo modo questo è un prodotto per esempio proprio questo prodotto è un prodotto che abbiamo già venduto funziona si tratta semplicemente di una come vedete una specie di accessorio per il vostro cane nel quale voi andate inserire il cibo le crocchette e via dicendo e lui così non andrà a mangiare troppo in fretta ok e quindi questo è un problema che c'è in molti cani che mangiano molto in fretta e che quindi poi hanno problemi di stomaco eccetera eccetera quindi manipolazione ottima si può fare veramente una ottima ottima manipolazione appunto sul fattore non fare abbuffare il tuo cane perché può portare a questo 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 altro problema un po' come l'esempio che abbiamo visto prima per la fontanella dei gatti e quindi qua vediamo che questo è un prodotto sarebbe sicuramente interessante da testare vedete ho appena iniziato il video e ho già trovato un prodotto effettivamente buono interessante me lo vado ad archiviare me lo vado a mettere magari da parte me lo segno sulle note via dicendo e poi vado ad applicare il ragionamento vado a vedere se c'è un competitor vedete che è già qui nella finestra su facebook aperta insomma vado a fare tutte le mie dovute osservazioni i miei dovuti ragionamenti eccetera eccetera vediamo questo altro prodotto nel mentre allora prima abbiamo visto ci siamo persi un attimo pedicure questo eviterai barriera emotiva troppo alta cioè perché mettere un prodotto proprio diciamo sul cane uno non si fida molto soprattutto in italiano medio non si fiderebbe molto comunque fa attenzione a cosa mette cioè a mette addosso proprio al cane questo è una specie di prodotto per le unghie per fare della pedicure e non è il massimo ricordiamoci naturalezza ok non è naturale comprare una cosa del genere è sicuramente più naturale comprare una cosa del genere ok capiamo subito cosa serve e come funziona mentre qua con quest'altro prodotto dove cavolo era qua si magari capiamo anche subito che cos'è però poi pensiamo non so devo metterlo sul cane ma poi se si lecca le unghie se si lecca le zampe magari è tossico eccetera insomma barriera emotiva questo ragazzi anche non è male non è male qua ci possiamo attaccare magari a una manipolazione del tipo sai che dal era uscita una legge sono abbastanza certo di questa cosa poi non vorrei dire cavolate però mi sono abbastanza certo di questa cosa che era uscita una legge che i cani sopra una certa taglia devono stare dietro e legati comunque nel baule e legati ok quindi questo anche sarebbe buono per la manipolazione abbiamo visto anche qua una normalissima pettorina anche questo non è male però molto competitivo la spazzola non è male non è affatto male questo è un prodotto anche qua mi sembra un prodotto che bisogna comunque mettere addosso non è il massimo anche qua evitiamo questa spazzola non è male ecco anche questo non è male come guanto e si capisce subito che cos'è come funziona ha un fattore diciamo visto piaciuto eccetera eccetera anche la cettolina questa ragazzi è andata veramente tanto però eviterei ora anche questa spazzola furba perché poi ti basta semplicemente cliccare il tasto e lei va a togliere il cioè si va a spostare appunto l'asse e quindi rimuovete i peli facilmente quindi non male non male insomma ragazzi vedete questo è il metodo così ragazzi ne trovate veramente 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 tanti di prodotti passiamo magari al secondo metodo ovvero di quello di sell this now vedete che come vi dicevo ragazzi c'è proprio il canale dedicato ora cosa possiamo fare per dare un cioè per dare una ventata di freschezza volendo non è obbligatorio possiamo mettere anche filtrare magari per quella settimana il mese eccetera eccetera quest'anno dato che siamo all'inizio 2022 possiamo fare anche in questo modo però non è sempre necessario ci sono prodotti che sistematicamente da un anno all'altro andranno sempre prendiamo direttamente il primo vediamo questi addirittura ragazzi sono divisi per categoria quindi molto comodissimo ok qua vi riuscite a scorbere veramente veramente tanti ok questo è come dicevo prima il secondo metodo questo a differenza dell'altro metodo un po' più per fare zapping per esempio questa giacca non la venderei in drop io troppe barriere emotive soprattutto per il fatto che è da moto con le protezioni non si sa se è omologata eccetera eccetera questo anello non è male è vero che molti dicono è ma gli anelli è ma le collane eccetera eccetera però sono prodotti buoni perché rispettano diciamo tutti gli aspetti di naturalezza vaste barriere emotive eccetera eccetera a discapito ci sarebbero le taglie per un eventuale stock però cosa che non avete per esempio su una collana o magari alcuni tipi di bracciale che non sono richieste delle taglie o magari ne sono richieste di poche ok poche taglie questo non è male è un'idea carina è una cosa che potrebbe comprare chiunque quindi la scalabilità di mercato è enorme e eventualmente è anche facilmente stoccabile nel caso voressimo poi il test in grana vogliamo passare con magazzino code e via dicendo ok quindi quello non è male corsetto anche qua un po' inflazionato non saturo ragazzi cioè non intendo saturo però inflazionato nel senso che c'è tanta competizione sbucare voi con un prodotto nuovo quando c'è tanta competizione non è mai top quindi comunque verificate sempre poi anche su facebook se lo stanno già vendendo meno verificate su google trend anche su google trend non penso di farvelo vedere ma è molto molto semplice magari vediamo se dopo riusciamo anche ad andarlo a vedere ciabatte così eviterei sono un po' troppo bruttine magari se su questo stile ci sta nel senso il fattore che massaggiano il piede eccetera eccetera non è male però sono un po' troppo bruttine vediamo questa canotta per contenere la pancia non è malaccio però c'è di meglio questo led con sensore oddio io lo eviterei questo prodotti nicchia tech non sono il massimo da vendere in drop troppe barriere emotive eccetera eccetera questi set di kit io ragazzi si disconsiglio perché tanto pochi italiani si fanno i lavori in casa proporzione in media questo è un prodotto che magari senza magari in america sicuramente spinge quindi evitiamolo questo anche nicchia tech un po' così evitiamo questo magari si potrebbe spingere bene in organico su tiktok ecco ragazzi un'altra cosa prodotti di cosmetica eccetera eccetera che si mettono sulla pelle se non siamo in private eviterei perché non sappiamo se sono certificati se hanno certificazione ancora uno se lo mette addosso e c'è succede un casino quindi abbiamo visto che su questo video abbiamo effettivamente possiamo prendere in considerazione magari un anello su questi genere capito ragazzi non è che per forza deve essere questo qua identico uguale preciso scutato potete prendere spunto o volendo magari trovare delle piattaforme per fare del print on demand eccetera eccetera poi magari faremo uscire un caso studio più avanti sul print on demand che anche lì è molto interessante l'agenda l'abbiamo scartata questa è un ad questo l'abbiamo scartato questo l'abbiamo scartato o meglio in questa forma l'abbiamo scartata se si trovasse qualcosa di un po' più fatto meglio più carino più bello visivamente bello perché comunque questo vero prodotto broad però ci possiamo attaccare anche la manipolazione ragazzi quando troviamo un prodotto broad che alla quale possiamo applicare anche la manipolazione abbiamo fatto bingo quindi se lo trovassimo un po' più carino infatti con la massaggiante però un po' più carina questo anche ragazzi io eviterai sinceramente per il fattore semplicemente che un italiano medio non si metterà mai questa roba sotto anche se non vuole far vedere la pancia l'italiano medio comunque fa attenzione anche alla moda ragazzi fa molta attenzione alla moda e molta di più rispetto che un americano medio e quindi non si lo metterebbe mai secondo me a meno che non gli fate una manipolazione si è sempre elegante anche con qualche chilo in più e queste cose qua però c'è sicuramente di meglio questo abbiamo detto di evitare micchia tecno nel massimo drop strumenti evitiamo questo evitiamo se non magari spinto con tiktok in organico e poi eventualmente qualche tiktok una volta che abbiamo una base organica questo evitiamo quindi vedete ragazzi che alla fine su un video quanti prodotti abbiamo trovato interessanti l'anello e basta e ci abbatte magari un'altra versione questo è un metodo che ti fa facciamo zapping si vediamo tanti prodotti però serve più che altro appunto come dicevo per fare zapping per vedere un attimino e farci un'idea generale se proprio non sappiamo cosa vendere questo è un metodo che io utilizzavo tanto all'inizio non lo utilizzavamo tanto all'inizio che però adesso è stato ormai sofferito dal ragionamento e dal fattore che vedendo così tante casistiche ogni giorno ormai so quali sono i prodotti che funzionano potenzialmente ovviamente e so quali no ovviamente ragazzi non è che ok questo è un prodotto interessante eccetera lo prendo e mi aspetto di fare subito il boom lo devo testare devo vedere l'angle di vendita e poi sarà il test il mercato che mi risponderà non abbiamo la sfera di cristallo è il mercato che ci deve sempre rispondere allora dicevo prima vediamo google trend al volo vediamo ciabatte massaggianti se ci esce qualcosa mettiamo Italia negli ultimi 12 mesi un po' di movimento c'è vediamo che in downtrend va verso agosto ok quindi magari si potrebbe testare nel periodo ovviamente estivo vedete che comunque nel periodo invernale uno non si vede troppo a cercare sarebbe interessante trovare una versione un po' più carina e provarla a spingere appunto in questo periodo ci sono ragazzi dei prodotti che sono stagionali ovviamente cioè ciabatte del genere è ovvio che siano stagionali va bene proviamo a vedere per esempio anello con scritta anello vediamo anello in generale ok vedete che anello già molto più stabile nel tempo ok è una cosa che è un sempreverde che ha il suo picco verso dicembre perché comunque si fanno i regali di natale eccetera eccetera questo in generale ragazzi boom nell'e-commerce e nel Q4 negli ultimi 4 mesi dell'anno soprattutto verso a ridosso del natale vediamo che è leggermente in downtrend ora però di sicuro non è questo che ci impedisce di poterlo testare ok quindi ragazzi Google Trend prendetelo molto come tool ma in generale anche la ricerca prodotto così in questa maniera è un tool cioè è uno strumento sempre usare sempre 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 usare la testa andiamo a vedere l'ultima cosa su Facebook mi ero già preparato le keywords ovviamente dobbiamo andare andiamo a mettere delle parole chiave come dicevo prima di dropship di parole che vengono usate tanto in dropship in tipo free shipping worldwide e andiamo a vedere un attimino cosa ci va cosa ci esce ok filtriamo per video e andiamo a vedere un po' allora questo è un milione e 4 di views cerchiamo di prendere magari video da 50 100 mila views in su in modo tale da capire che stanno già girando da un po' che non li hanno fatto da ieri e che quindi c'è del margine cioè la gente ci sta spingendo sta spendendo soldi per farla vedere quindi ha sicuramente un ritorno ok apriamo il video togliamo il volume diciamoci giusto un'idea perfetto una borsetta con anche portacarte quindi fa sia da portacarte che da portafoglio scusatemi che da borsettina ok interessante rotto broad ci si può fare anche un bel branding ed è anche ottimo per cosa per eventualmente andare a fare uno stock poi nel caso il test vada nel caso volessimo offrire anche il pagamento alla consegna magari brandizzato ce lo possiamo ci si può fare sicuramente un bel lavoro ora una cosa importante da andare a vedere sono ragazzi i commenti sotto le inserzioni ok vediamo un attimo about this little poor purse and I love to the store ok l'ho comprata a mi piace un sacco portarla in giro ok interessante vuol dire che qualcuno l'ha comprato qualcuno è interessato e facciamo sempre attenzione ragazzi che non siano profili fake che si fanno loro le recensioni perché ovviamente succede questo sembra un profilo real ok torniamo indietro e continuiamo e continuiamo a andarci a vedere i commenti ragazzi vediamo che c'è interesse ok ecco un piccolo appunto per i menospanettoni se vedete tanti commenti con scritto hm significa semplicemente how much ok quindi quanto costa quindi buono sono interessata quanto costa voglio acquistare ok sono quanto meno interessata nice nice ok questi video ragazzi sono ottimi commenti price how much buoni commenti ok sicuramente interessante c'è interesse da parte da parte del pubblico vedete un altro hm how much so friendly insomma preferisco mille volte vedere un'inserzione che ha mille commenti magari e che sono tutti how much mi piace portarla in giro i like the style and color forse eccetera eccetera o che mi chiedono il prezzo piuttosto che mille faccine mille cuori mille cavolate i cuori le faccine non portano interesse o comunque magari uno lo fa giusto così per diciamo dare il suo contributo tra virgolette ma non è effettivamente una cosa che ci va a interessare ok ragazzi cioè vuol dire che non c'è interesse da parte del pubblico mentre se vedo tutti i commenti così very nice beautiful ok how much price eccetera eccetera c'è sicuramente mercato c'è sicuramente interesse da parte degli utenti quindi vale la pena quantomeno testarla ok stessa cosa ragazzi questo metodo di ricerca posso vederlo magari per un prodotto che io ho trovato prima quindi tipo le ciabatte massaggianti metto qua metto message slippery o comunque qualcosa del genere slippery non slippery scusate slippers quindi ragazzi ok questo è un po' il discorso va bene facebook vi può essere se iniziate ad utilizzarlo non come social ma penso che ormai nessuno quasi più usi facebook o meno della dieta giovanile se iniziate ad usarlo così capite bene che l'utilizzo è molto potente perché riusciamo a vedere effettivamente prodotti che già stanno andando prodotti che funzionano e riusciamo ad avere un riscontro quindi se unite il metodo di ricerca diciamo uno barra due quindi se il disproduct now oppure must have amazon finds eccetera eccetera a facebook anche e avere un riscontro effettivo se il prodotto sta spingendo o meno può essere sicuramente d'aiuto google trend vi può dare una mano però diciamo è proprio un tool ragazzi google trend non basate tutto su google trend usatelo appunto come tool per giusto per avere la conferma ok adesso ultima cosa vediamo velocissima è questa estensione ad finder che sia my ad finder ad finder sono entrambe buone ok se noi andiamo a spuntare la casella ads only vediamo che ricaricarà la pagina e andrà a mostrarci solo ed unicamente inserzioni ok se ok facciamo un attimo caricare ok vedete sponsorizzato kajabi ok alcune volte ragazzi bug ok può capitare vi faccio vedere una cosa interessante appunto che è l'ad library che vi va a vedere vi fa vi mostra l'intera libreria inserzioni di chi sta sponsorizzando quindi riusciamo effettivamente a capire quali sono i prodotti che funzionano di più quali creatività stanno usando da quanto tempo inserzionano ok soprattutto capire da quanto tempo stanno inserzionando e indice del fatto che stanno guadagnando ok perché se io inserziono e spendo soldi per un tot su una pubblicità è perché ci sto guadagnando ok facebook fa un attimino il capricci vediamo per esempio questo ok questo è interessante sono dei libri finti ok tom for di or eccetera con nomi di brand famosi questo sembra quasi in drop shipping qui addirittura ah ecco a posto perfetto allora prendiamo questa ancora meglio qua addirittura vedete ancora girare una creative del black friday ok evidentemente chi la sta facendo ha paura spegnerla perché sta performando bene ok allora prima cosa commenti ok like e commenti ok andiamo a vedere subito like e commenti anche qua stesso metodo di prima stessa procedura di prima ok questo punto punto ok visualizziamo altri commenti ok super cool cool really cool rn looks good ok wow fuoco fuocerello nice black friday o liar ok qualcuno se n'è accorto infatti gli hanno risposto awesome lovely eccetera 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 ok ok perfetto this is sick quindi c'è interesse ok non magari non è ultra commentato come poteva essere sulla ricerca però vale la pena vedere una cosa che non potevamo vedere prima ovviamente nella ricerca allora prima cosa ragazzi se io clicco su perché visualizzo questa inserzione riusciamo a vedere alcuni target che hanno messo ora io questo profilo non l'ho ottimizzato diciamo per essere targetizzato ok voi semplicemente se col vostro profilo andate a fare zapping trovate un prodotto in drop cosa fate andate sullo store aggiungete il carrello così entrerete negli nell'interesse diciamo di facebook acquirenti coinvolti ok e vi farà inizierà a far vedere a stecca tutti questi tipi di inserzioni e vi dicendo ok vedi stanno stanno targetizzando sull'italia stanno targetizzando da 18 in su eccetera 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 se noi fossimo se io usassi questo profilo proprio per fare zapping di ricerca prodotti eccetera eccetera vedrei anche gli altri interessi ok quindi ottimizzate diciamo il profilo per la ricerca prodotto una cosa interessante che vi dicevo prima è proprio la library se noi clicchiamo quel tastino lui ci aprirà la library di inserzioni andremo a vedere tutte le inserzioni che sta facendo questo brand quindi vediamo che sta facendo tante inserzioni e vediamo soprattutto scorrendo in giù che sta sponsorizzando la parte altri prodotti che quindi ci può essere anche d'aiuto per altre cose però a noi ci interessa quel prodotto specifico e quindi ok no questo è una specie di general vendono un po' di tutto ok però noi ci andiamo andiamo a cercare quell'inserzione lì ok proprio quella che abbiamo visto scorrendo in giù in su adesso non stiamo a farlo perché sennò perdiamo un sacco di tempo già la lezione è lunghissima eccolo qua perfetto dal black friday vedete ancora la stanno ancora facendo girare ragazzi dal 25 novembre quale pazzo fa spende soldi da oggi fino ad oggi che stiamo registrando che siamo a fine febbraio inizi marzo da novembre se non gli sta portando vendite ok quindi il prodotto funziona ci va anche bene perché se andiamo sullo store vediamo che il prodotto è in dollari quindi molto probabilmente stanno spingendo sul mercato americano quindi sicuramente potrebbe essere interessante importare il prodotto in Italia ok è un prodotto carino un prodotto che effetto wow è sicuramente può essere interessante ok da testare effetto wow ragazzi ovviamente tra mille virgolette ok dobbiamo metterci magari noi ho visti anche di questi tipi che hanno oltre che l'effetto del fuoco magari l'aspetto del adesso questo non lo so se ce l'ha o meno del diffusore di essenza ok quindi a lì cosa ci attacchiamo va bene il prodotto la modalità vi sto piaciuto però possiamo attaccarci sai che vivere in un ambiente con sai che utilizzare alcuni oli particolari ah esatto infatti anche qua che non ha essenzial perfetto quindi così anche questo sai che alcuni oli essenziali possono migliorare tutta quella che è la tua respirazione eccetera 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 lì ragazzi fate una ricerca su i benefici degli oli essenziali e ne trovate veramente a profusione potete anche citare la fonte all'interno dello store ehm all'interno della creative ni perché non non è meglio non mettere troppa carne al fuoco subito alla creative però nello store sicuramente possiamo citare la nostra fonte ok ragazzi ehm direi che per questa parte di ricerca prodotto abbiamo concluso mi raccomando ragazzi non sottovalutate la ricerca prodotto ok è un aspetto fondamentale per avere successo in drop non mi stancherò mai di dirvelo e ci vediamo al prossimo modulo allora dopo tutta quanta la spiegazione di Gabriele sulla ricerca prodotto siamo pronti a partire con la creazione dello store ovviamente vi starete chiedendo ma quale prodotto abbiamo preso in causa adesso lo andiamo subito a scoprire dopo un'acuta riflessione e alcuni ragionamenti anche sul periodo in cui ci troviamo quindi se l'estate si avvicina non ci sono diciamo particolari feste in arrivo e soprattutto diciamo il ragionamento principale è stato anche basato sul il tipo di customer persona che vogliamo andare ad attuare e soprattutto il tipo di prodotto che vogliamo andare a strutturare in questo caso abbiamo deciso di strutturare un prodotto high ticket quindi un prodotto che si aggirerà dai 250 ai 350 euro adesso andremo a decidere anche assieme il prezzo e la customer persona che vogliamo andare a colpire in questo caso è il pubblico la nicchia femminile nicchia femminile più o meno dai 20 ai 35 40 anni ok questo prodotto l'abbiamo scelto anche per altre motivazioni perché è un prodotto che ha sia un effetto wow nel senso che non è da tutti i giorni vedere un frigo giusto prima di andare nell'atto pratico stiamo parlando di un frigo portatile ok un frigo portatile che può essere applicato a varie nicchie principalmente è la nicchia delle donne ok perché appunto dopo andremo a vedere anche ci andremo a informare live sulle problematiche che affliggono i trucchi esposti a calori a temperature alte questo frigo può essere applicato a tante altre nicchie a nicchie di viaggiatori in auto quindi possiamo prendere e mettercelo in auto attaccandolo alla presa alla presa di un caricatore possiamo portarcelo in ufficio può essere utilizzato per molte altre cose qui ci riconduciamo anche un po' al concetto che avevamo esposto prima sul sfruttare la realtà dei fatti ok vi ricordate che abbiamo fatto l'esempio del frigo quello con il cavo da caricatore e il cavo normale qui possiamo andare a vedere proprio nell'atto pratico anche questo fattore allora iniziamo subito col dire che la scelta del prodotto e intendo la scelta del prodotto in sé quindi del modello del frigo è molto importante perché ovviamente non ci dobbiamo dare subito la zappa sui piedi da sole andando a scegliere un modello che abbia poche foto e quindi che già in partenza ci limiti particolarmente piccola parentesi abbiamo scelto questo prodotto anche considerando il fatto che nel momento in cui in grana possiamo andare ad applicargli molti upsell ok si può veramente fare qualsiasi tipo di upsell ci sono tantissime società che ad oggi offrono creme e prodotti per diciamo l'estetica blueprint quindi semplicemente gli si chiede il tipo di prodotto che si vuole andare a vendere quindi magari una crema antirughe una crema per idratare eccetera eccetera e loro ti danno già le formule prefatte dove tu semplicemente devi andare a applicargli il branding con appunto il tuo logo e tutte le grafiche annesse quindi anche su quel versante magari andremo a farvi vedere alcune di queste soluzioni per tornare al discorso di prima ovviamente quando andiamo a scegliere il prodotto il modello del prodotto dobbiamo stare molto attenti perché un attimo scegliere il modello sbagliato e ritrovarci con un prodotto che non ha foto ok e quindi andare a strutturare lo store soprattutto in questa fase di test quindi ricordiamo non stiamo stoccando non stiamo facendo shooting non stiamo facendo nulla di nulla se non andare a reperire foto da internet modellandole e di conseguenza poi andando ad applicare sullo store quindi per tornare a noi possiamo notare già adesso vi faccio vedere qualche esempio che partiamo dal primo e le foto qui sono molto scadenti già qua si vede beh in realtà qua ancora ancora la cosa è passabile però andiamo a vedere un po' sotto sicuramente potrebbe esserci di meglio questa è una grafica palese non è stato neanche fatto uno shooting questo prodotto questo già potrebbe essere accettabile ma sono sicuro che potremmo trovare di meglio e vi dico sono sicuro perché ovviamente ho già fatto una ricerca parallela e ho già trovato quello che sarà il modello del nostro prodotto adesso vorrei farvi vedere un po' di esempi magari prendiamo questo delle grafiche anche qua non troppo accattivanti un po' scadenti ok dato che abbiamo la possibilità di scegliere tanti modelli e sfruttiamola questa cosa ok non limitiamoci a prendere il primo che passa senza pensare al fatto che poi ovviamente dovremo aumentare il valore percepito di questo prodotto ovviamente magari potremmo vedere anche questo ovviamente quel prodotto lì è troppo piccolo ed è principalmente strutturato sulla nicchia intendo appunto questo questo qua non va per niente bene non va in linea con quello che abbiamo deciso questo potrebbe essere anche carino però ha un design non troppo accattivante andiamo a vedere magari le foto sottostanti ok diciamo sono foto molto Aliexpress adesso vi mostro il prodotto che abbiamo scelto noi come vedete dopo un po' di ricerca e di conseguenza dopo un po' sono riuscito a risalire a uno dei modelli migliori reperibili su Aliexpress di frighi portatili come vedete abbiamo la fortuna quasi di avere un frigo già brandizzato Pink Top infatti più attenti potranno aver già notato che lo store l'abbiamo nominato Pink Top proprio perché abbiamo deciso di sfruttare direttamente il branding del prodotto stesso ok ovviamente questo è un frigo portatile di una dimensione un po' più ingombrante però sicuramente è la cosa migliore in questo momento se vogliamo andare a strutturarci verticalmente sulla comunicazione inerente ai trucchi ok vedete quante foto particolarmente belle curate abbiamo quindi potremmo siamo già nell'ottica di considerare il fatto che dovremmo andare a costruire un bello store e di conseguenza avere delle belle foto e addirittura qua abbiamo pure una modella europea che tutti voi sapete quanto è importante avere modelli europei perché purtroppo senza fare discriminazioni gli utenti quando vedono una figura asiatica di fianco a un prodotto il valore percepito scende ai minimi storici ok quindi anche questo dobbiamo considerare e come vedete qua abbiamo veramente tante tante foto e oltre tutte queste foto abbiamo anche la possibilità ad esempio di andarci a ricercare tramite aliexpress search for image tutte quante le varianti per chi non sapesse che cos'è aliexpress search for image è un tool che magari ve lo faccio vedere anche su un altro prodotto che vi dà la possibilità di andare a trovare tutti i prodotti simili quindi guardate prendiamo questa foto per esempio clicchiamo il tasto destro search for image è una estensione di google che potete tranquillamente trovare su google chrome la prendete la installate e oltre che essere utile per la ricerca prezzo quindi quando poi andremo in trattativa con l'agent abbiamo già un'idea approssimativa di quanto potremmo pushare sulla trattativa qui abbiamo la possibilità di trovare tutti i frighi più o meno simili e quindi di attingere a tutte quante le foto in questo caso la ricerca che ho fatto non è tanto efficace se già andiamo a operare in questo modo magari facendolo su questa immagine che ovviamente ora però non ci dà la possibilità quindi cosa facciamo ispezioniamo l'immagine clicchiamo questo tasto qui in questo caso selezioniamo questa immagine ok rifacciamolo che non ce l'ha presa ci trasporterà alla sezione di codice dove è salvata l'immagine stessa stando sul link facciamo tasto destro open new tab e ci aprirà l'immagine dopodichè facciamo l'express search for image e vediamo un attimo se il risultato è un po' più targetizzato su questo modello di prodotto ok vedete mi ha trovato molti più modelli simili rispetto alla ricerca di prima ok tornando a noi dopo un'accurata ricerca attraverso anche questo tool sono riuscito a capire più o meno che questo è un prodotto che subito questo era il primo cioè ecco piccola parentesi non fatevi subito ingannare dal prezzo perché ovviamente i prodotti un po' più carini su aliexpress vengono sparati a prezzi assurdi questi sono dirham 845 dirham fate diviso 4 avete il prezzo io dopo un'accurata ricerca sono riuscito a capire che questo prodotto lo potevamo pagare circa 500 dirham questo vuol dire che se qua lo pago 500 dirham dall'agent cosa che abbiamo già fatto in back end siamo riusciti ad ottenere un prezzo che si aggira attorno ai 100 dollari spedito quindi vuol dire che questo prodotto possiamo andarlo tranquillamente a vendere a 250 300 dollari ok ovviamente partiremo dall'italia per poi spostarci worldwide come insegniamo sempre perché ovviamente io però noi potremmo tranquillamente partire subito worldwide perché conosciamo le dinamiche abbiamo le possibilità di farlo soprattutto quando si va worldwide bisogna usare un budget un po' più diciamo cospicuo a livello di test invece sull'italia consigliamo sempre di partire dall'italia proprio perché conosciamo i nostri polli sappiamo come comunicare sappiamo cosa gli interessa gli italiani e come ragionano ok quindi dopo aver fatto tutto ciò siamo pronti per partire per la costruzione per il back end ovviamente tutto questo lo lasciamo in pausa perché come al solito adesso vi farò anche capire costruisce prima il back end e dopo andiamo ad operare sul tema e sulle pagine prodotto perché questo perché creare uno store ovviamente non è una cosa troppo semplice ok soprattutto quando dobbiamo farlo in delle tempistiche ottimali per non andare a spendere quelli che sono i costi del piano e i costi delle applicazioni perché ovviamente hanno dei costi cosa dobbiamo fare quindi noi e lo facciamo tutt'oggi anche noi che abbiamo budget illimitati potremmo permetterci di tenere store su store aperti per minimizzare le perdite di un test che ovviamente la parola stessa dato che un test non è detto che vada bene o no dobbiamo minimizzare le perdite e come le minimizziamo creando ogni volta un nuovo store e sfruttando i 15 giorni di prova gratuita del tema e tutte le prove gratuite delle applicazioni questo cosa vuol dire che creando uno store in 24 ore abbiamo la possibilità di in 15 giorni di testarlo e di capire se vale la pena scalarlo o meno se vale la pena continueremo se non ne vale la pena chiudiamo tutto quanto e abbiamo perso soltanto il costo delle ads che più o meno per un test si aggira intorno ai 100-120 euro ok ovviamente poi anche qua dipende dai periodi in questo periodo per esempio facebook ha alzato molto le barriere di entrata perché si sta concentrando principalmente su meta quindi e questo diciamo abbiamo avuto anche vari casi studio un prodotto è detto che necessiti di 4-5 giorni di test quindi facebook vuole vedere se noi andiamo in perdita così da diciamo premiarci e dopodiché iniziare a farci andare in trend e farci vendere il nostro prodotto ok quindi tornando al discorso store creare uno store in 24 ore non è così semplice però ovviamente ci sono delle tecniche che possono aiutare veramente veramente molto la prima è quella di andare in ordine logico visivo ok cosa vuol dire questa cosa vuol dire che noi partiamo proprio a livello visivo dal basso verso l'alto perché se io adesso iniziassi a settarmi le applicazioni poi mi vado a settare le informative legali dopodiché entro qua mi setto due pagine creo il menu vado ad attivare il prodotto dopodiché mi sono dimenticato attivo il piano in un attimo come vedete ho fatto una confusione totale e sono certo al 100% che qualcuno si dimenticherebbe qualche pezzo e non dobbiamo dimenticarci nulla ok quindi si parte sempre dalle impostazioni ovviamente questa tecnica fa delle eccezioni perché non è che possiamo partire proprio dal basso perché ci sono delle sezioni che necessitano delle implementazioni di altre sezioni come appunto la sezione informative quando noi andiamo a creare il modello tramite la sezione informative cosa succede molte persone non la creano la sezione informativa la creano in maniera sbagliata a livello legale perché prima di tutto non settano dettagli negozio non comprano il dominio e non attivano il piano quando andiamo a creare il modello delle informative lei automaticamente attinge tutte quante le informazioni dal nostro store ok e le attinge proprio da queste sezioni quindi la prima cosa che dobbiamo andare a fare quando creiamo uno store è settare tutta quanta la pagina dei dettagli negozio le informazioni di base l'indirizzo i recapiti la valuta del negozio in questo caso a noi interessa l'euro fuso orari eccetera 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 ok ovviamente qua un tè di peso non ci interessa neanche perché tanto non metteremo nulla inerente dopodichè attiviamo il piano io ovviamente questi passaggi ragazzi li ho già fatti perché sono veramente veramente semplici attiviamo il piano scegliamo l'abbonamento mensile non scegliete questi piani flat da 9 euro al mese eccetera perché vi limitano tantissimo nella sezione applicazioni tanto per 29 euro al mese non li spenderete mai in fase di test perché vi danno un abbonamento gratuito di 15 giorni quindi lo store anche lo creaste in 4-5 giorni avete tutto il tempo di testare e di chiudere immediatamente dopo lo store dopo aver creato attivato anche il piano passiamo alla sezione dominio il dominio anche qua l'ho già comprato in precedenza perché ovviamente dovevo un attimo capire quali erano disponibili e in questo caso pink top non era disponibile quindi abbiamo aggiunto semplicemente un real in questo caso potevamo anche chiamarlo pink top con 2p pink top shop eccetera eccetera l'importante è il punto com in questo caso perché dà molta credibilità all'utente finale e soprattutto anche ai motori diciamo ai sistemi di sponsorizzazione piace particolarmente altra cosa molto molto importante da andare sempre a settare adesso qua censurate altra cosa molto molto importante da andare a settare sono le informazioni devono essere sempre pubbliche ok perché questo perché così diciamo i sistemi di sponsorizzazione riescono a captare i nostri dati e quindi si fidano molto di più di noi ok facebook come sempre ripeto ha un core business il suo core business sono gli utenti gli utenti ovviamente li deve proteggere e come li protegge li protegge analizzando nel dettaglio tutti quelli che sono coloro che sponsorizzano sulla sua piattaforma quindi più informazioni gli forniamo e più lui si fiderà di noi quindi informazioni pubbliche e subito dopo mi prendo e mi copio la mail dominio prendo la copio vado su dettagli negozio questo è un passaggio molto importante infatti l'ho voluto fare con voi e lo vado a settare qua cosa succederà in questo momento Shopify collegherà questa mail creata in precedenza da me a quest'altra mail che è la mail dominio quindi poi potete andare tranquillamente sulla sezione ok vedete qui adesso me lo segna in attesa vuol dire che Shopify internamente sta collegando il dominio alla mail cosa altrettanto importante ragazzi se vedete che dopo 2-3 giorni ancora la situazione in attesa allora vuol dire che Shopify sta avendo un ritardo oppure dei piccoli problemi quindi contattateli tramite l'assistenza per chi non sapesse dove l'assistenza si trova qui contatto assistenza Shopify vi basta cliccare procedere e in un attimo avete la chat scusami avete la possibilità di mandargli una mail purtroppo non ha ancora attivato la chat live in questo momento Shopify quindi tornando a noi abbiamo settato dettagli negozio piano dominio ora le informative informative ovviamente per avere il tasto crea modello dobbiamo andare a modificare le lingue del tema quindi cambiamo la lingua tema e la settiamo in inglese crea template crea modello e di nuovo crea modello ottimo una volta fatta e concluso tutto questo possiamo eventualmente anche andarci a settare l'informativa sulle spedizioni ok salviamo e andiamo avanti lingue dato che abbiamo cambiato il tutto in inglese riportiamole in italiano dato che vogliamo andare a vendere in Italia spedizione consegna allora in questo caso abbiamo un prodotto high ticket ok quindi in fase di test la cosa più opportuna solitamente è offrire una spedizione gratuita perché perché lo usiamo un po' come specchietto per le allodole generalmente il comportamento delle persone tende a non preoccuparsi di informarsi su qualcosa che è gratuito e dato che noi qua in questa fase abbiamo una spedizione un po' più lunga del previsto siamo costretti diciamo a offrire una spedizione gratuita per avere almeno quell'utente su tre che non si domanda i tempi di spedizione e procede direttamente all'acquisto in questo caso possiamo magari denominare il tutto con spedizione gratuita assicurata possiamo anche inserire diciamo un copy di questo genere come ok in questo modo allora prima cosa abbiamo iniziato già a sfruttare un attimo uno dei nostri delle nostre peculiarità che per noi sono basiche ovvero il fatto che noi sicuramente risponderemo a un utente dopo l'acquisto però ovviamente tantissime persone in Italia sono state diciamo scottate da brand che magari ricevevano l'acquisto e non rispondevano più oppure sparivano proprio dalla circolazione allora ricordarli che avranno un'assistenza post acquisto in fondo è loro un certo senso di sicurezza e quindi facilita l'acquisto e abbatte alcune barriere emotive ok andiamo avanti salviamo la spedizione andiamo nella sezione check out a settarcela mettiamo un numero obbligatorio e spuntiamo queste tre caselle perché preselezioniamo l'opzione perché di base il comportamento delle persone tende a avere più difficoltà a selezionare una casella che a deselezionarla quindi se gli facciamo trovare la casella già selezionata siamo un passo più vicini alla possibilità di effettuare mail marketing nei suoi confronti mentre per quanto riguarda questa casella qua questo è un bell'aggiornamento che ultimamente ha fatto Shopify che finalmente si è regolamentato per quanto riguarda l'SMS marketing una volta con SMS bump bisognava fare delle procedure non dico assurde però veramente macchinose noiose per andare a settare quello che era l'applicazione e inserire tutti quanti i metodi di approvazione attualmente basta spuntare questa casella automaticamente Shopify crea quella che è la sezione di accettazione dell'SMS marketing e noi semplicemente come vedremo dopo nella casella sms cioè nell'applicazione sms bump per andare ad attivarla dovremo solo prendere un copy che ci fornisce direttamente l'assistenza e andare a incollarlo nella sezione privacy dopo di che richiederemo l'accettazione e loro ci attiveranno tutta quanta la app ok quindi qui abbiamo finito pagamenti li abbiamo già settati ovviamente noi voi settateli io vi consiglio di settare sempre Stripe Stripe perché perché Shopify Payment per quanto abbia delle fee più basse vi massacra di richieste documenti vi inizia a chiedere bollette vi inizia a chiedere conferme di di possesso stock quindi dovete andare dall'agent richiedere conferme ordine quindi dovete mandare tutte quante le bolle è veramente una noia invece Stripe per quanto abbia delle fee leggermente più alte lo inserite e ve ne dimenticate Paypal ragazzi Paypal è molto importante che creiate un account business abbiamo ancora tantissimi ragazzi che ci arrivano in consulenza scottati perché ovviamente Paypal quando vede che tu inserisci un account personale e magari ci fai passare sopra 40.000 euro dice sai cosa tu non hai letto le mie privacy policy e io tu puoi 40.000 euro te li blocco e me li prendo io perché giustamente nei loro termini e condizioni possono farlo quindi mi raccomando per il bene dei vostri incassi create un account business se no poi siete nei casini ok e volendo potete anche convertire un account un account basato su una persona a un account business quindi non dovete per forza ricrearlo da zero ora andiamo sulle preferenze come vedete ancora adesso sto andando dal basso verso l'altro qui mettiamo il nome del nostro store quindi in questo caso pink top e andiamo a fare il primo copy per esempio tieni al fresco tutti i tuoi trucchi per evitare di rovinarne e di perderne trucchi o cosmetici per evitare di rovinarne e perderne effetto dei principi attivi ok ovviamente dopo ci andremo a cercare in maniera più dettagliata quali sono le problematiche che affliggono cosmetici e trucchi esposti al calore ok uno di questi io mi sono già informato è appunto il fatto che molte maschere molti molti cosmetici infatti poi baseremo magari anche un po' di più la comunicazione sui cosmetici perdono i loro principi attivi se esposti al calore se esposti al sole e via dicendo ok quindi magari qua possiamo anche andare a inserire una bella emoticon una cosa di questo genere possiamo inserire la bandiera italiana e anche un emoticon di questo tipo per dare un po' di senso di autorevolezza qui dovremo andare a inserire il logo ok adesso dato che ci stiamo occupando del back end lo andremo a fare in diciamo precedenza però dovete ricordarvi voi di andare a farlo immediatamente ok ovviamente dato che siamo sulla lezione del back end ora ci concentreremo principalmente su app e tutto quello che ne concerne ok ovviamente il logo fatelo quadrato ragazzi perché perché questa sezione ha due scopi principali ok il primo è quello di andare a lavorare sull'asseo l'asseo che cos'è l'indicizzazione nei confronti dei motori di ricerca ok quindi quando voi cercate su google qualcosa la trovate grazie all'indicizzazione seo che google diciamo attua su qualsiasi sito presente al mondo e ovviamente anche lì ci sono delle tecniche per posizionarvi magari dopo vedremo anche in una lezione una parte di questa lezione come andare a fare un asseo di base ok quindi oltre all'asseo serve anche per la condivisione vi è mai capitato di inviare un link a un vostro amico e dal link vedete spuntare un banner questo è il banner ok questo è la piccola immagine quadrata in alto a sinistra e questi sono i titoli e i testi del banner ok quindi ovviamente questo perché lo andiamo a fare anche per diciamo nel caso una persona condivida il nostro brand aumentare fin da subito il valore percepito che appunto una persona scusate il gioco di parole percepisce dal nostro brand subito dopo c'è la sezione navigazione ovviamente qua non possiamo fare nulla per il momento perché ovviamente non abbiamo ancora le pagine quindi anche qua si fa un'eccezione andiamo su pagina e andiamo ad aggiungere la pagina in questione quindi piccolo recap adesso ovviamente io farò delle eccezioni a livello di creazione in questa lezione perché dobbiamo diciamo dedicheremo anche tutta quanto una parte al copy ragioneremo sul copy su come andarlo a scrivere quindi ora vi farò vedere semplicemente i tipi di pagine da andare a creare in uno store di test e più avanti poi andremo a colmarle con il copy però voi dovete farlo fin da subito ok dovete levarvi il pensiero delle pagine correlate quindi se io adesso non le sto settando è tra virgolette sbagliato stiamo facendo un'eccezione perché vi stiamo facendo una lezione live quindi voi assolutamente dovete andarle a settare immediatamente come le preferenze anche io solitamente quando vado a creare uno store arrivo nella sezione preferenze e mi creo subito il logo lo uso quasi come scusa per andare a creare il logo ok quindi pagina abbiamo la pagina qua contatti che viene inserita di base contattaci cerchiamo di usare sempre una comunicazione diretta all'utente e via attiviamo la pagina contattaci poi aggiungiamo un'altra pagina mettiamo la pagina per esempio clienti soddisfatti ovviamente questa clienti soddisfatti ormai lo si vede un po' ovunque mettiamo magari top recensione e testimonianza anzi un po' troppo lungo mettiamo solo top recensione ovviamente qua non ci abbiamo ancora la possibilità di inserire la cosa la pagina lux quindi salviamo andiamo su applicazioni inseriamo subito lux così ci possiamo togliere il pensiero della pagina con i clienti soddisfatti anche lux come tutte quante le applicazioni che andremo a vedere in questa fase ha dei giorni di prova gratuito per rifarci al fatto appunto di non andare a sprecare budget perché ovviamente questo il bello di questo lavoro è proprio il fatto che il bello di questo business è proprio il fatto che tantissime persone con entrate molto molto basse come magari un ragazzo che può avere un'entrata di mille 1200 ore al mese può imparare a fare e-commerce e di conseguenza iniziare a guadagnare degli extra che poi pian piano nel tempo potrà far diventare il suo vero e proprio lavoro ok scrippiamo ovviamente per quanto riguarda invece i B2B capite voi bene in prima persona che quanto la differenza tra costi di uno store online e negozio fisico sia abissale non sto neanche a fare dei calcoli perché ovviamente uno store al massimo delle sue potenzialità ci potrà costare al massimo al massimo 150 200 euro al mese ma sto parlando di uno store che fattura magari 70 80 mila euro mese di base ok con margini anche piuttosto alti quindi sto parlando di inserirci dentro la qualunque io i miei store attualmente nei clienti in agenzia non spendono quasi mai più di 80 90 euro mese che tendo anche ovviamente a non utilizzare le cose inutili ok qui si è aggiornato quindi semplicemente andiamo qua display review e mettiamo la review date hidden ok una volta fatto questo andiamo torniamo sul negozio online pagina ok adesso non ce lo sta dando perché ci sarà un piccolo bug nel collegamento questo è un peccato quando vi succede questa cosa contattate subito l'assistenza ok io ovviamente adesso lo farò in back end per non perdere tempo però purtroppo questa è una cosa che capita spesso vediamo un attimo qua niente purtroppo non ci da adesso la possibilità dobbiamo semplicemente o aspettare magari 24 ore che a volte questo problema si risolve da solo oppure contattiamo subito l'assistenza per farglielo presente e loro internamente ci daranno la possibilità di collegare lux alle pagine dello store ok facciamo di nuovo una prova niente proviamo a crearne una nuova che a volte anche questo può essere un trick che ci permette niente ancora peccato comunque qua ragazzi semplicemente cosa succede cliccando qua vi apparirà lux trattino all review ok voi lo cliccate e potrete qua inserire il testo che andremo a vedere inserire dopo e nella pagina del tema vi andrà a inserire tutte quante le recensioni che andremo poi a caricare successivamente ok tornando a noi top recensioni contattaci lo possiamo fare anche la pagina traccia il tuo pacco qui noi internamente abbiamo un codice che inseriamo e automaticamente ci va a inserire ci va a creare un plugin sullo store che dà la possibilità di andare a di andare a tracciare proprio pacco molto probabilmente ve lo metteremo in descrizione youtube è un codice molto semplice che possiamo applicare in questo modo quindi arriviamo qua immaginatevi che questo sia il nostro codice ok creiamo la pagina schiacciamo most html lo incolliamo rischiacciamo html e qua apparirà semplicemente una barra questo scritto search le persone sullo store potranno inserire il loro tracking code e vedere appunto il tracciamento ovviamente per questa cosa ci sono anche molte applicazioni qui ovviamente dipende un po' dal vostro dal vostro modo di lavorare ci sono persone che utilizzano applicazioni persone che utilizzano codici a mio parere il codice è la miglior cosa sempre per il fattore velocità ok quindi creiamo la pagina traccia al tuo pacco possiamo andare anche a creare una pagina chiamata il nostro studio e qui dato che comunque siamo su un prodotto e ticket proponiamo a livello teorico tutto quanto lo studio che concerne la creazione e l'utilizzo di questo prodotto ok quindi una pagina molto molto più autoritaria ok la diciamo la sostituiamo a quella che potrebbe essere un possibile chi siamo e all'interno di questo nostro studio inseriamo anche inizialmente un chi siamo quindi magari un 5-6 righe dove descriviamo l'azienda dove magari andiamo a creare qualche mock-up qualche mock-up con il logo appunto del brand che viene contestualizzato in un ambiente aziendale che ovviamente aumenta drasticamente il valore percepito del brand e soprattutto la credibilità nei confronti dell'utente cioè l'utente una volta che vede il nostro logo in un ambiente reale si sente molto ma molto più a suo agio ad acquistare se le sue barriere emotive erano così alte da portarlo fino in questa pagina ok che ovviamente noi quando andiamo a creare questa pagina non la creiamo per quel customer che entra gli piace il prodotto e l'acquista la creiamo per quel customer estremamente diciamo puntiglioso è attento ai dettagli ok come potrebbe essere anche uno store manager io stesso prima di andare ad acquistare una cosa online proprio perché conosco il sistema mi informo a 360 gradi guardo i dettagli guardo se è un prodotto in drop se non lo è eccetera eccetera ok oppure anche persone attorno a me che sono state diciamo nel tempo istruite che magari venivano a chiedere magari a questo store in drop e mi dicevo si guarda allora pian piano hanno capito anche loro come funzionava quindi ci sono anche tutte queste nicchie di persone oppure persone molto più diciamo semplicemente abituate ad acquistare che acquistano da anni online e ormai si sono fatte l'osso sul capire quando un brand è serio o non lo è ok dopodiché possiamo anche andare a creare subito la pagina prodotto per riuscire a creare perfettamente quello che è il menu in questo caso l'avevo già creata semplicemente la chiamiamo pink pink fridge ok abbiamo qua pink top e basta prezzo adesso arriviamo al prezzo abbiamo saputo dal reparto logistico che il nostro il nostro prodotto ci costerà all'incirca 100 dollari spedito in realtà per essere più precisi 105 dollari e qualche centesimo a mio parere bisognerebbe fare sempre un per tre come insegna anche sempre Luca quindi dato che 300 euro sono parecchi e comunque non stiamo facendo un per tre su un prodotto che magari costa 20 euro quindi 2, 3, 4, 5, 6 marginiamo 40 euro qua stiamo già marginando tanto se facciamo un per tre quindi 200 dollari quindi iniziamo a parlare in euro quindi dato che lo pagheremo 200 dollari sono 80 euro paghiamo 80 euro 8, 16, 24 possiamo venderlo tranquillamente a 230 euro ok con un prezzo di confronto molto molto alto in questo caso quindi 559 9 ok dopodiché monitora quantità ovviamente continuiamo a vendere quando esaurito ok tornando a noi qua abbiamo la sezione anche delle collezioni il tipo qua possiamo mettere cosmetica ok aiuta la seo i tag potremmo anche metterli perché siamo in un monoprodotto e per il momento qua abbiamo fatto ok ovviamente qui anche qui dato che poi comunque faremo anche assieme un attimo la ricerca foto per farvi vedere un attimo come vado a ricercare le foto semplicemente andiamo subito a inserire quelle che è la foto prodotto ci sono anche qua varie scuole di pensiero dipende un attimo dalla nicchia se la nicchia è visto piaciuto ok quindi un prodotto che generalmente viene acquistato proprio perché è un prodotto un po' tiktoccabile avrebbe senso mettere non un prodotto in png ma all'interno un contesto quindi parlo appunto questo è un prodotto in png ok tutto bianco che semplicemente raffigura prodotto questo è un prodotto il prodotto contestualizzato ok solitamente ci sono persone che mettono tante foto con l'immagine proprio delle ragazze ok che lo utilizzano che ce l'hanno in mano eccetera io prediligo però sempre andare a mettere un'immagine in png per poi andare a far vedere il prodotto più nella landing ok perché voglio far chiaro al 100% che quello è il future product ok per tutte quelle persone che si chiedono sempre ma se clicco qua acquisto sì questo è il prodotto clicca acquista ora e procede al check out ok vedere il prodotto singolo senza distrazione eccetera facilita molto questa diciamo questo dubbio che può sorgere negli utenti vedete come negli anni noi siamo riusciti a capire anche nei minimi dettagli le più piccole barriere emotive che un utente può avere che un utente tipo perché questo non accade in tutti gli utenti ma noi lavoriamo sempre in maniera generale ok dopo aver settato prodotti tutte quante le nostre pagine andiamo sul menu navigazione partiamo dal footer in precedenza abbiamo già settato tutte quante le informative ecco piccolo aggiornamento una volta era usuale creare direttamente le informative sulle pagine attualmente sconsigliato perché perché facebook google tiktok snapchat printerest chi più ne ha chi ne metta come sempre detto vuole sapere con chi sta andando a collaborare perché è una collaborazione ok lui ci sta dando la possibilità di sponsorizzare sui social quindi vuole sapere con chi sta collaborando e quindi come lo fa sapere venendoci a analizzare le informative legali le informazioni basate sul dominio le informazioni basate sul nostro store le informazioni basate sullo store non c'è nessun tipo di problema perché se usate shopify direttamente shopify è in collaborazione con tutte queste applicazioni con tutti questi social perdonatemi quindi non avrete problemi di quel genere andando qua su policy possiamo attivare privacy policy informativa found policy termini commissione ovviamente qua mai 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 quando si vende in Italia usare una terminologia inglese destabilizza tantissimo l'italiano quindi qua informativa sulla privacy vedete qua informativa sui ingorsi qui mettiamo termini e condizioni del servizio lo ordiniamo un attimo per essere un po' più carini e via salviamo il menu qua mettiamo cosa che il menu footer info legali ok altra cosa ci sono molte persone che utilizzano un tipo di comunicazione che puoi andare a vedere più dettagliatamente avanti che quella di mettere le maiuscole un po' ovunque anche qui dipende sempre dal brand sul quale stiamo andando ad operare cioè io vorrei farvi capire che non c'è un blueprint per tutti quanti i prodotti perché solitamente alcune persone prendono magari delle strategie che noi applichiamo e facciamo vedere e le applicano prodotti al quale non hanno senso ok in questo caso stiamo parlando di un prodotto high ticket non di un prodotto da 20 euro conforme l'avvisto piace tutto un prodotto dove la persona si andrà a informare vedrà eccetera eccetera prima di spendere 230 euro quindi è opportuno assomigliare il più possibile a un brand di alto livello avete mai visto sul sito della apple sul sito della Louis Vuitton usare le maiuscole a sproposito no quindi di conseguenza ci dobbiamo uniformare a quel tipo di brand ok le info le gai le abbiamo settate andiamo a ci settare il menu principale home la possiamo lasciare poi catalogo lo eliminiamo contatti lo eliminiamo allora pagina contattaci adesso anche qua solitamente il menu potrebbe essere carino farlo tutto quanto in maiuscolo in questo caso dato che stiamo diciamo lavorando su un prodotto beauty anche lavorare in minuscolo non è male ovviamente andremo a vedere a livello grafico se la cosa ci convince o meno e decideremo in fase finale contattaci e ok è rimasta qualche pagina il nostro studio e mettiamo anche le troppe accensioni ok in questo caso abbiamo ottimizzato anche un po' il menu potremmo anche dato che qua è un po' così metterlo direttamente sopra il nostro studio dato che è interessante vedere poi cercare di riportare anche gli utenti su questa pagina dove li andremo a manipolare in maniera molto molto seria e accattivante ok abbiamo selezionato il menu abbiamo settato le pagine immaginatevi che io le abbia già create poi tanto le andremo a creare dopo quando andremo a inserire su tutto quanto lo store i copy blog in questo caso non ci interessano perché siamo in fase di test però più avanti sarà molto opportuno andare a creare del blog sia del blog interno sia del blog esterno per la SEO ok perché ovviamente la SEO si fa sia on site che off site quindi la SEO ormai si divide in due grandi categorie la SEO che possiamo fare sul sito e la SEO che possiamo fare fuori dal sito ok poi ovviamente lì ci sono dei si apre un mondo magari dedicheremo delle lezioni a quello perché ovviamente se dovessimo stare a parlarne ora ci perdiamo troppo temi in questa fase qua io vado a inserire solo il tema ok ovviamente ragazzi queste sono le mie strategie personali per andare a creare lo store magari ci sono altre persone che non utilizzano tutt'altro diverse però a noi questa a me soprattutto ha sempre facilitato molto nella creazione sono sempre stato molto schematico e questo mi permette di creare store veramente in un batter d'occhio senza mai fare errori di nessun tipo quindi tornando a noi qua andremo a inserire il tema e io ho inserito quello nostro personale e possiamo direttamente poi andare a pubblicarlo dopo andando avanti come vedete l'ho solo inserito per facilitarmi poi con la creazione dopo del frontend perché lo schema ragazzi piccola parentesi è questo backend creazione dell'home page a livello di front con tanto di comunicazione creazione creazione della pagina prodotto a livello di front ok e in un attimo avete finito tutto quanto ora infatti stiamo affrontando tutto quanto alla questione di backend applicazioni ecco qui arriviamo a un tasto diciamo dolente perché tantissime persone scaricano applicazioni inutili tantissime pensano che siano le applicazioni a fare la differenza ma non è così le applicazioni ragazzi servono semplicemente per abbattere le barriere emotive aumentare la social proof o a migliorare la customer experience hanno queste tre funzionalità ok e ovviamente vanno in base al tipo di brand che abbiamo infatti qua vi ho preparato già un po' di applicazioni che noi non andiamo a utilizzare in questo caso perché non si addicono a un brand di questo tipo però ve le faccio vedere comunque nel caso voglio andare a strutturare prodotti di altro tipo allora la prima sulla quale mi voglio soffermare che è importantissima e tutt'oggi vedo ragazzi che non la usano ovviamente in Italia perché all'estero ricordiamoci che non si usa Whatsapp siamo solo noi in Italia che siamo dipendenti da Whatsapp e ormai lo utilizziamo come se fossero gli sms normali all'estero utilizzano Snapchat utilizzano Messenger quindi la cosa più intelligente quando si va a creare un sito WorldWild e diciamo dobbiamo applicare appunto a questo sito un'assistenza che ripeto è importantissimo dare l'assistenza un'assistenza live quindi non parlo di tutti quei sistemi di assistenza come guardate ve lo faccio vedere proprio come esempio che io stesso lo trovo irritante quando devo andare a parlare con l'assistenza per esempio di Lux ci sono due tipi di assistenza quella tramite chat e mail ok quindi io immaginatevi se su uno store clicco qua qua ci sarà magari scritto chat with us tu scrivi a volte non mettono neanche l'oggetto tu puoi scrivere quello che vuoi e poi sketchy send e arriva alle mail ok e non arriva in una chat o non ti trasporta in una chat questo è veramente veramente fastidioso primo perché le persone non aspettano la vostra risposta le persone cioè nel senso dovete rispondere dentro massimo massimo un minuto se voi già dopo un minuto non gli avete risposto avete perso l'acquirente al 100% perché non rimarrà più di tanto sullo store quindi l'assistenza è un punto focale io addirittura abbiamo brand che vendono esclusivamente con l'assistenza ok questo brand venderà tantissimo con l'assistenza perché ha delle barriere emotive molto alte è un prodotto molto costoso e l'assistenza non parlo di un'assistenza normale parlo di un venditore ok una persona che venda ok una persona che magari parliamo di un prodotto tipo mettiamo caso un reggiseno ok un reggiseno dove le tantissime persone tantissime donne si possono chiedere ma va bene anche per le metaglie dato che magari è un reggiseno senza i gancetti ferretti va bene anche per me è un seno molto diciamo questo ovviamente ve lo dico perché abbiamo avuto un caso studio noi internamente di questo tipo ci abbiamo creato uno store di reggiseni che ha venduto per centinaia di migliaia di euro eravamo tantissimi ragazzi in assistenza che chiedevano ma va bene anche per me che ho una quarta una quinta eccetera e lì le manipolavamo ovviamente in senso positivo senso positivo perché ovviamente la taglia che gli andavamo a proporre era giusta per lei noi gli avremmo proposto qualcosa che non gli sarebbe andato però d'altro canto omettevamo un po' di verità quindi per esempio gli dicevamo guarda io ho la tua stessa identica taglia a noi in azienda ce li forniscono gratuitamente proprio per una politica aziendale quindi ti posso garantire al cento per cento che questa taglia XXL è perfetta per te con una comunicazione comunicazione di questo tipo se l'utente veramente vuole acquistare hai soldi in mano acquista ok l'avete presa l'avete catturata al cento uno per cento qui ragazzi inserite il numero di telefono ok e subito dopo procedete all'installazione adesso io inserirò disabilitiamo sempre questa cosa perché vogliamo che le persone arrivino direttamente in chat con noi non che debbano passare dalla selettore di personale eccetera eccetera questa è una cosa che utilizzano le grandi società noi che siamo in fase di test devono cliccare sotto benedetto tasso e arrivare direttamente in chat con noi qua non ci interessa piccolo off topic ovviamente salviamo qua il setting share setting lo disabilitiamo anche qua ok fatto questo abbiamo settato praticamente tutta quanta l'applicazione possiamo passare direttamente alla seconda che è in questo caso adesso aspettiamo un attimo che si carichi e ci faccio vedere l'applicazione qui così pian piano vedete l'avanzamento la seconda applicazione in causa è sono in realtà i velocizzatori del sito quindi speed boost questo è un velocizzatore per l'ingresso sul sito ha un'installazione estremamente semplice in sostanza non bisogna fare nulla di nulla ok ci basta installarla in questo modo ok e bom l'applicazione è installata poi passiamo alla seconda applicazione da installare ovvero page speed optimizator questo è un diciamo un tool per andare a velocizzare il sito quando una persona entra e esce ok perché gli salva i dati sul browser e facilita veramente molto il caricamento del sito quando una persona magari ci esce e poi ci vuole rientrare ok quindi li installiamo entrambi così in entrambi i casi siamo più supportati altra applicazione da installare fin da subito vitals vitals per chi non lo sapesse molti lo conoscono è un'applicazione che al suo interno possiede tante altre applicazioni ok adesso andiamo a vedere le funzionalità principali poi andando avanti con lo scaling dello store possiamo andare a utilizzarne sempre di più ok è un'applicazione che assomiglia molto a debutify che avrei avuto molto piacere di farvi vedere in queste lezioni ma purtroppo è uscita dalla collaborazione con shopify e quindi inizia ad avere molti bug se li andiamo a installare tramite ovviamente il loro sito collegandoci al nostro quindi ovviamente quando un'applicazione non è all'interno di shopify sconsiglio sempre l'utilizzo perché il bug e la problematica è sempre dietro l'angolo se non è più in collaborazione con shopify un motivo c'è e shopify non si fa fare diciamo non è stupido e quindi non essendo stupido diciamo non facilita l'utilizzo dell'applicazione ok e non agevola l'eliminazione dei bug quindi è sempre bene andare a operare con tutto ciò che troviamo direttamente sul nostro app store ok anche perché ormai i bei tempi su shopify come c'è caotix e queste cose sono scomparsi oramai è una realtà quotata in borsa con centinaia di migliaia di investitori e si fa diciamo le sue ragioni ecco tornando a noi qui andiamo a settare sei cose principalmente prima cookie bar per essere a norma di legge perché in Europa dovete sempre avere una cookie bar legalmente attiva qua adesso possiamo iniziare già a decidere il colore del nostro store ok io solitamente lo scelgo quando vado a creare il logo quindi come ricordate nella sezione preferenze in questo caso andrei a mettere magari un colore di questo tipo un rosa molto pallido ok così mentre per quanto riguarda il bottone possiamo tranquillamente andare a mettercelo magari nero ottimo poi per essere meno invasivi possibili mettiamo magari lo mettiamo in modalità fixed ok perché comunque meno siamo in più diciamo meno siamo invasivi e più facilitiamo la rimanenza dell'utente sul nostro store cioè vi è mai capitato di entrare in questi siti dove venete bombardati immediatamente di pop up della newsletter pop up dell'sms cookie bar e di qua di là in un attimo vi è già passata la voglia di vedere lo store perché non riuscite neanche magari a cliccare le x che sono veramente molto piccole solitamente quindi questo l'abbiamo settato dopodiché subito attiviamo la content protection per dimenticarcene anche se ora non abbiamo ancora nulla poi attiviamo la best seller protection poi andiamo attivare una delle cose più importanti la recensione notification recensione notification l'ho già spiegato in passato serve a colmare un po' di quella che è la social proof che il nostro store necessita ok quindi per esempio mettiamo qua un background color del codice che abbiamo usato prima addirittura qua ora che vedo però potremmo anche utilizzarne uno di questi che è molto carino però andiamocelo a fare noi il background lo mettiamo così il text color lo mettiamo nero per essere un po' più incisivi ok dopodichè lasciamo le grandezze così come sono che comunque sono state studiate apposta per essere omogenee alla perfezione quindi perché non farlo add to cart non lo vado neanche a modificare perché non andrò ad attivare gli show add to cart perché oltre a che farmi vedere le aggiunte al carrello mi fa vedere anche i carrelli abbandonati e questo non va assolutamente bene cioè immaginatevi una persona che sta per acquistare e vede 25 carrelli abbandonati cioè subito gli dice no aspetta no meglio cioè perché perché 25 persone hanno abbandonato il carrello la cosa mi puzza eccetera eccetera qua mettiamo Milano per esempio lo potete mettere un po' quello che vi pare ovviamente metto o Milano o Roma dopodichè qua mettiamo qua mettere qualcuno sempre con la Q maiuscola perché il sistema prende queste parole e ci va a comporre la frase allora cosa importantissima ragazzi quando iniziate a lavorare online sugli store imparate a capire il comportamento delle applicazioni il comportamento dei sistemi anche se non siete dei programmatori perché questo vi facilita col tempo io ho tantissimi ragazzi che qua fanno l'errore di non capire un errore che io ho fatto adesso apposta vedete qualcuno ha acquistato se una persona si mette a ragionare e capisce che queste sono le parole che vengono usate dal sistema per comporre la frase ti viene spontaneo capire che qua devi mettere ha acquistato qualcuno ha acquistato prodotto esempio due ore fa ok mi raccomando cercate di capire il funzionamento delle app perché questo vi faciliterà anche nella scoperta di nuove applicazioni perché nella scoperta nel settaggio di nuove applicazioni che scoprirete ok che ovviamente poi anche qui un'applicazione vale l'altra ok adesso vi potrei far vedere centinaia di migliaia di applicazioni di questo tipo solitamente la cosa migliore è ovviamente guardare sempre applicazioni nuove infatti dopo ve ne farò vedere alcune nuove che sono sposate col tempo però finché vi trovate bene con un'applicazione che continua a fare il suo dovere usate quella perché così siete molto più veloci nell'inserimento e nell'utilizzo dell'app stessa ok ora torniamo a noi abbiamo settato le cookie bar abbiamo settato le recense notification ora settiamo il visitor repli e per settare intendo solo attivare perché lo attiviamo per chi non sapesse cos'è il visitor repli è una hitmaps una hitmaps è semplicemente un sistema che registra i movimenti delle persone sul nostro sito esistono hitmaps di un certo livello che noi utilizziamo tutt'oggi che però in fase di test non servono questa è una cosa in più che oltretutto ci dà 5.000 visite gratuite e ci permette di capire un attimo l'utente medio all'inizio che cosa fa o non fa quindi io lo utilizzo molto in fase iniziale del test per dire ok la maggior parte degli utenti non va più giù della seconda sezione vuol dire che lì devo concentrare tutti quanti i fattori principali del mio brand ok quindi l'attiviamo e poi dopo lo andremo a utilizzare infine un'altra cosa che in questo caso possiamo andare a utilizzare comunque un prodotto molto molto costoso il timer ok adesso vediamo un attimo sull'attore ecco qua countdown timer countdown timer prima di tutto scegliamo il tipo di countdown abbiamo vari template guardatevi vi faccio vedere questo qua abbiamo le card abbiamo il modder io personalmente mi piace molto il progress perché gli va proprio capire quanto tempo manca ok in questo caso abbiamo messo tre ore text color mettiamo il nostro bel colore prima e via ok adesso qua ovviamente se un attimo buggato se no non è contento mettiamo giorno cioè mettiamoli tutti minuscoli dato che non va a comporre frasi ora ora minuto minuti seconde seconde ovviamente poi quando prendete la mano l'attivazione di queste app è veramente veloce io ora ci sto mettendo un po' perché vi sto cercando anche di spiegare ma questa app solitamente in massimo tre quattro minuti l'ho già settato tutta quanta che è veramente veramente facile e intuitiva ok dopo di ciò abbiamo iniziato a settare le prime cose che ci interessavano poi come vedete abbiamo tantissime altre diciamo opzioni che possiamo andare a sfruttare per implementare il nostro store ok alcune sono utili alcune sono un po' futili ok andiamo avanti con l'installazione delle app un'altra giusto riflessiamo qua così iniziamo ad averle un po' tutte quante un'altra applicazione importante ovviamente è la vera sulla quale struttureremo ore di questa lezione è PageFly allora anche qua si aprono due scorie di pensiero contrastanti la prima vede coloro che utilizzano PageFly e l'altra coloro che utilizzano GamePages GamePages è uscito dal mercato per un bel po' di tempo perché non aveva diciamo rinnovato i contratti e gli accordi con con Shopify e quindi adesso finalmente è tornato hanno due modalità di utilizzo leggermente diverse ma le funzionalità ragazzi sono uguali uguali identiche l'unica cosa magari che GamePages assolutamente ti dà anche dei template leggermente più new wave PageFly è un po' più vecchio stile però a mio parere PageFly è molto più intuitivo facile da usare poi hanno veramente un'assistenza divina cioè voi li scrivete e nell'arco di 4 minuti vi hanno già risposto io a volte quando c'è un problema non un problema ovviamente marginale che su quello non mi ci devo neanche concentrare molto non ci penso neanche scrivo l'assistenza e ormai lo risolvono loro così io posso andare avanti con la creazione store senza distogliore il focus hanno due tipi di assistenza la prima è l'assistenza programmatori e l'altra l'assistenza normale ok se il problema è serio vi passano al reparto programmatori se il problema non è serio vi risolvono già tutto quanto loro piccola parentesi che poi andremo a vedere più avanti PageFly perché la scegliamo perché ti dà la possibilità di creare una pagina gratuitamente ok quindi in fase di test come adesso non dobbiamo neanche pagarla è gratuita al 100% a meno che non vogliamo andare a creare più pagine prodotto ok quindi e soprattutto essendo che è rimasta per molto più tempo sul mercato è molto più ottimizzata con Shopify anche se ovviamente anche lei i suoi bug ogni tanto ce li ha e l'unica pecca negativa che devo dare nei confronti di di GamePages è che su GamePages ciò che crei lo vedi direttamente sul template che stai creando sull'applicazione qua a volte non è così fedele e quindi è opportuno come vedremo più avanti andare a tenersi di fianco lo store per fare diciamo per diciamo creare la sezione e poi andarsela a vedere direttamente sul tema originale ok se non vi è chiaro questo concetto non vi preoccupate perché tanto lo riprendiamo più avanti allora andando avanti anche questa la installiamo e la lasciamo in un cantuccio ok perché come ho detto prima prima facciamo il back-end applicazioni informative impostazioni pagamenti spedizioni pagine correlate eccetera eccetera scontistica base del prodotto eccetera eccetera poi passiamo al tema e infine passiamo alla pagina prodotto quindi tornando a noi qua andiamo a inserire un'altra applicazione sms bump allora sms bump è uno dei sistemi che ultimamente stiamo utilizzando veramente veramente tanto per andare a raccogliere tutti quanti quelli che sono gli utenti che ci scappano dalle mani al momento del check out ok perché l'sms marketing è nettamente superiore all'email marketing perché l'email marketing col tempo è iniziato ad alzare veramente tanto le barriere di entrata nella sezione principale quindi quando noi siamo in fase di test e non siamo posizionati nei confronti dei provider lui ci manderà sempre 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 nella sezione promozioni quindi vuol dire è equivalente a non mandare l'email ok perché nessuno e se qualcuno di voi pensa di sì non è così fidatevi nessuno va a vedere la sezione promozioni ed eccoci qua nella dashboard qua dovremmo aggiungere inizialmente lo sappiamo ottimo ottimo dovremmo andare ad aggiungere i found cosa succede? vedete che subito ci dice vuoi aggiungere i found va lì valida l'account quindi noi facciamo request validation tutti si staranno chiedendo perché non hai messo l'email marketing eccetera eccetera perché ragazzi in fase di test ci fa perdere un po' di tempo ok a volte la metto a volte non la metto la cosa importante sulla quale vorrei che vi soffermaste è page fly ok perché io ho ragazzi magari che mi arrivano in mentor che hanno un email marketing settano un email marketing della madonna poi sugli sms non ci pensano neanche più di 10 minuti a come settarli e questo non va bene perché è l'sms marketing che porta risultati da paura ROI altissimi cioè ROI, ROAS eccetera eccetera quindi mi raccomando queste sono sempre delle app di base da andare a installare nel momento in cui dobbiamo operare con uno store in fase di test un'altra app che io inserisco fin da subito per facilitare l'indicizzazione su google è giusto ottimizzarla lì dove si può farlo senza perdere troppo tempo fin da subito aspettiamo che risponda e nel mentre apriamo una parentesi allora molti di voi avranno già visto questa applicazione in delle lezioni passate eccetera eccetera quindi vi ho voluto preparare delle nuove app che ovviamente possono essere utili per alcuni tipi di brand ok partiamo dalla prima questa è Retails Contrassegno Shopify è un problema di base che affligge qualsiasi persona vuole vendere in contrassegno ovvero lo fatto che non ti dà la possibilità di metterlo a pagamento quindi possiamo soltanto ve lo faccio vedere proprio nel lato pratico andare a vedete creiamo cash on delivery possiamo solo mettere dei dettagli e fine e lui si attiva sul nostro store non ci dà la possibilità di farlo pagare di più eccetera eccetera questa applicazione qui oltre al fatto che avete oltre 50 ordini gratuiti inizialmente poi dovete pagarla vi aumenta il in fase di check out il bill quindi se voi mettete un contrassegno a 4 euro nel momento in cui loro segnano un contrassegno da 180 euro che cosa ha prodotto poi arriverà a 184 ok la cosa è molto utile anche perché ho visto ormai tantissime persone che mettono magari spedizione in contrassegno 4 euro poi la gente si fa furba mette la spedizione normale poi va a segnare il contrassegno e ve lo mette in quel posto questa applicazione vi risolve questo problema ed è molto molto utile seconda applicazione bundle beer alcuni la conoscono altri no secondo me è la migliore applicazione per i bundle ragazzi i bundle sono la fonte di guadagno di un dropshipper su prodotti di basso prezzo ok perché perché quando andiamo a vendere in drop immaginatevi di aver convinto un utente sul vostro sito nel momento in cui lui acquista due prodotti a posto che uno anche se c'è uno sconto su quel secondo prodotto noi non stiamo pagando la spedizione su quel prodotto e la cosa facilita veramente ci permette di guadagnare molto di più ok immaginatevi se ne acquista tre quattro e via dicendo quindi io vado a creare anche dei bundle veramente importanti se una persona acquista quattro cinque prodotti ovviamente poi è una questione di matematica dovete calcolare quanto vi costa la spedizione quanto non vi costa e potete poi applicare perfettamente una scontistica efficace ok e ovviamente efficace vuol dire che faccia anche gol all'utente e però allo stesso tempo vi metta a voi i soldi in tasca qua invece abbiamo due upsell questa adesso non l'ho inserita perché perché come tutti quanti voi sapete voi direte si hai detto degli upsell che questo è un prodotto che può diciamo contenere cioè può affiancarsi a tantissimi upsell di tutti i tipi si ma in fase di scalata e allora certi magari diranno allora perché non le installi già perché ogni applicazione che installiamo sullo store appesantisce lo store stesso nella fase di caricamento e vi ricordo una base che è quella del fatto che le persone quando entrano sul nostro store se entro 3 secondi ma in realtà anche meno ormai il sito non è caricato perfettamente loro escono e voi avete speso il click quindi il costo per click che avete speso e non ha neanche non vi ha dato neanche la possibilità di vedere il sito ok quindi qui abbiamo un'applicazione molto molto più articolata che è ottima quando abbiamo più upsell quando dobbiamo diciamo fare dei downsell dei crosssell eccetera eccetera mentre qui subito di seguito abbiamo un'applicazione molto molto più semplice che diciamo io utilizzo magari quando di base faccio un test con due o tre prodotti e voglio avere un layout estremamente semplice ok da utilizzare è veramente la cosa più semplice del mondo e semplicemente in fase di check out ti dà la possibilità di avere una pagina dove semplicemente ci sono immaginatevi di finire l'acquisto carica una pagina dove c'è fotoprodotto prezzo acquista ora e la stessa cosa per tutti quanti gli altri con attenzione la possibilità di cliccare e avere il check out rapido cosa vuol dire vuol dire che cliccano e acquistano direttamente dal click ok senza di dover passare da tutte quante le informative spedizioni eccetera eccetera ok costa anche veramente poco mentre questa comunque ha un costo già un po' più elevato ok anche se i 30 giorni di prova gratuita ci sono ma comunque se state andando a inserire un'applicazione per gli upsell vuol dire che siete in fase di scalata e di conseguenza la terrete per sempre nel vostro store fino a che non sopraggiunge la sua chiusura ok altra applicazione interessante questa che è l'opzione per offrire il pacco regalo ovviamente questa è una cosa marginale però comunque ricordiamoci sempre che un pacco regalo ci può far guadagnare molto di più ok come la spedizione la tecnica delle spedizioni a pagamento è spedizione gratuita quindi mettere una spedizione normale e poi una spedizione a pagamento dato che saranno sempre poi le stesse perché quando poi iniziamo a stoccare il prodotto la spedizione è sempre 24-48 ore quindi usiamo questa tecnica per andare a marginare un po' di più sul prodotto anche questa può essere una buona soluzione un pacchetto regalo a noi costa veramente pochi centesimi cioè veramente pochi pochi e loro gliela possiamo far pagare 5-6 euro magari 5 no però 4 euro e marginiamo ancora di più ok soprattutto questa applicazione io la utilizzo tantissimo nel periodo natalizio e mi fa la differenza perché a parità di competitor magari una persona sceglie me e a me è capitato di andare su degli store e scegliere quello store perché mi dava la possibilità di fare il pacco regalo perché io poi sono negato magari come persona e voglio cercare qualcuno che lo faccia per me e mi faccia arrivare a casa il pacchetto già belle che impacchettato pronto da regalare quindi questa è fase di natale ragazzi è una bomba usatela e niente ultima applicazione BF size card e size grid questa è veramente ottima ragazzi per tutta quella fascia di persone che non ha un tema super nuovo ok e ovviamente è strutturata nella nicchia vestiti semplicemente vi dà la possibilità di inserire un tasto subito sotto il prodotto che fa comparire tutta quanta la sezione delle taglie e questa è ottima per l'Italia ok soprattutto vi faccio vedere anche l'ultima per le guide per le taglie in America vi spoiler che la stiamo utilizzando per un brand che attualmente è da noi in gestione e la utilizzeremo quando inizieremo ad andare all'estero perché questa applicazione quando lavoriamo all'estero c'è una problematica principale che abbiamo proprio affrontato con proprio questo nostro cliente ovvero il fatto che se siete un brand che ha dello stock i resi all'estero vi costano una cifra esorbitante rischiate di andare a perdere tantissimi soldi ok quindi di conseguenza è giusto cercare di minimizzare al minimo proprio le possibilità di reso come facciamo con questa applicazione cosa fa questa applicazione vi da proprio uno schema ben preciso di quanto le vostre taglie cioè di quanto le lunghezze dei vostri arti corrispondono per la taglia quindi voi vi misurate l'arto in questione oppure cioè nel senso vi darà le misure dell'arto voi ve lo misurate e capite esattamente se la cosa vi sta bene addosso o meno quindi per esempio dice vi va a dire ok la taglia M ha la spalla lunga 23 cm ha il braccio lungo 96 cm ha il busto vita eccetera eccetera lo potete fare per qualsiasi cosa è un po' complicata da settare c'è solo la versione in inglese purtroppo se non l'avremmo anche utilizzata per l'Italia però è veramente veramente ottima perché riduce proprio al minimo la paura di sbagliare la taglia anche se poi ve lo ripeto ragazzi il miglior modo per avere una sezione taglie cioè un per convincere l'utente sulla taglia è sicuramente andarla a chiudere in chat ok se vi scrive e vi dice qual è la mia taglia voi gli chiedete guarda quanto sei alto più o meno quanto pesi lui ve lo dice e voi gli dite ovviamente dato che avrete sotto mano le vostre tabelle taglie che vi darà il cinese gli dite la taglia aggiungendo una comunicazione manipolante facendogli percepire che voi siete come lui quindi se una persona è alta gli direte guarda anche io sono molto alto peso più o meno come te e ti dico ho provato tutti quanti questo prodotto in particolare ho provato pure quello che mi stai chiedendo tu e ti posso garantire che mi va perfetto quindi ti consiglio sicuramente questa taglia ok per riprendere anche un attimo l'argomento assistenza questo principio ragazzi lo possiamo applicare a qualsiasi domanda se ti chiedono è efficace sì perché l'ho provato anche io eccetera eccetera e ovviamente quando parlate in assistenza siate cordiali siate super cordiali dovete essere proprio degli amici veramente gli amici più gentili che hanno in quel momento perché ci sono tantissime persone che magari hanno avuto una giornata pessima oppure di base hanno una brutta vita e avere una persona che gli parla in maniera gentile che li ascolta che è emozionale con loro è molto empatica gli scalda il cuore e vi posso garantire che abbiamo avuto acquisti in passato anche solo perché noi in assistenza siamo veramente molto gentili con le persone e quindi loro acquistano da noi anche solo per questo motivo e vi sicuro vi potrebbe essere capitato anche voi durante l'arco della vostra vita di acquistare una cosa da una persona solo perché era estremamente gentile simpatica e cordiale ok quindi facendo un piccolo recap le impostazioni le abbiamo salvate le abbiamo settate le pagine le abbiamo settate probabilmente non le abbiamo ancora settate perfettamente perché ci occuperemo del copy in una seconda fase quindi anche lì andremo a creare prima i template e poi il copy perché così almeno riusciamo a affrontare ogni argomento in maniera verticale il menu l'abbiamo settato le preferenze l'abbiamo settato manca il logo perché anche lì andremo a vedere una prossima lezione con la creazione delle grafiche il tema l'abbiamo inserito le applicazioni le abbiamo aperte e settate tutte quante nel momento in cui ovviamente sms bump verrà attivato partiremo subito da quello con la prossima lezione ok scontistica anche qua la andiamo a attivare solo con la creazione del sms prodotto l'abbiamo creato ora le ultime cose che ci rimangono da fare sono la creazione del tema la creazione della pagina prodotto e ovviamente noi dato che andremo a operare in maniera un po' differente andremo alla fine a creare tutto quanto il copy in una volta così potremo ragionare molto bene sulle barriere emotive su perché dire una cosa anziché un'altra su come si va a comunicare in maniera autorevole o in maniera semplice sulla funzione di alcune sezioni quindi dove sta il copy madre come si manipola come si parla dei servizi come si aumenta il valore dei servizi eccetera 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 nella prossima lezione invece nella prossima sezione andremo a vedere come si utilizza un page builder vi farò vedere anche come andare a sfruttare un tema perché ultimamente vi abbiamo fatto vedere una creazione store soltanto tramite page builder ma posso capire perfettamente che molti di voi come vedo tutt'oggi in consulenza non sanno utilizzare perfettamente un page builder e ci vuole tempo e pratica e non tutti hanno tempo quindi vi farò vedere anche come andare a creare un tema un page in un 448 anche con un template comprato da Shopify stesso in questo caso il template che ve lo anticipo già si chiama Prestigia detto questo ci vediamo alla prossima sezione eccoci qua ragazzi alla lezione pratica sulla creazione del template ovvero in questo caso il template dell'home page allora in precedenza siamo andati a creare tutta quella che è la parte di back end ok quindi una volta levato il back end possiamo concentrarci esclusivamente sulla creazione del template dell'home page e subito dopo quella della pagina prodotta in questo modo avremmo lavorato per settori quindi in maniera organizzata e sicuramente può venire fuori un lavoro molto più bello rispetto che iniziare direttamente dal template magari puoi fare le app eccetera eccetera allora dato che molti ragazzi diciamo sono alle prime armi oggi vi farò vedere una tecnica un po' più classica per andare a creare uno store in test noi attualmente andiamo a creare tutto quanto tramite page builder però capisco perfettamente che per molte persone non sia così facile andare a creare subito pronti via un bello store con i page builder perché comunque ci vuole un po' di pratica e tantissimi di voi hanno molta voglia di fare e allo stesso tempo però non hanno ancora diciamo le le capacità tecniche per creare un bello store quindi poi si vanno a far male perché si utilizzano page builder ma fanno un lavoro peggiore di quanto si potrebbe fare direttamente con il tema quindi in questo caso andremo a creare tutta l'home page con il tema di Shopify e tutta la pagina prodotto invece con il page builder così avremo diciamo dimezzato la difficoltà della creazione store e comunque vedrete con i vostri occhi quanto possa anche venire bello uno store con il template ovviamente per quanto riguarda l'home page perché il problema principale per cui si è iniziato ad utilizzare page builder è il fatto che Shopify non ti permette di andare a utilizzare un template particolarmente modificabile sulla pagina prodotto come vedete questo è quello che ci permette di fare Shopify ci permette di mettere un'immagine in questo caso uno o più immagini inserire del testo inserire delle immagini che oltretutto queste immagini non saranno full with route quindi non saranno tutto lo schermo ma saranno immagini riquadrate con i bordi che onestamente è una cosa un po' bruttina a mio parere ci permetterà di modificare il testo tramite colore grassetto corsivo e via dicendo eventualmente inserire un video e basta potremo inserire delle navelle però comunque la customizzazione è veramente veramente minima per non parlare poi dei problemi che potrebbe dare successivamente ok adesso iniziamo con l'aprire il nostro store anche qua faccio una premessa che vale sia per il template classico sia per il page builder la cosa importante col tempo quando inizierete a fare questo lavoro è salvarvi i vostri template cosa vuol dire salvare un template vuol dire che noi qua abbiamo la possibilità di scaricare il file del tema in questo caso quello che noi andremo ad utilizzare è questo questo è il tema originale che viene fornito da Shopify stesso che vi consiglio caldamente di utilizzare perché qui veramente la customizzazione è pari a zero quindi dato che la customizzazione è pari a zero vi consiglio caldamente di comprarne uno anche perché una volta che l'avete comprato potete tranquillamente scaricarlo e riutilizzarlo tornando a noi la peculiarità appunto di questa azione qual è? è che se voi vi create un template bello ci mettete magari all'inizio 5 giorni a crearlo perché non avete la mano perché la prima volta che hai creato lo store dopo potete salvarvelo e potete direttamente ributtarlo sul prossimo store la volta seguente così dovrete soltanto andare a cambiare testi e immagini questa è anche una tecnica che noi utilizziamo spesso per andare a creare uno store di test magari anche in meno di 24 ore quindi io ho veramente in anni e anni di esperienza ho accumulato tantissimi template creati da me quindi mi basta andarne a scegliere uno lo butto qui sull'home page in caso contrario lo si butta sul page builder ok adesso magari vi faccio vedere al volo come si fa adesso vediamo se abbiamo qualche pagina ok non abbiamo ancora nessuna pagina creata eventualmente lo andremo a vedere dopo per non perdere troppo tempo comunque questa questa tecnica si può applicare come vi ho detto sia al tema che al page builder ed è veramente veramente ottima per abbreviare notevolmente i tempi adesso io ho scaricato un tema che si chiama prestigio ok costa attorno ai 300 dollari so che è una spesa magari per alcuni un po' un po' grossa però vi consiglio caldamente di farla perché la fate una volta e ce l'avete per sempre ok ovviamente col tempo poi magari dopo un annetto o due dovrete ricomprare un altro perché i temi si aggiornano poi questa è una cosa che non dovrei neanche dirvi nel senso che Shopify predilige che per ogni store compriate un nuovo tema ok però ovviamente detto fra noi è impossibile una cosa di questo genere perché se dobbiamo andare a testare magari 3, 4, 5 store andiamo a distruggere quello che è il nostro budget se ogni volta dobbiamo comprare un tema e poi non poterlo riutilizzare su altre piattaforme però ovviamente Shopify col tempo crea dagli aggiornamenti che vi possono mettere possono mettere e anzi vanno hanno l'obiettivo a volte di mettere i bastoni tra le ruote a tutti quei template che essendo diciamo scaricati e riutilizzati nel tempo non si aggiornano quindi hanno le versioni passate e quindi vengono penalizzati e a volte iniziano anche ad essere inseriti dei bug e via dicendo adesso prima cosa da fare quando inserite il tema quindi aggiungiate per aggiungere il tema vi basta schiacciare qua su carica file zip buttate dentro come vi ho fatto vedere prima il file compresso e vi apparirà qui in questa schermata prima cosa da fare è pubblicarlo anche se non è customizzato non importa lo pubblichiamo lo stesso perché tanto non siamo online non abbiamo nessun tipo di sponsorizzata attiva ovviamente se in questo caso magari per farvi un esempio quando noi iniziamo a collaborare con delle aziende che hanno advertising attivi hanno comunque sponsorizzazioni che corrono sulla pagina non andiamo pubblicarlo subito prima completiamo il tema nella sezione nella sezione di back e poi lo andiamo a pubblicare quando è perfetto e completo così che non dobbiamo andare a rovinare quella che è la conversione giornaliera che è il sito diciamo al quale il sito punta ok se ovviamente ha dell'advertising attivo come vedete il template ha già dei colori di base inseriti perché ho preso un vecchio template che utilizzavamo per uno store beauty e ovviamente ha già dei colori di base che possiamo andare a riutilizzare io prima li ho sistemati un attimo per renderli un po' più armoniosi come vedete vedete qua io avevo già creato in precedenza una sezione nel footer con email whatsapp orari così ogni volta non dovevo andarmela a riscrivere vedete acquista ora il tuo nome del prodotto con il pagamento alla consegna express in questo caso siamo in drop quindi non abbiamo pagamento alla consegna andremo a cambiare lo vedete anche qua copyright 2022 e vi dicendo ok questo per farvi capire quanto salvarsi template è importante perché vi fa risparmiare veramente tanto tanto tempo ok prima cosa da fare ovviamente io poi qua ho eliminato tutto per andarlo a creare direttamente con voi prima cosa da fare quando si apre il template andare su impostazioni tema e settarsi tutte quante queste sezioni primo i colori ovviamente qua li abbiamo settati abbiamo voluto fare uno store con header e footer neri però il bag sarà bianco i bottoni abbiamo voluti customizzare diciamo andare incontro andare contro quello che solitamente diciamo ovvero il bottone solitamente va verde però in questo caso essendo una nicchia essendo rivolti a una nicchia di ragazze che comunque bene o male sanno lavorare sui social sanno muoversi all'interno di un sito sicuramente questo non è uno store non è un prodotto che generalmente viene indirizzato a una 35-40enne che comunque i trucchi li usa molto meno che una ragazza abbiamo creato un tasto di questo colore header idem footer customizzati in questo modo slide bar per farvi un attimo capire a cosa si riferiscono le sezioni i bottoni ovviamente sono i bottoni di acquisto oppure i bottoni che si possono trovare in uno slide show leader è questa sezione qua la barra principale ovviamente molti di voi lo sanno però ci sono neofiti che all'inizio ci sbattono la testa quindi abbiamo il colore della barra di background abbiamo il colore del lading e il live test il footer il footer è questa sezione qua bisogna sempre averlo di un colore diverso rispetto allo store quindi se in questo caso il nostro playground store è bianco noi lo mettiamo nero perché il footer deve delimitare la fine dello store e questa cosa è molto importante che la faccia notare in maniera diciamo decisa con un colore nettamente diverso a volte magari io lo metto anche in questo caso avrei potuto metterlo rosa molto scuro ok poi abbiamo la slide bar navigation che cos'è è semplicemente il menu ok in questo caso abbiamo già il menu settato perché vedete quanto è importante avere già settato tutto quanto in precedenza al back end perché possiamo già avere un'idea molto più precisa di come verrà fuori il nostro store qua abbiamo il menu qui abbiamo il tasto dell'assistenza e poi dopo vedremo altre cose infine newsletter pop up non ci interessa per niente e poi qua abbiamo elementi secondari che per il momento non ci interessa subito dopo andiamo al al font che vogliamo utilizzare nello store in questo caso io ho deciso di usare un monserrat semi blog per lading e poi un monserrat regular per il body text io consiglio una cosa anche qua ci sono varie scuole di pensiero ma secondo me è importantissimo avere sempre lo stesso font su tutto lo store ci sono anzi Shopify stesso solitamente vi mette un tipo di font all'heading un altro tipo di font al body text io consiglio sempre di mettere lo stesso identico font e semplicemente cosa facciamo andiamo a cambiare tramite questo tasto qua sotto la grandezza del font vedete abbiamo varie grandezze abbiamo teeny extra thin light regular italic semplicemente una versione del regular però in corsivo medium semi blog quando vedete italic vuol dire che semplicemente in corsivo blog extra blog e black ok un medium è ottimo per un prodotto beauty poi ovviamente se dovete andare a creare magari altri tipi di store potete un attimo andare a testare ci sono tantissimi altri font validi vi basta fare un attimo un bel giro però in questo caso io voglio scegliere questo poi abbiamo il current format che non ci interessa per il momento il color swatch idem animation le possiamo attivare tutte e tre tranne il page però anche questi sono dettagli che per il momento non ci interessano troppo lo share non ci interessa il product grind qui se andate a creare un general e avete selezionato questa cosa da telefono vi penalizza molto perché perché in una collezione lui prende assume un comportamento quale comportamento quello di mostrare il prezzo quando andiamo sopra con il tasto ma ovviamente non è usuale per noi che siamo da telefono e quindi consideriamo che dobbiamo sempre ottimizzare da telefono cioè come vedrete in questa lezione io non andrò mai a guardare lo store da desktop perché non mi interessa lo guarderò solo da mobile l'ottimizzo da desktop nel momento in cui vedo che lo store inizia a prendere piede ok perché è sempre una questione di tempistiche tempistiche e tempo impiegato appunto nel creare uno store perché se mi devo mettere a ottimizzare anche la versione desktop sto sprecando del tempo se poi il mio store non va dato che comunque bene o male su 10.000 visite che potremmo ottenere più o meno massimo 100-200 arriveranno da computer tutte quante le altre da mobile perché ovviamente anche voi ci potreste arrivare a livello di ragionamento da dove guardiamo i social tutti i giorni sui telefoni chi mai guarda i social qualsiasi tipo di social da computer nessuno quindi questa cosa qua vi può penalizzare perché va a mostrare il prezzo solo quando con il mouse siamo sul prodotto o con il dito quindi è un comportamento inusuale e se avete un general toglietelo subito perché se no le persone nella vostra collezione non vedono i prezzi e questo li scoraggia a cliccare sul determinato prodotto ok gli sembra quasi che non stanno andando ad acquistare cioè non capiscono se cliccando lì andranno effettivamente nella pagina dove potranno acquistare quel determinato prodotto poi il kart in questo caso possiamo scegliere due tipi di kart io uso sempre il drawer il page è veramente limitante nel senso che no più che limitante è sconsigliato al 100% l'obiettivo di base nell'e-commerce di base è sempre intrapporre meno azioni possibili tra l'acquirente e l'acquisto finale ok farlo andare su un'altra pagina dove dovrà cliccare un altro tasto è un passaggio un po' più incisivo rispetto che vedere una tendina che scorre da destra con su scritto vai al checkout ok voi direte si devi sempre cliccare bene è vero però il drawer appare molto più in fretta che andare su un'altra pagina ok poi social media qui in questo caso adesso non ce li abbiamo ancora però andremo a inserire subito la pagina facebook che abbiamo creato nel momento in cui abbiamo deciso di strutturare il prodotto ovviamente se lavorate in coppia è sempre consigliabile che una persona si occupi dello store e l'altro dell'advertising se colui che crea che fa l'advertising è anche bravo a fare le creative è un ottimo valore aggiunto perché nel mentre che voi create tutto quanto l'ecosistema di vendita lui si può concentrare sul creare delle belle creative e fornirvi subito i link delle pagine che vi servono per andare a colmare questi spazi poi andando avanti la favicon cosa che andremo a inserire adesso perché come vedete dalla scorsa lezione la cosa che ci mancava più di tutte era il logo ok dopodiché abbiamo la sezione check out però ancora prima di fare tutto questo andiamo a crearci un bel logo allora in questo caso siamo in fase del test quindi non è che dobbiamo andare a creare un logo particolarmente articolato cioè ci basta anche solo prendere un testo e metterlo in una bella creargli un bel effetto e poi buttarlo di nuovo sullo store in questo caso il nostro store si chiama pink top ok quindi andiamo qua pink top in questo caso magari lo mettiamo tutto quanto maiuscolo iniziamo a sceglierci magari il font che può essere sempre il nostro caro non serve meno che darcelo così poi magari gli mettiamo un effetto neon ci andiamo a prendere il colore in questo caso del nostro store considerate che ormai siamo in un periodo dove la semplicità paga veramente tanto quindi inutile magari andare a creare un logo estremamente complicato particolarmente articolato e perderci ore e ore di tempo come vedete io qua in un attimo ho creato un logo che minimal può anche andare molto bene quindi adesso in questo caso ce lo salviamo scarica però già che ci sono vi faccio vedere un trucchetto per andare a crearlo molto meglio quando dovremo andarlo a inserire nel leader ok larghezza 1000 altezza 200 creiamo ce lo andiamo a prendere da qua lo incogliamo lo mettiamo qui così lo salviamo però in questo caso quando lo salviamo lo andiamo a mettere con lo sfondo trasparente ok scarichiamolo e dopo vi farò vedere perché ho fatto questa cosa torniamo a noi allora abbiamo settato i colori settiamo la favicon molti di voi si chiederanno magari cos'è la favicon la favicon non è nient'altro che questa piccola cosa noi iniziamo ad inserirla per essere un po' più professionali poi check out anche qua ce lo settiamo subito quindi semplicemente andiamo a prendercelo e gli accenti glielo ho già settati quindi ho messo che tutti quanti le diciture sullo store sul check out saranno rosa gli errori ovviamente rossi non mettete gli errori verdi ragazzi perché sennò il cliente impazzisce va in confusione totale e l'immagine di sfondo in questo caso magari la possiamo mettere nera quindi possiamo tranquillamente salvarci un'immagine completamente nera ovviamente io adesso lo sto facendo senza guardare perché ho particolare domestichezza poi potete anche aprirvi tranquillamente la pagina del check out perché ho preso ho stretto l'immagine in quel modo creando un formato 1000x200 perché in questo caso la riusciamo a risaltare molto meglio e nel leader vedrete voi con i vostri occhi che se andiamo a inserire un'immagine quadrata questo ci penalizza nel senso che il nostro leader cioè per far risaltare il logo dovremmo creare un leader particolarmente grande e la cosa a livello visivo diventa brutta ok quindi abbiamo settato anche il check out lo stile del tema in questo caso non ci interessa lo possiamo tranquillamente lasciare poi torniamo all'home page e adesso ovviamente prima di andare a fare qualsiasi tipo di modifica allo store dobbiamo andarci a raccontare tutte quante le foto ok e questa è una cosa che ho deciso di fare direttamente con voi così anche voi vedete quanto alla fine sia semplice andare a prendere contenuti di qualsiasi tipo allora in questo caso prendiamo e iniziamo a scaricarci immagini a stack ovviamente primo ho già cercato vi ricordate quando nella sezione precedente abbiamo vedete anche guardate che bella immagina per questo mi sono soffermato molto su ricercare questo prodotto perché già di base ho la possibilità di andare a creare uno store con tanto valore percepito guardate questa immagine come bella lasciamo stare qua le scritte che ora andremo a vedere come riuscire a ottimizzarle però di base è veramente veramente ottimo avere dei contenuti simili questo ci può essere utile per un'eventuale fisarmonica oppure anche per una timeline convertita in caratteristiche questo poi vi farò vedere esattamente di cosa si tratta questa foto ci può essere molto d'aiuto per la pagina prodotto ok e adesso abbiamo finito io mi sono scaricato anche un'altra pagina ho trovato un'altra pagina molto interessante che è questa andiamo semplicemente a salvare tutte quante le immagini nel mentre controlliamo che le immagini che stiamo salvando siano effettivamente utilizzabili ok perché a volte ci fa lo scherzetto che poi non ce le salva e continuiamo a salvare vediamo questa sarà un'ottima immagine per la pagina iniziale per esempio anche questa questa è un'ottima immagine vedete come risalte ha un valore percepito piuttosto alto rispetto a qualsiasi altro prodotto e grazie a una bella trattativa con l'agent siamo riusciti praticamente è vero che potevamo trovare questo prodotto a 20 euro però che senso aveva trovare questo prodotto a 20 euro quando poi magari era così brutto che non saremmo mai oltre che così brutto il prodotto stesso che da lì poi si aprono tante altre dinamiche i contenuti erano così brutti che non saremmo mai riusciti a sfruttare e per lo più se il prodotto che poi arriva a casa della persona è brutto lei rimarrà molto scontenta e non è più come una volta che ah chi se ne frega tanto i drop tanto e tanto no adesso esiste il customer feedback score come vi ho ripetuto anche prima vuol dire che Facebook chiederà alle persone 2.8 di andare a dare un feedback al nostro store quindi chiederà ma ti sei trovata bene con loro ti sei trovata male eccetera eccetera e ovviamente se hai ricevuto un prodotto di bassa qualità inizieranno mettere recensioni negative e questo cosa vuol dire che in un attimo in nostro caso per il feedback score si inizia ad abbassare brutalmente e cosa succede quando si abbassa troppo Facebook ci blocca la pagina e cosa succede se Facebook ci blocca la pagina che noi siamo fregati perché se iniziamo a creare altre pagine uguali lui ci dà illusione e se ci dà illusione cosa succede non può iniziare di nuovo a bloccarci quindi è un gatto che si morde la coda per questo tantissime persone che vanno in private ci tengono poi a non abbassare la qualità oppure a non fare diciamo cavolate perché immaginatevi di brandizzare un prodotto e poi il vostro customer feedback score inizia a scendere brutalmente e vi bloccano la pagina voi dovete ribrandizzare tutto quanto lo stock ok quindi di queste cose se queste foto non ci interessano per il momento le recensioni le andremo a creare in fase finale con il copy ok ci siamo salvati un bel po' di foto adesso semplicemente andiamo su Canva e mentre che lui carica possiamo tranquillamente andare a iniziare a crearci il nostro bel template allora annuncio bar ovviamente questa dovremmo crearla in fase di in fase di inserimento copy però dato che è una cosa così semplice io la inserisco allora qua si aprono anche le scuole di pensiero eccetera però secondo me ragazzi uno story in drop ha una grandissima barriera emotiva la spedizione soprattutto in Italia veramente fracassano i cosiddetti sulla spedizione giustamente perché a chi piace ricevere qualcosa che acquisti anche solo dopo due o tre giorni quindi la nostra tecnica iniziale quando andiamo a creare il nostro story in drop è usare la spedizione gratuita come specchietto per le allodole perché generalmente come avevo detto prima se offriamo qualcosa di gratuito è molto probabile che questa persona non si vada a chiedere le caratteristiche di questo determinato servizio quindi spedizione gratuita fino al in questo caso io adesso metterò una data a caso perché presumo mettiamo a caso che sto creando lo store veramente quindi lo voglio lanciare oggi è l'otto marzo lo voglio andare a lanciare subito dopo soprattutto le 48 ore dal momento in cui ci sto lavorando 8, 9, 10 ok quindi dal 10 vuol dire che online facciamo che spedizione gratuita fino al 20 marzo 2022 quindi mettiamo una certa fretta nell'utente anzi addirittura possiamo mettere il 17 marzo io questa roba qua la vado a cambiare assolutamente la metto 4 giorni cioè se io lancio lo store oggi lo metto oggi l'otto 9, 10, 11 12 il 12 ok la spedizione gratuita fino al 17 marzo 2022 poi anche qua vedete come vado proprio per step lo slide bar menu io in questo caso l'avrò già settato voi dovete semplicemente inserire il menu che volete andare ad avere qua sotto potete inserire un menu secondario ok io non lo faccio però se siete un brand particolarmente sviluppato e non volete magari avete un general su un general si lavora in maniera diversa quindi qua magari abbiamo la categoria uomo abbiamo la categoria donna categoria bambino magari abbiamo la guida alle taglie e poi ci sono un sacco di altre categorie di cui dovremmo andare a parlare quindi pagina delle spedizioni pagina per il customer care tracking page eccetera eccetera quindi il menu secondario ci può essere molto d'aiuto per andare vedete a differenziare l'importanza delle determinate sezioni quindi in questo caso adesso io la rimuovo perché mettere le informative nel menu a tendina non è molto utile a meno che non sia un'informativa sull'espedizione sui rimborsi nel caso ovviamente siate un private i rimborsi li facciate in maniera cioè nel senso lo vogliate evidenziare come un valore aggiunto ok quindi il cambio taglia eccetera eccetera dopodichè andiamo a settarci leader leader dobbiamo andare semplicemente a inserire il nostro bel il nostro bel logo come vedete vi faccio vedere l'esempio di cui vi parlavo prima vedete se io metto un'immagine quadrata lasciamo stare che adesso ha il fondo bianco immaginatevela con il fondo trasparente vedete quanto spazio occupa già di base invece guardate questa perfetta centrata proprio alla perfezione non devo neanche andare a toccare i tasse di grandezza ok è proprio affixato perfettamente poi molti utilizzano lo sticky leader che è il leader che ti segue per tutto quanto lo store a me personalmente non piace quindi lo tolgo è un'altra cosa che io vi sconsiglio caldamente di utilizzare perché a meno che non siate bravi a sfruttarlo quindi io magari su store di design di particolare design lo utilizzo però il trasparente leader perché dovete essere molto bravi a calibrare la foto iniziale dello slideshow quindi togliamolo e possiamo andare avanti ok adesso cosa dobbiamo fare andarci a creare tutto il template di base quindi senza neanche iniziare subito a mettere le foto i testi io cosa faccio prendo inizio a pensare ok come voglio strutturare il mio store quindi subito so già che di base devo andare a inserire uno slideshow che poi nel caso avremo tante immagini che avanzano lo andremo a implementare con più foto in questo caso ne utilizziamo solo una e vi starete chiedendo perché lo slideshow è magari non un'immagine singola perché questa sezione nel tema prestige ok io adesso vi parlo delle peculiarità di questo tema poi ogni tema ha le sue caratteristiche il bello è che abbiamo la possibilità di scegliere due tipi di slideshow lo slideshow fullscreen ok quindi in questo caso cosa vuol dire vuol dire che lo slideshow ha una determinata grandezza e l'immagine che andiamo a inserire in questa sezione si adatterà alla sezione stessa se io tolgo il fullscreen sarà la sezione che si adatta alla grandezza dell'immagine quando ho inserito questa cosa già i template a mio parere hanno fatto un passo in avanti perché una volta c'era solo la possibilità di inserire delle immagini della grandezza stabilita dal template stesso e questo secondo me limitava veramente veramente tanto adesso con questa cosa potremmo possiamo fare di tutto infatti vedremo che lo slideshow lo utilizzeremo anche solo per inserire dei banner perché ci basta togliere il titolo l'heading e l'opacizzante sull'immagine e questa diventa una vera e propria in sezione che si adatta alle nostre immagini quindi che ne mettiamo un 1000x200 un 750x1100 la sezione si adatterà alla nostra immagine ok in questo caso magari vediamo di lasciarla perché eventualmente andremo a inserire anche un bottone per andare direttamente alla pagina di acquisto quindi mettiamo uno slideshow subito sotto andiamo a inserire un reach test con quello che io chiamo il testo adesso facciamo un piccolo un piccolo riassunto di quello che abbiamo già parlato in precedenza quando andiamo a creare uno store ragazzi dobbiamo tenere in considerazione tanti fattori che sono i 5 principali quindi valore percepito del prodotto abbattere le barriere emotive creare una customer experience dedicata a qualsiasi tipo di persona e ottenere della social proof creare e implementare la social proof ok quindi in questo caso io andrò a a creare un home page che già di base può andare a convertire il mio utente ok l'utente base poi ovviamente andremo a creare una pagina prodotto che sarà molto più strutturata per poter riuscire a convertire anche quegli utenti che non si sono sentiti abbastanza coinvolti nella nostra home page quindi qui il reach test già io non uso mai un doppio titolo perché distoglio un po' l'attenzione cioè già il nostro store non verrà letto per intero è importante che abbiamo pochi pochi titoli e molto decisi a livello anche di diciamo proprio stile ok qua mettiamo un bello ricci test vt immagine poi subito sotto possiamo andare a inserire quello che è un anzi in questo caso mettiamo direttamente un future product così vi faccio vedere una cosa allora questo è il nostro future product ok selezioniamo già il prodotto in questione pink fridge ok qua aggiungiamo ma guardate il quantity selector in questo caso non ci interessa perché è molto difficile che una persona vada acquistare due due frighi da 230 euro per ora in fase di test iniziamo ad accontentarci di vedere se le persone ne acquistano uno che sarebbe già tanto ok in questo caso lo possiamo lasciare in questo modo però come vedete qua ci sono tante cose che possiamo andare a inserire ok anche una cosa che solitamente funziona molto bene è il local pick up liability che possiamo andare a inserire qui sopra che adesso ovviamente lui non ce lo vuole dare vediamo se salvando ce lo dà ok vediamo un attimo perché non ce l'ha dato molto probabilmente non ce l'ha dato perché sul prodotto stesso non abbiamo inserito eccolo qua perché ce ne sono zero disponibili quindi quando ce ne sono zero disponibili lui cosa fa direttamente non te lo fa vedere ok per non abbassare il valore del brand quindi qua mettiamo disponibili 14 perché così pochi perché creiamo scarcity cioè il nostro obiettivo non è fargli vedere che ne abbiamo centinaia di migliaia è un po' quel fenomeno che all'inizio c'era alla Apple che quando andavi a chiedere l'iPhone ti dicevano guarda devo un attimo controllare se ne abbiamo ancora uno in magazzino era una frase che a livello aziendale gli era imposto di dire per crearti un senso di fretta nell'acquisto perché magari anche se la persona era lì sul momento poteva avere dei ripensamenti poi ovviamente era palese che ne avessero pacchi nei loro nei loro magazzini quindi vediamo un attimo se ce lo fornisce vedete 14 pezzi in magazzino ok questi 14 pezzi ovviamente corrispondono alla quantità di stock che abbiamo inserito qui quindi ovviamente poi vi dovete ricordare di giorno in giorno di andare a controllarlo e settarlo al meglio ok poi saliamo andiamo a eliminare direttamente questa scritta qua vedete questa bruttissima linea che abbiamo qui in questo caso a mio parere è veramente brutto da vedere quindi cosa facciamo per ottimizzare il tutto andiamo magari a metterci del contenuto al di sopra ok quindi in questo caso cosa possiamo fare magari andiamo a aggiungere possiamo fare una roba di questo genere andiamo a aggiungere due slice show di cui uno lo lasciamo così a tre step e l'altro magari lo mettiamo singolo per poi mettergli sotto un banner lo mettiamo già in maniera che sia ottimizzato ok togliamo ovviamente anche il testo e via poi subito sotto il prodotto ovviamente ci interessa magari avere un eventuale video ok adesso vi faccio vedere un po' come andarci a estrapolare questo determinato video allora per andare a estrapolare un video di questo genere è molto semplice ragazzi schiacciate su ispezione fate partire il video se si carica mentre il video è partito schiacciate lì quel tastino che ho appena cliccato e lui vi fa vedere il link video qui fate doppio clic open il new tab quindi dato che vogliamo un video subito qua sotto prendiamo e ci mettiamo background video ovviamente ovviamente ragazzi dovreste avere un canale youtube parallelo sul quale poi andate a caricarlo ok eventualmente magari vi faccio vedere anche un altro modo col quale potremmo andarlo inserire è questo che è il feature video ok sono simili però comunque due categorie diverse e se abbiamo la fortuna infatti dopo andremo a vedere se riusciamo o meno di riuscire a creare una gif non troppo pesante possiamo direttamente inserire la gif tramite uno slideshow ok iniziamo a salvare iniziamo a avere un prodotto salvato poi subito sotto ci andiamo a creare dei testi per andare poi a manipolare l'utente ok delle sezioni per manipolare l'utente ovviamente ragazzi quando parlo di manipolazione non pensate a qualcosa di negativo nel senso che l'utente come avevo sempre detto online noi non abbiamo tante possibilità di fargli vivere delle emozioni quindi queste emozioni le dobbiamo far vivere attraverso la manipolazione quindi un contenuto di testo molto forte che gli faccia capire che c'è un problema nella sua vita e allo stesso tempo gli faccia percepire che subito dopo siamo noi la risoluzione a questo determinato problema ok quindi qua ovviamente saranno infraposte da immagini dopodichè possiamo continuare e io prediligo molto sotto queste sezioni puoi andare a inserire magari una timeline che potrebbe essere molto interessante vediamo un attimo timeline ok questa timeline possiamo già contrassegnarla con alcuni testi quindi possiamo mettere comodo utile poi nella lezione riguardante i copy vi farò capire più nel dettaglio che cosa perché siamo andati a inserire queste cose andando avanti qua sotto dato che abbiamo già come vi ho detto abbiamo parlato qua abbiamo creato una comunicazione madre che faccia capire subito all'utente creeremo una comunicazione madre che faccia capire subito all'utente perché è qua e cosa vuole fare ok cioè perché su questo sito è perché deve acquistare abbiamo dato abbiamo creeremo qua tre diversi pain point magari sul quale si può basare il nostro prodotto o tre caratteristiche principali qua sotto diamo la possibilità di acquistare il prodotto qua aumentiamo il valore percepito del prodotto con un bel video qui andiamo a manipolare l'utente qui riparliamo delle caratteristiche dato che abbiamo già parlato tanto adesso del prodotto possiamo andare a inserire magari un testo con immagine per iniziare a parlare dei servizi quindi in questo caso magari qua parleremo iniziamo a dare non dei titoli definitivi ma che vi facciano capire la categoria di a cosa servirà questo testo assistenza qua parleremo dell'assistenza qui parleremo del chi siamo però ovviamente non sarà denominato come chi siamo perché ultimamente tantissimi utilizzano questo tipo di comunicazione e non è il top ok dovete capire che quando c'è tanta massa di persone online che utilizzano la stessa identica comunicazione bisogna andare controcorrente bisogna differenziarsi per forza di cose qui invece andiamo a creare una manipolazione negativa per chi è stato attento nelle lezioni successive ricorda che cos'è se no ve lo andrò a ripetere senza problemi manipolazione positiva ok la mia timeline rich test aggiungiamo qui possiamo andare subito dopo a inserire magari eventualmente un altro test per concludere il tutto anzi qui andiamo a fare una cosa un po' diversa allora vediamo se adesso lui ce lo dà già qua non ce lo dà allora salviamo applicazioni vi faccio vedere un'altra app se in questo caso non stiamo utilizzando un page builder che ha già questa funzione incorporata e vogliamo andare a inserire e vogliamo andare a inserire un instagram feed nel nostro home page ovviamente shopify non ci dà questa possibilità quindi aggiungiamo l'app installato e possiamo andarlo a inserire direttamente adesso ovviamente io non ho subito una pagina pronta per andarla a collegare quindi eviteremo di farlo però volevo farvi vedere appunto anche questa app che per chi non utilizza subito un page builder sull'home page può essere molto utile e vi fa risparmiare molto tempo quindi subito dopo andiamo a inserire un'altra sezione rich test per parlare eventualmente dei nostri servizi infine ci andiamo a inserire quello che è l'us ovviamente il widget deve essere collegato a un prodotto non si collega automaticamente quindi in questo caso lo selezioniamo e lo associamo al pink fridge ok e così abbiamo attivato anche il nostro caro lux ok ci siamo sarà un po' buggato normale rifresciamo e neanche 20 minuti abbiamo creato tutta quanta la nostra home page una home page che rispetta quasi pienamente le caratteristiche che ci siamo andati a dire prima per il momento quindi abbiamo creato un qualcosa che racchiude un po' tutto il nostro store quindi racchiude le caratteristiche principali della pagina prodotto quindi una pagina dove vengono specificate le caratteristiche dove viene data la possibilità di acquistare dove si aumenta il valore percepito del prodotto attraverso video e gif dove si manipola l'utente in senso positivo in senso negativo e dove si parla ancora di nuovo delle caratteristiche abbiamo la pagina dell'assistenza quindi che è direttamente proporzionale alla pagina del contattaci ok abbiamo la pagina abbiamo la sezione dei servizi ok che anche questa è diciamo direttamente proporzionale magari alla pagina del traccio al tuo pacco oppure sempre per quanto riguarda contattaci e pagina prodotto in più abbiamo anche la pagina direttamente proporzionale alle top recensioni ok ovvero il nostro caro luxo ok abbiamo riassunto il nostro store nell'home page dopodiché adesso ci resta soltanto da iniziare a inserire le immagini quando vado a crearmi uno store di base i formati che mi servono che io mi vado sempre a creare senza neanche perdere troppo tempo sono tre sono il formato 1000x750 il formato 1000x200 che in questo caso abbiamo già creato che ci serve per i banner principalmente e infine il formato quadrato ok adesso il nostro store il nostro caro amico canva ha finito di installare tutte quante le foto e possiamo iniziare a modellare un po' il nostro store quindi andiamo qua questa non ci serve più questo ce lo spostiamo vicino dobbiamo scegliere la foto principale allora la foto principale ragazzi deve essere la più bella che avete ok proprio la più bella in assoluto e la andiamo a fare 1000x750 in questo caso quindi andiamo un po' a decidere a mio parere la più bella tra tutte quante anche questa in realtà non era affatto male se vogliamo dirla tutte magari anche un'immagine così però non sarebbe affatto male anche se non è per niente in tinta con i colori del nostro store questa immagine è molto minimal dovrebbe funzionare bene ok teniamo questa inserire qui brutta cosa di questa immagine purtroppo che ha delle scritte ok però possiamo tranquillamente andarle a modificare in qualche modo adesso vediamo anche come ok quello che ci interessava a noi però era lei carina la utilizzerei addirittura quasi quadrata quindi adesso abbiamo deciso di provare queste immagini ce le scarichiamo tutte quante in questo caso dato che abbiamo già tante immagini valide evitiamo di andare sempre alla gara con quella lì che avremmo dovuto modificare in quel caso con photoshop potevate fare copia colore e la sovrastavate con canva li potevate mettere magari un eventuale banner davanti vediamo un attimo le impressioni che ci danno questa bella però cozza un po' con i nostri colori questa secondo me è la più gettonata però è un po' un po' sgranata onestamente ma diciamo che con l'apacizzante potrebbe anche andare invece vediamo questa questa è troppo minima è fuori dei colori del nostro solo quindi per il momento utilizziamo questa ovviamente qua andremo a inserire del testo manipolatorio per il momento aggiungiamo un tasto acquistatore il nostro tasto riporterà rigorosamente alla nostra pagina prodotto ovviamente in questo caso andiamo a modificarci anche i tasti mettiamo un background nero mettiamo il testo del bottone rosa così da brandizzarlo al massimo qua sotto tre immagini ovviamente queste quadrate per non occupare troppo spazio e non rendere lo store difficile da leggere allora io qui dopo andrei a comunicare magari sul versante caratteristiche quindi possiamo anche direttamente inserire la ragazza che l'utilizza in questo modo anche questa immagine era molto carina per un page e addirittura è praticamente delle grandezze che ci interessano noi quindi andiamola subito a vedere se potrebbe starci bene come vedete vi sto facendo vedere il processo di creazione quante prove faccio nonostante alla fine possa magari anche perdere un po' di tempo però questo è il fulcro del lavoro dello store manager creare uno store bello ragazzi cioè il bello vende e se in più a fianco al bello ci è creato e ci è affiancato una comunicazione vincente non c'è neanche bisogno che ve lo spieghi io che abbiamo delle possibilità di acquisto delle probabilità di acquisto molto molto più elevato guarda questa immagine è praticamente perfetta ci fa subito capire all'utente perché qua sopra cosa deve fare quindi perfetto questo direi di conseguenza possiamo andare a sfruttare l'immagine che abbiamo scartato in questo caso questa qua questa è veramente ottima vediamo un attimo se non perdiamo troppa qualità perfetto questa la centriamo subito dopo possiamo andare andare a inserire un'immagine di nuovo della ragazza anche in questo caso avere una ragazza direttamente tramite l'e-express che è soprattutto non è asiatica è veramente una gran cosa e soprattutto vi consiglio una cosa da oggi quando cercate i prodotti andatevele a cercare anche su Alibaba perché su Alibaba il prodotto viene venduto molto meglio dato che di base si fanno gli stock in quel sito che quindi di base creano degli shooting molto ma molto più accattivanti in questo caso abbiamo inserito un'immagine del beauty aperto un'immagine di una ragazza assieme al nostro pink top possiamo andare a inserirla a inserire un'altra immagine del pink top contestualizzato magari senza persone di fianco ok allora abbiamo inserito la prima immagine ovviamente non mettiamo questa lo mettiamo questa prima e ovviamente togliamo il testo principale e via potremmo anche in realtà togliere no se no poi non andiamo a leggere praticamente niente questa qua testo ok come vedete ragazzi io veramente non sto considerando minimamente la versione da computer perché proprio non ci interessa per niente in questo caso cioè è proprio solo una distrazione per voi già creare uno store bello non è scontato ok è semplice ma non è scontato in più ovviamente della versione mobile in più se dobbiamo andarci ad impelagare con tutta la creazione della fase computer ovviamente io d'oggi la vado anche ad ottimizzare però io a voi personalmente non lo consiglio più in nessun perché molti poi si concentrano sul farla bene da computer e da telefono quando in realtà dovrebbero concentrarsi principalmente sul farla bene da telefono ok poi qua sotto andrei magari ad inserire un bel banner di questo tipo lo facciamo nero mettiamo il caso che la nostra pagina si chiama pink e la pagina e la pagina youtube magari si può chiamare a sinistra anche ok ok top e giustificiamo sulla sinistra vediamo ovviamente un font un po' più leggero ora possiamo andare avanti qui ovviamente ancora adesso non c'è l'immagine prodotta quindi giusto per iniziare a dare un senso allo store anche se è una cosa che poi faremo in seguito quando andremo a creare la pagina prodotto iniziamo magari ad inserirla adesso in questo caso ci possiamo prendere tranquillamente questa ok adesso vediamo che purtroppo qua ce l'ha ritagliata veramente male solitamente questo passaggio io lo faccio su photoshop però vorrei che tutti quanti voi vedeste quanto anche con canva è possibile creare qualsiasi tipo cioè creare uno store bello ottimo ok no non va bene quindi andiamoci a vedere se abbiamo un'altra immagine anche questa non va bene allora sapete cosa facciamo prendiamo la testa al toro ok eccoci tornati ragazzi breve interruzione che ho cambiato computer anche per farvi vedere un attimo il layout che appare da un computer diciamo un macbook pro quello che stavo museando prima era un classico air allora nel frattempo ho aggiunto direttamente l'immagine piccola cosa da sapere quando si aggiunge appunto l'immagine io vado sempre a ritagliarla e inserirmela qua su canva perché solitamente il bianco di aliexpress è un bianco un po' più tenue di quello che c'è su canva su shopify che è un fff quindi per non creare il contrasto riquadro bianco panna e poi avere il bianco diciamo schietto dello store me la vado a ritagliare la vado direttamente a inserire per i neofiti in questa sezione ok ve lo mostro pink fridge la inseriamo qui ok quindi per continuare io ho fatto anche un altro piccolo passaggio ovvero sono andato a creare un piccolo video con quel video che prima avevamo salvato ok come ho fatto ho caricato il video ok l'ho caricato semplicemente dopo mi sono andato a ritagliare i frame che più mi piacevano perché come vedete molti frame qua hanno delle scritte cinesi ok scritte in cinese e questo ovviamente non ci piace per niente quindi cosa ho fatto semplicemente mi sono andato a ritagliare quelle che mi piacevano di più ho fatto la stessa identica cosa qui a ritagliarmi questi frame idem ho fatto con questo vedete questa è veramente una bella grafica cioè trovare una grafica di questo tipo diciamo non dico fortunati però comunque è una cosa ottimale dopodichè la peculiarità di canva che molti conoscono ma molti altri no è che ci dà la possibilità di andare a salvare i progetti comprimendoli in un unico cosa vuol dire vuol dire che se io vado a selezionare pagina 1 pagina 2 pagina 3 e poi metto come formato video mp4 quando lo andrò a scaricare lui me li comprimerà tutti quanti assieme ok quindi questo vi può far già capire che si possono anche andare a creare dei video creative molto interessanti con dei banner quindi immaginatevi che qua vado a mettermi un banner qua me ne vado a mettere un altro qua un altro sempre sulla sinistra poi li animo tramite il tasto animazione comprimendo tutto quanto il video assieme riusciamo a creare un video animato molto carino poi magari posso mettere anche un out quindi in questo caso magari posso andare a prendere infine infine mi vado a mettere semplicemente quello che è il logo ok immaginatevi così ok lo vado a mettere in questo modo poi lo animo scusate sbagliato lo animo magari con l'effetto un bel effetto potrebbe essere quello neon se ce lo mostrasse vabbè ora non ce lo mostro però anche solo un pan così finale quindi dopo tutto il video apparirà questa schermata con l'animazione del logo e infine si concluderà così il video dopo aver creato questo piccolo video in maniera molto veloce abbiamo preso un account vimeo ok e l'abbiamo caricato su di esso ok caricandolo vi basta ovviamente creare un account gratuito prendete copiate il link tramite questo tasto tornate sul template ok e lo andiamo ad inserire proprio qui background video se ho usato un macbook pro tutta quanta la sezione di modellazione della sezione stessa ce la avrete sulla destra lo andiamo ad inserire qua adesso non me l'ha copiato ok andiamo a copiare copia link lo vado a inserire qui e tac abbiamo il nostro bel video integrato nello store ok che può fare comunque la differenza poi qua avremo la prima parte di manipolazione negativa ok in questo caso a me non piace molto andare a mettere magari immagini di trucchi brutti eccetera perché il testo farà già la sua gran parte nel senso che se scriveremo in maniera coincisa ordinata ed efficace andare a inserire immagini troppo emozionali di trucchi diciamo magari marciti eccetera potrebbe anche fare un effetto contrario nell'utente quindi possiamo sia andare a prendere un'immagine di quel tipo che andarci a prendere sempre una classica immagine che abbiamo salvato nei nostri caricamenti quindi in questo caso per me una cosa ottimale potrebbe essere andare a prendere questa immagine qua questa è molto carina altrimenti possiamo iniziare a fare anche un po' di prove ragazzi quindi per esempio potremmo prendere anche dobbiamo vedere un attimo già le immagini che abbiamo utilizzato qua sopra per non riprendere cioè in questo caso potremmo andare a fare di nuovo immedesimare l'ipotetica ragazza con questa immagine qua che è molto carina potremmo però invece prendere un'altra cosa pelli irritate pelli irritate di questo tipo per andare poi a comunicare dato che comunque la comunicazione sarà sul fatto che i trucchi lasciati al sole possono appunto poi causare irritazioni brufoli ecco questa è un'immagine quasi perfetta probabilmente il background non è troppo in linea con i nostri colori ricordate ragazzi che anche i colori se riuscite a ripeterli in maniera diciamo costante nel vostro store sarebbe ottima come cosa quindi se stiamo utilizzando il rosa evitiamo di mettere un'immagine che abbia uno sfondo blu ok no dai è accettabile possiamo utilizzare questo questo possiamo andare a utilizzare appunto per quando andremo a parlare del fatto che trucchi cosmetica lasciate al sole possono rischiare di marcire e di conseguenza rischiano poi di creare degli sfoghi creare irritazione eccetera 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 dopodiché parliamo di manipolazione positiva e possiamo andare a inserire tranquillamente l'immagine della ragazza qui sotto invece andrei a mettere adesso qua l'abbiamo inserito prima giusto per però nel mente che stavo facendo lo store avevo notato che abbiamo tre foto dove andiamo a raffigurare i cassetti i cassettini vari quindi potrebbe essere interessante andarlo andarcele a riprendere e sfruttarle per far vedere la capienza di questo prodotto quindi in questo caso le foto erano questa anche se queste qua ricordiamoci ragazzi di non bruciarci tutte le foto perché abbiamo una pagina prodotto e poi soprattutto abbiamo ancora le creative ed è ottimale usare delle foto per le creative intendo che non abbiamo utilizzato per costruire tutto quanto lo store una cosa del genere dato che comunque siamo come detto prima stiamo intercettando un gruppo di ragazze ok quindi un gruppo di persone che ragazze giovani che hanno una customer experience più evoluta rispetto alla media delle persone online possiamo permetterci anche di fare un giochino di questo genere già un quarantenne una cosa così non la capisce ok una ragazza giovane capisce che è un po' un gioco di parole che lei cliccando può scorrere tra tutte quante le sezioni quindi semplicemente in più possiamo vedere se ok non ce l'ha non importa ottimo adesso andiamo avanti assistenza qui per aumentare il valore percepito dell'assistenza possiamo fare una cosa molto carina andiamo per esempio su abbigliamento magliette ci prendiamo una ragazza carina che non sia ovviamente troppo invasiva possiamo prendere per esempio lei e in un attimo al posto che mettere un classico bollino lì buttato o la classica icona dell'assistenza come può essere un un telefono o qualcosa di simile l'abbiamo valorizzata al meglio adesso e abbiamo anche la nostra bella assistente lì pronta qui al fondo possiamo mettere creare una grafica con dei banner per esempio con dei banner dove parliamo di assistenza spedizione gratuita eccetera eccetera se lo vedono su una grafica la maggior parte delle volte gli danno molta molta più più valore ok se lo vedono su un banner dicono sarà la solita cagata se invece lo vedono su una grafica solitamente detto che magari gli diano un po' più di valore quindi ovviamente poi dovete prendervi la briga di andarla a modificare volendo possiamo fare una kick più ancora per valorizzare ancora meglio lo store la rendiamo una gif vediamo se c'era carica però super breve non avrebbe neanche senso perché non gli diamo neanche il tempo di leggere che subito poi si va a riproporre quella che è l'animazione quindi ovviamente non è il top come vedete in un attimo siamo riusciti ecco una cosa che qua già non mi piace per esempio è questa cosa qua c'è due immagini attaccate in questo modo che non matchano troppo bene non è il top quindi in questo caso potremmo magari andarci a prendere sempre uno slideshow come vedete in veramente neanche mezz'oretta ovviamente adesso parlando è tutto non mi sono potuto concentrare però generalmente se ci prendete la mano veramente in pochissimo tempo riuscite a creare un home page degna di conversione ok qui magari andremo anche inserire un piccolo titolo perché così mi sembra un po' spoglio qua abbiamo il frigo qua avremo tutte quante le parti di manipolazione qui abbiamo un bel video che comunque tende a convertire molto bene l'utenza soprattutto con la femminile qui abbiamo parte di manipolazione negativa dove andremo a far pressing sul fattore appunto che se non mantengono i trucchi in un soprattutto ora che arriva l'estate quindi questo prodotto è stato pensato anche che il senno di poi sta arrivando l'estate potrebbero venire gli sfoghi irritazioni qua andiamo a fare manipolazione positiva cercando di farla anche già in medesimale con questo piccolo frigo che comunque è già un bello oggettino e potrebbero volerlo anche solo per averlo in camera qui puntiamo tanto sulle caratteristiche interne del prodotto facciamo vedere che appunto ci sono tutte queste robe secondo me piacciono molto alle ragazze fargli vedere che ci sono tutte quante le sezioni per qua penso sia per i rossetti qui per la cosmetica qui è pure ventilato poi abbiamo valorizzato molto l'assistenza facendogli percepire quasi che siamo un brand un brand concreto che esiste veramente questa è una cosa che facilita molto la conversione in Italia quando gli facciamo percepire che il brand esiste veramente magari nella sezione del prodotto vi farò vedere anche quando andremo a fare dei mock-up proprio magari dei cartelloni pubblicitari in giro per la città con il nostro logo e le nostre grafiche questo potrebbe aiutare molto la conversione infine delle belle grafiche ovviamente molto semplici in questo caso per andare a far percepire tutti quanti i nostri servizi vi chiederete sì ma non hai appena parlato qua dell'assistenza eccetera sì ma è giusto ripeterlo ragazzi bisogna ripeterle le cose nello store perché non è detto che lui legga subito questa parte qua magari poi va semplicemente a leggersela qua e infine abbiamo le nostre belle recensioni che vi farò vedere alla fine nella parte del copy come andare a ottimizzare perfettamente ok quindi questo per farvi vedere quanto è facile andare a creare una bella home page anche con un con un prodotto diciamo con un con un tema non customizzabile al 100% per questo ragazzi è tutto ci vediamo alla prossima sezione eccoci tornati ragazzi alla sezione sulla creazione storia nella sezione prima abbiamo creato tutta quanta l'home page appunto in maniera un po' diciamo articolata e completa per andare a ovviare al problema che tantissime persone non percepiscono il fatto che abbiamo un menu qui in alto a sinistra e quindi è opportuno creare un home page un po' varia che gli permetta che ci permetta di convertirli in qualsiasi caso ovviamente questa volta l'abbiamo creata tramite un template per farvi vedere appunto quanto è facile andare a creare qualcosa di carino anche utilizzando un semplice template ovviamente ragazzi questo template è stato appena comprato quindi aggiornato se avete dei template vecchi alcune funzionalità potrebbero essere obsolete quindi potrebbero se non averlo non averle ci direi a precisare che il metodo che vi sto facendo vedere a parte il fatto che non abbiamo ancora settato le pagine perché sono praticamente composte solo da copy ve lo sto facendo appunto vedere perché vorrei che la maggior parte di voi che ovviamente parlo per chi non ha un po' più metodo di creazione store per ispirarvi nel senso che io lavoro così noi lavoriamo così perché è giusto fare le cose in un determinato ordine per farle in maniera perfetta senza dimenticarsi nulla quindi io ci tengo sempre a ripeterlo prima si va a completare tutto quello che è il back end dopodiché si crea il template dell'home page il template della pagina prodotto anche perché comunque siete in un mood creativo quindi mischiare il mood creativo al mood comunicativo viene un po' un pastrocchio ok quindi prima andiamo a costruire tutto quanto il template le grafiche e dopo andiamo a inserire la comunicazione anche perché è giusto io stesso lo faccio magari prendersi 5 minuti perché ovviamente dopo che siete lì che lavorate da 8-9 ore per creare l'intero store l'intera struttura a livello grafico e di back end avete la testa un po' piena di cose quindi è giusto anche staccare 5-10 minuti dato che poi la comunicazione deve essere fatta in maniera impeccabile quindi questo ci tengo che lo ricordiate tutti quanti allora passiamo subito all'azione ora ci andiamo a occupare della pagina prodotto come detto in precedenza Shopify ha un grandissimo handicap quello che non ci dà la possibilità di customizzare tanto quanto possiamo customizzare l'home page anche la pagina prodotto ci dà l'unica possibilità è quella di andare a inserire del testo delle immagini eventualmente dei video delle tabelle però nulla di così particolarmente emozionante che possa convertire facilmente l'utente soprattutto su un prodotto di questo tipo poi è vero ci sono anche molti store che fatturano bene semplicemente con la pagina prodotto Shopify però sono store che generalmente sono in nicchia adulti ok gli adulti prediligono una customer experience estremamente facile e non hanno una grandissima necessità di un valore percepito a livello di costruzione template così spinta da dover utilizzare un page builder quindi si solitamente i prodotti che vanno va bene strutturare tramite la pagina prodotto di Shopify sono quelli over 35-40 ok passiamo subito all'azione allora qua abbiamo la pagina prodotto facciamo questa piccola parentesi una volta il page builder andava a completare tutto quanto e non si poteva fare altro che lavorare dal page builder adesso ci sono delle belle opzioni nuove innovative che ci permettono di unire il page builder di lavorare sia sulla sezione template che sul page builder come vedete qua c'è la possibilità di aggiungere determinate sezioni ok quindi possiamo andare a lavorare sia qui che là va bene adesso ovviamente però andremo a lavorare direttamente sul page builder non ho ancora settato proprio niente perché noto che tantissimi di voi hanno problematiche nel andare proprio a costruire il tema cioè andare scusatemi a collegare tutte quante le pagine ok adesso vi faccio vedere quanto è semplice in realtà allora in questo caso anche qua piccola premessa pagefly ci dà la possibilità di utilizzare un tema gratuito cioè un diciamo l'applicazione è gratuita fin quando utilizziamo una pagina per sezione ok se vogliamo creare più pagine prodotto dobbiamo andare a implementare i nostri piani e questi sono i piani in questione quindi in base appunto alle vostre esigenze potete venire qua e vedere il da farsi ovviamente per uno store di test c'è sempre il piano free utilizziamo sempre questo quindi a meno che non siate particolarmente bravi che vogliate appunto creare più pagine prodotto per andare a testare vi dicendo vi consiglio di usare sempre il piano free poi noi su determinati brand che abbiamo anche in B2B utilizziamo soprattutto il gold il platinum soprattutto se è un general e via dicendo adesso per tornare a noi pagina prodotto crea nuova pagina qua avete anche un tutorial io in consulenza spesso al posto che perdere tantissimo tempo a spiegare esattamente tutti quanti i piccoli passaggi che sono passaggi banali ragazzi perché ora vedrete quanto è semplice dell'intero page builder do come compito di andarsi a studiare tutti quanti i tutorial di page fly perché io stesso ho imparato da qui sopra ok oltre che smanettando particolarmente perché ovviamente poi la cosa il vero succo di una consulenza di una mentorship è la strategia tutta la diciamo tutte le tutte le esperienze e le strategie le tecniche che abbiamo acquisito negli anni dopo test su test su test soldi spesi e anche persi quindi iniziamo subito crea una nuova pagina vedete qua ci avverte anche continuiamo ok subito prima cosa che facciamo è la salviamo vediamo il nome pin top salva e la pubblichiamo immediatamente andiamo su pin fridge lo importiamo verrete veramente semplice importiamo subito il prodotto publish page va bene e la pubblichiamo ok adesso il nostro store sarà collegato a Shopify ok vediamo se ce l'ho già da qua così ve lo faccio anche vedere vedete è apparso la sezione page fly che è sottostante a tutto quanto il nostro contenuto che è già integrato nel template allora qui alcuni template danno la possibilità altri no però ora vi faccio vedere vedete questo è il page content ovvero il future principalmente si basa sulla sull'implementazione e la modifica del future product il future product è questo la sezione dove viene acquistato il prodotto cosa vuol dire vuol dire che se qua avessimo un tema un po' più vecchio oppure che non che non sia ottimizzato in questo modo avremo la possibilità di mettere page content e andare a modificare cioè proprio andare a eliminare questa sezione qua e crearla a noi però io vi consiglio caldamente di usare sempre quella di Shopify perché è particolarmente ottimizzata anche a livello di grandezze misure se l'hanno fatta in questo modo c'è un motivo e su questo diciamo che io sono molto molto fiducioso nei future product che creano i template di Shopify ovviamente poi dipende da template a template però questo mi sembra un template veramente ordinato pulito una persona arriva qua e diciamo ha ben chiaro tutta quanta la situazione ma soprattutto i tasti sono perfettamente omogenei a tutto quello che è il future product quindi vi consiglio sempre di lasciare quel che è adesso vi do una piccola panoramica per chiunque non conoscesse il sistema di PageFly abbiamo varie sezioni questa è la sezione dove aggiungiamo gli elementi ok quella che andremo a utilizzare ora per costruire il template abbiamo i paragrafi i titoli abbiamo gli according abbiamo il layout abbiamo le immagini abbiamo i timer eccetera eccetera qui sotto invece abbiamo le sezioni appartenenti a Shopify quindi nel caso per esempio volessimo andare a strutturare un future product noi in prima persona qui abbiamo tutte quante le sezioni ok la sezione varianti la sezione quantity la sezione quantity semplicemente è questa ok quindi quando andiamo a costruire un future product vedete il tasto add to cart abbiamo le collezioni ok abbiamo i form di qualsiasi tipo e vi dicendo mentre qui infine abbiamo tutte quante quelle app che sono esterne al template quindi come potete vedere c'è anche looks che andremo a utilizzare successivamente vitals eccetera 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 poi lui ce ne proporre anche di sue applicazioni quindi quelle quali in collaborazione però in questo momento non ci interessano poi se noi andiamo ad inserire ora un elemento a caso come magari può essere un'immagine notiamo che l'immagine ha vari livelli il livello sezione il livello riga il livello columns e infine il livello elemento che è questo ok vedete sono anche contrassegnati da colori diversi quello che consiglio sempre io se non in casi particolari che dopo andremo a vedere è se quando andate a aggiungere gli elementi nel vostro template non integrateli nella stessa sezione quindi per esempio se io devo andare ad aggiungere un titolo non lo metto all'interno della sezione vedete ne creo due non vado a fare questo lavoro qui quindi lo integro nella sezione dell'immagine ma gli creo una sezione a parte perché questo perché più avanti è possibile che a un certo punto la sezione diventi colma e non potremo più aggiungere elementi all'interno della sezione e se vogliamo fare qualche modifica poi viene diciamo è scomodo ok fidatevi andate a creare sezione per sezione a meno che per esempio inseriate un titolo ok in questo caso e subito sotto il titolo e gli vogliate inserire un paragrafo ok questo invece è consigliabile inserirglielo proprio sotto qui perché così verrà ottimizzato automaticamente anche insieme al titolo quindi come vedete ci sono delle eccezioni dopo vedremo anche altre eccezioni allora ultima cosa prima di iniziare con la fase pratica torniamo alla situazione di prima sulla destra invece abbiamo piccola parentesi qui abbiamo la possibilità di vedere il template in vari device laptop tablet e mobile se state creando magari un sito per una b2b oppure state creando un sito per dei clienti offline lavorate direttamente in all device perché un conto è fare uno store di test ok quindi è un settore se invece dobbiamo andare a lavorare con un'azienda quindi dobbiamo strutturargli per esempio uno store e vi dicendo io lavoro direttamente in all device e poi vado singolarmente a migliorare le determinate sezioni ok perché se no se andate a lavorare prima da mobile poi da tablet e poi da laptop infine si crea un po' un pasticcio e soprattutto da laptop se lo schermo è troppo grande lui non prenderà la versione laptop ma prenderà la versione all device perché ovviamente ci sono degli standard di grandezza grafica predefiniti per queste tre sezioni quindi si lavora prima in all device poi tutto il resto ovviamente se siete magari in una b2b e state strutturando lo store per qualcun altro se siete in fase di test quindi non confondetevi lavorate subito da mobile immediatamente tanto come vi ho detto prima la sezione computer per il momento non ci interessa quindi andando avanti sulla destra vabbè oltre a questa sezione qua abbiamo anche l'editor setting abbiamo la possibilità di andare avanti e indietro con le azioni che abbiamo fatto possiamo andare a vedere la preview dello store possiamo fare il live page salvare pubblicare e vi dicendo qua abbiamo tutte le impostazioni e via qui in alto abbiamo la chat live nel caso succedesse qualche problema e bomb qui invece abbiamo le due categorie le due sezioni principali per andare a modellare quello che è l'elemento ok quindi la sezione generale comprende la peculiarità dell'elemento quindi se io vado ad inserire un'immagine qual è la sua peculiarità quella dove io potrei il fatto che potrò inserirgli all'interno un'immagine ok quindi mi dà la possibilità di inserire un'immagine e altre piccole cose quale sarà la peculiarità invece di un testo di un titolo quella di andare a modificarlo a livello di testo e questo succede per tutte quante le sezioni vedremo anche per gli according eccetera eccetera quindi ogni sezione è modificabile per la sua caratteristica dalla sezione generale invece lo styling è uguale per tutte quante le sezioni e ha diverse caratteristiche la caratteristica principale è il cambiare il colore della sezione stessa ok quindi in questo caso il titolo la possibilità di inserire dei pixel all'interno dell'elemento ok quindi se io gli aggiungo 10 pixel all'interno dell'elemento lui si abbassa se io gli aggiungo 10 da ogni lato vedete invece questo qua sotto sono i margini quindi va a inserire pixel all'esterno dell'elemento quindi nel caso voglio abbassare abbassare la scritta ci metto 10 pixel sopra ok voglio invece alzarla ci metto meno cioè tolgo 10 pixel da sopra ok e via dicendo così ovviamente non spostatele non vi consiglio di spostarle verso destra o sinistra perché lo si può fare direttamente con queste tre sezioni qua e un errore che fanno in molti è eventualmente magari mettere qua più 10 ok adesso magari facciamo più 100 sembrerà tutto normale ma cosa succede il template calcola che ci sono 100 pixel da questa parte e ti sposta la sezione tutta a destra cosa vuol dire che per lui lui lo calcola che c'è c'è un'altra parte da far vedere all'utente ok quindi inizia a permettere allo store di slideare da destra a sinistra se questo problema capita a caso contattate l'assistenza e vi danno un codice anti slittamento da inserire qui nella sezione custom code se invece lo notate voi stessi che avete messo troppi pixel a destra o a sinistra li togliete la situazione dovrebbe essere a posto ok poi qua sotto abbiamo il font che in questo caso non lo cambiamo non lo tocchiamo perché una delle cose belle di page fly è che lui direttamente ci riporta poi sull'home page sulla pagina finale quello che è il font che abbiamo settato all'interno del tema abbiamo la grandezza del font abbiamo appunto come vi ho detto prima la possibilità di settarlo a destra a sinistra eccetera se non ve lo fa settare ok molto probabilmente magari per un'immagine vedete se io ora clicco l'immagine la voglia al centro anzi no scusate qua non me lo farei anche fare ok vedete se voi cliccate l'immagine non ve lo fa vedere adesso per fortuna si è aggiornato una volta nonostante cliccavi l'immagine ti dava anche la possibilità di spostarla a destra a sinistra le persone la cliccavano non capivano perché non si spostava e allora iniziavano a giocare qua con i pixel e facevano un disastro vi basta cliccare la sezione e dare il comando che all'interno di quella sezione cioè vorrei che capiste anche le dinamiche proprio con le quali lavora il page builder questo è un ordine quindi noi diamo un ordine alla sezione ovvero che ogni cosa all'interno di questa sezione deve essere giustificata a destra a sinistra o al centro ok poi qua abbiamo lo style quindi possiamo decidere che tutto quanto il menu sia in grassetto tutto quanto il titolo scusate sia in grassetto e che tutto quanto il titolo sia magari in maiuscolo se vogliamo però che soltanto alcune parole siano in grassetto ci basta andare su general selezionare text e renderlo grassettato ok infine per tornare alla sezione styling abbiamo la possibilità di cambiare il background il colore del background ovviamente quando se volete fare magari un banner una cosa del genere ricordatevi che è brutto vedere una cosa così schiacciata all'interno di una ipotetica sezione colorata quindi magari gli mettete dei margini qua vedete già così molto più leggibile molto più bella anche qua adesso magari una persona si dice cavolo io però voglio fare voglio fare un banner però non riesco a metterlo tutto quanto schermo allora cosa facciamo andiamo a usare un layout il layout full with route ok la stessa cosa ora la vedremo per l'immagine andando avanti avrei possibilità di mettere anche un'immagine di background quindi mettiamo caso che stiamo creando tutto quanto una tabella di background vogliamo mettere un'immagine tac qua possiamo farlo qua abbiamo i bordi possiamo mettere le borde alla sezione possiamo metterla anche questa ok vedete com'è customizzabile proprio al 100% possiamo addirittura decidere il margine dei bordi ok quindi come vedete possiamo arrotondarli vedete se io faccio per farvelo vedere in maniera un po' più eclatante vedete come si è arrotondato particolarmente quindi anche questo tenete la mente questa sarà un'ottima cosa per customizzare infine abbiamo anche l'opacità come vedete posso opacizzare il back end di una sezione determinata e anche customizzarmi l'opacizzazione ok spostarla per destra o per sinistra più in basso più in alto posso renderla più offuscata o più nitida ok ovviamente in base al tipo di store che devono andare a creare infine qua sotto abbiamo il css code cosa vuol dire vuol dire che lui tutte queste modifiche che abbiamo fatto ce le ha salvate anche in css questo perché magari alcuni di voi vi capita magari volete settare il testo in una maniera particolare ok quindi vogliamo settare tutti quanti il testo in questa maniera poi per replicarlo o lo duplichiamo o ci andiamo semplicemente a copiare il css code prendiamo un heading per esempio buttiamolo qua sotto gli mettiamo il css e vedete diventerà uguale identica a quella che abbiamo appena settato oppure più semplicemente se volete ve l'andate a duplicare e tac ve la spostate dove volete ok spero di essere stato più chiaro possibile sulle funzionalità principali ovviamente ci dovete prendere la mano non è così facile però ragazzi basta veramente mettersi lì per una settimana 5 ore al giorno e l'avete imparato ok infatti non è facile ma è veramente semplice ok quindi tornando a noi iniziamo con la costruzione dello store adesso considerando che il prodotto è già quando andiamo a customizzare dobbiamo considerare che qua sopra abbiamo già il prodotto iniziamo subito a mettere magari un testo madre il testo madre ricordatevi è il primo testo che sicuramente il nostro utente andrà a leggere ok ce lo settiamo così tutto quanto in maiuscolo anche le grandezze evitate di andarla a toccare perché molto probabilmente ci riporterà lo stesso page builder le grandezze che abbiamo utilizzato anche nello store quindi non state a customizzarle che magari vi potrebbe capitare di fare un po' un casino aggiungiamo il testo poi dopo di che qui sotto possiamo andare ad aggiungere magari un according per rispondere alle prime domande ai primi quesiti che potrebbe avere un ipotetico utente se accordi non lo possiamo magari settare allora li mettiamo sicuramente ecco vedete già io stavo facendo un errore per concentrarmi a parlare quando se vedete che se io non vado a cliccare la sezione stessa non la riesco a spaziare ok quindi mi raccomando adesso mettiamo di solo 5 sopra 5 sotto così le abbiamo divise leggermente ok e sono più facili da leggere adesso dato che lo store andiamo a riprenderci un attimo ai tasti neri tutto così magari l'according lo andiamo a fare con il background nero e andiamoci a prendere direttamente lo stesso identico colore ragazzi riportate sempre lo stesso colore prima perché è più veloce e secondo perché è molto più sensato ok cioè riportare lo stesso identico colore comunque da una certa continuità a quella che è lo store quindi lavorate in maniera pulita adesso inserire qua e via poi io questi titoli li voglio in maiuscolo quindi li mettiamo qua e ovviamente all'interno di questa sezione ci voglio anche del testo quindi ci mettiamo un paragrafo qua dentro poi dato che adesso vorrei anche iniziare in servizio le immagini proviamo già su due piedi a dare un attimo un senso a queste sezioni quindi potremmo fare come funziona come si usa perché averlo ovviamente vedete che è un po' brutto da vedere così possiamo cliccare direttamente la sezione stessa ok eccoli qua e andarceli a riordinare quindi in questo caso possiamo mettere magari questa qua la mettiamo qua vediamo un po' come viene eccolo qua ottimo poi andiamo avanti qui potremmo utilizzare andare a inserire magari una bella immagine ecco quando andate a inserire l'immagine l'immagine ragazzi sempre sempre prima inserire il layout e poi andare a inserire all'interno del layout l'immagine ora vi faccio anche vedere così la differenza almeno è chiara la situazione perché tantissimi ragazzi arrivano dicono ah perché non riesco a mettere l'immagine tutto schermo non mi viene l'immagine tutto schermo eccetera eccetera e poi semplicemente perché non l'hanno settato in maniera corretta ok scusate ho dovuto mettere un attimo in carico il computer allora adesso vi faccio vedere entrambi gli esempi ok vedete questo è tutto schermo mentre se la vado ad inserire qui me la darà contornata ok questo perché qua abbiamo usato il layout tutto schermo va bene togliamo questa sezione e procediamo allora dopodiché dopo l'immagine andiamo a inserire magari altro testo per andare poi a poter manipolare in maniera efficace magari inseriamo un testo con una bella icona anche questo lo vogliamo tutto quanto maiuscolo anche eventualmente in grassetto mettiamo anche questa cosa qua in grassetto poi subito sotto gli andiamo ad aggiungere un bel paragrafo anche qui vedete che lo integro perché è una cosa che va di pari passo titolo e paragrafo ok subito dopo possiamo andare a utilizzare magari un altro according questa volta lo utilizziamo singolo e anche questo lo inseriamo con questo intero su general togliamo possiamo magari metterci dentro qua e qua possiamo andare poi dato che qua manipoleremo ok qua ci andiamo a mettere le infotecniche e al posto che dover iniziare di nuovo a settare tutto come prima andiamo qua come ho fatto vedere prima ci andiamo a copiare il css e lo buttiamo qua sopra e tac ce l'abbiamo settato ok in questo caso l'unica cosa che non ci interessa però è 5 margini sotto quindi lo dubbiamo subito sotto possiamo andare ad inserire un'immagine che però eventualmente magari utilizzeremo come un video anzi più che video molto probabilmente andremo a inserire delle gif stavo pensando quindi buttiamoci dentro l'immagine poi dopo il video magari ecco subito sotto il video che adesso ovviamente mettiamo magari ci mettiamo un'immagine giusto per contestualizzarla ok andiamo a inserirci un timer quindi anche qua vedete adesso voglio magari creare un timer che va come se fosse un piccolo banner che scende subito da quello che sarà la gif o il video quindi qua andiamo di nuovo a inserirlo nella sezione però vedete non è che inserisco qualsiasi cosa nelle sezioni lo vado a fare in maniera mirata se voglio fare una cosa particolare quindi in questo caso voglio andare a inserirmi il countdown subito qui sotto ok anzi prima del countdown ci mettiamo ovviamente il bel titolo dove andremo a manipolare anche qui stessa cosa per risparmiare tempo vado qua mi copio quello che è il css lo applico dopodichè dobbiamo riprenderci il countdown lo inseriamo qua sotto lo giustifichiamo al centro vedete se ora io clicco qui e lo metto al centro non succede nulla ok quindi a posto che iniziare a impazzire con tutti quanti i pixel vi basta cliccare la sezione ok e la giustificata al centro lui si sposta ok poi vogliamo in questo caso che il background sia di un colore diverso quindi io magari lo metterei nero per differenziare un po' questo mettiamo bianco questo possiamo mettere rosa quindi andiamo a prendere prima il rosa da qua ah piccola cosa ragazzi se voi copiate il colore da Shopify ok da qui e lo incollate qui la cosa non funziona ok perché vedete che sono dei codici di formati diversi se volete farlo dovete incollarlo qua poi lui vi genera automaticamente questo codice che potete iniziare a utilizzare all'interno dello store copiandolo e incollandolo ok quindi andavanti qui poi mettiamo bianco ok questo qua sotto magari di nuovo rosa però vedete che schiacciato così è veramente brutto cioè bisogna quando si crea uno store bisogna anche essere molto attenti all'omogeneità delle sezioni vedete che qua c'è un determinato spazio è giusto a livello grafico andare a cercare di attuare la stessa identica grandezza in questo caso così potrebbe andare anzi io andrei a mettercene anche 25 25 25 25 25 25 così già respira molto meglio e qua ci siamo andati a mettere il nostro bel timer subito sotto il timer possiamo inserire uno slideshow e anche questo potremmo eventualmente integrarlo nel tema abbiamo vari tipi di slideshow quello che in questo caso interessa a me è uno slideshow di tipo immagini e basta adesso salviamo posso sapere essere tranquilli ok adesso ero un po' bugato io conoscevo già quali sono le sezioni qui c'era quello che mi interessava poi magari dopo se si toglie questo bug lo andiamo a vedere allora le slideshow anche qui apriamo sempre andiamoli a inserire questa volta magari fuori nella sezione però allora no voglio inserirlo all'interno in questo caso eccolo qua questi sono i vari tipi di slideshow questo è uno slideshow da home page idem per questo con il testo è un po' come se avessimo questo tipo di slideshow ok questo qua non l'abbiamo usato come slideshow l'abbiamo usato singolarmente come immagine ma è paragonabile a quella sezione invece questi sono un po' più da feed ok tipo da feed Instagram andiamo a inserire lo stacchiamo n-23 ok quindi in questo caso volete dato che sono andato a inserirlo così ok possiamo lavorare in questo modo poi magari qua in questo caso ok abbiamo 6 slide sarebbe carino avere tre immagini magari che scorrono ok e la possiamo lasciare in questo modo magari ecco una cosa che possiamo andare a implementare sicuramente è il gutter che metterei a vediamo se ce lo fa mettere a un pixel ok perfetto lo stile di navigazione io non lo metterei neanche perché creerei semplicemente un autoplay da un secondo sono due secondi così scorrono automaticamente potrebbe essere anche carino da vedere poi subito dopo possiamo andare a inserire magari ancora del testo perché sicuramente ci sarà utile per andare a manipolare magari in questo caso possiamo continuare a manipolare sull'aspetto di cui discutivamo l'altra volta ovvero di fattore faccia diciamo irritazioni sulla faccia quindi heading andiamo a mettere un heading normale questa volta staccato dalla sezione andiamo a copiare css paragrafo paragrafo dopo dopo il testo possiamo magari creare una sezione un po' particolare questa non è una cosa che solitamente si può fare su tutti quanti gli store ma qui mi viene in mente adesso che potremmo andare a provare a crearla potremmo creare vediamo un attimo ecco qua i progress sono le percentuali di progresso di una determinata cosa ovviamente adesso magari vediamole un po' tutte abbiamo questa abbiamo questa secondo me forse le più carine sono questo qua questa e questa proviamo a utilizzare questa per il momento poi dopo andiamo a vedere un attimo come si vede dire ecco una piccola cosa ragazzi da fare sempre è andare a vedere quando siamo in fase di finitura direttamente sul attendiamo che si pubbliche direttamente sul template come sta apparendo la nostra pagina vedete qua si sta iniziando a formare piano piano questo vedete già qua possiamo notare un errore che qua non si notava vedete quindi vuol dire che questo è troppo attaccato in questo caso possiamo mettere un 20 pixel direi che è anche carino quindi possiamo lasciarlo magari in questo modo ok vediamo se si è aggiornato qua vedete ora l'abbiamo messo a posto andiamo avanti allora 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 questo vediamo cosa ci dà la possibilità di customizzare di customizzare vediamo un po' qua è sbagliato allora possiamo modificare il colore del numero l'attivo l'attivo il background allora metterei il background nero l'attivo rosa e il numero potremmo lasciare anche quello di nero magari ecco possiamo fare una cosa interessante andiamo a fare più test per vedere qual è il più bello quindi se è il più bello così adesso ce l'ha salvato come voleva lui andiamo a rieditarlo secondo me il più bello alla fine dei conti è questo quindi andiamo a attuare questo tipo di stile e qui possiamo andare poi a fare magari eventualmente mantenimento del principio attivo poi ovviamente di queste cose ce ne andremo a occupare più nel momento in cui dobbiamo andare a manipolare col test quindi saremo più in una fase creativa per quanto riguarda appunto la comunicazione passato per spezzare aggiungiamo un'altra immagine ragazzi le immagini sono veramente importanti cioè fanno immedesimare l'utente gli fanno iniziare ad amare il prodotto ok cioè pensate anche solo all'evento tesla che è successo un po' di anni qualche anno fa mi sembra forse un anno fa con il cyber track Elon Musk è riuscito a vendere a pacchi online stiamo parlando di una macchina venduta online in un sito web il cyber track solo grazie a video immagini di altre cioè principalmente lì in quel caso a video ha dato il cyber track in mano a chiunque e ha creato un sentimento per il quale tutti quanti lo volevano però l'immagine è veramente forte l'immagine i video le gif le gif sono veramente potentissime in uno store poi qua sotto possiamo magari andare a utilizzare delle tab volendo ovviamente sempre se il testo che andiamo a inserire non sarà troppo incisivo la tab la possiamo fare così dentro gli mettiamo un paragrafo molto semplice e dentro il paragrafo gli possiamo buttare anche un'immagine vedrete che però la tab è tutta schiacciata cioè è veramente brutta così quindi la andiamo a modellare gli mettiamo 10 qua andremo a inserire molto probabilmente delle immagini stavo pensando un po' più tecniche vedo che in questa sezione volevo riprendere l'aspetto tecnico dato che ne abbiamo parlato poco lo riprendiamo qua ovviamente ragazzi io dico ne abbiamo parlato poco perché nella mia testa già sta lavorando a livello di cosa andrò a dire in determinate sezioni ok poi ovvio che ancora non ne abbiamo inserita qua un'altra cosa che farei che ci posso pensare mettere un background il background nero qui magari i tasti invece in questo caso potremmo farli sempre con neri vediamo un po' come ci sta bene poi la cosa più utile che potete fare ragazzi è mettervi di fianco delle note con tutti i codici colori se state operando su uno store che ha particolari colori e diciamo avete premura di farlo in maniera veloce quindi ogni volta così non dovete andare a recuperarveli in varie sezioni avete qua le vostre belle note prendete copiate e incollate ok ovviamente c'è un doppio colore vedete ragazzi cosa è successo qua la sezione aveva una caratteristica ovvero che quando viene cliccata cambia colore quindi c'è bastato andare qui su selected questa è la versione normale quindi questa è la versione normale questa è la versione selected ok quindi possiamo cambiare entrambi i colori nella versione selected quindi nel momento in cui è selezionato io gli ho messo un background rosa e il testo nero nella versione quando è normale io gli ho messo il testo rosa e il background nero ok in questo caso invece il bordo potremmo metterglielo al contrario anche ragazzi se usate questo codice e lo inserite qua non funziona e qua magari poi andiamo a parlare di misure potenza e spazio vediamo un attimo se mi va a distruggere quello che è la tab subito dopo una cosa del genere possiamo andare di nuovo a inserire dell'altro testo però non è detto che sullo store poi ci rimanga così quindi andiamo un attimo a vedere a controllare ecco vedete è un raso troppo grande e lui si è spalsato quindi torniamo su page fly eccolo qua un'altra cosa che vedo che potrebbe migliorare un attimo questa sezione è metterlo magari in grassetto solo che quando mettiamo in grassetto la sezione il testo si allarga leggermente quindi è possibile che poi vada a sovrapporsi come si è sovrapposto prima infatti vediamo ok perfetto ottimo e qua abbiamo tutta quanta la nostra sezione un'altra cosa che potremmo fare eventualmente adesso qua sopra aggiungergli del testo magari ovviamente ragazzi queste sono cose molto semplici che io adesso sto creando con voi sul diciamo sul momento se ci prendete la mano e se avessi tempo un attimo di stare tra me e me sicuramente anche voi potreste fare di meglio adesso stiamo andando a creare qualcosa giusto per farvi capire anche tutte le funzionalità quanto si può modellare una sezione ok vi ricordate come era brutta all'inizio pian piano clic dopo clic l'abbiamo modellata per renderla molto più appetibile quindi poi subito qua sotto magari andiamo a inserirci di nuovo un titolo questa cosa è una cosa che faccio anche quando lavoro da solo ragazzi non solo per voi perché vi aiuta molto avere già le immagini inserite ci è riuscito a capire un po' le grandezze poi lasciamo stare che magari questa immagine la metto mille per quattrocento mille e tante per mille e tante quelli sono dettagli però vi fa già capire un attimo come verrà alla fine infine qua l'ultima sezione ovviamente che cosa possiamo parlare se non dei servizi quindi mettiamo una bella content list di questo tipo e qua poi andremo a inserire le immagini delle icone che tra poco vediamo salviamo e andiamo a vedere un attimo se le spaziature sono corrette sul nostro store ok questo se vi ricordate l'abbiamo inserito tramite vitals ok se qualcuno se lo sta domandando perfetto ragazzi ci siamo adesso possiamo iniziare a caricare le immagini quindi per passare subito a iniziare a caricare un po' tutte quante le immagini partiamo ovviamente dall'inizio allora qui sarebbe anche interessante inserire delle immagini però vediamo se ce ne rimangono a fine creazione le andiamo a inserire se invece arriviamo risicati che poi ci tocca andare a sottrarre delle possibili immagini alle creative e doverle usare qua allora evitiamo allora iniziamo dalla prima che ovviamente come possiamo andarla a sotturare vediamo così secondo me qua un'immagine anche quadrata vediamo un po' qua come risulta sul tema un po' troppo incisiva farei un mille per cinquecento ok è una cosa così potrebbe essere un po' meno invasiva e vediamo un po' cosa possiamo andare a utilizzare sicuramente questa è un'ottima immagine però vediamo però non sappiamo bene ancora se abbiamo tutti quanti questi colori però comunque possiamo andare a sfruttarle vediamo se questa qua non è qualità leggermente più alta no questa non è affatto male però mi sembra che l'abbiamo già utilizzata sull'home page se non sbaglio vediamo un po' questa è già un'ottima immagine molto bella rappresentativa con tutti i trucchi dentro questa è anche una gran bella immagine che vorrei sfruttare questa qua l'abbiamo già utilizzata questa è senz'altro un'ottima immagine ma la conserverei per le creative perché è stesa per lungo possiamo creerci un bel template sopra dato che già la qualità non è troppo alta in questi casi ci conviene non andare troppo a diciamo allargarlo accorciarlo vedete che però ci sono delle scritte cinese veramente veramente brutte quindi in questo caso molto tranquillamente possiamo andare a ovviare il problema in questo modo dato che quella scritta là sotto non è in cinese potremmo anche lasciarla dato che se no dovremmo estendere il banner fin qua sopra sacrifichiamo un po' il tutto però non importa vediamo che ancora qua sotto sbuca un po' lo portiamo in avanti vedete come alla fine sono degli accorgimenti veramente banali però ci permettono di andare poi a sfruttare il video per intero vediamo un po' adesso ovviamente se ce lo prende considerate che il page builder page fly ha una capacità di assunzione gif un po' più alta rispetto a quella di Shopify che è veramente intollerabile però anche lui dà i suoi diciamo fai i suoi capricci ecco quindi ovviamente non è scontato che ora ci prenda questa gif al massimo la riduciamo perché comunque sarà una gif di 2 3 4 5 più o meno 5 secondi non è detto che ce la prenda molto probabilmente quindi proviamoci lo stesso noi ok non ce l'ha voluta prendere ottimo vediamo adesso allora se questa qua non riusciamo a farla prendere sono già preventivamente proviamo a scaricarne semplicemente una un po' più breve noi vi chiederete perché non metti un video lo so però generalmente la cosa migliore ragazzi sono le gif perché scorrono all'infinito hanno una capacità di attirare molto di più la tensione e quindi onestamente la predilevo sempre questa è 19 MB proviamo un attimo a caricarla però mi fa molto strano perché solitamente i gif di questo tipo le prendo magari oggi le gira un po' storto eccola qua questa ce l'ha presa vedete quanto pare gli bastava un qualcosa dai 20 MB in giù vedete come risalta veramente bene sul nostro store una cosa di questo tipo poi andiamo avanti qui l'immagine vediamo un po' come risaltava sullo store qua direi che un'immagine quadrata è più che perfetta quindi andiamo sul page builder ovviamente le immagini una volta che le inserite ragazzi non ve le fa cambiare se non andate a lavorarle direttamente dalla sezione all device quindi qui possiamo magari inserire queste le abbiamo già utilizzate che comunque non ha pelle scapolata né nulla però comunque vediamo la ragazza che si cura lo specchio quindi possiamo iniziare a manipolare su quel versante per non essere troppo aggressivi diciamo anche se comunque diciamo che su uno store in drop puro sarebbe ottimo andare a manipolare tanto su questo fattore però dato che abbiamo dei contenuti così di alta qualità secondo me in questo caso farebbe un po' l'effetto contrario svaluterebbe un po' il brand perché non si è mai visto un brand di un certo calibro andare a far vedere proprio delle pelli particolarmente rovinate eccetera questa ragazza qua che si cura la pelle in questo modo potrebbe comunque fare il suo effetto altrimenti poi se magari in fase di scaling vediamo che comunque non riusciamo a far percepire bene all'utente il nostro pain point allora lì andiamo direttamente a implementare con delle foto molto molto più aggressive ok poi il bello anche che questa ragazza comunque può sembrare la modella del brand e riportare questo fattore non è affatto una cosa negativa poi misure potenza e spazio abbiamo quindi qui possiamo andare a lavorarci le immagini che avevamo trovato prima sempre quadrate in questo caso un po' di confusione qui ok allora per misure secondo me l'immagine perfetta è questa qua vediamo se la proviamo ecco questa immagine qua perfetta questa per di vivo questa vediamo un attimo l'altra e questa è una poi e questa la possiamo usare per misure poi abbiamo la sezione potenza e spazio per la potenza possiamo utilizzare questa anzi ce ne avevamo una ancora migliore che era questa qui che è un estratto della gif se vi ricordate quindi questa la mettiamo qua così e gli andiamo a creare sopra dei nostri banner per togliere quelli che hanno creato loro un'immagine di questo tipo ragazzi potrebbe anche facilmente convincere un ipotetico genitore dato che magari questo è un prodotto per ragazzine magari prima di compiere un acquisto del genere devono farlo vedere un papà o una mamma di turno e sicuramente un uomo davanti a un'immagine di questo genere se riusciamo a farlo arrivare fin lì potrebbe convincersi un po' di più perché comunque questa è un'immagine che tendenzialmente cattura di più un uomo rispetto che una donna quindi anche questi questi pensieri vanno fatti allora adesso qua però abbiamo questa linea che è veramente brutta quindi possiamo far così ovviamente ragazzi con photoshop questa cosa la potreste fare veramente in 448 però se magari nessuno di voi sta usare photoshop vi faccio vedere che anche con cabba non è affatto così complicato ok prendiamoci un triangolo e lo buttiamo un po' qua in mezzo così giusto per riempire che adesso io lo sto un attimo sparando ovviamente qua sarebbe utile andarsi a trovare il termine tecnico di che cosa è quell'ingranaggio adesso lo mettiamo semplicemente così in maniera un po' più blanda sistema di sterilizzazione circolante 360 gradi tutto dispositivo ovviamente ragazzi io lo sto facendo un attimo con voi però la cosa giusta da fare in questo da fare in questo caso è andarsi a vedere i termini specifici ovviamente io non sono un ingegnere neanche voi o se lo siete ottimo avete già fatto siete avanti diciamo su questa cosa però ovviamente non sparate cavolate come lo sto facendo in questo caso andatevi a cercare i termini tecnici e così siete a posto in qua sotto magari posso ammettere delle stelline dato che avevano già fatto la grafica mi sembra da qualche parte ok un'altra è fatta e ora ci rimane l'ultima che è in questo caso lo spazio la potenza possiamo tranquillamente usare questo peccato che è un po' troppo grande l'immagine qua allora vediamo un attimo magari di sacrificare questa allora no questa magari la andiamo a inserire un po' più grande del dovuto non importa ok ci prendiamo qua questa immagine qui inseriamo qua e via poi qua c'è anche più facile è che ci basta andare a creare dei bannerini di questo tipo vediamo un attimo la loro grandezza ottimo gli mettiamo tutti quanti un bel colore vabbè dato che ormai stiamo utilizzando quelli neri continuiamo sul nero e partiamo dal primo andiamoci a pizzicare magari la grandezza che abbiamo utilizzato qui qua c'è scritto due bottiglie water, milk e qui sotto possiamo andare magari a mettere adesso non so bene come si chiami latte detergente forse latte detergente la sezione poter contenere adesso io onestamente non so proprio i termini tecnici però qua vedo creme latte cream adesso in questo caso se avessimo la ragazza che si occupa di queste cose gli chiederei in prima persona a lei infatti anche voi ragazzi non vi sentite stupidi ad andare magari se state vendendo un prodotto per ragazze da una ipotetica fidanzata sorella madre se siete ancora con i vostri genitori a chiedere consiglio ok loro alla fine sono i clienti finali sicuramente per esempio una dicitura di questo genere possono essere d'aiuto noi maschi onestamente è quasi improbabile che conosciamo tutte queste tipologie di creme cremine e rossetti ok di creme mesieri mettiamo per esempio l'opzione detto questo salviamo e andiamo subito a inserirle allora prima l'importante ragazzi che ovviamente non vi soffermiate troppo vedete io alla fine l'importante è ora andare avanti anche qua non date a spaccarvi la testa al cercare un'altra immagine cioè piuttosto gli ficcate sopra due tre banner e via poi ovviamente se il prodotto ingrana sarà il nostro interesse è andare a svilupparle molto meglio però ora che ancora non sappiamo se il prodotto va o non va è inutile andarci a sprecare troppo tempo ok passare tutta la giornata magari a ricercare l'immagine perfetta dobbiamo andare a testare il prodotto non a diciamo puntarci tutto quello che è il nostro tempo ora in questo caso dato che l'immagine più bella che abbiamo a mio parere è quella con tutte quante con lo spazio e soprattutto la dicitura spazio non fa capire veramente molto bene quello che è l'obiettivo finale della sezione lo mettiamo per primo abbiamo le nostre belle immagini ottimizzate poi questa immagine qua questa è l'immagine finale io onestamente qui andrei a mettere qualcosa di estremamente manipolatorio sulla social proof del brand quindi in questo caso sapete cosa facciamo ci andiamo qua e ci andiamo a prendere magari una cosa tipo questo un po' troppo forse però vabbè possiamo anche eventualmente esagerare per una volta anche se non è per niente in linea con lo stile del brand anche fare una cosa di questo genere non sarebbe male e qui andiamo a inserirgli una bella immagine poi potremmo anche lasciare una cosa del genere tanto comunque non sarà molto leggibile e magari ci prendiamo già anche un'altra immagine per fare una bella prova tipo questa che è un'immagine veramente ottima secondo me la ingrandiamo leggermente perché non si nota molto facciamo che fare una cosa di questo tipo 1500 per 834 per 43 1500 per 843 anzi possiamo mettere prendersi cura della tua cosmetica vuol dire prendersi cura della tua pelle perfetto ci siamo vedrete come da un senso veramente molto più spiccato infine qua ci prendiamo delle tre belle icone e le andiamo a sfruttare in questo modo sfondo rigorosamente nero elementi prendiamo un bel cerchio visto che lì andremo a parlare delle classiche tre cose quindi andremo a parlare come al solito di assistenza diamo anzi addirittura per riportare un po' lo stile di prima ci andiamo a prendere proprio le icone di prima come questa perfetto e come avete visto in 448 siamo riusciti anche a crearci tutta quanta la sezione della pagina prodotto belle che è strutturata senza troppi intoppi perché come vedete se pensate solo ai template ci mettete veramente poco e ora possiamo andarcela tranquillamente a vedere dalla sezione dello store e vedere un attimo come è venuta qua abbiamo la nostra bella gif la nostra immagine qua ovviamente ragazzi andremo a inserire le foto delle recensioni una volta che le andremo a catturare quindi questo passaggio lo faremo verso la fine ragazza potenza spazio e misura social proof e icone ok spero che queste due ore di creazione vi siano servite a capire quanto è veloce e quanto soprattutto è potente un page builder e quanto vi risparmia anche tempo perché come avete visto ieri abbiamo perso tantissimo tempo a cercare di inserire un video con un page builder un'icona una cosa di questo tipo l'abbiamo inserita subito ok ovviamente anche queste piccole emoticon icone le andremo a cambiare dopo perché ovviamente devono essere correlate al tipo di comunicazione che andremo a fare qui ok quindi cerchiamo un attimo verso la fine poi di andare a ottimizzare il tutto nella prossima sezione andremo a vedere tutta quanta la creazione del copy e andremo a inserire quelle che sono le recensioni andremo a inserire quelle che sono il copy delle pagine che non abbiamo ancora customizzato quindi tutte queste il copy della pagina prodotto il copy dell'home page e andremo a reperfezionare tutte quelle piccole cose che non abbiamo ancora inserito perché ovviamente ci manca tutta quanta la sezione del testo ok spero vi sia stato utile e mi raccomando l'unico modo per diventare bravi su una cosa su un page builder è usarlo ragazzi usarlo 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 come le grafiche fare grafiche su grafiche specializzare avete visto alla fine questo non l'ho creata né con photoshop né con niente ho fatto tutto con canva è un programma che potete avere anche voi questo programma vi ricordo guardate è gratuito cioè sto usando le sezioni gratuite neanche quella a pagamento quindi non ci sono scuse potete farlo anche voi senza alcun tipo di problema eccoci qua ragazzi arrivati alla sezione del copy una sezione veramente veramente importante perché ovviamente dopo aver aumentato il valore del percepito del prodotto creato una customer experience efficace e introdotto anche un po' di social proof attraverso alcune immagini la cosa fondamentale quando si va a vendere un prodotto soprattutto di questo tipo è creare una comunicazione efficace tantissimi si chiedono come creare una comunicazione efficace se c'è un blueprint se appunto c'è una strategia di base la risposta è sì e allo stesso tempo no ovvero che ovviamente per creare un copy efficace ci vuole allenamento e soprattutto spirito imprenditoriale perché considerate che stiamo andando a vendere un prodotto ok non è che stiamo descrivendo qualcosa a caso cioè dobbiamo invogliare l'utente ad acquistare questo prodotto non basta una bella immagine non bastano delle belle immagini quando si tratta di un prodotto che è tra virgolette un problem solver se ovviamente stessimo parlando di un prodotto nicchia virale quindi nicchia tiktok dove semplicemente la formula è visto piaciuto ci basta creare un bello store con delle belle immagini buttare lì due o tre copy sui servizi e siamo a posto ma in questo caso siamo su un prodotto che risolve un problema ok quindi dovremo andare ad utilizzare una strategia ben specifica per ricapitolare il principio cardine che caratterizza quello che è il copy è la caratteristica di abbattere le barriere emotive ok quando noi dobbiamo acquistare qualcosa abbiamo delle barriere emotive che sono essenzialmente delle domande dei quesiti che ci poniamo ancora prima dell'acquisto e ce ne sono di varie di varie importanze ok infatti sono delle barriere emotive che si strutturano a livello gerarchico ok cosa dobbiamo fare noi dobbiamo diciamo se siete dei copywriter o se siete degli store manager dovete andare ad abbattere queste barriere emotive nella maniera più efficace possibile ok le barriere emotive possono essere immaginatevi di entrare in un qualsiasi negozio dove dovete acquistare magari un qualsiasi tipo di prodotto magari dovete acquistare un computer vi serve per editare diciamo siete dei grafici dovete avere un certo tipo di potenza andate dal commesso dalla commessa e gli chiedete guarda ha queste caratteristiche cioè posso editare eccetera eccetera lui dice no lo so guarda dovresti comprarlo e provarlo tu ovviamente prima di spendere mille euro dici guarda tentelo per te ok addirittura però magari non basta se siamo degli utenti un po' capricciosi magari siamo entrati anche solo per acquistarci anche solo per guardare o quantomeno abbiamo i soldi in tasca ma non abbiamo tanto voglia di spenderli non basta che il commesso di turno ci vada a dire ah si guarda ha queste caratteristiche fa per te no perché comunque noi gli possiamo dire tranquillamente ok grazie ci vediamo passo poi la prossima volta a quanti di voi è capitato magari una volta nella vita di avere i soldi in tasca per comprare qualcosa entrare nel negozio e nonostante ci sia esattamente quella cosa vi passava un po' la voglia di comprarlo ok in quel caso se il commesso fosse stato particolarmente avvolgente iniziava a descriverti il prodotto iniziava magari a esporti un'offerta temporanea iniziava a farti capire che questo prodotto è veramente perfetto per te e che magari è possibile anche che non ci sia più la prossima settimana cioè ti metteva un po' di pressing positivo allora magari potevamo anche andare fino in fondo all'acquisto un po' come quando si va da footlooker e nel guardare le scarpe subito c'è qualcuno che ti chiede vuoi provarle e appena gli dici gli fai anche solo un cenno lui te le porta subito o addirittura ti chiedono semplicemente ti piacciono quelle qual è il tuo numero e te le portano direttamente per farteli provare e farti immedesimare oppure sempre in un negozio di computer magari ti aprono il computer te lo fanno provare ti fanno vedere te lo fanno già sentire tuo ok sono tutte tecniche che possiamo tranquillamente e dobbiamo riportare anche online cioè è proprio una questione fondamentale ok e questo vale anche per tantissimi prodotti di uso comune quindi adesso attualmente siamo in un periodo in cui il problem solver non sta andando più tantissimo perché l'italiano medio si è evoluto ormai online si sono visti tantissimi problem solver e ovviamente parlo di problem solver super specifici perché se ci pensiamo ragazzi qualsiasi prodotto è un problem solver ok e qual c'è un orologio risolve il problema che ti fa vedere l'ora ok cioè veramente qualsiasi prodotto è un problem solver però io sto parlando magari di un reggiseno un reggiseno ok è un problem solver di base perché sostiene il seno e appunto fa quello che tutti quanti sappiamo però noi in passato abbiamo reso un prodotto vincente perché oltre la sua caratteristica di base le abbiamo affiancato una comunicazione manipolante sul fattore di non avere più segni rossi a fine giornata che i segni rossi a fine giornata possono causare vari problemi cioè abbiamo quasi creato un problema e glielo abbiamo risolto allo stesso tempo che poi era un problema veritiero perché tantissime ragazze più che ragazze donne soprattutto in Italia che abbiamo un alto tasso diciamo di donne con un seno piuttosto grande soffrono il mal di schiena a causa del seno perché è mal sostenuto perché i reggiseni stringono i ferretti eccetera eccetera quindi noi abbiamo analizzato questo problema e creato una comunicazione atta a vendere a tutte queste persone ok perché magari molto probabilmente il reggiseno di per sé non avrebbe mai venduto senza quel tipo di comunicazione questo per farvi capire che a volte è veramente il fulcro del prodotto una comunicazione efficace e manipolante allo stesso tempo adesso passiamo all'aspetto pratico io qua ho tolto tutti i testi prima cosa anche per farvi capire quanto il testo in uno store faccia la parte grafica ma più che nello store nelle creative lo vedremo più avanti questa cosa e soprattutto per farvi capire che quando andiamo a strutturare uno store ci devono essere vari tipi di testi ok e devono essere strutturati anche qua in maniera gerarchica il primo è il testo madre il testo che chiunque molto probabilmente leggerà una volta entrati sul vostro store ed è questo ed è quello subito presente sotto la prima immagine a volte alcune persone non mettono neanche la prima immagine mettono direttamente il testo madre poi abbiamo il testo correlato su alcune foto che però è una cosa di più ok lo mettiamo qua giusto per poi abbiamo più che altro più che giusto per più per dare per far subito capire all'utente le caratteristiche principali a livello inconscio del nostro prodotto perché non ci interessa ancora parlargliene in maniera espressa ok poi abbiamo la prima cosa è ovviamente la manipolazione negativa quindi il momento in cui facciamo capire all'utente che nella sua vita c'è un piccolo problema un problema che fino ad oggi magari non stava neanche considerando o non reputava importante e noi invece glielo rendiamo una cosa importante che gli facciamo capire che questo problema deve essere risolto e anche al più presto subito dopo abbiamo la manipolazione positiva quindi dopo avergli fatto capire che c'è un problema che questo problema peggiora la sua vita e che la sua vita potrebbe essere più comoda e più bella nonostante adesso magari lo sia già però potrebbe potrebbe esserlo di più abbiamo la manipolazione positiva quindi il momento in cui gli facciamo capire che noi siamo la porta d'accesso alla risoluzione di questo determinato problema ok e questo concetto lo si può lo si può estrapolare e applicare ovunque sulle creative su un copy di testo madre infatti lo possiamo applicarlo sia in maniera separata che assieme ok possiamo applicarlo anche nella strategia di sms marketing possiamo applicarlo veramente in qualsiasi cosa e dobbiamo applicarlo a qualsiasi cosa per la maggior parte del tempo ovviamente qua sotto abbiamo un testo a livello di caratteristiche ok quindi è giusto sempre dare info a livello delle caratteristiche del prodotto per invogliare l'utente a porsi meno domande possibili perché un utente subito ok cosa si domanderà sul nostro store perché sono finito qua che cosa fate voi e abbiamo il testo madre che gli risponde a questa determinata a questo determinato quesito quindi un'infarinatura generale poi subito dopo si dice ok ma perché dovrei comprare questo prodotto cioè cosa ha di particolare che cosa ha di specifico e ovviamente queste domande ragazzi non è che se le pone proprio come le sto ponendo io sono inconsce ok siamo noi che dobbiamo intercettarle e qui cosa abbiamo abbiamo la manipolazione negativa e positiva che gli fa subito capire perché e come ok poi subito dopo una persona normale dice ok ho capito di cosa trattate mi hai convinto mi piace anche questa idea però adesso vorrei capirne un po' di più sul prodotto non è che acquisto una cosa senza conoscerne le caratteristiche un po' come quando si acquista una macchina si bella tutto quanto mi piace visto i video eccetera però adesso fammi un po' vedere quanti cavalli ha come sono le caratteristiche del motore eccetera eccetera ok senza non l'acquisteresti mai idem dobbiamo fare in qualsiasi tipo di prodotto ovviamente dopo avergli descritto a livello generale le nostre caratteristiche senza ovviamente creare dei papiri abbiamo inquisiti sottostanti che sono avrò assistenza come la spedizione se qualcun altro l'ha usato il prodotto quindi tutte domande di rilevanza minore ma altrettanto importanti ok perché l'assistenza è una cosa che in Italia veramente ce l'hanno proprio in testa hanno paurissimo che una volta che dopo che acquisti poi non non avranno cioè non avranno più un servizio non verranno più assistiti e questo per l'Italia ok non generalizziamo perché all'estero sono veramente tranquilli quindi all'estero piuttosto gli si parla di altri tipi di servizi però in Italia si può fare questo per convincerli diciamo in maniera molto più semplice considerate che all'estero sono molto meno diciamo noiosi a livello di scassamento sui servizi su queste cose sono consapevoli che se acquistano un prodotto online può tardare eccetera eccetera ok c'è l'assistenza la cliccano vanno chiedono e sono tranquilli e infine abbiamo i servizi generali quindi in questo caso se fossimo un brand strutturato in maniera impeccabile avremmo il pagamento alla consegna il cambio taglia se abbiamo un prodotto nicchia vestiti oppure la garanzia il soddisfatto il rimborsato se non ti piace il prodotto avremmo una spedizione 24-48 ore assieme al code avremmo un sacco di recensioni reali eccetera eccetera quindi questa sezione verrebbe diversa adesso attualmente siamo in drop quindi meglio usare la spedizione gratuita come specchio quella all'odola parliamo di un'assistenza disponibile lo ripetiamo perché magari una persona non legge qua e legge qua ok ribadiamo il fatto che i pagamenti sono sicuri perché seppur sembra strano ad oggi ancora le persone si chiedono se i pagamenti online sono sicuri o meno anche perché vabbè comunque ovviamente le truffe esistono però generalmente se il sito è un sito affidabile lo si riconosce vista d'occhio poi oltre 10.000 clienti amano il frigo pinto per un po' di social proof ok quindi non è che ci butto soltanto servizi assieme ai servizi a volte buttare anche un po' di social proof manipolante a livello di copie non è affatto male quindi infine altra cosa che possiamo andare a fare è andare a mettere dei servizi ok scusatemi i contatti dei servizi quindi mettiamo le mail il numero eccetera eccetera detto questo spero vi sia chiaro la prima fase dell'home page ok e questa cosa ragazzi persiste anche nella pagina prodotto non è per nulla differente come vedete abbiamo un testo madre abbiamo subito delle caratteristiche le generali alle quali andiamo a rispondere poi abbiamo la manipolazione negativa in questo caso sarà molto molto pesante sulla pagina prodotto poi abbiamo vabbè strategie sempre di di pressing del cliente ma queste possiamo un po' usarle dove vogliamo ok non c'è una regola fissa poi abbiamo la manipolazione positiva infine abbiamo caratteristiche tecniche social proof che qua nella sezione prodotto più che dare spazio all'assistenza diamo sempre spazio alla social proof cioè cerchiamo di creare un copy manipolatorio che gli vada a far capire che comunque questo prodotto non è utilizzato soltanto da lui e c'è una community dietro cioè le persone a volte acquistano anche solo per sentirsi parte di qualcosa per un punto e secondo la social proof ragazzi esiste perché è stata sviluppata come tecnica per non far sentire le persone delle cavie ok una persona quando acquista una cosa per prima si sente cioè a parte che non lo fa di solito a meno che non sia un prodotto esclusivo come detto nelle sezioni precedenti una persona non vuole sentirsi la prima ad acquistarlo si sente una cavia e quindi dobbiamo farla sentire parte di qualcosa dobbiamo farli capire percepire che il prodotto non è acquistato soltanto da lui social proof la si fa anche in queste sezioni per esempio purtroppo io qui non avevo foto del prodotto a livello di recensioni perché l'ho cercato un po' ovunque ma essendo un frigo molto costoso sull'e-express praticamente nessuno l'ha mai usato quindi la cosa intelligente che si può fare in questo caso e che noi faremo sicuramente è prendere e comprare il frigo un singolo frigo e creare tante foto recensioni ok quindi lo prendiamo lo mettiamo in vari ambienti casalinghi anche voi a casa lo potete fare lo mettete in vari angoli create delle situazioni un po' diverse e così siete a cavallo avete le vostre 7, 8, 9, 10 foto per questa sezione in più poi lo rifate per tutte quante le recensioni ok dopo magari andremo a vedere anche come creare una recensione assieme quindi direi bando alle ciance partiamo subito con lo strutturare live quella che è la comunicazione allora qua diciamo che possiamo mettere un testo che bene o male possa anche essere semplicemente un motto oppure un qualsiasi tipo di testo la cosa migliore solitamente è attirare la loro attenzione quindi per esempio un testo come il più amato dalle donne oppure la soluzione per una pelle perfetta eccetera eccetera oppure anche possiamo fare una cosa molto più semplice tipo pensato prendersi cura anche perché ricordate che il troppo stroppia nel senso a livello comunicativo nelle persone si sono evolute non si fanno prendere per il culo ok detto in maniera francese andare a manipolare troppo pesantemente a volte è quasi controproducente perché le persone si sentono appunto prese in giro e non gli piace questa cosa ok poi dopodichè testo madre qui possiamo parlare di in generale pink top ok adesso in questo caso un'altra volta abbiamo lasciato ok pink top quindi possiamo iniziare a scrivere un testo di questo genere ovviamente perdonate errori grammaticali ma ragazzi lo sto creando con voi la cosa importante sempre fatelo andare a fine creazione a rileggere tutto quanto e correggerlo però sul momento concentratemi più sul buttare il copy di getto ok cercare di creare una comunicazione efficace quindi per esempio set uno o c'è una ecco Ok. Allora se fino ad oggi non hai ancora capito come risolvere vari problemi legati alla tua pella Allora molto probabilmente questa è la ragione Poi subito dopo, quindi gli ho fatto un attimo venire la voglia di leggere E adesso gli diamo una, vedete adesso io qua creerò una manipolazione negativa e positiva tutto in un copy Cercherò comunque di farlo Allora, il calore per esempio Ah ecco ci siamo dimenticati Io mi sono informato un attimo su questo prodotto e ho scoperto che generalmente l'hanno creato perché? Prima di tutto per i professionisti perché i trucchi di un certo calibro, cosmetica di un certo livello Sono molto sensibili alle variazioni di colore e hanno bisogno di essere mantenuti alla perfezione Se no, un altro pain point che ho trovato è che molti trucchi, soprattutto di quelli normali, usuali Se conservati male, prima di tutto possono causare ritemi e brufoli, acne, punti neri e peggiorare appunto la loro qualità E idem per i cosmetici, alcuni tipi di cosmetici hanno la problematica che i loro principi attivi col tempo Se non sono mantenuti alla perfezione tendono a svanire E quindi è un po' come mettere una crema che poi non ha nessun effetto, la metti giusto per gioco Quindi secondo me questi sono i pain point principali sui quali concentrarsi per andare a manipolare l'utente E cercare di convertirlo al meglio delle nostre possibilità Quindi qua possiamo continuare con il calore Quindi qua possiamo continuare con il calore Qui gli ho dato una piccola manipolazione negativa non specifica Quindi sono semplicemente noi che gli stiamo dicendo il tutto in maniera poco professionale Che per dargli un'infarinatura E adesso gli vado a spiegare a livello di manipolazione positiva come si risolve questo problema Quindi per esempio pink top Anzi possiamo mettere il primo E' un'infarinatura positiva come si rischiavano Ma... 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 per mantenere alla perfezione ok vedete in questo testo seppur siamo andati un po' lunghi io vi consiglio sempre di base di stare tra le 4, 5, 6 righe massimo se il vostro prodotto è cheap quindi stiamo parlando di un qualsiasi tipo di prodotto questo prodotto costa 300 euro quindi bene o male secondo me ne vale anche la pena intrattenere un po' di più l'utente con un testo di questo tipo quindi per rileggerlo se fino ad oggi non hai ancora capito come risolvere vari problemi legati alla tua pelle allora molto probabilmente questa è la ragione il calore può danneggiare i prodotti per la cura della pelle facendone svanire l'effetto lo stesso vale per i trucchi da make up che se esposti a calore continuo possono provocare la comparsa di eritemi acne, punti neri Pigtop è il primo marchio di frighe professionale a temperatura controllata che mantiene alla perfezione i trucchi e i cosmetici evitando il deterioramento vedete che qua vi ho fatto subito capire vi ho fatto venire voglia di leggere e subito capire di cosa si tratta ok? quindi volente o non volente lui ora ha tutta la situazione chiara e sotto controllo poi qui semplicemente possiamo andarci a mettere un po' di testa a nostro piacimento per esempio e qua mettiamo per esempio una cosa come spazioso dato che abbiamo il frigo aperto sfruttiamolo sull'angolo spazioso qua possiamo mettere pintop possiamo mettere compatto dato che abbiamo di fianco una ragazza di riferimento e può fargli capire che comunque non è un frigo della madonna che gli occuperà tantissimo spazio eccetera eccetera pintop compatto e infine possiamo mettere pintop bello e via e passare subito alla prossima sezione adesso manipolazione negativa ragazzi qua dobbiamo cercare di dare meglio di noi perché qui generalmente si convincono gli utenti ok soprattutto su un prodotto al quale vogliamo affiancare un problema quindi prima cosa che andiamo a modificare il testo mettiamo una persona secondo me la prima cosa che si chiede e continuerà a chiedersi nonostante gliel'abbiamo detto si continuerà a chiedere ma perché conservare questi benedetti prodotti anzi perché conservare i prodotti di bellezza ok perché conservare i prodotti di bellezza adesso andiamo a cercare un bel testo sotto allora 1 2 1 2 3 4 4 5 5 6 7 8 9 9 10 9 10 10 11 11 11 12 13 15 15 15 15 16 17 17 19 17 18 18 19 19 riscontriamo sulla pelle secchezza blu dovuta e qua abbiamo parlato adesso dei trucchi però secondo me è giusto poi anche dato che abbiamo una doppia leva abbiamo trucchi che danneggiano la pelle e poi abbiamo cosmetica che non la cura quindi possiamo andare a parlare anche di quell'aspetto per esempio quindi Grazie. Grazie. Eccolo qua. Per esempio, uno studio recentemente condotto dalla comunità europea ha scoperto che la maggior parte dei problemi che noi donne riscontriamo sulla pelle come secchezza, acne, brufoli, punti neri, quindi qua l'abbiamo fatta il più immedesimare il più possibile, è dovuto all'uso continuo di trucchi deteriorati che danneggiano la pelle giorno dopo giorno. Questo discorso estende anche per i cosmetici dedicati alla cura della pelle. Dopo vari testi si è appurato che la maggior parte, vedete come ho usato anche un gergo un po' più complicato però per dare un po' di tono a quello che è il copy, per dargli un senso di veridicità. Appurato che la maggior parte di questi prodotti perde i propri principi attivi diventando totalmente inefficaci se non conservati in maniera corretta. Anzi ragazzi, ecco una cosa. Online potete decidere se usare il punto o non usarlo. Se lo usate lo usate ovunque, se non lo usate non lo usate da nessuna parte. Andando avanti. Io solitamente comunque consiglio sempre di usare qualsiasi tipo di punteggiatura, ora però non ci perdiamo in frivolezze e pensiamo all'aspetto pratico. Quindi dopo aver fatto percepire al nostro caro utente che c'è un problema, adesso facciamogli capire che c'è anche una soluzione, se no poi diciamo che gli mettiamo semplicemente paura. Allora, qui per esempio abbiamo studiato una soluzione efficace. E adesso qua andiamo a cercare la nostra bella manipolazione positiva. Dopo. 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 E' dovuto principalmente E' dovuto principalmente Posso mettere così E' dovuto principalmente E' dovuto principalmente E' dovuto principalmente Una conservazione perfetta Mettiamo così E' dovuto principalmente E' dovuto principalmente E' dovuto principalmente Ok E qua abbiamo la nostra bella manipolazione positiva Voi vi starete magari chiedendo Perché l'ho ripetuto quello che ho detto qua Perché ragazzi non siamo sicuri che il nostro store Il nostro utente legga il nostro store Come se fosse un papiro Ok? Quindi se legge questa parte Magari abbiamo più possibilità che vada avanti Ma se lui va direttamente qua Gli abbiamo fatto saltare la manipolazione negativa Quindi ripetiamolo dopo centinaia di ricerche e test Abbiamo capito che il deterioramento è dovuto principalmente All'esposizione dei prodotti All'esposizione dei prodotti a temperature troppo alte o troppo basse Così abbiamo creato Pinktop Il primo figo che garantisce ai tuoi prodotti come trucchi o cosmetici per la cura della pelle Una conservazione perfetta Così facendo ridurrai al mino la comparsa dei problemi come i brufoli, acne e pelle secca E cosa più importante Cosa più importante Non Rischierai di utilizzare quotidianamente cosmetici totalmente inefficace Vedete che gli abbiamo fatto subito capire che noi siamo la soluzione a questo problema Che non si deve preoccupare Ok? Ovviamente Secondo me se ci mettevo magari un po' di più a scriverla Avrei potuto esprimere meglio questo concetto qua Però già così secondo me potrebbe funzionare particolarmente bene Ovviamente io adesso ragazzi lo sto facendo qui live con voi Quindi potete ben capire che se una persona è a casa tranquilla E ci può pensare molto di più testo per testo Viene fuori un lavoro nettamente differente Però già così ovviamente non è male Andiamo avanti Adesso qua abbiamo semplicemente caratteristiche principali Quindi semplicemente in questo gli possiamo iniziare a parlare di Facciamo ripiani Per la cosmetica E via Facciamo un bel testo 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 Ok Ok qua abbiamo creato una piccola descrizione generale Perché è il primo testo che si beccano davanti quando scendono Ok? Quindi non sono stato troppo specifico Semplicemente Pink Top È studiato per poter contenere al suo interno Sia cosmetici per la cura della pelle Che prodotti dedicati al make up Infatti è diviso per settori specifici Allora qua dedicati al make up Allora qua dedicati al make up Leggi 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 Ok Barattoli Anzi potremmo mettere in barattoli O tubetti Ok Poi Qua abbiamo il secondo testo Possiamo andare a colmare magari Parlando del cassetto per le maschere Ok? Questo mi viene subito da pensare che sia un cassetto per le maschere L'uso e getta Cassetto Se lo mettiamo in tutto maiuscolo Cassetto Per le maschere Ok Cassetto per le maschere Andiamo avanti E qui mettiamo Ok 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 qua ragazzi Ho scritto una cosa di questo genere Quindi tutto Vorrei farvi capire una cosa Quando ho scritto Ogni pink top è dotato di un cassetto sottostante Qua ogni pink È ovvio per noi che ogni prodotto sia dotato di questo cassetto Ma Nella testa delle persone Questo a volte non Non c'è Non capiscono che Il modello è unico Ok? Perché ovviamente non conoscono il prodotto come lo conosciamo noi Quindi ripetergli che in ogni pink top ci sarà questa sezione Può essere Diciamo Può aiutare Ma che magari una ragazza lo vede Dice cavolo Magari io Mi rivaccio anche alla mia esperienza personale Avevo tante sorelle E mi ricordavo che da piccolo avevano sempre queste maschere Musegetta sparse ovunque Ma veramente ovunque Sembrava dovessero decorare casa Quindi in questo caso è possibile che una ragazza si appassione a questo prodotto Magari perché ha tutta quanta la sezione per le maschere Musegetta Ok? E quindi di conseguenza Dirli che in ogni prodotto la può aiutare Ok? Poi Anche qua del deterioramento sul lungo periodo Questo mi rifaccio anche alla mia esperienza personale Perché mi ricordo per esempio che una volta Rifatevi anche alla vostra esperienza personale A volte vi può aiutare In questo caso è tutto un caso fortuito Però mi ricordo che una volta C'è stato un evento in cui eravamo al mare Hanno aperto una maschera Musegetta Che era stata al sole per ore e ore E aveva un odore diciamo indescrivibile E quindi l'ho buttata lì Ok? Quindi se anche voi Mentre state creando uno store Vi è capitato di vivere un momento particolare Riguardo a quel tipo di prodotto Sfruttatelo Cioè sfruttate veramente tutto Quella che è la vostra esperienza A 360 gradi Ok? Quindi andiamo avanti Abbiamo l'ultima sezione Spazioso Qui possiamo sicuramente parlare di smalti rossetti Anche quelli Portiera Portiera Per smalti rossetti Anche qua Se avete una ragazza Potrete sicuramente averla vista Almeno una volta nella vita Ravanare almeno per un quarto d'ora Alla ricerca di un rossetto Di uno smalto Che magari non trovavano nella sua sacca dei trucchi Qua gli facciamo vivere già l'esperienza Di avere tutto quanto ben ordinato Ben predisposto Che poi le ragazze Secondo me piace anche molto Mettere le cose così Quindi potrebbe essere Anche qua una leva di vendita in più Cioè vedete Nel dire la caratteristica Penso anche a come potregliela vendere Ok? Questa caratteristica Quindi per esempio qua Possiamo scrivere La portiera Being Being E' O La portiera Non Non E' Un Un cosa invece che ho letto, che gli smalti, i rossetti, se esposti a calori tanto elevati o al sole, possono cambiare la colorazione, quindi magari questo potrebbe essere un problema per un professionista, oppure magari a una ragazza gli piace un colore, diciamo, specifico, se lo va a comprare e poi lo lascia al sole e è diventato da un rossovino a un fucsia, ok? E quindi ha buttato i suoi soldi, quindi questo potrebbe anche aiutarle a farle immedesimare. Dopodiché, passiamo alla nostra sezione dell'assistenza. Penso che qui comunque abbiamo fatto un lavoro decente. Ok, perfetto. Assistenza. Allora, ovviamente qua non può mancare il copy. Assistenza 24-7. Assistenza 24-7. Qua cerchiamo di essere più vezzeggiativi possibili, ok? Più, diciamo, quasi dolci rispetto al cliente e cordiali. Ok, perfetto. Grazie. 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 Ok, qui è un bel copy dedicato all'assistenza. Qua ragazzi, ognuno lo può fare un po' come vuole, basta che parlate le solite cose che verranno seguiti post acquisto, che è disponibile 7 su 7, e gli fate anche un piccolo riferimento al fatto che se schiacciano questo benedetto pulsante hanno l'assistenza, perché vi garantisco che proprio non lo capiscono. La maggior parte delle persone in là con l'età non capisce che questo tasto rimanda a Whatsapp, quindi è sempre meglio dirglielo, però considerate che già il pop-up che abbiamo inserito l'ultima volta farà il suo sporco lavoro, quindi il pop-up che esce gli dice semplicemente che potranno tranquillamente cliccare per avere assistenza live. Poi, qua parliamo dei servizi invece, servizi plus by ping top. Ok, servizi plus by ping top. E possiamo iniziare con c. Ok, servizi plus by ping top. Ok, servizi plus by ping top. Poi, qua possiamo ancora scrivergli magari un testo riguardo. Ok, servizi più per aver guardato qua. ok per il momento qua potrebbe andare già bene così parliamo di pagamenti, parliamo dell'assistenza parliamo di una spedizione gratuita abbiamo parlato un po' a 360 di quello che è il prodotto poi eventualmente voi cosa dovete fare? quando avete già creato tutta la comunicazione sull'home page andate a dare dei grassetti i grassetti ragazzi non esagerate cioè per esempio qua se non oggi non ho ancora capito come risolvere i vari problemi legati alla pelle allora problemi pelle ok per esempio qua possiamo mettere mantenere più che mantenere ora mi viene in mente conservare conservare alla perfezione trucchi cosmetici non dovete esagerare usatelo proprio con parsimonio del grassetto per esempio qua invece possiamo andare a metterlo magari a scoprire la maggior parte dei problemi che mi viene in mente dovuta continuo uso uso continuo trucchi deteriorati cosmetici cosmetici totalmente inefficaci qua possiamo usarlo conservazione perfetta mentre qua sotto qua possiamo evitare di usarlo qui assistenza invece 24 su 24 anzi no mettiamo magari post acquisto pulsante verde e infine qua assistenza 24 7 ripetate al 100% spedizione gratuita andiamo a mettere i grassetti ragazzi dobbiamo quasi dobbiamo mettere proprio le parole salienti che cerchiano di far capire il testo quindi qua problemi pelle conservare trucchi cosmetici cioè sono delle parole che fanno se una persona le vede a prima vista inizia a percepire qual è il senso del testo ok anche qua uso continuo trucchi deteriorati perché uno magari legge il testo perché conservare i prodotti di bellezza uso continuo trucchi deteriorati cosmetici totalmente inefficaci ok anche qua garantisce conservazione perfetta il prodotto qua post acquisto pulsante verde voglio semplicemente evidenziare quello che vorrei che andassero a leggere quindi vorrei che capissero che questo benedetto pulsante verde serve magari uno legge pulsante verde ma cosa per contattarci clicca pulsante verde ok ho chiaro la situazione e qua ovviamente parliamo dell'assistenza 24x7 criptati cioè evidenziamo i tre aspetti principali del copy poi non vi preoccupate se va così a capo solitamente il tema Shopify tende a stringere la maggior parte delle volte è poi molto più largo sul telefono ok e quindi per il momento ci siamo ecco magari qua poi andiamo andremo a metterci un attimo quelli che sono le mail whatsapp e via dicendo e anche qua magari possiamo andare a mettere il testo come possiamo mettere acquista il tuo pink top con la consegna anzi qua non abbiamo pagamento la consegna con la nostra spedizione gratuita fine 14 marzo e via abbiamo un po' manipolati covira 2022 pink top tutti i diritti riservati qua mettiamo la mail di pink top adesso ovviamente non mi ricordo esattamente qual è e qui facciamo caso di mettere un numero a caso 39 potremmo mettere pink top anzi facciamo in togliamo il grassetto togliamo anche qua orare 7 giorni su 7 24 ore su 24 e la nostra comunicazione sull'home page è bella che è finita ovviamente finito il tutto dobbiamo tornare obbligatoriamente a correggerla perché ragazzi una comunicazione non corretta distrugge la credibilità del brand se abbiamo degli errori grammaticali l'utente si sente in un posto poco professionale ok come vedere un commesso con la maglietta sporca o che non sa parlare cioè non va assolutamente bene oppure addirittura ancora peggio per esempio un insegnante che non sa scrivere cioè perde tutta la sua credibilità idem un brand quindi oppure quando date un curriculum sbagliato con delle fa proprio capire che c'è totale disattenzione e diciamo non cura del brand perché ovviamente quanto tempo uno potrebbe avere per rileggere questo se ci sono degli errori grammaticali su così poco testo che se lo mettessimo su una pagina di un libro non sarebbe neanche una pagina capite bene che è ridicola la cosa quindi adesso io l'ho scritto di getto ma mi raccomando dovete rileggerlo rileggerlo e rileggerlo più volte anche per vedere se la sintassi a posto e via dicendo adesso concentriamoci invece su quella che è la pagina prodotto allora testo madre anche qua andiamoci un po' a divertire qua dobbiamo sempre lavorare allo stesso modo però in maniera magari un po' più incisiva ok quindi dettagli come se mettere dettagli pink top se una persona sarà interessata sicuramente si legge questa parte quindi per esempio possiamo mettere un testo un po' più incisivo di quello iniziale con il quiz and un po' Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, semplicemente questo frigo di ultima generazione è stato appositamente studiato per poter salvaguardare la tua pelle attraverso una perfetta conservazione dei trucchi per il make up e la cosmetica di base. Che utilizziamo tutti i giorni per... Anzi qua potremmo anche modificarlo... Potremmo addirittura modificarlo in questo modo. Tutti i giorni per prenderci cura della nostra pelle, tutti i giorni... La nostra pelle viene presentata da trucchi mal conservati che possono diventare ben meno sul lungo... Questo frigo di ultima generazione è stato appositamente studiato per poter salvaguardare la tua pelle attraverso una perfetta conservazione dei trucchi per il make up e la cosmetica di base che utilizziamo... E che se mal conservata perde i suoi principi attivi... E via... E qua vedete già abbiamo creato anche qua manipolazione... Prima abbiamo fatto capire il problema e poi gli abbiamo dato la risposta al problema... Ok? Qua subito sotto perché averlo... Anche qua cerchiamo di essere più manipolatori possibili... Quindi per esempio potremmo andare a scrivere questo prodotto... Ecco una cosa ragazzi... Quando andiamo a creare la comunicazione per la pagina prodotto cerchiamo di utilizzare anche un gergo un po' diverso... C'è un metodo di approccio diverso da quella dell'home page... Perché con la strategia ads poi possiamo fare un abitest... Mandarli prima tutti sulla pagina home page... E poi tutti quanti sulla pagina prodotto... Ok? E vedere quale delle due converte meglio... Ok? Quindi... Ma di questo ne parlerete anche meglio con Gabriele... Prodotto dovrebbe essere... Quindi... Chungsi PushiAd paradoxe... È o di chiare ca... Questa. Perchè... Perchè... Un mouse... In Lena Inca這z Un mouse... È un mouse... Finora... E anun mobile... Allora Dovrebbe essere Tutte le case di colore In quanto Se Non Conservate Posso Provocar Non Un testo di questo genere Vedete che alla fine I concetti sono sempre gli stessi Cioè li riproponiamo sempre Però in maniera diversa Per non rischiare Perché ovviamente non sappiamo Dove andare a leggere una persona Quindi anche qua abbiamo riproposto Alla fine sempre lo stesso concetto Abbiamo fatto capire che Questo prodotto E l'abbiamo fatto in maniera un po' diversa Abbiamo detto se tu sei una persona Che ama e prendersi cura della tua pelle Devi avere questo prodotto Perché Eccetera 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 Ok Vedete come cerco di Come cerco un attimo di Inculcargli nella testa Questo concetto base Ok Che è quello appunto Del mio pain point Principale Che Sul quale ho voluto Andare a strutturare Quello che è il prodotto Poi Per esempio Come funziona Qua possiamo andare un po' più tecnico Per tecnici Per esempio È molto semplice Quindi subito gli facciamo capire Che è semplice Non si deve preoccupare Che è semplice Che è semplice Ok Via qua Una descrizione Molto semplice Qui invece Come si usa Anche qua Siamo un po' più tecnici E cerchiamo però Nel nostro tecnicismo Di far percepire L'utente La semplicità Estrema Del prodotto Ok Cioè Non dobbiamo fargli percepire Che è una cosa tanto complicata Che quando gli arriva a casa Dove smontare Rimontare Mettere Attaccare Staccare No Dobbiamo fargli percepire Che lui arriva E già lo può usare Ok Allora Pink Top Continuiamo Start Anzi Start Un po' più tecnici 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 Così almeno Così almeno Già si tranquillizzano Perché tutti i cassetti Dei frighi Per Cioè Suona di incastro E anche questi Mentre Attaccarlo Alla spina E sarà Subito Pronto Da usare Un top È stato realizzato Per essere subito Pronto all'uso Per essere Pronto all'uso Ti basterà Ti basterà Togliere dalla scatola Montare i cassetti Di incastro Attaccarlo alla spina E sarà subito Pronto Da utilizzare Per Conservare Al meglio I tuoi Cosmetici E non Renderli Inefficaci Vedete che anche qua Io lo ripropongo Questo concetto Io lo devo fare Poi puoi entrare in testa Copy dopo copy Perché se abbiamo la fortuna Che la persona ha la pazienza Di andarsi a leggere Tutto quanto Aumentiamo drasticamente Le possibilità Di acquisto In fase finale Ma veramente tanto Quindi Eccoci arrivati qua Alla fase Diciamo Più fondamentale Qui Possiamo mettere magari Una cosa così E qua Possiamo fare un testo Molto manipolatore Svelato Il mister Qua ci stavo già pensando Un po' prima Cosa potevamo scrivere E secondo me Una manipolazione Di questo genere Potrebbe essere Devastante Sull'utente Per esempio T T È mai capitato E che Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. Spazio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' perfetto. e... sulla community. quindi... community mondiale. e poi... e... 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 quindi... per... ok... e... 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 per... clienti... e... 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 veramente... e... 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 ... ... ... e... ... sarà... ... 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 ovviamente ragazzi se scrivete una cosa io la scrivo perché non abbiamo un'assistenza che è devastante sugli store ed è stata istruita appositamente a rispondere come se fosse un militare ok perché credetemi cioè vi è mai capitato di andare su uno store non essere particolarmente convinte cliccate l'assistenza non vi risponde entro tipo 30 secondi voi ciao ciao ve ne siete già andati la nostra assistenza per esempio risponde entro 10 secondi ok quindi questo è veramente 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 ripeto veramente importante qui community mondiale e qua mettiamo oltre 10.000 clienti anche se sono un po' incoerente perché se fosse mondiale dovremmo mettere almeno 100.000 eccetera eccetera ecco possiamo mettere peggio Troll. qua ho fiancato un attimo il concetto della conservazione perfetta che finora abbiamo attribuita ai trucchi ma che di conseguenza se conservi bene i trucchi conservi bene anche la tua pelle quindi abbiamo fatto un po' questo gioco di parole e via e abbiamo finito la comunicazione ragazzi come vedete io ci ho messo non troppo però ovviamente se ci avessi messo magari una o due orette in più sicuramente sarebbe venuto un lavoro molto ma molto più accurato quindi è veramente importante che su questo fattore vi concentriate al massimo delle vostre potenzialità perché ne definisce la riuscita o la mal riuscita del brand come vi ho detto vi potrei fare centinaia di migliaia di esempi su brand dove abbiamo visto prodotti non andare mai poi ci siamo fermati un attimo a ragionare abbiamo trovato una comunicazione efficace e via il prodotto come per magia funzionava piccola parentesi adesso andiamoci a vedere anche direttamente la pagina prodotto bella che è finita con tutti i nostri bei copi qua abbiamo giudato il mistero qua dovremmo andare a mettere dei grassetti molto probabilmente cioè qua è molto importante anzi mettere dei grassetti tipo parliamo di cosmetica, trucchi make up offerta scade fra e qua abbiamo il nostro bel carosello che scorre all'infinito addirittura lo metteremo un secondo così scorre più velocemente possibile soluzione al problema con tutte le percentuali riduzione dannosità del trucco potenza, spazio, misura abbiamo tutto quanto quello che ci serve per informare l'utente community mondiale abbiamo la nostra bella social proof vedete c'è un copio di questo genere affiancato a questo dietro una città che sembra quasi New York quindi una città comunque internazionale l'italiano medio dice ah vuoi capito si diciamo si immedesima molto cioè più che immedesimare si impressiona ok e riusciamo a convertirlo molto più facilmente infine qua abbiamo spedizione gratuita qua magari possiamo andare a correggere un po' di piccole cose che ho già visto che sono un po' bruttine qui mettiamo il grassetto qua mettiamo il grassetto qua è un po' troppo piccolo quindi la andiamo a ingrandire la mettiamo almeno a 20 poi un'altra cosa che avevo visto qui potremmo mettere l'auto rewind vediamo se c'è ok auto rewind così gira all'infinito se no poi si ferma qui andiamo a mettere magari già a grassettare queste cose qui importanti serviamo volevo dirvi prima di concludere questa sezione che come vedete la cosa peculiare che abbiamo fatto in queste due ore è andare a manipolare a sfruttare la realtà dei fatti cioè questo siamo partiti con l'idea di prendere e vendere un frigo portatile ma obiettivamente questo frigo non è portatile cioè guardate la ragazza è grande come su mezzo busto questa roba ce la vedete metterla in borsa cioè non esiste neanche una borsa che la contiene quindi non abbiamo per niente puntato sull'aspetto portatile perché abbiamo puntato tutto sull'aspetto problem solver per la cosmetica e i trucchi ok ovviamente anche qua se volessimo puntare sulla cosmetica e i trucchi problem solver sulla cosmetica e i trucchi che senso ha parlare del fatto che è portatile cos'è cioè è del tutto incoerente metto dentro i trucchi poi lo stacco e lo attacco lo attacco e lo stacco cioè dentro se non è attaccata la corrente non raffredda più quindi stai veramente facendo un po' purri di concetti ok quindi abbiamo deciso il nostro pain point di base abbiamo tracciato quelle che sono le linee guide del prodotto quelle che sono le caratteristiche principali che vogliamo andare a spiegare e non ci siamo mossi da lì non siamo andati non abbiamo voluto fare cioè il troppo stroppi ragazzi voler parlare di tutto voler portare il prodotto a un livello utopico quindi portatile problem solver facile da usare eccetera non ha senso ok ci concentriamo su pochi aspetti peculiari e quegli aspetti li scaliamo verticalmente a livello di comunicazione fino a nauseare l'utente così siamo più o meno sicuri che il tutto funzioni alla perfezione ovviamente poi come ho sempre detto è una questione anche di combinazione tra i fattori il prodotto deve funzionare l'ecosistema deve avere i 5 caratteristiche principali valore percepito consumer experience social proof comunicazione efficace per abbattere le barriere emotive e infine lo più importante è anche sfruttare la realtà dei fatti quindi come anche quella dei servizi non siamo andati mai a parlare di spedizione veloce vorrei leggetevi tutti i copi non ne ho mai parlato perché prima non è vero e secondo andrebbe farebbe proprio andare in puzza all'utente perché gli stiamo dicendo una falsità che poi si rivela anche veritiera e di conseguenza cosa succede? quando dovrà andare a darci un bel customer feedback score ce lo dà super negativo ok e infine cosa ancora più importante abbiamo ovviamente l'advertising dovrà essere targetizzato in maniera corretta per riuscire a portare delle persone realmente interessate sul nostro store da convertire per il momento è tutto ragazzi io vi lascio alla prossima sezione bene ragazzi arriviamo a uno dei punti fondamentali dopo diciamo tutte le premesse iniziali come un po' è cambiato il mondo dell'e-commerce come andare a strutturare uno store come andare a strutturare l'intero ecosistema le app insomma tutto quello che avete visto con Giorgio nelle ore precedenti quindi arrivati a questo punto della nostra macro macro veramente lezione arriviamo ad affrontare appunto l'argomento di alcuni trucchi tips ok fondamentali che noi abbiamo utilizzato per tutto il 2021 e utilizzeremo per tutto il 2022 per aumentare vertiginosamente o comunque costantemente i profitti ok piccolo disclaimer questi sono questi sono tips questi sono suggerimenti queste sono strategie che si possono applicare tranquillamente in drop ovviamente io le affronterò in declinazione drop ma ovviamente si possono dato che appunto la lezione è su questo ok però si possono applicare a qualsiasi tipo di business ok che sia anche online non online però principalmente online ovviamente perché andremo a vedere poi dopo nel dettaglio tutti questi trucchetti che fanno sicuramente aumentare il carriera medio ora non li vedremo nel pratico per molto semplicemente perché sono cose sono aspetti sono strategie che si devono mettere in pratica dopo che avete stabilizzato quantomeno gli store che comunque siete già in una fase di scaling ok quindi non se state facendo 100 euro al giorno da due giorni ok magari se siete sul K-Day da 7-10 giorni allora è interessante andare a implementare tutti questi aspetti che vedremo ok alcuni come per esempio vi anticipo già la spedizione lo potete integrare fin da subito anche qua possiamo vedere se eventualmente andargli integrare fin da subito o fare magari un test con spedizione gratuita eccetera però vedremo vedremo poi nel dettaglio man mano sezione per sezione ok allora partiamo dal primo punto ok venditore telefonico in un e-commerce qua ve l'ho messo sotto forma di domanda ma in realtà è un'affermazione ok sempre facendo fede alla premessa che ci siamo fatti quindi mi raccomando il discorso è che voi state già scalando voi avete già una stabilità col vostro store quindi non dobbiamo introdurre queste cose qua quando siamo in fase di testing oddio magari poi dipende da caso e caso ovviamente se siete facilitati nel reperire venditori telefonici eccetera eccetera allora può valerne la pena ok di partire già direttamente in fase di testing con un venditore telefonico ok qui prima domanda è quando introdurlo ovviamente come ci siamo detti prima quando lo store sta già in gran anno a meno che non abbiate molta facilità nel reperirli poi dopo andremo a vedere anche come andare a reperirli come trovare che caratteristiche deve avere eccetera 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 quindi quando introdurlo ok che ruolo svolge ovviamente è quello di andare ad aumentare le nostre vendite ok e la nostra esperienza ok infatti punto 3 perché è fondamentale perché ragazzi il venditore non è che ci fa solo aumentare le vendite ok ma ci fa anche migliorare proprio le performance dello store ok dopo andremo a vedere anche nel dettaglio le motivazioni d'accordo quindi proseguiamo quali sono i punti forti i punti forti sicuramente sono che ragazzi un venditore è a costo zero ok il venditore viene pagato nel momento in cui chiude ok gli viene dato una commissione del 10% ok a chiusura fatta su un traffico che d'altra parte noi abbiamo già pagato ok quindi non sarà un costo ulteriore noi abbiamo già pagato quel traffico attraverso facebook ads attraverso l'organicità attraverso tiktok eccetera eccetera attraverso comunque i nostri canali quindi quel traffico è arrivato e comunque il venditore quindi non è un costo che incide ok sul nostro bilancio più di tanto ovviamente viene pagato solamente se chiude quindi se non chiude non viene pagato mi raccomando cercate sempre 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 di evitare di dare fisso ai venditori perché perché poi si diventano semplicemente un call center e non più i venditori i venditori sono tali nel momento in cui vengono pagati su quello che producono ok se no diventano dei dipendenti ok quindi costo zero aumento del fatturato ovviamente e aumento delle prestazioni come accennavo prima ok cosa significa aumento delle prestazioni che il venditore soprattutto se è un bravo venditore poi andremo a vedere anche che caratteristiche deve avere ovviamente non ci serve chissà chi non ci serve il gioele farronato di turno come abbiamo noi in azienda ovviamente anche perché uno non è più solo un venditore ma è proprio il CFO dell'azienda e due un venditore bravo e schillato non viene a vendere per voi in dropshipping ok però comunque vedremo anche come trovarne in abbondanza a costo ovviamente zero come un venditore è ovvio che sia allora aumento delle prestazioni cosa intendo con aumento delle prestazioni molto semplicemente intendo che il venditore appunto se è un bravo venditore sa vendere deve partire col chiedere un feedback ok quindi sui carrelli abbandonati sulle persone che hanno lasciato il numero e poi non hanno effettivamente acquistato il venditore andrà a lavorare proprio su quell'audience ok su quel pubblico lì quindi chiederà attaccherà in chiamata a chiedere un feedback ok non andrà push non deve pushare sulla vendita poi anche dopo andremo a vedere nel dettaglio gli step che deve fare un venditore in modo tale che ve lo possiate anche formare voi ragazzi ok il discorso è che per fare una parentesi un po' più generale quando voi iniziate dovete un po' essere i factotum ok perché questo è un processo che tutti fanno ragazzi Luca stesso in primis quando era chiuso in mansarda faceva tutto lui ok il 99% delle cose le faceva lui quando poi si inizia a scalare si inizia a imparare a delegare ok però viene in un secondo momento d'accordo in fase iniziale dovete fare tutto voi per il banalissimo fatto che così capite effettivamente quali sono tutti gli aspetti e sapete nel momento in cui andate a delegare se una cosa viene fatta bene o no quindi tra tutte le cose che dovete fare ci sarà anche l'assistenza in fase iniziale ok quindi chiedere feedback torniamo a noi chiedere feedback il venditore dovrà attaccare appunto col chiedendo un feedback ok commenti se hai trovato trovata sullo store cosa non ti ha convinto più di tanto ok in modo tale che così poi venga riferito anche a noi ovviamente e riusciamo anche a migliorare le performance dello store perché se per esempio ci dice una persona eh sì bello però non lo so non c'era il pagamento alla consegna ok questo è un argomento che affronteremo anche dopo vedremo nel dettaglio come diciamo dissuadere le persone soprattutto in Italia e il fattore del pagamento della consegna è diventato veramente fondamentale cioè non dico fondamentale ma molto richiesto però vedremo come andare a chiudere comunque le persone che richiedono questo tipo di pagamenti ok quindi lo andremo a vedere dopo per tornare a noi appunto all'aumento di prestazioni cosa si intende chiedendo un feedback noi capiamo dove il nostro store fa la cune ok perché se il venditore contatta 1, 2, 3, 4, 5 persone e tutte e 5 non sono state diciamo tra virgolette convinte dallo stesso aspetto allora potrebbe valer la pena andare a modificarlo quindi attraverso i feedback del venditore noi riusciamo ad andare a capire effettivamente dove andare cosa modificare eccetera 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 ok il discorso upsell crosssell ok sono ovviamente fondamentali per aumentare il carrello medio ok e più ovviamente più commissione per il venditore stesso quindi cosa significa questa cosa significa che il venditore ovviamente deve deve sottolineo deve cercare di andare a aumentare il carrello medio quindi una volta che ha chiesto il feedback una volta che ha chiesto quello una volta che ha chiesto l'altro ovviamente deve poi portarli alla vendita ok portarli all'acquisto in questo caso dal punto di vista del lead ok quindi come come avviene più o meno il processo si parte con un feedback ok magari uno non è convinto sulla garanzia soddisfatto rimborsato per dirne una cose che capitano ok ragazzi perché magari mettiamo una garanzia soddisfatto rimborsato di sette giorni e magari la persona non non è troppo convinta e quindi il venditore può attaccare e dire se ti crea sul link personalizzato sulla quale hai una garanzia invece che per sette giorni soddisfatto rimborsato per 30 giorni acquisteresti ok e da lì attacca e fa la vendita ok porta la vendita in porto quindi come cosa vediamo qua sconti link personalizzati eccetera 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 quindi può lavorare anche sullo sconto perché magari uno può dire sì tutto bello però il prezzo non mi convince tanto e allora a quel punto il venditore può proporre uno sconto a discapito ovviamente anche della sua commissione perché ovviamente chiudere un prodotto a 30 euro piuttosto chiuderlo a 25 ovviamente intacca su quella che è la sua commissione ok perché ricordiamo il 10% sull'ordo su quello che chiude ovviamente sconti eccetera eccetera dovete un attimo soprattutto gli sconti dovete un attimino calcolarli non è che potete fargli fare quello che vuole ok bisogna istruirli per quello anche il discorso che facevo prima è cerchiamo di fare cioè di essere un po' dei factotum quantomeno all'inizio in modo tale che noi sappiamo un po' come funziona come funzionano i diversi aspetti e quindi riusciamo a supervisionare nel momento in cui andiamo a delegare proprio perché l'abbiamo già fatto l'abbiamo già vissuto sulla nostra pelle ok soprattutto quindi il punto la frase sotto che vediamo mettiamo il lifetime value del lead cosa significa che cosa intendo con questa frase molto semplicemente che soprattutto con il cross sell ok possiamo andare a fargli fare al venditore un lavoro di questo tipo ecco una piccola parentesi ragazzi in fase iniziale ok potete anche essere voi venditori d'accordo cioè non è da escludersi come dicevo prima potete essere anche dei factotum ok magari se siete in due avete un socio eccetera eccetera riuscite a fare un lavoro di questo genere ok quindi aumentare il lifetime value del lead cosa si intende con il cross sell molto semplicemente noi cosa facciamo una volta che il venditore ha chiuso un determinato lead si va a monitorare quello che è il tracking code e nel momento in cui vediamo che il prodotto è stato consegnato eccetera 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 in quel preciso momento si va a ricontattare il lead che ricordiamo è sempre stato chiuso dal venditore questa cosa si può fare anche con quelli semplicemente entrati in autonomia senza passare dal venditore ovviamente però come ben potete immaginare se una persona ha già stabilito un contatto con un venditore ovviamente quando viene ricontattata è più a suo agio ok se così voglian dire quindi nel momento in cui il pacco viene consegnato noi monitoriamo dal tracking code il venditore a quel punto va a contattare di nuovo il cliente il lead chiedendogli sempre partendo dal feedback ok quindi come ti sei trovata eccetera e da lì attacca poi a proporre il cross sell ok questo cosa ci permette di fare ci permette di aumentare come vediamo scritto anche nella slide il lifetime value del cliente quindi è un cliente che noi ci porteremo avanti nel tempo ok e ovviamente sarà soddisfatta se si è stabilito un contatto iniziale eccetera eccetera ovviamente il cliente verrà portato avanti d'accordo questo è il discorso che possiamo fare anche con le persone che hanno comprato e che hanno semplicemente hanno comprato senza passare dal venditore ok noi li possiamo andare a ricontattare gli si chiede un feedback e gli si propongono nuove offerte ok proprio per avere una vita maggiore del lead perché ricordiamo che noi ogni lead lo paghiamo e quindi dobbiamo cercarlo di spremere il più possibile ok ovviamente spremere in senso buono però ci siamo capiti ok qui appunto l'esempio pratico che vi dicevo prima quindi una volta chiuso dal venditore monitoriamo il tracking appena consegnato il venditore ricontatta e procede con l'upsell ok cross sell eccetera eccetera dipende ecco ragazzi piccolo disclaimer stiamo affrontando queste cose anche in linea teorica perché il prodotto che abbiamo deciso almeno in fase iniziale non abbiamo upsell non abbiamo cross sell eccetera eccetera quindi ovviamente poi li possiamo introdurre in un secondo momento però è un po' un discorso un po' più pratico e generico che volevo fare per appunto farvi capire quanto è importante quanto sono importanti questi aspetti e soprattutto ragazzi quanto vi differenziano dagli altri negozi ok quindi ovviamente non tutti i negozi cioè quasi nessuno mi viene da dire negozio soprattutto in drop quindi figuratevi tiene così tiene tra virgolette diciamo ha così tanto cura del cliente e via dicendo quindi capite bene che voi vi differenziate proprio dalla massa e questo le persone lo percepiscono perché ricordiamo che il nostro cliente tipo ha già visto 10, 20, 30 magari anche store nella stessa giornata simile al vostro comunque store in drop ok che potreste essere voi se noi gli diamo questo plus del venditore poi dopo andremo a vedere anche altre cose ci differenziamo ovviamente dalla massa ok questo è anche un po' per farvi il discorso di quella che è ma nel 2022 nel 2021 eccetera eccetera comunque sia quest'anno 2022 sia l'anno scorso ma c'è tanta competizione ma c'è Amazon eccetera eccetera ovviamente noi ragazzi dobbiamo differenziarci cioè non possiamo rimanere lì e pensare che funzioni tutto come nel 2016 che facevi gli store one dollar store paghi solo la consegna e vendevi a fiotte ok qui vediamo un po' un aspetto un po' più pratico su come andare a gestire il venditore ok usare app di affiliazione se su Shopify cercate affiliate eccetera eccetera cioè affiliate molto semplicemente riusciranno una marea di app vedete un attimo con quale vi trovate meglio ma ce ne sono davvero davvero tante ok tracciamo tutto per avere un track preciso delle performance del venditore ok perché noi possiamo anche eventualmente una volta che stiamo scalando in maniera pesante quando siamo magari sui 4, 5, 6 10.000 euro al giorno ok possiamo anche introdurre più di un venditore ok possiamo farlo anche prima questo crea anche competizione e il fatturato sicuramente aumenta ok quindi usiamo app di affiliazione per monitorare tutte le chiusure scusatemi tutte le chiusure fatte dal venditore e calcolare le sue commissioni calcolare le sue performance sui tassi di chiusura eccetera 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 ok così abbiamo un quadro sempre limpido della situazione soprattutto nel momento in cui da fattotum diventati imprenditori e quindi iniziate a delegare a certi aspetti dovete sempre sempre avere la situazione sotto controllo costantemente ok ragazzi molto importante tips piccola cosa che abbiamo visto è stata anche noi su nostri store che una venditrice donna è molto performante ok quindi se trovate venditrici donne quasi meglio ok di quegli uomini anche perché ragazzi soprattutto come sull'id uomini la donna ha molta presa ok non prendiamoci in giro è così che funziona e noi ne prendiamo atto e agiamo di conseguenza oltre al fatto che anche se una persona è incazzata o comunque arrabbiata per qualsiasi cosa per un servizio per un prodotto eccetera eccetera si sarà meno alterata se sente che dall'altra parte c'è alterata la persona intendo se vede che dall'altra parte c'è una donna ok parliamoci chiaro è così ok quindi venditrici donna sono molto buoni ovviamente poi dipende tutto dal dalla performance ok che uno ha dalle chiusure eccetera eccetera ok quindi molto importante però da quello che abbiamo visto è che le donne hanno un po' più presa soprattutto sull'id maschile quindi se stiamo vendendo prodotti prettamente per maschi sicuramente la scelta di andare a prendere una venditrice femmina è molto molto azzeccata ok qui andiamo ad affrontare un altro discorso ok che è sempre legato al venditore telefonico e diciamo che serve ok anche in azienda c'è ce l'avevamo comunque adesso ovviamente essendo l'azienda intendo l'azienda di formazione quindi il personaggio l'azienda di corsi formazione mentorship eccetera l'agency stessa eccetera ha un numero verde ok ovviamente il numero verde ragazzi si va a inserire quando se già parlando di venditore abbiamo detto di introdurlo una volta che stiamo scalando via dicendo qui con il numero verde è ancora ancora peggio ok da questo punto di vista quindi questa è già una fase molto avanzata ok però comunque è bene è bene che voi le sappiate è bene che voi siate informati ok su tutti i processi che servono per appunto andare a scalare quello che è uno store anche in drop ragazzi anche soprattutto in drop ok numero verde ovviamente quando abbiamo stabilità un po' come il venditore il venditore lo possiamo è vero che lo possiamo introdurre anche prima in base a come lo riusciamo a reperire vi dicendo però ragazzi il numero verde vi dà una certa un certo peso una certa impronta ok che vi fa percepire come una cavolo di azienda seria ok quale store in drop ha un numero verde nessuno quasi ok adesso vi farò anche un piccolo esempio a cosa serve allora a cosa serve ragazzi lo possiamo capire molto semplicemente semplicemente diamo trust ai clienti uno che vede un numero verde dice cavolo è una cosa seria ok cioè non è uno store del cavolo fatto da un ragazzino va bene da trust ai clienti si fidano gli dà l'impressione di avere a che fare con una vera e propria azienda ragazzi media shopping ha fatto e fa i milioni praticamente così ok chiama il numero verde per aver l'offerta eccetera cioè chiunque abbia visto una pubblicità di media shopping e penso che il 99% di voi l'abbia vista una volta almeno una volta nella vita sa benissimo si ricorda nella sua testa quella frase lì è proprio quella di chiama il numero verde per avere l'offerta speciale eccetera eccetera bene se lo fa media shopping e lo faceva con mezzi antiquati ovvero con la pubblicità in tv perché non lo possiamo fare noi in drop ok dato che il target l'audience che compra prodotti in drop scusatemi è molto molto simile a un audience che compra prodotti da televendite ok semplicemente si troveranno ancora più a loro agio ok quindi questa vi può sembrare magari si sorcerete il naso all'inizio però fidatevi che è una cosa che veramente serve 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 ok che vi farà aumentare notevolmente le vendite ok e soprattutto in Italia praticamente nessuno fa d'accordo ho visto veramente pochissimi store che hanno il numero verde con il venditore eccetera eccetera ok inseritelo ovun una volta ovviamente che ce l'avete ragazzi sfruttiamolo quindi inseriamolo ovunque mail di conferma ordine sms con carrello abbandonato quando viene contattato per l'assistenza lo possiamo mettere ovunque come script ok ragazzi perché sempre per il discorso che facevamo prima appunto da trust da trust ai clienti quindi noi lo andiamo a inserire ovunque ok vedrete che anche i clienti lo noteranno e diranno cavolo non ho mai visto uno store in drop uno store un negozio online eccetera eccetera ovviamente loro non sanno che in drop però un negozio online avere un numero verde ok avrete anche quel fattore diciamo sorpresa il fattore wow eccetera eccetera che sicuramente vi darà un plus ok allora come funziona dove potete comprare un numero verde cercate semplicemente online numero verde acquista numero verde ne trovate a miri c'è anche un sito mi sembra che si chiama 800 numero verde una cosa del genere ok per l'italia ovviamente come funziona numero verde a un numero verde ci si possono collegare diversi numeri mi sembrano 10-15 numeri circa ovviamente noi non penso avremo neanche noi ci siamo arrivati ma perché semplicemente non servono avere 15 venditori attaccati quindi semplicemente ne avremo magari 1, 2, 3, 4 al massimo venditori questi venditori qua verranno messi ovviamente in ordine di chiusura cosa intendo? allora mettere sempre chi chiudi di più al primo posto ok creare come accennavo già prima competizione tra di loro ok ovviamente anche qua inutile sottolinearlo in fase di scalata ok cosa facciamo un piccolo approfondimento su questo punto allora un numero verde funziona che quando viene chiamato c'è un ordine di risposta ok quindi io chiamo il numero verde c'è il venditore 1 il venditore 2 il venditore 3 nel momento in cui chiamo suona il telefono al venditore 1 bene il venditore 1 è ovviamente quello che sta chiudendo di più quindi potete fare stilare delle classifiche delle performance settimanali in modo tale che per la prossima settimana quindi si può fare un discorso di questo genere ragazzi allora questa settimana ha chiuso di più il venditore 1 quindi per tutta la prossima settimana avrà lui il numero verde ok quindi potete giustrarvela così in modo tale che appunto creiamo competizione competizione sana che ci porta a fatturare di più sia a loro quindi sia ai venditori sia ovviamente a noi che siamo gli imprenditori di turno ok quindi primo posto mettere quello che chiude di più creando competizione eccetera eccetera lo potete impostare tranquillamente questo non è non è assolutamente un problema vedrete proprio dall'interfaccia dove andrete ad acquistarlo come si va a settare eccetera 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 ok quindi questo è un aspetto molto molto importante dove trovare non il numero verde ma in questo caso i venditori ok magari la prima domanda che vi è venuta in mente di cavolo eh sì però dove li trovi i venditori ragazzi l'offerta è maggiore della domanda ok questo è giusto perché sia chiaro ovviamente vi serve della gente che abbia tanto tempo a disposizione che non faccia altre cose ok in linea generale che possa stare livello sul pezzo ok i gruppi facebook sono spesso una miniera d'oro poi ci sono aziende che proprio formano venditori insomma non c'è bisogno che vi dica io come trovarli ok aguzzate un po' l'ingegno e li trovate può essere possono essere anche per dirvi i vostri conoscenti magari se siete non lo so avete un po' di follower su instagram potete anche fare una storia ok vedete un attimo voi cosa migliore comunque se non siete se non siete nei famosi su instagram né nulla è andare a cercare un po' sui gruppi facebook delle varie accademie di formazione eccetera eccetera ok sicuramente ragazzi fidatevi non avrete fatica a trovarne anche perché ripeto l'offerta è maggiore della domanda ok parliamoci chiaro ovviamente bisogna fare un po' di selezione ok le caratteristiche principali devono essere venditori no push ok non stiamo vendendo corsi di formazione quindi dobbiamo diciamo tra virgolette pushare o comunque stiamo vendendo pacchetti ai ticket eccetera eccetera no stiamo vendendo banalissimi prodotti su uno store ok cambiano qualche approccio cambia sicuramente quindi no push non devono essere aggressivi quindi ah ma come mai non è comprato ah c'è ok anche perché dalla diciamo dalla prima lezione appunto di quella della ricerca del prodotto o seconda adesso non ricordo perché sono veramente tantissime ore di registrazione ragazzi abbiamo visto che uno dei punti fondamentali per un prodotto è la naturalezza se uno viene pushato esce dalla sua zona di comfort ok e quindi non comprerà ok quindi mi raccomando venditori no push fate selezione ovviamente meglio ragazze come dicevamo prima punto 3 non serve Jordan Belfort ok quindi non ci serve un venditore che sia un assassino d'accordo anche perché il venditore che è bravo non viene a vendere per uno store in drop ok da voi quindi importante trovare i ragazzi che abbiano voglia di fare che abbiano abbastanza tempo a disposizione e che potete formare ok secondo le cose che ci siamo detti fino a tutte le slide prima comunque il discorso che abbiamo fatto fino adesso ok le cose diciamo per racchiudere un po' il tutto sono no push chiedere feedback sempre ok e poi dal feedback agganciarci per fare la vendita meglio le ragazze soprattutto se vendiamo un prodotto per uomini ovviamente non ci serve il venditore schillato o schillatissimo di turno ok arriviamo a un altro argomento che è un altro aspetto molto molto importante anche qui ovvero quello delle spedizioni adesso nella parte precedente abbiamo visto con Giorgio nel caso appunto nostro l'abbiamo messa gratuita perché per il semplice motivo che stiamo andando a testare ok quindi spedizioni grazie a suo pagamento ragazzi a pagamento tutta la vita però alcune volte è bene testare in fase iniziale ok con le spedizioni gratuite più che altro per vedere se effettivamente c'è del mercato e per non esporci troppo con la spesa pubblicitaria su facebook ok quindi è importante chiarire questo concetto nel 2022 la gente la gente paga le spedizioni ok se vuole un prodotto la gente paga ok anche la spedizione adesso andremo a vedere anche alcuni aspetti ok per cercare non dico di giustificare però cercare di mettere a proprio agio il cliente nel pagare la spedizione questa famigerata spedizione ok quindi piccolo recap ora in questo test lo metteremo gratuito proprio perché siamo in fase di test ok si può partire anche subito con la spedizione a pagamento anche in fase di test però in questo caso non abbiamo deciso dato che comunque il prodotto è molto competitivo di partire con una spedizione gratuita ok quindi è anche molto importante guardare la competizione che c'è quando andiamo a fare una scelta di questo tipo d'accordo allora il vero margine ok in drop ragazzi qui come detto questa l'abbiamo un po' più un discorso un po' generico però è molto ben declinabile ed è stato improntato ovviamente sul drop ok ragazzi quindi il vero margine sta lì sta proprio nel far pagare quella benedetta spedizione ok sfruttiamo la leva della spedizione gratuita sui bundle ovviamente il prodotto si deve prestare ok cosa si intende se noi abbiamo vendiamo delle ciabatte delle scarpe eccetera eccetera qualcun altro potrebbe aver bisogno di quelle scarpe ok mettete io sono una mamma italiana una casalinga italiana e vedo questa bella sponsorizzazione mi interessano le ciabatte hanno un prezzo molto vantaggioso perché attenzione ragazzi facendo pagare la spedizione noi possiamo usare come hook come amo il fattore del prezzo basso per attirare il cliente sul nostro store ok quindi possiamo metterlo anche direttamente nella creative 19,99 ok 14,97 un paio di ciabatte per dirvi quello viene subito attirato perché dice cavolo costano poco rispetto all'altra che ho visto ok quindi noi lo attiriamo lo iniziamo a portare dentro il nostro store magari ci lascia anche i dati così poi può essere ricontattato da un venditore eccetera eccetera ok quindi iniziamo a entrare in quest'ottica mettiamo la spedizione a pagamento perché per poter attirare il cliente con un prezzo di vendita più basso ok rispetto alla concorrenza ok non c'è nulla che tenga ok se io vendo un prodotto a 30 euro ok oppure se io vendo un prodotto a 24,97 più 5 euro di spedizione ragazzi entreranno ovviamente sul prodotto da 24,97 ok avranno più interazione su 24,97 d'accordo perché la spedizione viene messa dopo ok dopo che hanno già aggiunto il carrello quindi dopo che sono già stati sono già non so come dire in fomo ok sono già gasati per l'acquisto si vedono lì la spedizione a quel punto la maggior parte delle persone o abbandona il carrello o aggiunge un nuovo prodotto ok perché adesso andremo a vedere anche questo aspetto qua oppure semplicemente paga la spedizione e noi marginiamo quei 5 euro in più ok oltre ad avere un prezzo hook quindi un prezzo accattivante che ci distingue dai competitor ok che ci fa diciamo che attira di più l'attenzione rispetto ai competitor ok quindi questo molto molto importante ovviamente come dicevo il prodotto si deve prestare una scarpa una ciabatta un reggiseno eccetera eccetera si prestano bene per questo per appunto essere acquistati in bundle già per dirvi una ciotola per i cani una cuccia per cani un gioco per un gatto eh lì si presta un po' meno ok se abbiamo un monoproduct ovviamente se poi abbiamo un genero un multiproduct allora lì diventa molto molto easy la cosa spedizione assicurata ok andiamo a vedere un attimino come andare a gestire tutto questo aspetto delle spedizioni non spedizioni eccetera eccetera come quanto farle pagare quando non farle pagare quando offrile eccetera eccetera allora come dicevo prima ragazzi se noi offriamo una spedizione un prezzo scusatemi molto accattivante ci distinguiamo dalla concorrenza però ovviamente noi non facciamo beneficenza dobbiamo guadagnare quindi andiamo a mettere un sovrapprezzo nella spedizione ragazzi la spedizione la possiamo far pagare anche 5-6 euro ok la gente vi assicuro la paga la paga la paga ok quindi 5-6 euro sono semplicemente soldi in tasca che noi ci mettiamo di più per questo ragazzi all'inizio cosa dicevo il vero margine sta lì sta nella spedizione ok anche perché come sapete se non lo sapete la il costo di facebook che si è alzato parecchio negli ultimi tempi d'accordo quindi dobbiamo cercare di marginare e noi comunque stiamo continuando a marginare molto bene quindi su story drop abbiamo sempre comunque quei margini dal 30-35% alcune volte anche al 40% se stiamo usando tanto influencer marketing e quindi capite bene ragazzi che fa tanta differenza d'accordo quindi spedizione assicurata la spedizione standard ragazzi come dicevo possiamo mettere anche tranquillamente 5-6 euro mentre la spedizione assicurata ok che cos'è la spedizione assicurata ragazzi a noi non cambia nulla zero ok semplicemente diamo la garanzia di dare un rimborso in caso di smarrimento barra mancata consegna ok ovviamente deve essere più costosa di quella standard anche in caso di bundle ok andiamo un attimino a spiegare questo aspetto aspetto a fare un po' di chiarezza da questo punto di vista allora come dicevo prima se noi una spedizione standard la facciamo pagare 5-6 euro ok una spedizione assicurata dobbiamo aggiungerci quantomeno 2 euro in più rispetto a quella standard ok cosa andiamo a fare andiamo semplicemente ad offrire ok una spedizione gratuita in caso di bundle ok quindi se uno prende un bundle gli andiamo ad offrire quella che è la spedizione se uno però prende il bundle e vuole comunque la spedizione assicurata che ripeto ragazzi noi non cambia nulla semplicemente andiamo a rimborsarle in caso venga smarrito il pacco eccetera poi molto semplicemente con l'agent ci andiamo a mettere d'accordo ok perché se viene smarrita una spedizione è responsabilità dell'agent e l'agent ci andrà a rimborsare ok quindi da questo punto di vista no problem d'accordo possiamo offrire lo facciamo pagare in più a noi non cambia niente non ci costa né di più né di meno quindi marginiamo semplicemente di più ok stavo dicendo quindi se uno acquista in bundle gli andiamo a scontare quello che è il costo della spedizione normale quindi gli andiamo a togliere quei 5-6 euro ok che erano extra sulla spedizione e gli andiamo a lasciare quei 2 euro appunto di spedizione assicurata ok anche sul bundle d'accordo e assicuro ragazzi che la gente paga ok e anche col sorriso leva psicologica ok ci permette di essere più competitivi ragazzi come dicevo prima senza rinunciare al margine ok mi raccomando ragazzi il margine è una cosa che è molto importante da curare in droppo e proprio deve essere alla vostra ossessione il margine perché è un attimo avere delle dashboard grosse ok buone però poi mettersi in tasca nulla poco nulla ok quindi mi raccomando ragazzi curare il margine fondamentale quindi ci permette di essere più competitivi senza rinunciare al margine anzi aumentandolo ok perché andiamo a dare la spedizione andiamo a farla pagare extra quindi magari noi possiamo facciamo un esempio pratico un competitor vende il nostro prodotto 30 euro noi lo mettiamo a 25 ok la gente verrà da noi e poi gli mettiamo 6 euro di consegna ok noi stiamo già facendo un euro in più rispetto al nostro competitor poi noi gli diciamo guarda ne compri due ti sconto 6 euro di spedizione ok guarda ne compri tre ti sconto oltre a scontarti la spedizione hai uno sconto ulteriore del 10% 4 è uno sconto del 15% 5 è uno sconto del 20% capite bene che la leva psicologica nella testa del cliente dice cavolo io nella testa del cliente il prodotto costerà 31 euro in questo caso perché 25 più 6 di spedizione se lui si vede offrire la spedizione quindi pagare 6 euro in meno ma soprattutto uno sconto ulteriore sul prodotto il valore percepito dal cliente in quel caso ragazzi raddoppierà capite e quindi sarà molto più invogliato a comprare di più comprare di più ok ovviamente come ho detto prima il prodotto si deve prestare per questo se io vendo utensili da un attrezzo specifico per la cucina io non è che me ne compro 4 perché ho due mani non è che me ne servono 4 si è vero magari posso fare il regalo eccetera eccetera però il prodotto diciamo che si deve anche prestare ovviamente i prodotti broad ragazzi in questo caso sono quelli che si prestano di più ok parliamoci chiaro come vi ho detto prima reggiseni pantofole scarpe eccetera 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 ok come vediamo ultima frase il costo che ci di più in drop è la spedizione ricordiamocelo ragazzi ricordiamocelo ok il costo che ci massacra in drop è proprio la spedizione perché una spedizione cioè molto spesso ragazzi vi costerà di più la spedizione che il prodotto in sé perché è una spedizione intercontinentale parte dalla Cina eccetera 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 ok quindi è ovvio che dobbiamo cercare di andare a limare proprio quell'aspetto lì appunto siamo imprenditori l'imprenditore cosa fa deve guardare a 360 gradi la situazione e quindi deve cercare di curare il margine d'accordo quindi con questa strategia andiamo a ottimizzare molto i costi di spedizione che come come abbiamo appena detto sono quelli che incidono maggiormente quando si parla di store in drop ok allora andiamo a un aspetto diciamo che nell'ultimo anno alla fatta da padrone ovvero il code ok ah non compro senza il code magari ragazzi chi di voi ha già store attivi o chi ha avuto store attivi odierà questa parola code code io non compro senza code eccetera eccetera quindi andiamo a vedere come gestire le richieste di code ok le persone che ci arrivano magari in assistenza o che vengono chiamati dal venditore o comunque che non comprerebbero se non con il code ok code ragazzi cash on delivery pagamento alla consegna ok ovviamente facciamo questa piccola precisazione allora bisogna comprendere l'obiezione ok quindi non andare a scontrarsi ok mi raccomando questo soprattutto per un discorso di formazione venditore quindi comprendere l'obiezione e gestirla ok questi due aspetti il 99% delle volte non si fidano ok per questo chiedono il code quindi possono essere diversi aspetti d'accordo magari non si fidano a mettere la carta perché viene oddio me la clonano eccetera 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 magari non si fidano perché dicono io pago con la carta e poi non mi arriva niente questa è la maggior parte dei casi è per questo che richiedono il code perché vogliono vedersi il pacchetto arrivare d'accordo quindi ci possono essere diverse obiezioni diciamo queste sono le principali bene noi spieghiamo che hanno lo stesso rischio se non maggiore con il code ok cosa si intende ok andiamo a fare un po' di chiarezza sotto questo punto perché magari spiegato così non è chiarissimo allora se io arrivo in chat se mi arriva in chat una persona mi chiede oppure vengo ricontattato viene ricontattato da un venditore il venditore chiede come ti sei trovata eccetera eccetera ok ma qual è stata la cosa che non ti ha fatto procedere all'acquisto perché per noi è molto importante avere dei feedback dai nostri clienti per cercare di migliorarci sempre ok e quella persona risponderà perché non c'è il pagamento alla consegna e tu gli si può tranquillamente rispondere questo vale sia in call e ragazzi sia via chat ok vi sto facendo proprio un esempio pratico così in modo tale che sia molto più chiaro ok quindi a quel punto uno dice guarda per il momento non lo offriamo però volevo capire come mai lo richiedi nel senso hai qualche esigenza particolare e vedrete che 90% delle volte diranno non mi fido ok non mi fido ok a quel punto gli si può attaccare con ma non ti fidi per quanto riguarda il ricevere il pacco ok quindi siamo già noi che gli diciamo non ti fidi per quello quindi evitiamo l'argomento clonazione carte eccetera perché ragazzi anche se è impossibile che con metodi tipo stripe o comunque Shopify payments vengano bucati quindi vengano sottratti dati per andare a clonare carte e via dicendo o comunque molto rischioso ma a quel punto sono assicurati anche loro quindi nel caso succedesse vengono viene rimborsato comunque evitiamo lo scontro ok comprendere l'obiezione gestirla non scontrarci evitiamo lo scontro cerchiamo di portarli da già dove vogliamo che vadano ok quindi non ti fidi cioè non sei sicura di ricevere il pacco per questo richiedi il code non sei sicuro sicura ok ovviamente di ricevere il pacco per quello preferiresti avere il cash on delivery e vedrete che il 99% delle persone vi risponderà di sì ok quindi evitiamo anche di spiegare ah ma se tanto non si possono clonare le carte eccetera eccetera perché tanto l'italiano medio non vuole sentire ragioni ok quindi è inutile anche andiamo a scontrarci quindi noi gli diciamo non ti fidi di ricevere il pacco lei lui ci dirà sì nel 99% dei casi a quel punto noi gli diciamo guarda se tu procedi con il pagamento e la consegna noi noi o comunque non noi può succedere che dato che per una normativa quindi parliamo già di normativa ok per una legge d'accordo più che normativa per una legge tu non puoi aprire il pacco davanti al corriere beh nel pacco può esserci qualsiasi cosa ok a quel punto cosa succede se siamo in chiamata alleghiamo direttamente su whatsapp se siamo su whatsapp semplicemente alleghiamo link di articoli ragazzi è pieno di articoli che ovviamente parlano delle truffe con il pagamento e la consegna ok leva emotiva e soprattutto quindi gli facciamo percepire che noi teniamo a loro teniamo al cliente e non vogliamo che venga truffato quindi gli possiamo anche dire subito dopo guarda fai attenzione in generale non solo con noi quando vai a scegliere il pagamento la consegna come metodo di pagamento ok nella sua testa nel suo inconscio la persona percepirà che noi stiamo andando a tutelarlo in qualche modo e comunque ad avvertirlo ok di questa cosa e fidatevi che questo aspetto può essere sottovalutato ma fa tantissimo ok la persona a livello inconscio lo percepiscono e non poco ok quindi noi io ti sto cercando di tutelare capisci fai attenzione quando compri in code ma non solo da noi ok in generale perché ti può arrivare qualsiasi cosa e per legge tu non puoi aprire il pacco davanti al corriere ancora peggio se magari poi vuoi contestare il tutto e vai sullo store non c'è la partita IVA eccetera eccetera capisci invece se tu paghi con carta o paghi con Paypal hai tutto tracciato riesce ad avere praticamente tutto ok quindi la carta eccetera eccetera e o Paypal e quindi puoi eventualmente contestare il pagamento ok e soprattutto hai tutti i dati salvati quindi non stai ti stai interfacciando con un ente terzo che potrebbe essere la banca o potrebbe essere Paypal ok nel caso noi non volessimo pagare con carta semplicemente andiamo quindi se non riuscite a battere la barriera emotiva di farla pagare con carta possiamo direttamente dire guarda con Paypal sei tutelata al 100% cioè Paypal di mezzo prende grosse commissioni quindi si occupa di tutelare l'utente ok e capite bene che se noi andiamo a fare un discorso di questo genere quindi comprendiamo e gestiamo l'obiezione quindi non andiamo allo scontro diciamo ah no ma guarda è impossibile che ti venga clonata la carta perché sono criptati i metodi di pagamento già lì il cliente non ha capito niente ok o comunque non si fida o comunque capisce che la stiamo andando a pushare eccetera eccetera se noi gli diciamo chiediamo un feedback ok hai qualche esigenza particolare per questo richiede il pagamento e la consegna ok perché magari magari nel remotissimo caso ok remotissimo d'accordo magari non ha una carta di credito ok o magari solo un banco ma quindi non può comprare online d'accordo e quindi ci chiede il pagamento e la consegna per quello per poter pagare il corriere direttamente però ormai ragazzi chi non ha una carta di credito o anche una prepagata una poste pay o qualsiasi cosa del genere ok quindi nella maggior parte dei casi ve lo dico è perché non si fidano o non pensano di non ricevere il pacco eccetera eccetera se voi gli fate capire che col pagamento e la consegna si possono prendere comunque il pacco ok per non usare a termini un po' più volgari anzi peggio perché poi non hanno una tracciabilità non sanno poi non si possono appigliare praticamente a nulla anche perché da normativa da legge non possono aprire il pacco davanti al corriere ok capite bene che uno lo andrà cioè uno quantomeno ci riflette poi eventualmente viene da noi e acquista ok quindi facciamo questo ragionamento facciamoli fare questo ragionamento e vedrete che il tasso di chiusura sicuramente aumenterà quindi se gestite in questa maniera le persone che vi chiedono il code sembrerà quasi che voi volete andarli a tutelare quindi potete anche dire una frase del tipo guarda fai attenzione quando vai a comprare un code in generale anche su altri store perché purtroppo succede è successo e guarda ti allevo anche questi articoli ci capite quanto è potente una cosa del genere nei confronti di un cliente perché dice cavolo io sono venuto qua per chiedere assistenza questo mi sta salvando il sedere ok proprio letteralmente il portafoglio da magari altre truffe che mi possono succedere ok appunto in code è più facile truffare ok quindi spieghiamo punto per punto e sosteniamo la tesi citiamo articoli come vi ho detto prima e altri fonti ok portiamoli esatto come dicevo prima portiamoli piuttosto su paypal che ha la protezione acquirenti qua scusatemi l'errore di battitura e invece di articoli ha la protezione acquirenti ok quindi volendo ecco altra cosa li possiamo allegare direttamente alla pagina di paypal con dove spiega tutta la protezione acquirenti eccetera eccetera d'accordo e vedrete che lì il 99% delle persone hanno un account paypal ok se non ce l'hanno se lo fanno prestare da qualcuno è successo già diverse volte non è che ve lo dico ragazzi per diciamo per sentito dire è proprio perché l'abbiamo testato su nostri store ok quindi persone che magari dicevano ah ma io non ho paypal eccetera eccetera aspetta chiedo a mio cugino o chiedo a mia moglie o chiedo al mio fidanzato o chiedo a mia sorella o chiedo a mia figlia eccetera eccetera e alla fine poi magari pagano con un altro di un familiare e via dicendo ok persone anche che magari non avevano una carta ok che magari usavano un paypal di un'altra persona eccetera eccetera chiusi così che magari senza avere un'assistenza senza fare tutto questo ragionamento senza appunto comprendere e gestire l'obiezione avremmo perso clienti che comunque ragazzi ricordiamoci sempre noi abbiamo pagato ok quindi ciò che paghiamo deve fruttare al massimo d'accordo quindi dobbiamo cercare di spremere tutti fino all'ultimo il più possibile ovviamente venendo incontro al cliente ovviamente andando a gestirla in questa maniera qua ok sempre empatia sempre empatici col cliente e fargli soprattutto capire che dietro di loro dietro alla facciata quindi dietro all'assistente dietro al venditore di turno c'è un'azienda non un ragazzino con lo story in drop ok un'azienda numero verde venditori ricontattati l'assistenza eccetera 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 ok ci facciamo percepire proprio come vere e proprie aziende d'accordo bene ragazzi questa lezione è terminata direi che ci andremo poi alla prossima a vedere magari un attimino di lanciare le ads come andare a settare il tutto come andare a impostare il tutto d'accordo in linea generale da zero ok andremo a vedere direttamente da zero ovviamente non vedremo tutto l'aspetto di creazione bm perché noi utilizziamo già bm farmati avviati e via dicendo però questo diciamo il setting che faremo è uguale ok anche se partite da zero con un bm appena creato d'accordo ci vediamo alla prossima bene ragazzi eccoci qua siamo alle battute finali di questa mega lezione ok e ovviamente arriviamo al punto dell'advertising ok quindi abbiamo strutturato lo store abbiamo fatto tutte le premesse iniziali eccetera eccetera abbiamo fatto la ricerca di mercato ricerca prodotto e via dicendo ora dopo che lo store è stato costruito dopo tutto quello che ci siamo detti ovviamente è arrivato il punto di portare le persone all'interno del nostro store del nostro negozio ok e ovviamente le porteremo attraverso principalmente vedremo due canali ok ovviamente ragazzi vedremo la base ok come fare i collegamenti come fare le prime campagne quindi molto a livello molto basilare anche perché ovviamente poi se no dovremmo vederlo poi scalato eventualmente d'accordo e ovviamente questo store non verrà scalato perché è stato diciamo svelato tutto prodotto e via dicendo quindi faremo un discorso più che altro da come partire che comunque già quello che vedremo sarà ha già un'ottima base ok con queste informazioni si possono anche arrivare tranquillamente a fare i primi i primi volumi anche parecchi interessanti poi ovviamente dopo un certo livello dopo un certo tempo che comunque si sta scalando lo store c'è bisogno di fare cose un attimo in un po' più avanzate ok a livello di advertising e non solo ok quindi vediamo andiamo subito nel pratico vedete già il mio schermo sono su shopify ok molto banalmente sulla home di shopify e il primo step che andremo a fare sarà appunto la verifica del dominio ok adesso non so se vedete dalla schermata ma comunque ho due schede aperte ok una che è appunto su shopify come quella che vedete e una è su facebook ok io quando fate il setting diciamo di così avere sempre queste due schede aperte in modo tale che riuscite a palleggiarvi tra una e l'altra ok senza grosse attese problemi e via dicendo d'accordo per i caricamenti intendo ovviamente le attese quindi primo step andiamo su in barra di ricerche mi trovo bene cercalo direttamente senza andare da perenze e via dicendo mi cerco dominio domini lui ci andrà ad aprire appunto dalle impostazioni la sezione direttamente del dominio a questo punto vediamo che il dominio è connesso cioè è tutto a posto ovviamente Giorgio ha fatto tutto a puntino ok perfettamente noi andiamo semplicemente qua su gestisci andremo sulle impostazioni dns qua in alto come potete vedere una volta qui faremo aggiungire record personalizzato e selezioneremo record txt ok lui ci aprirà questa schermata e dovremo appunto mettere un nome che il name è sempre la chiocciola ok quindi inserire sempre la chiocciola il valore txt adesso vediamo dove andarlo a recuperare è semplicemente una stringa di codice che facebook ci fornisce essendo anche tra l'altro facebook shopify partner il processo è molto semplice quindi non dovete agire sul codice direttamente ma si fa subito dalle impostazioni ok quindi semplicemente una stringa di codice che permette a facebook di poter verificare il dominio e quindi tutte le risorse connesse il pixel e via dicendo ok vedremo anche tutto questo tra poco nel dettaglio quindi vado su facebook qua abbiamo già uno dei nostri business manager pronto se non avete business manager con azienda verificata farmativi di genere non c'è problema potete partire si può partire anche tranquillamente da zero ovviamente avrete dei limiti sulla spesa pubblicitaria eccetera eccetera d'accordo eventualmente si possono anche acquistare dei business manager però poi questa è una cosa che si vede a parte quindi sono sul business manager come vedete impostazioni business quindi una volta che apro la meta business suite vado su tutti gli strumenti impostazioni di business manager e lui mi andrà a aprire questa schermata qui sono andato giù fino a brain safety come potete vedere qui sezioni domini e a questo punto qui c'è già un dominio verificato che molto probabilmente verrà oscurato aggiungi ok molto semplicemente e noi ci andiamo ad aggiungere il nostro dominio io per comodità faccio sempre un lavoro di questo genere tac me lo vado a appiare direttamente da qui e me lo vado a incollare qua ok levo semplicemente apri nuova finestra che non ci interessa lo rendo pulito vedete anche qua ci dice proprio nel dettaglio puoi verificare solo il dominio principale esempio.com quindi ti fa già l'esempio non un sottodominio negozio.esempio.com o una sottopagina ok non aggiungere prefissi quindi io l'ho copiato direttamente da lì nel caso invece voi aprite una nuova finestra con quindi proprio il dominio diciamo dalla barra di ricerca fate attenzione semplicemente a togliere l'http slash e via dicendo due punti comunque tutti i caratteri che sono inclusi qua che vedete qua direttamente attenzione solo a questa cosa perché sennò vi darà errore ok quindi aggiungi aggiornerà la pagina e in automatico vediamo che ci darà il nostro dominio qui ok come potete vedere ci dice che il dominio non è verificato ovviamente ok quindi ci dà anche qua gli step su come andare a appunto verificare il dominio ovviamente noi andiamo su questo pannello qua è una sorgente html ma noi abbiamo detto che ci interessa il txt come abbiamo fatto prima sulla procedura di shopify ok quindi seleziono apriamo questo pannello qua andiamo su carica il record txt dns clicchiamo qui e lui ci vedrà ci aprirà appunto questa schermata dove ci dà anche le istruzioni ok ve lo faccio vedere io quindi non c'è problema semplicemente al punto 2 quindi vedete 1 2 3 4 eccetera eccetera al punto 2 andremo a cliccare qui lui automaticamente ci copierà questa stringa di codice qui che poi dovremo andare a inserire direttamente su shopify secondo questa modalità quindi ecco personalizzato txt aggiungiamo la chioccia che c'è già e incolliamo ciò che abbiamo copiato precedentemente su facebook ok dopodichè conferma attendiamo qualche secondo lui ci dirà dns record successfully added ok perfetto ora torniamo su facebook per quello ragazzi vi diceva tenetevi due pagine aperte perché dovremmo palleggiare parecchio ok e andremo a cliccare su verifica il dominio dopodichè lui ci dirà il dominio è stato verificato perfetto fine è finita qui no assolutamente ci serve il pixel ovviamente ok andremo anche a parlare della pagina facebook eccetera 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 ok quindi torniamo su shopify possiamo chiudere queste impostazioni andiamo su negozio online preferenze anche qua potete fare dalla barra di ricerca ok se vi trovate più comodi quindi basta che cercate pixel e lo apriamo direttamente quindi pixel di facebook configura facebook clicchiamo qua lui ci reindirizzerà su una pagina ok perfetto vedremo tutto qua ci darà tutte le specifiche ci dice cosa a cosa deve accedere l'app di shopify e via dicendo ok quindi aggiorna canali di vendita ok perfetto vedete che ci aprirà questa diciamo impostazioni per andare a settare facebook però vedete che è tutto molto guidato ok adesso ovviamente vedrete alcuni dati oscurati perché e inizierà a darci diverse impostazioni ok quindi dopodichè ci sbloccherà vedete che ci sblocca passaggio per passaggio fino a che un passaggio non è completo non viene sbloccato ok ovviamente anche qua ragazzi vedrete penso tutti i VM oscurati perché sono tutti quelli dell'agenzia andiamo a connettere il nostro che abbiamo scelto qualche secondo ok perfetto allora come vedete verificare il dominio noi l'abbiamo già eseguito in precedenza io vi consiglio sempre di farla in precedenza in modo tale che a questo punto non risultino problemi ok come vedete il dominio è quello corretto ed è stato già verificato quindi molto semplicemente lui ce l'aveva già spuntato in verde quindi vuol dire che era già posto qua scegliamo l'account pubblicitario mi raccomando ragazzi sempre account pubblicitario del BM mai profilo personale ok che anche in questo caso sarà oscurato allora visualizziamo i termini adesso non so perché per gli strumenti commerciali me li ha dati già spuntati comunque in ogni caso la procedura è questa ok visualizza accetto i termini clicchiamo qua ci aprirà tutta l'informativa ok noi semplicemente andiamo qua in alto a sinistra e clicchiamo accetta qui si apre il capitolo diciamo pagina facebook adesso anche qua le vedete tutte oscurate perché a noi ci interessa crearla nuova volendo potete crearla anche da facebook come preferite in realtà io mi trovo comodo quando devo lanciare un nuovo brand soprattutto in drop crearla direttamente da qua quindi crea nuovo vai su facebook ci aprirà facebook normalmente con già le impostazioni per andare a creare la pagina molto semplicemente ragazzi anzi facciamo già che parlarne adesso ok dovete andare a mettere ovviamente un logo ok che può essere tranquillamente quello dello store senza inventarvi chissà che un'immagine di copertina anche questa molto semplicemente la fate con canva e poi a livello di creative invece scusatemi a livello di post possiamo tranquillamente utilizzare le creative ok ovviamente andiamo a postare sulla pagina in alternanza ok cosa intendo andiamo a mettere magari un'immagine normale un post che può essere anche informativo ok nel nostro caso può essere se mi hai chiesto cosa succede i trucchi se non li mantiene la temperatura corretta ok che perdono di efficacia eccetera eccetera possiamo citare anche articoli blog e via dicendo per andare diciamo a abbattere tutta una serie di barriere emotive o comunque andare a fare manipolazione in questo caso più che altro più che con le barriere emotive quindi andiamo allestirci alla nostra bella pagina molto semplicemente ragazzi foto cliccate aggiungete post e via dicendo descrizione come vi ho detto andate ad utilizzare il chi siamo della pagina immagini il profilo immagini il copertino andate a inserire tutto ok mi raccomando tutto ok una volta poi creata adesso faccio salva ok perfetto vedete che avete qua degli step ok mi raccomando ragazzi andare a compilare tutti gli step identità della pagina vedete immagini il profilo immagini il copertino aggiungi una descrizione fornisci informazioni e preferenze sito web lo andiamo a aggiungere informazioni sul luogo lo andiamo a mettere quindi lo stesso luogo sul quale poi apriremo stripe e via dicendo che può essere anche in questo caso la vostra residenza ovviamente rendetelo non visibile ok il luogo orari di lavoro ragazzi io vi consiglio comunque di metterli ok anche se tanto la gente lo sa che è un e-commerce però agli occhi di facebook e anche agli occhi delle persone comunque vedere che c'è un orario ok di lavoro vi da una certa serietà ok vi da proprio un un aspetto serio da vera azienda da vera appunto appunto da vera azienda ok quindi aggiungiamo anche degli orari di ufficio normali tanto poi abbiamo l'e-commerce che è attivo 24 ore su 24 numero di telefono ragazzi andiamo a inserire quello dell'assistenza ok collega whatsapp qui lo possiamo eventualmente collegare cioè anzi senza eventualmente lo colleghiamo molto semplicemente vi faccio vedere aggiungerete un numero ok cliccate qua adesso caricamento permettendo comunque andrete ad aggiungere un numero ovviamente questo sarà oscurato e poi fate invia codice vi arriverà direttamente un codice su whatsapp del numero dedicato il quale il quale poi lo inserite nel pannello successivo a questo qua che vi esce e lì poi siete a posto avete appunto configurato whatsapp ok quindi qualsiasi persona abbia dubbi domande perplessità può contattarvi direttamente lì pulsante call to action fate aggiungi il pulsante e gli mettete il sito web ok potete valutare anche se mettere whatsapp se è un prodotto che lo richiede quindi che ha diverse barriere emotive eccetera eccetera o un numero verde anche volendo ok come abbiamo visto nella parte precedente o successiva adesso non so come verrà montata esattamente la lezione però comunque la parte dei venditori telefonici ok quindi una volta che avete un numero verde magari potete metterlo direttamente in pagina ok io comunque in fase iniziale vi consiglio sempre di mettere il sito web ok molto banalmente cliccate qua inserite il sito web salvo e via tutta la pagina ovviamente invita i tuoi amici anche questo anche no crea un post di benvenuto questo possiamo anche farlo ragazzi cioè non non sentitevi diciamo straniti da queste cose ok tutti questi punti mi raccomando da completare ok dobbiamo fare farci percepire agli occhi di facebook come una cavolo di azienda seria come vedete mi ha già spuntato in automatico la condivisione dei dati attenzione ok attenzione a questo punto qui perché lui ci darà condivisione dei dati scegli preferenza ci da di default l'avanzato ma noi lo vogliamo massimo ok vogliamo prendere tutti i dati possibili immaginabili delle persone che vanno sul nostro store interagiscono e via dicendo creerà in automatico il pixel come potete vedere ok segnatevi magari l'id se ne avete già testati diversi ok perché poi dopo andremo a vedere come andarlo a configurare effettivamente nel dettaglio perché c'è una configurazione da completare poi su facebook paese italia ok termine condizioni li accettiamo senza problemi e completiamo la configurazione perfetto quindi lui ci dirà sei pronto ad utilizzare facebook marketing ok fantastico da questo momento in poi ci possiamo anche dimenticare diciamo di shopify ok quindi torniamo su facebook andiamo sotto origine dei dati pixel anche qua abbiamo altri pixel ovviamente vedrete solo il nostro e andiamo a vedere che c'è un pallino diciamo grigio ok quindi non non ci sono attività ok qui c'è nessuna attività fino a 34 giorni fa apriamo in gestione inserzioni quindi dalle impostazioni sempre ok origine dei dati pixel clicchiamo sul pixel che ci ha appena creato se non se ne avete diversi segnatevi il dominio quindi 13, 60 magari le prime due cifre e le ultime due cifre e poi fate aprire in gestione eventi una volta che siamo su gestione eventi vediamo appunto quel pixel allora prima cosa ragazzi primissima cosa scusatemi matitina ok e lo chiamiamo pixel ok così almeno ci abbiamo tutto salvato cioè più che altro ci abbiamo tutto ordinato ok qui stranamente ce lo da già attivo ok di solito c'è una configurazione da completare ok adesso non so se ultimamente è cambiata la cosa con Shopify però tanto meglio ok nel caso non vi sia attivo molto semplicemente vi scerà un pannello continua la configurazione inserite l'url del sito web aprite il sito web fate diciamo un page view quindi scrollate sulla pagina avanti e indietro magari fate un'aggiunta al carrello dopodichè chiudete vi darà pixel attivo è tutto perfetto fantastico ok ora un ultimo passaggio che dobbiamo fare che è comunque molto importante soprattutto dopo diciamo da un anno e mezzo due anni in questa parte gli eventi di Facebook i tracciamenti e vi dicendo sono ovviamente peggiorati ok per le normative sulla privacy policy e via dicendo europee principalmente ok quindi andiamo qua su misurazione aggregata degli eventi lo vedete anche su novità in viola anche se c'è da una vita ok però è sempre una novità per Facebook anzi per meta in questo caso configura gli eventi web clicchiamo qui vedete che ci darà già il nostro dominio verificato ok clicchiamo qui sulla destra gestisce eventi qui ci avvertirà ok che le modifiche frequenti potrebbero avere un impatto bla 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 però noi non dobbiamo fare modifiche frequenti dobbiamo semplicemente farlo la prima volta e poi ce ne dimentichiamo modifica ok allora qui andremo su aggiunge evento qua in alto in verde selezioneremo il pixel ok per quello ragazzi vi dico vi ho detto prima che l'abbiamo salvato con il nome corretto dello store ok per evitare di fare confusione in caso avessimo più di un pixel quindi selezioniamo e andiamo a mettere il nostro primo evento il nostro primo evento è acquisto ovviamente vedete che qua abbiamo una una priorità ok qui c'è priorità più alta nel momento in cui noi andiamo ad aggiungere un secondo evento priorità più bassa e così via ok se io ne continuo ad aggiungere vedete qui ti dà la priorità più alta quindi dal primo all'ultimo in ordine di priorità per questo abbiamo aggiunto come primo acquisto soprattutto ragazzi se noi non abbiamo il code mettiamo aggiunta delle informazioni di pagamento perché se uno arriva a inserire la carta e non acquista è molto vicino all'acquisto è l'evento più vicino all'acquisto ancora più vicino dell'alto card ok che infatti sarà il nostro terzo acquisto ok cioè evento scusatemi aggiunto il carrello e siamo a posto ok questi 4 sono quelli che ci interessano maggiormente ovviamente per fare eventualmente del retargeting in un secondo momento eccetera 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 poi tutti gli altri andrà a settare in automatico man mano che arriverà traffico sullo store ok quindi facciamo un attimo solo caricare qua siamo a posto 4 di 8 eventi settati perfetto torniamo indietro ok diamo una refreshata ok ovviamente ci dirà ancora nessuna attività perché ovviamente non abbiamo ancora lanciato il nostro store ok a questo punto possiamo chiudere questa schermata torniamo sull'impostazione di business manager unica cosa che dobbiamo fare è verificare che ci sia tutta diamo una refreshata anche qua perché di solito li aggiorno in automatico e infatti eccola qua la nostra bella pagina ok ovviamente ci sono già tutte le autorizzazioni quindi l'account pubblicitario ce l'abbiamo allora il pixel l'abbiamo appena settato il dominio è stato verificato quindi siamo tutti pronti a posto per partire ok cosa andiamo a fare account pubblicitario selezioniamo l'account apri in gestione inserzioni oppure da qua gestione inserzioni ok perfetto lui dice ovviamente abbiamo ripulito questo account pubblicitario in modo tale da darvi diciamo come se foste voi diciamo alle prime armi ok quindi con un account pulito ok qua chiudiamo chiudiamo ok che la pagina scusatemi crea campagna allora la prima campagna che andremo a fare ragazzi è qui diciamo entriamo in un aspetto un po' più teorico è una campagna per like page ok quindi per mi piace sulla pagina ok perché andiamo a fare questo come mai eccetera eccetera molto semplicemente ragazzi perché dobbiamo pensare che tutte le inserzioni che gireranno ok quindi che andremo noi a inserire sponsorizzare in realtà sono dei post ok della pagina d'accordo ma anche se noi come vi ho detto prima andate a postare le creative sulla pagina in modo tale che cosa succede le usiamo come inserzioni in modo tale che tutte le interazioni che vengono raccolte ok quindi mi piace commenti eccetera eccetera rimangano poi anche sulla pagina però nel caso noi allestissimo la pagina e volessimo usare delle inserzioni esterne ok cosa che si fa anche per esempio per il retargeting ma anche per un lancio stesso ok questa è stata diciamo è una mia decisione per questo tipo di lancio perché comunque è un tipo di prodotto che ha bisogno di social proof ok per esempio non so come non so per dirvi una ciabatta o un reggiseno non ha bisogno di così tanta social proof perché comunque la gente sa che cos'è sa come funziona ok sempre il discorso diciamo della ricerca prodotto che abbiamo fatto verso l'inizio ok quindi in questo caso io ho optato per questa opzione voi potete anche non optare per questa opzione comunque tornando a noi il discorso che cos'è è che tutte le creative che gireranno sono dei post fantasma ok a meno che non utilizziamo un post della pagina sono dei post fantasma che quindi possono essere visti solo dalle persone che sono state targetizzate dalle nostre ads ok quindi se noi andiamo subito per conversione sparati con una pagina appena creata il rischio che cos'è è che veniamo bannati ok quindi che che vengono apposte diciamo restrizioni oppure addirittura direttamente bannati soprattutto se avete degli account giovani appena aperti eccetera eccetera vi state approcciando per la prima volta quindi state prudenti da questo punto di vista andiamo per interazioni mi piace sulla pagina continua la chiameremo like page pink ok qui siamo tutti a posto ok non dobbiamo fare alcuna modifica nel gruppo inserzioni invece andremo a fare qualcosina ok allora budget giornaliero potete anche dargli un 10 dollari 5 dollari valutato un attimo voi l'importante ragazzi è arrivare a 100 mi piace ok una volta che poi siete a 100 mi piace potete spegnere questa campagna e andare poi per conversioni lo vedremo tra pochissimo ok allora qui più che altro sulle impostazioni l'unica cosa che ci interessa è mettere persone che vivono in questo luogo per dare quantomeno un minimo di target alle persone quindi persone che vivono in italia evitiamo di mettere paesi tipo egitto banglade eccetera eccetera perché ci andrà a sporcare un po' diciamo il pubblico anche perché poi sul retargeting andremo a utilizzare anche dei pubblici basati sulla pagina ok quindi per esempio le persone che hanno interagito con posto inserzioni eccetera eccetera ok quindi su età e genere in questo caso ragazzi non andiamo a lavorare perché tanto è solo una campagna per interazioni ok quindi non c'è bisogno di restringere così tanto il campo dopo invece si ovviamente perché essendo prodotto prettamente per ragazzi soprattutto per una fascia abbastanza giovanile ok andremo a lavorare su età e genere ovviamente interessi ragazzi ovviamente non ci servono è inutile che ve lo dica e i posizionamenti li lasciamo automatici ok senza problemi arriviamo all'aspetto creative anche qua ragazzi molto molto semplice ok semplicemente carichiamo un'immagine o un video però di solito meglio un'immagine qua vedrete ovviamente oscurato qui io dovrei avere già sulla scrivania esatto qui ragazzi possiamo mettere tranquillamente il nostro chi siamo ok che l'abbiamo inserito prima nella descrizione della pagina ovviamente io non l'ho fatto perché questo diciamo a scopo dimostrativo ok diciamo così quindi voi l'avrete già fatto avete già allestito la pagina avete messo la descrizione eccetera eccetera qua tra i suggeriti dovrebbe già uscire la descrizione se non vi esce la andate a inserire ok copia e incolla eccetera eccetera diciamo la descrizione la potete prendere dal sito dall'home page va bene cosa importante arriviamo a questo punto sul sottomonitoraggio ok e spuntiamo eventi sul sito web lui ci darà il pixel che in questo caso mi dice stranamente che non è attivo mi sembra strano perché abbiamo fatto tutta la configurazione penso sia un bug anche perché se no andiamo da Shopify negozi online preferenze ok vedete impostazioni dei dati pixel di ping ok quindi strano che ce lo dia inattivo penso sia solamente un bug d'accordo quindi molto semplicemente verifichiamo che qua sia il pixel corretto eccetera eccetera titolo diciamo testo principale mi raccomando ok fate inserire una descrizione non stiamo vendendo qua ragazzi qua ci servono semplicemente mi piace ok possiamo essere informativi possiamo mettere il chi siamo suscitare emozioni ok in chi guarderà dopodichè andiamo molto semplicemente su pubblica e lui andrà a pubblicare la nostra inserzione ok oppure potete fare x qua pubblica vostri elementi direttamente buono quindi questa diciamo è la prima campagna è una campagna appunto per like ok sulla pagina appena vedete qua da risultati o comunque vedete dalla pagina eccetera eccetera vedete come il risultato 100 mi piace potete tranquillamente spegnerla ok e andare a creare la seconda campagna ok quindi crea conversioni continua in questo caso io ho anche a disposizione la campagna average plus non tutti i business manager l'hanno a disposizione in questo caso ce l'abbiamo nel caso ce l'aveste poi magari dopo vi do qualche tips ok su come andare a utilizzare al meglio eccetera eccetera in fase diciamo post test quindi non scalata vera è proprio però post test per ora andiamo di quella manuale e qui andremo a chiamare avio test interessi ok di solito la chiamo sempre così perché appunto ragazzi questa ci servirà per testare i nostri begli interessi qua quindi a livello di campagna siamo a posto lasciamo così essendo una bio non dobbiamo spuntare l'ottimizzazione del budget quindi non è la cbo ok è una bio la lasciamo così andiamo a livello di gruppo inserzioni sito web ovviamente qua ce l'ha già di default pixel selezioniamo nel caso in questo caso ne abbiamo solo uno quindi non c'è problema selezioniamo come evento di conversione acquisto budget qua mi continua a dare questo problema col pixel però mi sembra strano ragazzi io penso sia solamente un bug comunque ecco nel caso vi succeda qualcosa del genere centro assistenza adesso l'assistenza di facebook è stata rifatta molto molto bene diciamo contatto al team di assistenza come vi dicevo pixel selezioniamo acquisto ok il budget lo mettiamo a 10 dollari in questo caso ok perché è un prodotto diciamo medio alto a livello di ticket quindi middle high ticket ok quindi 10 dollari nel caso aveste un prodotto low ticket low ticket io intendo sotto i 30 dollari ok sotto i 30 dollari sicuramente si può considerare un prodotto high ticket poi c'è chi dice 50 c'è chi dice 100 eccetera eccetera poco mi interessa nel senso io se un prodotto costa più di 30 metto 10 se costa meno di 30 metto a 5 ok quindi in questo caso ovviamente 10 dollari andiamo a programmare l'inserzione per il gruppo inserzione scusatemi per il giorno dopo al giorno corrente ok quindi ad oggi all'orario di mezzanotte ok chi dice mezzanotte un minuto io metto mezzanotte ok intanto da un minuto all'altro non fa assolutamente differenza scorriamo in giù ok clicchiamo qua su modifica andiamo a spuntare appunto le persone che vivono in questo luogo come avevamo fatto anche per la light page per evitare turisti eccetera eccetera che non ci interessano andiamo a fare una modifica sull'età mi metterei come target massimo i 40 anni proprio per stare diciamo larghi ok quindi 18-40 che va più che bene a questo punto ah ecco un'altra cosa generi ovviamente mettiamo donne a meno che ragazzi non utilizziamo come come interesse regalo ok ovviamente se uno regala può essere possiamo tranquillamente lasciare tutti ok quindi mettiamo per esempio un buon interesse potrebbe essere sefora se c'è esatto infatti c'è ovviamente quindi andiamo a prendere e copiare questo interesse e andiamo a rinominare il nostro gruppo inserzioni con questo interesse direttamente in modo tale che avremo poi tutto ordinato anche perché qua ragazzi andremo a inserire 10 interessi ok uno dietro l'altro questo vi faccio vedere anche poi come andarlo ad ottimizzare il tutto creative ok creative allora crea inserzione ovviamente adesso ve lo faccio vedere da crea ok se no potete fare tranquillamente usa post esistente seleziona post e avete qua tutti i post della pagina disponibili ok se andate a postare i post andate a postare scusatemi le creative sulla pagina ok per questo tipo di prodotto è consigliabile perché ha bisogno di tanta social proof ok se vendete qualsiasi altra cosa che si vende tranquillamente in drop come abbiamo visto nella lezione cioè nella parte scusatemi di ricerca prodotto non vi è bisogno ok quindi o usa post esistente o crea nuova inserzione nel nostro caso crea nuova inserzione immagino video singolo poi vedremo anche anzi partiamo dal carosello ok carosello qui vedrete che vi aprirà un'opzione già un'impostazione da tre immagini noi ci andiamo ad aprire un'altra scheda con l'url ok del nostro sito in questo caso ragazzi secondo me la cosa migliore è farli atterrare sulla pagina prodotto tutte e tre e lui esatto ce lo duplica su tutte e tre direttamente andiamo a mettere anche qua call to action acquista ora monitoraggio sempre il nostro pixel infatti vedete adesso non mi da ah no scusatemi il dominio ok il dominio lasciamo queste due caselle spuntate ok semplicemente una ci dirà mostra automaticamente prima le schede con le migliori prestazioni quindi in base facciamo lavorare un po' l'algoritmo ok e l'altra l'altro punto ci dirà aggiungi un'unità con un'immagine del profilo della tua pagina quindi ci metterà l'immagine profilo che avremo messo qua ok io le lascio tutte e due spuntate perché performano abbastanza bene ok dopodichè titolo ok titolo ragazzi quello che appare qui ok come titolo ovviamente cosa possiamo mettere attenzione lo sconto sconto termina possiamo mettere una cosa del genere magari fatelo un po' più corto in modo tale che sia completamente visibile ok 50% solo per oggi ok in descrizione ragazzi io di solito metto sempre il link del sito oppure un'altra cosa che si può fare e mettere le 5 stelline mettere 4,9 su slash 5 recensioni con magari le stelline iniziali adesso non ho la barra delle emoji perché sto registrando quindi ho la barra diciamo strumenti di quicktime ok però voi inserite magari le 5 stelline qua sotto è vero che magari vi toglierà le recensioni quindi potete tranquillamente anche fare una cosa del genere eliminate le recensioni e gli mettete le stelline lì davanti ok a livello copy ragazzi facciamo una piccola parentesi ok allora la prima frase sicuramente deve essere una frase hook ok quindi una frase che amo ok che attiri l'attenzione perché noi dobbiamo interrompere la fase di scrolling del nostro possibile lead ok del nostro possibile prospect del nostro possibile cliente come volete chiamarlo d'accordo perché pensate voi quando siete su facebook cosa fate cazzeggiate ok come facciamo tutti ok facebook stiamo dicendo noi stiamo cazzeggiando quindi ci deve attirare qualcosa all'attenzione nella nostra fase di cazzeggio quindi nella nostra fase di scrolling quindi la prima frase potrebbe essere ti sei mai chiesta perché i trucchi col tempo perdono efficacia ok prima frase così non so perché perché me lo dia sbagliato aspettiamo un attimino che carichi l'anteprima così andiamo a vedere come come si mostra ok se ci fa la grazia di caricare comunque se diciamo sta nella prima frase ok se sta nel primo nel primo riquadro proviamo a rifresciare un attimo perché vorrei farvi capire questa cosa allora se diciamo tutta questa frase sta nel nel primo approccio nella prima visione ok che un utente ha prima di cliccare legge altro va benissimo anche se si vede a metà ok perché si è mai chiesta perché i trucchi col tempo perdono efficacia ok potete anche accorciarla ok ragazzi io adesso la sto facendo a brucia non me la sto studiando prima ok la sto facendo al brucia quindi voi me la potete anche un attimino studiare meglio dopodichè possiamo proseguire con conservare ok intanto vedete che ha caricato conservare i trucchi alla giusta i trucchi e le creme alla giusta temperatura allunga la loro vita e di conseguenza mantiene un ottima efficacia ok quindi possiamo fare una cosa di questo genere anche qua magari la possiamo snellire e dopodichè noi abbiamo la soluzione per te per te emoji ragazzi emoji potete mettere tranquillamente perché attirano l'attenzione soprattutto nella prima frase ok qui per esempio ci potrebbe star bene vediamo se mi esce così nel volo la faccina quella è un po' pensante ok quella con con la manina sotto sul mento ok che penso d'accordo poi ne potete aggiungere abbiamo la soluzione per te ok con pink top i tuoi trucchi avranno una vita infinita ok possiamo dire acquista ora approfitta quindi quindi con con pink top i tuoi cosmetici dureranno per sempre approfitta ora allora ecco facciamo una cosa così qua chiudiamo mettiamo un punto esclamativo perché vedete non dobbiamo superare cioè non è che non dobbiamo però è consigliabile non superare i 280 caratteri quindi io adesso l'ho fatta molto romanzata voi potete farla molto più short quindi qua possiamo mettere al posto delle 4.9 stelle possiamo anche mettere ah no abbiamo messo già 50% quindi non c'è problema non dobbiamo ripetere qua gli aggiungiamo tranquillamente le stelle qua va benissimo ok cerchiamo di accorciarlo un po' cerchiamo di aggiungere qualche emoticon e siamo al top ok fatto questo andiamo a scegliere le nostre immagini ovviamente Giorgio ragazzi aveva fatto già tutto il preambolo la spiegazione sulla creati quindi è inutile che io ve le riprenda anche perché non ce n'è alcun bisogno ok possiamo mettere per esempio questa quindi un carosello cos'è? è un sosseguirsi di immagini quindi cosa cerchiamo di mettere? delle immagini che abbiano quantomeno degli aspetti più simili ok quindi per esempio metto questa con questa con questa con questa cerco di avere un minimo di coerenza ok quando vado a fare i caroselli quindi posso selezionare la prima posso selezionare la seconda quindi abbiamo detto questa questa che sta bene stanno bene perché più o meno il template diciamo la mano lo stile più che altro scusatemi è quello quindi non cozza l'una con l'altra magari non ripetere troppo gli argomenti ok addio problemi della pelle ok lo sapevi che per maggiorare quindi qua va benissimo ok qui me l'ha ricaricato conserva la tua pelle quindi abbiamo detto addio ai problemi della pelle abbiamo fatto uno informativo e subito dopo conserva la tua pelle quindi ci siamo titolo anche qua ovviamente lo andiamo a inserire su tutte ok io adesso ve l'ho messo solo sulla prima però copiate tac incollate direttamente non il link magari comunque 50% solo per oggi copiate e lo incollate su tutte le altre inserzioni quindi così è come si fa un carosello d'accordo andiamo a rinominarlo carosello 1 dopodichè possiamo duplicare direttamente così ci andrà già a sdoppiare il copy eccetera diciamo tutte le impostazioni che abbiamo fatto finora e però in questo caso andiamo a mettere il video ok quindi contenuto multimediale video carica anche qua mettiamo il titolo ok 50% off descrizione 4.9 su 5 stelle eccetera 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 quello che abbiamo visto prima col to action verifichiamo che si è sempre mi raccomando acquista ora sito web ok perfetto ce l'abbiamo anche qui lo andiamo a rinominare video 1 ok perfetto ce l'ha caricato ovviamente ci darà l'avviso perché le proporzioni non rispettano tutti i posizionamenti ma ragazzi è normale cioè alla fine non avremo colonna destra shop di instagram e per il resto tutto siamo a posto l'overlay di di reels masticavoli per il resto siamo tutti a posto ok quindi di nuovo andiamo su video duplica duplica e questa sarà la nostra foto 1 quante creativi bisogna inserire come bisogna inserirle 4 ragazzi in fase di test ne andiamo a inserire 4 per ogni gruppo inserzioni rispettivamente un carosello un video e due immagini statiche ovviamente non andiamo a prenderci quelle che abbiamo già utilizzato ok quindi 1 2 e 3 le abbiamo già utilizzate possiamo andare a testare per esempio questa questa è carina mi piace e così ce l'abbiamo qui inserita anche qua titolo eccetera eccetera dopodichè ragazzi di nuovo si duplica ok e si cambia l'immagine quindi modifica eh modifica no scusatemi fate direttamente il cestino ok nel duplicato e andate a cambiare rinominate foto 2 fatto questo cosa andiamo a fare duplichiamo il gruppo inserzioni quindi qua ne avremo 4 ok video 1 carosello 1 foto 1 e foto 2 duplichiamo e nel duplicato quindi è importante crearsi diciamo il gruppo inserzioni madre in modo tale che poi andremo direttamente a fare tutti i duplicati così non dobbiamo ogni volta in ogni gruppo inserzione per 10 volte inserire per ogni gruppo inserzione tutte e 4 le creative ok qui verifichiamo semplicemente che sia tutto settato e a questo punto andiamo a livello solamente di interessi possiamo andare dai suggeriti oppure se ne abbiamo altri per esempio l'oreal make up art cosmetics sono tutti buoni ok l'oreal tac stesso discorso copiamo incolliamo proseguiamo al prossimo duplica duplica e così andiamo a fare ragazzi per 10 volte ok in modo tale che avremo poi un test pronto per partire ok con 10 interessi diversi fatto questo lasciamo correre la campagna per circa un 24 72 ore scusatemi un 48 72 ore quindi un 2-3 giorni dopo 2-3 giorni già inizieremo a capire effettivamente se il prodotto attacca o meno sul mercato ok quindi passato quel periodo sugli interessi che ci hanno portato acquisti che stanno performando andiamo a fare questa famosa nel caso voi la veste ok nel caso ci fosse possiamo andare a fare quella per conversioni però in questo caso leverage plus ok nell'everage plus se non avete questo tipo di campagna la fate in cbo ok quindi con l'ottimizzazione del budget questa è una campagna molto simile all'altra la cosa che cambia sono l'impostazione delle creative qua mi raccomando ragazzi sempre l'evento mettiamo acquisto ok budget lo mettiamo a 30 euro perché andremo a mettere dentro i tre migliori interessi a livello di roas ok quindi selezionate la pagina targetizzazione sempre con persone che vivono in questo luogo il target di età il genere eccetera eccetera e qua inserite gli interessi migliori mettiamo che sono l'oreal quelli che abbiamo visto prima sefora allora sefora ok poi era l'oreal e make up cosmetto anzi mettiamo mybelline ok non so se si pronuncia così però facciamo finta che questi erano i tre migliori col roas migliore li andiamo a inserire tutti qua e qua vedete che cambia un po' l'impostazione delle creative ok testo principale titolo descrizione url sono sempre quelli quello che cambia è cosa si va a inserire a livello di inserzione vedete che qua noi possiamo andare a selezionare più immagini barra video poi facciamo seleziona video abbiamo il nostro video e andiamo a selezionare cosa succede? questo tipo di campagna andrà a mixare lui direttamente le creative in base alle performance infatti qua lasciamo spuntata questa casella ok ovviamente testo principale titolo e descrizione ragazzi qua è sempre tutto uguale e lui andrà a mixarci le creative in base a chi si ritrova davanti ok quindi mi raccomando questo è quanto nel caso non abbiate questo tipo di campagna potete farla in cbo ok con quei tre scusatemi potete farla in abo quindi con una semplice crea campagna con versioni eccetera eccetera la mettete in manuale voi avrete già in manuale non avendo leverage plus nel gruppo inserzioni molto semplicemente a livello di interessi quindi qui gli andate a inserire tutti e tre uno scusatemi qua uno dietro l'altro ok l'oreal sefora eccetera eccetera ok questo ragazzi è la strategia base ok per poter partire con facebook ads per poter testare i prodotti ok adesso prossimo step andremo a vedere tiktok ok ragazzi allora dopo dopo aver visto tutta la configurazione dei facebook come appunto come andare a configurare i pixel e via dicendo come partire con che tipo di campagna come testare eccetera eccetera possiamo passare all'argomento tiktok ora tiktok ragazzi come avete visto sicuramente anche dai corsi di luca comunque dai dalle sue storie eccetera eccetera su tiktok premia tanto l'organico ok quindi il fatto di mettersi lì creare video o farli creare per voi e sfruttando i trend sfruttando appunto proprio il numero di video che viene fatto quindi mettersi lì per una settimana postare tre video al giorno vedere un attimino come risponde il pubblico eccetera eccetera ok quindi già questa su di tiktok possiamo dire che è una fase già avanzata quindi io consiglio sempre di andare per gradi ok per canali quindi prendiamo facebook lo scaliamo lo stabilizziamo una volta che abbiamo facebook stabile allora scendiamo a espandere su tiktok su google eccetera eccetera magari prima facebook tiktok google questa è la scaletta ovviamente il prodotto si deve prestare per tiktok ok perché bisogna fare video bisogna quantomeno intrattenere le persone ok quindi con i contenuti quindi diciamo che possiamo dire tiktok è lo step successivo a facebook d'accordo quindi andiamo nel vivo entriamo nel vivo entriamo nel pratico allora semplicemente come ho fatto ad aggiungere tiktok qua sono andato da app ok personalizza il tuo negozio sono andato a cercare tiktok ok attendiamo che si carichi perfetto tiktok questo qua ok il primo semplicemente vedete qua qui te lo ce l'ho dato annuncio però lo trovate anche subito qua ok perfetto quindi una volta aggiunto lo ritroveremo direttamente qui da qui possiamo partire a fare la nostra bella configurazione continua la configurazione in cui semplicemente avevo aperto il pannello per vedere che non ci fosse nessun bug né nulla ok quindi connetti tiktok for business connetti se non abbiamo ancora un account ci iscriviamo come nel nostro caso il caso ecco ragazzi nel caso abbiate già la pagina pronta semplicemente fate l'accesso molto easy ok anzi magari così di creare prima la pagina ok in modo tale che iniziate a fare i contenuti eccetera eccetera e poi l'andate a collegare direttamente qua molti magari usano io sinceramente non ho trovato tutta questa differenza tra il business manager e fare le campagne direttamente da 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 Shopify anzi spesso delle campagne da Shopify performano anche meglio e andiamo a evitare tutto quell'aspetto di ban non ban eccetera eccetera qua forse ho sbagliato io a mettere il numero eccetera abbiamo direttamente la piattaforma cioè ovvero TikTok all'interno della piattaforma di Shopify fai questo da un trust maggiore secondo me a TikTok quindi evita di bannarci romperci le scatole eccetera eccetera anche se devo dire che TikTok non dà grossi problemi ok ovviamente dobbiamo seguire le linee guida dobbiamo fare attenzione a una serie di cose come per esempio gli sconti ok se noi mettiamo sconto nel 50% ragazzi ci deve essere davvero lo sconto nel 50% dentro lo store altrimenti verremo bloccati ok quindi dicevo che da un certo punto di vista è un po' più restringente possiamo dire così rispetto a Facebook quindi ci permette di fare meno roba però d'altra parte l'assistenza lo sblocco eccetera eccetera non è così impossibile come con Facebook per esempio se ci bloccano con Facebook adesso è vero che l'assistenza è migliorata molto eccetera eccetera però se ci bloccano con TikTok ci spiegano esattamente per cosa ci hanno bloccato prima cosa che è molto interessante al contrario di Facebook ci blocca senza spiegare darci ulteriori spiegazioni e quindi capiamo effettivamente dove sta il problema eccetera eccetera ora io qui non ricevo il codice quindi aspettate un secondo e lui ci aprirà direttamente TikTok Ads Manager ok questo è un po' come l'account pubblicitario ok TikTok for business ce l'abbiamo TikTok Ads Manager questo è un po' come fosse l'account pubblicitario di Facebook ora qui andiamo a compilare i dati ok Stati Uniti noi in questo caso utilizzando azienda americana appunto abbiamo Stati Uniti valuto a usa eccetera eccetera unica cosa che andiamo a cambiare è il fuso orario che mettiamo quello di Roma perché comunque vendiamo in Italia ok telefono penso non andremo ad oscurare mettiamo sì no quello che c'era prima andava bene in realtà perché quello direttamente aziendale allora facciamo così chiudiamo numero di telefono settore other possiamo mettere vediamo e-commerce ok perfetto va benissimo e-commerce cosmetics and personal care possiamo mettere sì cosmetics and personal care registrati connetti dove ovviamente dobbiamo spuntare accettare delle condizioni linee guida eccetera eccetera ora per farvi comunque vedere nel dettaglio cosa come si fa come non si fa eccetera eccetera comunque la creazione la potete fare direttamente da qui senza alcun problema vi prendo un account di un altro store ok giusto per farvi vedere un po' come settare le campagne come si settono anche se comunque ragazzi vi dico è molto semplice ok cioè molto più semplice oddio cioè diciamo che è diverso da facebook però tutta la parte di setting vi dicendo è molto semplice come vedete abbiamo solo 1 2 3 step 4 step scusatemi sì vi posso far vedere direttamente un altro store che abbiamo attivo al momento ok ragazzi allora una volta fatta completata la configurazione vi uscirà questa schermata qui ok siamo sempre su tiktok a questo punto possiamo andare su crea campagna e avremo praticamente un duplicato del business manager di tiktok direttamente su shopify ok molto molto easy ok possiamo chiamare qui abbiamo il nome della campagna ovviamente andiamo a cambiarlo in base a come come vogliamo come preferiamo ok possiamo vedere il tipo di promozione ok il tipo di pagina di destinazione prodotto singolo raccolta home page dipende un attimino come e che tipo di sito abbiamo ok di solito prodotto singolo per questo tipo di campagna è la cosa migliore ok quindi proseguiamo ok qua possiamo caricare i nostri contenuti possiamo anche crearlo però io vi consiglio già di caricarlo ora facciamo qui apriamo le impostazioni avanzate ovviamente tutto verrà oscurato anche prima che ho aperto home page perché questo è un bm di un brand che abbiamo attualmente attivo quindi non si può assolutamente come immaginate rivelare nulla di questi dati ok quindi se vedete qualche cosa oscurata non vi preoccupate semplicemente sono dei dati sensibili ok prodotto singolo andiamo a selezionare un prodotto direttamente qua anche vedrete tutto oscurato ovviamente noi andremo semplicemente nel nostro caso a selezionare un prodotto ok che nel maggior parte dei casi è un single product ok quindi store single product andiamo a selezionare e via se abbiamo una raccolta quindi magari abbiamo non so nicchi abbigliamento o abbiamo una raccolta non so gonne ok per dirti gonne reggiseni maglie t-shirt eccetera eccetera possiamo fare anche per raccolta oppure direttamente rimandare all'home page in questo caso appunto ci interessa prodotto singolo andiamo a selezionarlo lo selezioniamo e lui ci aprirà direttamente ok facciamo una prova e lui ci dirà qual è il prodotto ok ovviamente anche qua sarà oscurato però giusto per farvi capire ok quindi a questo punto si andrà a creare a caricare scusatemi il video ora perché dicevo che tiktok è uno step che va fatto dopo perché tutto parte più che dal setting vedremo ma più che altro dalle creative ragazzi ok tiktok premia tantissimo le creative quindi dobbiamo essere furbi intelligenti di capire cosa mettere come inserzione su tiktok allora prima regola non deve sembrare un'inserzione molto banalmente quindi una cosa sulla quale noi abbiamo fatto molto abbiamo sfruttato molto è i video dell'influencer quindi quello siamo allo step di creare un influencer marketing quindi andare a sponsorizzare con influencer il nostro prodotto noi prendevamo direttamente il video fatto dell'influencer e lo andavamo a caricare come creative ok perché perché non sembra un'inserzione ok su tiktok ragazzi la parola chiave è ovviamente la creative e la creative deve non sembrare un'inserzione deve sembrare un normale video anche perché su tiktok ragazzi non so se siete utilizzatori o meno ok io si ma più che altro per fare scouting di prodotti ok vedete che quando escono le sponsorizzate quasi non sembra una sponsorizzata ok perché è scritto in piccolo sponsorizzato eccetera eccetera quindi se noi riusciamo ad avere dei video che ovviamente devono attirare l'attenzione ma questo come su facebook però dei video che non sembrano creative avremo un tasso di coinvolgimento dalle persone molto molto più elevato ok quindi per quanto riguarda l'aspetto creative che è vi posso dire quasi il 90% del successo di una campagna tiktok ok un 90-80% perché adesso vedremo il setting è molto molto easy molto semplice ok testo per gli annunci abbiamo un massimo di 100 caratteri non possiamo utilizzare emoji ok su tiktok attenzione anche ve l'ho accennato mi sembra nella parte precedente per quanto riguarda facebook cosa scrivete ok se mettiamo sconto del 50% e poi sul sito non c'è lo sconto del 50% ma c'è del 40% tiktok ci andrà a bloccare ok perché perché no vi l'azione dell'euro policy va bene ovviamente non possiamo fare sconti più alti del 50% non possiamo mettere anche sconti più alti del 50% altra regola ok per il resto siamo abbastanza tranquilli ok siamo contenuti il copy deve essere davvero ragazzi full brevissimo ok su tiktok veramente breve infatti vedete anche il limite di 100 caratteri quindi mi raccomando qualcosa di rapido e accattivante come per esempio l'abbiamo visto l'altra volta vuoi allungare la vita e l'efficacia dei tuoi cosmetici con nome del prodotto in questo caso ovviamente nome del prodotto quindi qualsiasi prodotto abbiate scelto quali stessi nome del vostro brand comunque sia ok quindi con oppure anche anzi ancora meglio per risparmiare tempo con noi adesso in grassetto qua dobbiamo cercare di sfruttare magari molto il maiuscolo ok perché non potendo usare emoji siamo un po' così con noi puoi tac molto molto easy molto molto semplice poi qua potete sbizzarrirvi veramente quanto volete nome visualizzato questo ovviamente sarà oscurato perché è il nome del brand ok quindi nome visualizzato mettete il nome della pagina immagini profilo ragazzi mettete il logo ok semplicemente il logo del del profilo tiktok ok poi passiamo alla parte del targeting qui potete mettere i generi quindi nessuno uomo donna eccetera eccetera nel nostro caso ovviamente è meglio donna e qui veniamo all'aspetto dell'età ok qualità è espressa in fasce non possiamo proprio mettere precisa 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 come su facebook ok vediamo 13-17 18-24 25-34 e dire che ci possiamo fermare qui ok per quanto riguarda il nostro prodotto poi ovviamente ragazzi in base a ciò che vendete dovete aguzzare un po' l'ingegno ok comportamento ok apriamo questo pannello qua azioni correlate ai video ok di solito chi è propenso a commentare e a condividere il video è un utente attivo di tiktok ed è un utente che noi vogliamo andare a colpire quindi lui ci andrà a prendere le persone che negli ultimi in questo caso sette giorni vi consiglio di lasciare sette giorni negli ultimi sette giorni hanno commentato e condiviso video ok questo condiviso soprattutto perché ragazzi vuol dire che se lo mandano tra di loro e quindi in maniera organica andiamo a aumentare l'audience del aumentare appunto la copertura in maniera organica in questo caso perché se uno vede un'inserzione non abbiamo pagato solo per quella singola persona però se questa persona va a condividere capite bene che noi abbiamo una persona extra diciamo una o più persone extra praticamente a costo zero ok categorie di video questi sono un po' come gli interessi di facebook ok mi sembra che siano una quarantina forse qualcosa di meno ok quindi entertainment in culture cg ok derivati derivate sì derivate scusatemi art home garden life o comunque ne abbiamo un bel po' ok per il nostro tipo di prodotto sicuramente una cosa che può essere interessante è andiamo a scorrere un attimo per esempio animals per prodotti micchi animali è perfetto ragazzi daily life per prodotti diciamo life hack non male food and drink ovviamente anche qui per prodotti collegati alla cucina travel eccetera comunque vedete abbiamo un po' di cosa allora beauty in care sicuramente può interessarci cosplay anime games outdoor activities magari per prodotti capito che possiamo usare in outdoor fitness and health per magari anche ebook per dirvi adesso ebook su tik tok non è che vadano granché però se avete un prodotto in nicchia fitness sicuramente può essere utile ok per ora beauty in care sono quelli che più rispecchia l'interesse che più rispecchia la nostra il nostro target ideale quindi come vedete qua abbiamo molti meno interessi perché sono più che altri raggruppati in categorie ok tenete anche presente ragazzi che su tik tok il il ctr sarà molto più basso cioè scusatemi sarà molto più alto perché per il semplice motivo che su facebook un'inserzione media di dura circa un video medio di dura qua un minuto ok su tik tok invece dura qualche secondo 15 secondi quindi capite che la frequenza con la quale la gente scorre ma non perché vuole scorrere ma perché proprio il video è finito è molto maggiore e questo permette alla piattaforma di inserire molte più inserzioni all'interno penso che anche per questa ragione abbiano messo pochi interessi tra virgolette chiamiamoli così anche se qua vengono chiamate categorie video ok posizione qui andiamo a mettere per esempio italia senza per esempio però se vendiamo in italia comunque la posizione dove dobbiamo andare a vendere ok ottimizzazione dell'evento completamento pagamento ok e come un po' mettere l'obiettivo conversione su facebook va bene aggiunte il carrello registrarsi eccetera questo non ci interessa ci interessa che completino il pagamento a questo punto possiamo inserire un budget giornaliero io vi consiglio tranquillamente di andare sui 20 euro senza troppi problemi ok vi anticipo anche ragazzi che in questo caso non è che ci interessi granché però per dirvi possiamo anche andare a targetizzare l'operatore telefonico il tipo di dispositivo usato eccetera eccetera ok in questo caso non è che ci interessa magari possiamo selezionare la tipo di connessione quando sono connessi al wifi perché perché possiamo mettere perché l'utente si trova diciamo a casa in una zona di comfort ok quindi è più propenso eventualmente a effettuare un acquisto ora l'operatore è il il telefono che uno ha ok magari ci può servire se stiamo vendendo delle cover quindi ci possiamo riferire solo a persone che hanno delle cover per il cellulare con solo quel tipo di modello di telefono ok per il resto quindi vabbè l'ottimizzazione abbiamo vista budget giornaliero come vi ho detto vi consiglio anche di partire con 20 euro tranquillamente poi si può andare ad aumentare si possono testare anche poi in un secondo momento nuovi diciamo categorie video nuovi interessi ok perché non è detto che una che comprerebbe un frigo per mantenere i trucchi a temperatura ideale quindi mantenerli nel tempo non sia anche interessata per esempio agli outfit ok ovviamente magari performerà leggermente meno bene di beauty and care però comunque anche outfit non è affatto male budget giornaliero come vi ho detto mentello lo possiamo buttare tranquillamente lo pianifichiamo anche qua ragazzi io consiglio sempre di pianificare più che altro per una questione di ottimizzazione ok perché gli diamo un budget giornaliero da spendere in 24 ore e quindi facciamo partire almeno alla prima ora delle 24 ok strategie di offerta possiamo impostare o costo più basso ok quindi ad aste come un po' come funziona su facebook oppure un limite massimo di costo possiamo mettere per esempio quanti euro massimo possiamo spendere per effettuare una conversione ok magari abbiamo un margine di 10 euro sappiamo che più di 10 euro lui non deve spendere per portarci una conversione ok una volta che ha fatto questo ragazzi semplicemente andiamo su invia la campagna partirà ok molto semplicemente la potrete poi monitorare nella sezione marketing di shopify adesso qui vedrete sicuramente tutto oscurato e niente ok questo è quanto ragazzi ok tiktok veramente molto semplice devo dire soprattutto se lo fate da 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 shopify direttamente ovviamente magari poi per store solo su tiktok o per scalare in maniera proprio verticale a quel punto allora è necessario avere un business manager direttamente su tiktok per avere tutta una serie di funzioni in più però io vi dico anche store che scaliamo veramente a livelli alti non è che abbiamo tutta questa esigenza di avere il bm tiktok ok possiamo gestire tranquillamente tutto da da shopify anche perché ragazzi il bm che noi abbiamo visto prima è lo stesso bm lo stesso identico bm che la stessa identica scusatemi schermata che noi abbiamo poi da da tiktok diciamo dal business manager di tiktok dall'account di tiktok ok quindi cambia veramente poco ok che la campagna qui che la campagna è quello che abbiamo visto prima e niente ok il bm vedrete che se aprite anche dal business manager proprio da tiktok la piattaforma sarà uguale l'interfaccia ok sarà veramente uguale spiccicata identica ovviamente qua avete poi un'anteprima ok di quello che verrà fuori dall'inserzione più che a livello di campagne ragazzi su tiktok come vi dicevo prima si lavora tanto a livello di creative ok le creative non devono come vi dicevo sembrare inserzioni questa è una cosa molto importante vedrete che su tiktok avrete a parità di spesa molte più persone che effettivamente cliccano vanno interagiscono ma per la semplice ragione che su tiktok ci possiamo permettere di far vedere molta più pubblicità cioè la piattaforma si può permettere di far vedere molta più pubblicità perché lo scrolling è molto più rapido rispetto che su instagram o su facebook o qualsiasi cioè diciamo prendiamo come riferimento instagram e facebook ok discorso invece completamente opposto è google ok google a parte che su un prodotto del genere si potrebbe fare ma proprio per test in livello di scalata ma perché più che altro google ragazzi si basa su una ricerca consapevole ok quindi su persone che già stanno cercando qualcosa ok non è che sono lì a cazzeggiare su un social e che gli esce la sponsorizzata ma già stanno cercando qualcosa quindi sicuramente per darvi giusto una panoramica generale su tutti i sistemi di advertising principali google avrà dei diciamo dei roas molto migliori ma d'altra parte avrà una scalabilità praticamente ridottissima ok molto più ridotta rispetto a un facebook rispetto a un tiktok perché appunto si basa su una ricerca consapevole ok quindi si va a targetizzare magari per parole chiave eccetera eccetera grazie a questo cioè proprio per questo motivo non possiamo andare a prendere tutte le persone molte più persone ok ma solo quelle persone che ricercano quel tipo di parole che sono inerenti al prodotto ovviamente se uno è un bravo advertiser fa tutto uno studio delle keywords eccetera eccetera un bravo google ads manager ok io direi che diciamo lato advertising lato piattaforme c'è ci siamo detti abbastanza tutto ovviamente ribadisco queste sono strategie base per partire ok comunque nonostante questo con anche solo queste strategie potete già iniziare a ottenere dei risultati sicuramente molto molto interessanti ok abbiamo visto veramente tanta roba ai ragazzi facebook ok tutto il setting tutta la campagna per partire quindi la via testi interessi come andare a gestire poi gli interessi che performano aumentare il budget scalare il budget verticalmente andare poi a spostare in campagna in abo oppure leverage plus se lo avete oppure abbiamo visto anche tiktok il discorso di tiktok quando andarlo a implementare come lavorare sulle creative eccetera 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 ecco su tiktok è importante ragazzi avere già una base buona organica quindi avere già una pagina anche perché come abbiamo visto all'inizio del video non mi faceva neanche creare l'add account ok perché avevamo appena creato l'account di tiktok quindi vi ho dovuto far vedere questo qua di uno store già avviato quindi discorso tiktok lo andate a implementare una volta che vedete che il test sta ingranato ok quindi il test con facebook ads funziona ok apriamo la pagina tiktok iniziamo a fare video in video virali ok iniziamo ad andare a testare facciamo tre video al giorno ok dopo che quando abbiamo stabilizzato facebook allora possiamo iniziare con tiktok ad d'accordo quindi lato advertising ci siamo ok mi raccomando ragazzi questo è un aspetto molto 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 importante e molto vasto ok l'abbiamo affrontato in linea in ore comunque però in linea molto superficiale ok bisogna la parola d'ordine diciamo nelle adze testare 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 ok più si testa più si riesce ad avere esperienze più si sa cosa funziona e cosa non funziona ok ragazzi ok benvenuto in questa lezione una lezione in cui impareremo come poter costruire quello che è il nostro account e poter lanciare quelle che sono le nostre campagne basic ok quindi le nostre prime campagne su google ads io sono Daniele faccio parte del team della Valore International e più che altro mi occupo di advertising in particolar modo di google ads google è sicuramente la piattaforma per eccellenza per quanto riguarda appunto l'advertising un po' tra tutte le piattaforme sicuramente quella più complessa tra virgolette e quella dove però appunto abbiamo veramente una quantità di dati veramente grande perché ovviamente google è il principale motore di ricerca e sicuramente è il motore di ricerca la società che riesce sicuramente ad oggi ad accumulare più dati rispetto a tutti ok e anche ovviamente più di facebook quindi è importante al giorno d'oggi comunque conoscere soprattutto nel business online quelle che sono almeno le impostazioni diciamo principali che riguardano google ads e in questa lezione andremo a vedere come impostare e costruire da zero quelle che sono due campagne ok su google per quanto riguarda un business come l'e-commerce quindi nel caso in cui abbiamo un negozio un'attività in e-commerce già avviata o stiamo costruendo da zero appunto un nostro negozio online e vogliamo lanciare le nostre prime campagne su google google inoltre in questi ultimi periodi sta incentivando molto diciamo nuovi advertiser nell'utilizzo della piattaforma di google ads dando appunto questi crediti pubblicitari siamo arrivati addirittura a 400 euro di credito pubblicitario vedremo ovviamente in quale modo e in come ci restituisce questi 400 euro però vi dico che sono realmente diciamo 400 euro che mettono a disposizione per fare advertising sulla loro piattaforma per determinate campagne ok allora diciamo che arrivando ad ads.google.com questa è appunto quella che è l'interfaccia principale di google una volta creato il nostro store su shopify ok quindi abbiamo il nostro negozio ovviamente vi dico shopify perché shopify è sicuramente ad oggi la piattaforma di costruzione commerce più diciamo semplice e più configurabile con qualsiasi tipo di partner compreso google ed è più facile anche da poter da poter analizzare insomma da poter impostare quindi una volta che abbiamo creato il nostro store fondamentalmente adesso passeremo qui a un nostro store già attivato e andremo a installare quella che è appunto quello che è il nostro canale di vendita google ok come un po' facciamo con facebook andiamo a farlo anche con google questo lo possiamo fare direttamente anche dalle app ok quindi andiamo su personalizza app quindi entriamo nell'app store di shopify e andremo a selezionarci appunto quella che è l'app di google ok quindi ci basterà semplicemente inserire qui google ok ovviamente potremmo trovare diversi tipi di app collegate a google però sicuramente canale di google di shopify ok quindi in maniera molto semplice aggiungiamo l'app e ce la ritroviamo qui sotto i canali di vendita cosa possiamo fare attraverso quest'app allora diciamo che qui la cosa buona è che google attraverso appunto l'app di shopify riesce già a configurarci quello che è un nostro account quello che è appunto il nostro google market center che non è altro che la piattaforma google che registra e monitora quelli che sono tutti i nostri prodotti in e-commerce quindi un appunto un centro di controllo di tutti i nostri prodotti e quindi che cosa fa collabora con shopify leggendo i nostri prodotti che abbiamo nel nostro catalogo e fa un'analisi per capire se è appunto un prodotto che può andare bene per google rispetta quelle che sono le sue policy e ce li convalida come possiamo vedere qui su cinque prodotti uno non ce l'ha approvato ovviamente la non approvazione non vuol dire per forza che è derivante dal fatto che non rispetti delle policy ma vedremo che semplicemente ci sono alcuni punti che dobbiamo rispettare per far sì che possa essere approvato un determinato prodotto quindi che cosa dobbiamo fare installiamo l'app e la cosa che appunto ci chiede quando entriamo in postazioni è di collegare un nostro account google qui cosa è importante se non abbiamo creato uno store con una casella di post a gmail qui dobbiamo necessariamente farlo perché google ads funziona esclusivamente con una casella di post a gmail quindi se non abbiamo già creato uno store con una casella di post a gmail creiamone una apposita dove gestiremo appunto le google ads per il nostro store quindi creiamo la nostra appunto gmail ci loggiamo ok e ci creerà da subito quello che è ci crederà appunto una serie di informazioni da inserire sul negozio qui per esempio ve lo dico già da subito che leggerà appunto se ci sia o meno un metodo di pagamento valido la rimozione della password sul tuo negozio online quindi il negozio deve essere online ok stiamo costruendo lo store tutto questo lo dobbiamo fare necessariamente a store avviato quindi quando abbiamo tolto la password lo store è pronto i prodotti sono pronti e possiamo avviare appunto l'attività di advertising quindi una volta fatto quello possiamo fare questo passaggio lui legge un po' tutti questi passaggi se vede che è tutto ok può procedere appunto all'analisi finale quindi cosa importante è che bisogna aggiungere nel footer l'informativa sui rimborsi termini e condizioni del servizio ok quindi le privacy policy in poche parole e aggiungere anche il numero di contatto del customer service quindi vuole proprio leggere che ci sia presente sul footer un numero di telefono valido quindi questo lo dobbiamo necessariamente fare altrimenti non passeremo la verifica dopo di che google ci crea qui dentro direttamente un account di google merchant center con direttamente un id ok e questo lo possiamo anche vedere subito volendo quindi ci potrà collegare già direttamente ad un account google ok che fondamentalmente avrà appunto già tutte le impostazioni ovviamente che cosa succede che un account di google merchant center non si attiva da subito nel senso che ci vuole ci vogliono circa dai 3 ai 5 giorni per far sì che legga tutti quanti i prodotti veda se non ci sono problemi sui prodotti quindi fa da qui possiamo vedere quelli che sono tutti i nostri articoli come potete vedere l'aggiornamento attuale è che tutti e 6 articoli sono stati approvati anche se su shopify come possiamo vedere come abbiamo visto prima un articolo ancora ci risulta no quindi questa è semplicemente una lettura diciamo sbagliata ma cosa che ci interessa a noi è questa qui possiamo vedere tutti i prodotti ovviamente la cosa che dobbiamo fare necessariamente è andare ovviamente prima a dare tutte le nostre impostazioni sull'account quindi anche qui dovremo andare ad impostare punto fuso orario ok ora vediamo se ce lo carica nel modo giusto quindi fuso orario lasceremo qui tutto quanto quello che è il nostro nelle nostre impostazioni poi un'altra cosa che dobbiamo fare vediamo un po' se ci abbiamo quasi tutto le impostazioni fiscali ok dobbiamo controllare che tutte le impostazioni siano giuste e in preferenze appunto vediamo che lo stato sia appunto attivo una volta che ci chiede tutto ciò che appunto è inerente al nostro account quindi alla nostra attività quindi in questo caso anche qui dobbiamo inserire tutte quelle che sono le nostre attività ci chiederà anche di verificare il nostro numero di telefono ok nel sito web ci chiederà appunto di verificare il sito web qui anche vedremo che vi chiederà quello di rivendicare o in tal caso di verificare il nostro sito web come verifichiamo il nostro sito web molto facile questo qui lo possiamo fare o attraverso un passaggio che ci fa fare qui o da prima possiamo andare in quello che è il google search console che non è altro che un servizio di google che ci permette di monitorare il nostro sito web e ci fornisce quelle che sono le informazioni principali sul nostro sito web ovvero ci dice se alcune pagine funzionano bene o altre funzionano male cosa viene cliccato di più ok quindi è semplicemente un tools in più che possiamo andare a ricavare ok che possiamo andare a utilizzare non non lo useremo per nulla per quanto riguarda le campagne google però ci servirà per appunto andare a fare quella che è la verifica del nostro dominio ok e quindi verificare con google il nostro dominio e verificare anche l'andamento volendo delle nostre informazioni sul nostro sito quindi qua faremo verifica la tua proprietà ok cosa importante inseriremo quello che è il nostro dominio e sceglieremo appunto di verificare la proprietà del dominio tramite record dns ok quindi qua senza paura in maniera molto semplice qua qualsiasi provider dns dovremo andare a copiare questo codice ok all'interno del nostro dominio su shopify quindi andremo su shopify andremo su negozio online questo passaggio qui ve lo potrà richiedere anche direttamente da google mercant center ok ora non ricordo se vi va a fare la stessa identica procedura però basterà semplicemente fare rivendicare o verificare e dovrete fare lo stesso identico passaggio quindi andremo sotto domini ok che cosa dobbiamo andare a fare andiamo a appunto a selezionarci il nostro account quindi gestisci quindi qui siamo proprio all'interno di dominio ok all'interno dell'hosting del appunto del dominio attraverso shopify perché abbiamo acquistato il dominio .com all'interno di shopify altrimenti se non so acquistate da godeddy o da qualsiasi altro hosting andate ovviamente all'interno di l'hosting stesso nelle impostazioni e fate la stessa identica procedura qui in maniera molto semplice infatti vi consiglio di acquistare il dominio all'interno di shopify andate su impostazioni dns e qui andremo ad aggiungere un record personalizzato txt ok qui andremo ad inserire un po' quello che è il codice di google ora non lo faccio perché diciamo è stato già precedentemente fatto e aggiungendo anche la ghiocciola davanti inseriamo questo facciamo salva ok ci spunterà il tastino salvo una volta che abbiamo inserito tutti i quantitati rifresciamo semplicemente la pagina e qui all'interno di google facciamo verifica in automatico che cosa succede che ci verificherà la nostra proprietà ora vediamo se scegli di carica ok e come avverrà avverrà semplicemente che ci aprirà quella che è la nostra scheda di controllo del nostro url quindi avremo qui il nostro dominio introduzione ci metterà il rendimento quindi ci trà anche un po' quella che è la nostra andamento della ricerca attraverso il nostro sito web quindi quali sono le pagine più cliccate ok da quali paesi si sono collegati di più in percentuale sui click impression così via dispositivi eccetera eccetera ok quindi una volta fatto questo possiamo tornare su quello che è appunto il nostro impostazione sito web quindi verificato anche questo branding qui importante possiamo andare ad inserire quello che sono i colori principali del nostro brand il nostro logo in forma quadrata in forma rettangolare vi consiglio ovviamente sempre di rispettare quelle che sono i minimi standard di google questo perché perché poi ce lo ritroveremo in futuro sulle campagne shopping quindi una volta configurato un google mercant center che cosa succederà che ovviamente nelle successive 24-48 ore barra tre giorni google leggerà i prodotti all'interno di Shopify e qua sulla sezione prodotti vedremo se sono attivi o no può capitare che siano disapprovati perché magari non si rispettano determinati determinati problemi come vedete qui c'è un problema ma è giallo ovviamente non è importante invece quando vedete un avviso in rosso è perché ovviamente ci sono delle specifiche che non diciamo per google non vanno bene lui ve l'elenca e vedete semplicemente quale sia il problema una volta fatto questo possiamo diciamo fare delle campagne shopping su google tornando a quella che è l'impostazione del nostro account che cosa abbiamo fatto ricapitolando abbiamo quindi creato un nostro account di google macchart center andiamo alla creazione del nostro vero e proprio google account di google ads lui ci farà già in automatico la creazione dell'account di google ads attraverso la nostra mail e che cosa andremo a vedere fondamentalmente adesso vi faccio vedere un po' ok una volta che vi apre diciamo l'account google inizia di default subito con la creazione di una campagna cosa che dovete fare è subito passa alla modalità esperto perché non dobbiamo subito creare la nostra campagna ma dovremo andare prima di tutto ad impostare quelle che sono le nostre impostazioni quindi qui faremo ancora crea un account senza una campagna ok andremo già da qui a dare le nostre informazioni sulla nostra sulla nostra attività quindi paese di fatturazione uso orario valuta eccetera faremo invia e abbiamo diciamo creato quello che è il nostro account possiamo fare esplore al tuo account ok e ovviamente non abbiamo nessuna campagna quindi cosa che dobbiamo andare a fare è innanzitutto finire di impostare quelle che sono le nostre fatturazioni e pagamenti quindi i nostri dati ok andiamo a dare tutti i nostri dati a google quindi qui andiamo a descrivere il profilo di pagamenti se il tipo di conto ovviamente vi consiglio di utilizzare google se avete già un'attività perché google comunque beneficia di più diciamo autorità e in qualche modo una veridicità se c'è dietro un'azienda mentre per una persona singola ti fa comunque creare un account però vi consiglio soprattutto per spendere anche di più su google eccetera per non avere ulteriori limiti di utilizzare un'azienda quindi inseriamo tutti i nostri contatti aziendali e così via pagamento automatico inseriamo quello che è una nostra carta ok e abbiamo impostato quello il nostro account di google ads ok ora una volta fatto questo possiamo dare l'ok impostazione feed dei prodotti quindi avremo tutto quanto completato ok che cosa dobbiamo andare a fare dobbiamo andare a creare quello che è il nostro pixel di google che in realtà non si chiama pixel ma si chiama analytics quindi su analytics.google.com andremo a configurare quella che è una nostra nuova proprietà di analytics questa è la home page che troveremo di analytics andremo a fare avvia misurazione nome dell'account quindi qua gli andiamo a dare semplicemente il nome dell'account quindi ok molto semplice qui possiamo anche lasciare magari solo assistenza tecnica successivo andiamo a dare quella che è la configurazione di una proprietà quindi qui andiamo a dare per esempio il nome dello store ok diciamo che su creazione dell'account possiamo dare il nome della nostra azienda su configurazione della proprietà andiamo a dargli proprio il nome della proprietà ok quindi qui possiamo andare a appunto dare il nome un po' del nostro store per esempio uso orario quindi ipotizziamo che siamo in Italia e vendiamo appunto in Italia cosa importante qui dobbiamo andare a cliccare su mostra opzioni avanzate perché perché dobbiamo andare a creare una proprietà universa analytics allora analytics si distingue fondamentalmente in due tipi di proprietà la proprietà google analytics 4 che è la nuova proprietà di google analytics quindi un nuovo modo per poter tracciare i nostri dati e la proprietà la prima proprietà che è nata di analytics che è l'universa analytics tra l'altro a partire appunto dal primo luglio 2023 già diciamo google ci sta ricordando questa cosa che userà esclusivamente la nuova proprietà google analytics 4 quindi per adesso dobbiamo ancora utilizzare universa analytics che tra l'altro è ancora è solamente configurabile al meglio per quanto riguarda l'ecommerce soprattutto per shopify e successivamente utilizzeremo sicuramente dal primo luglio 2023 l'analysis 4 quindi che cosa dobbiamo fare creiamo anche una proprietà universa analytics qui metteremo il nostro web andremo avanti e ci darà un po' ok metteremo semplicemente le informazioni sulla nostra attività quindi adesso qui vediamo giusto per farvi vedere qui diciamo che se una volta selezionato il nostro paese ah ok no semplicemente dobbiamo inserire il settore quindi qua definiamo qual è il settore di vendita ok in cui ci troviamo qui potete lasciare tutto qui di default quindi analizzare i miei venditi online eccetera eccetera e facciamo crea che cosa succede che una volta creato si formerà appunto questa gestione del nostro account su account proprietà e vista ok adesso andiamo a vedere sotto proprietà avremo quindi la nostra il nostro google analytics 4 e il nostro google analytics universe analytics sono entrambi due tipi di codici di monitoraggio ok installati sullo stesso sito web come ho detto prima la cosa che ci interessa di più è l'universo analytics per adesso che cosa dovremmo andare a fare quindi entrando qui la prima cosa che faccio di solito è impostazioni e-commerce e vado ad abilitare impostazioni di e-commerce diciamo avanzato quindi vado a dare queste due spunte e faccio salva ok successivamente cosa vado a fare informazioni di monitoraggio codice di monitoraggio in realtà per quanto riguarda Shopify non ci servirà fondamentalmente andare a copiarci questo codice e metterlo all'interno del nostro liquid ok quindi questo codice HTML ma ci basterà semplicemente copiarci questo codice qui ok e andarselo ad inserire all'interno di preferenze scendendo qui ed installarlo direttamente qua utilizza e-commerce avanzato e faremo salva ok una volta fatto questo Shopify in automatico integrerà quello che è appunto questo ID di monitoraggio possiamo fare invia traffico di prova ci collegherà al nostro sito e abbiamo collegato il nostro universa analytics ok io vi consiglio di comunque andare anche su google analytics 4 che è tanto in maniera molto semplice ci chiederà dal momento in cui lo creiamo comunque di aggiungere uno stream anche qui semplicissimo ci chiederà il nostro sito web quindi andare in maniera inserire il nostro sito web ci dice già cosa ci andrà di default a tracciare quindi tutto ciò che è visualizzazione della pagina e così via non dovremo fare altro e ci ha creato già di default la nostra diciamo proprietà che è il nostro collegamento ritornando a quella che è la nostra proprietà ogni proprietà può avere fino a 99 viste che cos'è la vista la vista è semplicemente una diciamo una finestra di visualizzazione dei dati del nostro analytics perché perché noi possiamo decidere di poter vedere i dati che accumula il nostro pixel in poche parole in maniera diversa solitamente ne basta semplicemente una infatti vi creerà tutti i dati del nostro sito web e ci basterà anche utilizzare solamente un'unica vista che cosa dobbiamo andare a fare possiamo andare innanzitutto a fare il collegamento con il nostro account di google di google ads quindi andremo qui faremo un nuovo gruppo di collegamenti andremo ad inserire quindi andremo a selezionare il gruppo di collegamento quindi ci sarà un codice che sarà ritornando al nostro account di google sarà lo stesso codice che troverete qui in alto a destra ok ora torniamo ad analytics andiamo su quindi clicchiamo su il nostro account di google ads e faremo continuo dopodiché abbiamo collegato il nostro account appunto di google analytics a google ads una volta fatto questo possiamo andare a già da subito anche a definirci quello che è il nostro pubblico qui di default ci creerà un segmento che è tutti i visitatori questo qua ci servirà per definire già da subito quello che è il nostro i nostri segmenti di pubblico per le campagne di retargeting ovviamente faremo solo successivamente quindi qui possiamo andare se non lo troviamo semplicemente a fare nuovo segmento di pubblico andiamo a dargli tutti gli utenti ok quindi qui imposteremo non so 90 giorni ok andremo qui a definire il nostro nome e alla fine ok selezioneremo l'account google ads e magicamente abbiamo appunto il nostro il nostro diciamo gruppo di visitatori in questo caso perché abbiamo selezionato tutti i visitatori del nostro sito web quindi ogni volta che nuovi visitatori entreranno sul sito li accumulerà e li inserirà all'interno di questo gruppo ok bene diciamo che fondamentalmente la parte di impostazione ok principale l'abbiamo fatta ok in maniera molto semplice non andremo a parlare di ulteriori tools che ci metta a disposizione google andiamo semplicemente a appunto controllare che qui sotto google abbiamo tutto quanto ovviamente possiamo iniziare da subito a fare qualche campagna cosa che vi consiglio aspettiamo i soliti quindi 3-5 giorni di solito in 3 giorni riesce a fare quella che è il controllo diciamo dei nostri prodotti quindi ad attivarceli una volta approvati possiamo andare direttamente all'interno del nostro account google e procedere con la nostra prima campagna quindi nostra prima campagna iniziamo con una campagna ok di google di shopping quindi la nostra campagna google shopping qui possiamo già selezionare quelli che sono degli obiettivi perché cosa importante google una volta che è configurato con shopify in automatico ve lo faccio vedere qui quindi strumenti e conversioni ci riporta in automatico tutti gli obiettivi che lui riesce a leggere ok quindi acquisti aggiunta al carrello iniziale di procedura di pagamento lead di chiamata contatti eccetera eccetera ok visualizzazione di pagine ed altro questa qui lo fa in automatico attraverso appunto l'integrazione di dell'app shopify con google ecco perché questa cosa qui è molto facile se utilizziamo shopify e quindi avremo già i nostri obiettivi ok impostati un po' come su facebook quindi abbiamo già l'obiettivo acquisto aggiunto al carrello iniziale di procedura di pagamento e così via per cui quando andremo a creare la nostra campagna ok possiamo andare direttamente su vendite e lui ci leggerà già degli obiettivi di conversione ok o possiamo semplicemente fare crea una campagna senza un obiettivo ci mostrerà tutti gli obiettivi che noi nostri tipi di campagne potremo andare a fare quindi dalla campagna search performance max che è un nuovo tipo di campagna ok la display la shopping video e così via andremo ovviamente avendo un e-commerce a selezionarsi shopping ok quindi lui ecco qui già ci collega tutti i nostri obiettivi cosa che faccio per esempio escludermi proprio quelli che non mi interessano come lead di chiamata e mi lascio solamente quelli inerenti proprio all'e-commerce quindi l'acquisto giunto al carrello inizia il proceduto di pagamento e così via la cosa importante è che lui ci leggerà in automatico se abbiamo o meno appunto un account mercant center collegato quindi qua se non ce lo legge da subito andiamo su strumenti facciamo il tasto su google mercant center quindi qui in automatico ci permetterà di appunto fare il collegamento a google oppure no ok nel caso in cui ve lo legga di default lo vedrete selezionato qui quindi verificate anche il codice e ovviamente andiamo a descrivere il paese in cui verranno venduti i nostri prodotti cosa che vi consiglio all'inizio di andare su una campagna shopping standard ok e successivamente di passare anche a una campagna shopping intelligente c'è una differenza ovviamente la shopping standard vi permette di poter proprio selezionare da zero ogni singola impostazione anche quella relativa all'offerta e la campagna shopping intelligente oltre a darvi già un diciamo una velocizzazione dell'impostazione della campagna vi dà anche la possibilità di poter inserire campagna display su youtube su gmail abbinata alla campagna shopping e così via che comunque è una campagna che potrete sicuramente fare successivamente ma come prima campagna vi consiglio di andare su campagna shopping standard quindi andremo su continua e andremo a creare la nostra prima campagna su google quindi qua io vado a nominarmi quindi su campagna shopping italia ok e posso mettermi all product quindi tutti i prodotti come tipo di impostazioni aggiuntive non ci interessa ok ve lo faccio vedere giusto per cosa che appunto dobbiamo andare a impostare è quello di impostazione della nostra offerta quindi lui che cosa ci chiede per che cosa vuoi utilizzare la strategia di offerta per un ROAS target quindi hai un ROAS che vuoi ottenere precisamente ok o per massimizzare click quindi vuoi fare avere un controllo su quelli che sono le offerte per ogni click che abbiamo o altrimenti un cpc manuale io quello che vi consiglio è di lasciare quindi tutto così di default e mettiamo appunto lasciamo cpc manuale metteremo un budget budget anche qui vi consiglio minimo di 15 20 euro ok priorità della campagna bassa in realtà questa vi servirà solamente in caso in cui avete più campagne e quindi deciderete quale priorità dare di più ad una campagna anziché ad un'altra ok quindi lasciamo così tanto è abbiamo una sola campagna shopping dopodiché appunto abbiamo la possibilità di avere quindi la presentazione del nostro dei nostri prodotti sulla base della rete di ricerca quindi quando andremo quando andranno a richiedere diciamo gli utenti determinati tipi di prodotti sulla barra di ricerca appariranno i nostri prodotti stessi ok quindi attraverso la pubblicazione su rete di ricerca località inseriremo appunto la località in cui andremo a presentare i nostri prodotti data inizio fine e questo sarà l'impostazione generale della campagna ok successivamente si andrà a creare il nostro primo gruppo di annunci qui vi consiglio di impostare un cpc base ok solitamente vi consiglio di inserire uno 0.20 ok per esempio questa qui vedrete che poi magari potrete andarla a modificare successivamente diciamo che il costo per click è variabile a seconda del mercato di riferimento del tipo di prodotto diciamo che più competitor ci sono nella nostra fetta di mercato e sicuramente maggiore è il costo per click ok andiamo ad impostare sulla base di 15-20 euro un 0.20 un 0.30 come cost per click ok va bene così quindi andremo a fare crea campagna e in automatico vi crea quindi la nostra campagna ora la metto in pausa come è costituita la nostra campagna allora qui sulla sinistra innanzitutto vedrete tutte le campagne che sono attive e non attive quelle attive avranno questo pallino verde quelle non attive saranno in grigio quindi spente inoltre in alto come potete vedere sotto l'impostazione tutte le campagne vedrete tutte le campagne proprio selezionate che abbiamo diciamo che abbiamo all'interno dell'account e al di sotto abbiamo delle macro aree suddivise per obiettivo quindi queste sono tutte le campagne sulla rete di cerca queste sono tutte le campagne shopping e queste per esempio sono tutte le campagne intelligenti quindi campagne shopping per esempio andremo su quella che è la nostra campagna che abbiamo creato ok che se non sbaglio è questa qui appunto shopping it all products che cosa possiamo andare a vedere in questa seconda colonna tutte le impostazioni della nostra campagna quindi panoramica consigli che ovviamente sono impostazioni sono consigli che vi da google ma vi dico non prendete tanto in considerazione questo perché google cercherà di farvi spendere sempre di più approfondimenti anche sono una serie di consigli che vi da direttamente google cosa che dobbiamo andare a vedere sono gruppi di annunci quindi i nostri gruppi di annunci che appunto siamo andati a creare una volta che è iniziata appunto che comincia a spendere la nostra campagna su informazioni aste potremo vedere se ci sono competitor e come siamo posizionati a livello di asta gruppi di prodotti andremo a vedere appunto il nostro gruppo di prodotti che abbiamo selezionato qui possiamo andare per esempio a selezionarci solo determinati prodotti o in questo caso vuol dire che il nostro budget è allocato su tutti quanti i nostri prodotti che cosa possiamo fare se vogliamo presentare solo determinati tipi di prodotti andiamo qua ok e ci andiamo a selezionare sulla nostra lista solamente i prodotti che vogliamo sponsorizzare ok quindi qui ci basterà continua per modificare le offerte ok facciamo salva e ci mostrerà semplicemente i nostri prodotti altrimenti se vogliamo sponsorizzarli tutti ci basterà lasciare così e ovviamente la campagna avrà un cpc ottimizzato che si baserà appunto su su quello che è diciamo l'offerta migliore che può raggiungere quindi spenderà a seconda del budget il cpc massimo per appunto potersi posizionare nella posizione migliore ok per l'utente quindi questo lo valuterà direttamente lui sulla base delle ricerche pagine di destinazione ci mostrerà se e quali sono le pagine realmente visualizzate di più dove l'utente arriva alla fine una volta cliccato quindi quale dei prodotti magari utilizzerà di più parole chiave in questo caso per quello che è il nostro questo tipo di campagne le parole chiave non saranno presenti perché si usano specificatamente nelle campagne di ricerca ma possiamo vedere per esempio i termini di ricerca utilizzati che arrivino appunto alla nostra inserzione fondamentalmente andremo sul pubblico a monitorare quello che è il pubblico principale delle nostre campagne ovviamente adesso non abbiamo nulla perché non è partita la campagna però ovviamente se andiamo su un altro tipo di campagne vi faccio vedere per esempio questa no perché è una campagna di shopping intelligente però diciamo che qui allora tornando un po' su parole chiave segmenti di pubblico vi mostrerà in poche parole quali sono i tipi di pubblico che Google sta analizzando quindi se sono acquirenti o comunque hanno interesse per la vostra nicchia di prodotti in quale sfera diciamo sono quindi quali sono anche i dati demografici del posto pubblico in modo tale di poter andare a ottimizzare man mano località questa l'avete impostata quindi qui vedete che ci si è Italia quindi direttamente la pianificazione di annunci vi darà un andamento di quali sono i momenti più cliccati durante la giornata e durante la settimana questo ve lo dico dopo aver accumulato parecchi dati quindi anche dopo un mese che la campagna stessa sta macinando potete già andare a perfezionare magari degli orari specifici in cui volete mostrare quindi concentrare il budget su principali momenti della giornata e della settimana quindi in maniera molto semplice andremo a creare questa campagna una campagna shopping che comunque vi permetterà in maniera automatica di posizionare quelli che sono i vostri annunci all'interno del motore di ricerca quindi carpeta calcio cioè la prima cosa che mi viene in mente ecco qui questi sono fondamentalmente diciamo le inserzioni che andranno ad apparire ok sul in base alla ricerca appunto su google dei vostri utenti quindi quando selezionano determinate parole che si collegano al vostro prodotto avremo qui quelli che sono i nostri prodotti ok e quindi queste sono le campagne shopping in parallelo alle campagne shopping una campagna che possiamo impostare da subito molto semplice ma che ha veramente un ottimo risultato sono le campagne intelligenti su queste campagne ritorno su shopify perché vi faccio notare come appunto quei 400 euro di credito che ci mette a disposizione google sono proprio per campagne di shopping intelligente quindi entro 60 giorni puoi spendere fino a 400 euro e avere un rimborso completo su quei 400 euro quindi vale la pena andarla a creare anche perché stiamo trovando veramente degli ottimi risultati quindi testatela ovviamente non vale sempre il discorso del risultato perché a volte può anche magari non andare particolarmente bene però abbiamo riscontrato nella maggior parte dei casi comunque sia una campagna molto semplice da creare che comunque porta risultato come facciamo a crearla ci basterà tornare qui su nuova campagna ok crea una campagna senza obiettivo andremo qui a andare su intelligente quindi clicchiamo qui cosa che andiamo generalmente ad inserire azioni sul nostro sito web faremo continua nome dell'attività quindi nome del brand solitamente potete lasciare anche solo questa altrimenti trattino e qui inserirete una specifica del vostro brand vendete delle scarpe possiamo scrivere le migliori scarpe ok la corsa per esempio quindi questo sarà ciò che verrà mostrato un po' nell'annuncio come titolo della vostra azienda altrimenti solamente il nome del brand faremo avanti il tuo sito web quindi ok vi farà un po' un'analisi di quello che è il sito ok ora in base a ciò che legge sul sito può capire e intendere determinate parole quindi vi aiuta già in maniera intelligente come la campagna stessa a creare dei titoli e delle descrizioni allora che cosa dobbiamo andare ad inserire tre titoli e due descrizioni i titoli sono quelli che noi troviamo principalmente qui mentre le descrizioni sono appunto quelle quelle frasi che troviamo al di sotto direttamente del titolo quindi sul titolo che cosa dobbiamo andare ad inserire dobbiamo andare ad inserire ciò che sono principalmente le parole che gli utenti possono andare a ricercare di più fondamentalmente quindi se vendiamo per esempio delle scarpe da calcio possiamo andare ad inserire qui quello che è per esempio le migliori scarpe da calcio ok attenzione perché comunque non dobbiamo superare le trenta parole ok quindi le migliori scarpe da calcio offerte sconti sul sito qui sta ora ok descrizione sulla descrizione andiamo a dare forza un po' a quello che è il brand e quello che stiamo vendendo quindi andiamo semplicemente sempre nel limite qui di 90 a descrivere quello che è il nostro che cosa stiamo vendendo ok quindi andiamo a dare una descrizione del nostro prodotto o del nostro brand quindi in nome brand ok quindi all'interno in poche parole del nostro store troverai le migliori carte da calcio nel mercato qui possiamo andare a proporre un po' il discorso di avere un catalogo e di avere delle offerte dedicate all'interno del nostro sito quindi scopri i migliori marchi di scarpe da calcio e le offerte dedicate catalogo online oppure possiamo utilizzare spedizioni spedizioni gratuita ok dopodiché andiamo ad inserire quello che è il nostro telefono se non abbiamo un numero di customer service a cui rispondere eccetera passeremo appunto ci basterà togliere la spunta andremo su avanti quindi qui avremo inserito quello che è il nostro annuncio andremo qui a selezionare quelli che sono i temi delle nostre parole chiave ovviamente qui non dobbiamo entrare troppo nello specifico ma allo stesso tempo non dobbiamo essere troppo vaghi in che senso dobbiamo comunque andare a descrivere dei temi di ricerca dei termini di ricerca che appunto si aggiriano alla nostra attività quindi se stiamo vendendo le scarpe da calcio andiamo ad inserire scarpe da calcio come prima come prima cosa e vediamo se già per esempio ok quindi scarpe da calcio ce l'abbiamo sotto ci avremo già delle parole suggerite ok non tutte sono fondamentalmente in linea con la nostra attività principale quindi andremo un po' a capire cosa ci fornisce lui per esempio scarpe da calcio rosa ovviamente non ve lo consiglio sono comunque dei temi troppo particolari ok troppo affini quindi dobbiamo rimanere anche un po' sul generico quindi possiamo mettere abbigliamento sportivo ok poi scarpe sportive ok piano piano qui si aggiornerà come potete vedere magari vi inserirà alcune parole ancora più affini quindi dobbiamo andare a a diciamo andare a selezionare un po' quello che sono dei temi che fanno riferimento per lo più all'attività ok quindi sia entrando un po' più nel dettaglio che magari rimanendo un po' più esterni e fino a un massimo di 10 temi ok quindi una volta selezionate un po' le macro aree andremo a selezionare qui fai pubblicità in italiano e andremo su avanti qui ci chiederà dove pubblicizzare i nostri annunci quindi inserire in Italia e infine qual è il budget che vogliamo allocare io all'inizio vi dico lasciate i default questo consigliato per te e vediamo come va la campagna ok qui possiamo mettere pubblica senza interruzioni e poi facciamo avanti ecco qua che avremo un riepilogo completo di quello che è il nostro annuncio ok come potete vedere dopodiché andremo su avanti ora non lo faccio quello che possiamo vedere è semplicemente appunto quello che è la nostra campagna in questo caso ce l'abbiamo in attiva perché non abbiamo impostato determinate impostazioni e avremo qui quello che è il resoconto della nostra campagna intelligente avremo sotto obiettivi del sito web quelli che sono i nostri obiettivi nel caso in cui non ce li mostra da subito facciamo visualizza tutti gli obiettivi del sito web e andiamo a gestire i nostri obiettivi quindi andiamo a decidere noi quali sono gli obiettivi che vogliamo avere gli andiamo a selezionare quindi l'acquisto carrello pagamento e così via che troviamo già in elenco e lasciamo lavorare appunto la campagna nella fase di analisi dopodiché una volta partita la campagna comincerà a spendere e sappiate che appunto come ci dice qua Shopify per ogni euro speso nella campagna intelligente fino a un massimo di 400 euro troverete rimborsati di qui 400 euro attraverso appunto Google direttamente quindi non andrete a spendere questi 400 euro di spesa per cui se generate vendite è un modo per aver generato delle vendite a 0 euro ok quindi senza nessuna spesa pubblicitaria per quanto riguarda la creazione di campagne qui su tutte le campagne sempre su impostazioni avremo appunto tutto l'elenco delle campagne le nostre metriche quindi per fondamentalmente costo con le conversioni costo per conversione e così via e diciamo che se stiamo comunque utilizzando Google per il momento come un account quindi come un modo di fare advertising secondario a Facebook io ve lo consiglio di default una volta che comunque su Facebook vedete che le campagne vanno comunque il prodotto si vende eccetera di impostare quelle che sono una campagna per una campagna intelligente una campagna appunto shopping su Google vedere come va e ovviamente andarla magari a scalare pian piano con il budget quindi aumentando piano piano il budget magari da 15 a 20 da 20 a 25 a 30 e così via e lasciare lavorare anche Google da questo punto di vista perché è sicuramente una fonte di entrata in più per il vostro e-commerce per questo per questo è tutto e ci vedremo in seguito per altre future lezioni su Google bene parliamo un attimo di logistica molte persone hanno il pallino e la problematica della logistica abbiamo fatto il nostro store in dropshipping ricordiamo che attraverso il dropshipping non ci dobbiamo occupare noi della logistica abbiamo fatto il nostro store in dropshipping ha fatto 30, 40, 50 mila euro di fatturato con un 40% di margine che ci siamo ovviamente comodamente intascati e a quel punto vogliamo incominciare a creare un vero e proprio brand da portare a fatturare veramente tanto insomma a fare qualcosa di serio soprattutto long term cosa si fa di solito si contatta il fornitore in Cina su Alibaba su Aliexpress si vedono anche dei fornitori eventualmente anche su Amazon comunque si cerca il fornitore ovunque ovunque un fornitore vi possa creare il vostro prodotto ad hoc su misura con il packaging il logo sul vostro prodotto eccetera eccetera e ovviamente poi voi comprate lo stock quindi incominciate a comprare una piccola parte di stock per testare occhio attenti non andate a spendere tutto il budget fatto ok i soldi che avete fatto un po' ve li mettete da parte un po' li rinvestite nella vostra azienda come giusto che sia piano piano per step poi si arriverà ad un punto di estremo successo quindi cosa fate fate il primo stock contattate il vostro il vostro fornitore vi fa il prodotto eccetera eccetera ora c'è il problema più grande che è quello della logistica a questo punto cosa possiamo fare per creare un sistema di logistica molto efficiente e molto facile soprattutto nel tempo sia ad organizzare sia a startare eccetera ci sono delle piattaforme dove voi non dovete fare assolutamente una mazza non dovete fare un fico secco si occupano loro della logistica signori siamo nel 2022 ci sono tantissime società che ovviamente andate a risparmiare perché se voi fate un contratto con GLS fate un contratto con FedEx un contratto con DHL con Bartolini fate un contratto con queste compagnie di spedizioni è ovvio che se non date un quantitativo enorme di ordini i prezzi sono abbastanza alti ecco perché affidarsi a società che si occupano tutto totalmente loro conviene perché loro ovviamente hanno dei contratti con i corrieri e la società intermediaria fa tantissimi ordini quindi voi semplicemente dovete prendere il vostro stock che faccio per dire arriva dalla Cina arriva dalla Germania arriva da Londra da dove cavolo vi pare questo stock lo fate ad arrivare lo fate arrivare alla loro piattaforma al loro magazzino al loro stock e loro si occuperanno dei vostri contrassegni pagamenti in COD delle vostre spedizioni eccetera eccetera efficienza quindi rapidità nel fare le spedizioni e soprattutto avete un costo per spedizione veramente basso ogni settimana vi fanno il bonifico eccetera eccetera ora per farvi qualche esempio io utilizzo vari piattaforme ve ne prendo un'italiana che si chiama Elogy vi faccio vedere qui all'interno vi ho preso uno dei miei brand quindi per ogni vostro brand vi potete creare una vostra dashboard dove controllate tutto quanto qui ad esempio abbiamo il mio account Elogy per questo brand non utilizzo solamente questa piattaforma utilizzo molteplici piattaforme anche all'estero ma questa è una piattaforma non sono affiliato non ci guadagno un cazzo non me ne frega assolutamente nulla è una piattaforma che vi voglio dare vi voglio far vedere quanto facile sia l'utilizzo di questa piattaforma ora su questo su questo store abbiamo fatto 161 mila euro di pacchi ovviamente arrivati tralasciando il fatturato e tutto se noi andiamo a vedere la piattaforma all'interno per come è fatta ha una struttura veramente super efficace veramente molto semplice ora qui dentro noi abbiamo la nostra dashboard degli ordini ora io qua posso fare anche un filter by selection per i prodotti vabbè qua vi censureranno perché abbiamo i nostri prodotti che per privacy non facciamo vedere potete selezionare per per country eccetera eccetera perché questa società vi spedisce anche in tutta Europa e se ben vedete molte persone che mi chiedono se il COD funziona in Italia eccetera noi su 161 mila euro di fatturato che abbiamo fatto 100k sono di COD all'incirca e su quegli ordini in COD dei 99 mila euro e passa ne sono stati consegnati per 87 mila euro come vedete il corriere primario è GLS qui abbiamo il total amount del pezzo di quanto costa di quanto abbiamo deliverato e quanto il cliente ha pagato alla consegna perché c'è questa differenza per il semplice fatto ed è comunque l'88% deliverato ai nostri clienti questo vuol dire che poche persone capita signor che non siete a casa la persona di riferimento non ha a casa non ha la carta presso non voleva più l'ordine capace che non voleva più l'ordine eccetera eccetera comunque mantenere un tasso di consegna sopra il 70% è un tasso di consegna veramente elevato fatto sta che all'interno della piattaforma voi avete il tracciamento di tutto potete avere anche il tracciamento potete mettere all'interno di questa piattaforma anche un vostro team ci avete il CRM tutto quanto i ritorni spedizioni customer service il contatto diretto con loro eccetera eccetera qui ad esempio all'interno di warehouse potete controllare quanti avete il tracciamento H24 7 su 7 e tracciare di quanti prodotti avete in stock noi adesso in questo caso stiamo facendo un restock all'interno della piattaforma stiamo utilizzando anche altre piattaforme fatto sta che qui all'interno avete tutto il tracciamento del vostro stock quindi che ne so quando è arrivata mille pezzi in stock che ce ne avevate 5.000 subito vedete mille pezzi in stock cosa fate ricontattate il fornitore fate un restock in modo tale da non trovarvi mai in una situazione di stallo dove vi ritrovate senza stock e non potete più spedire quindi momentanamente chiudere lo store qui ad esempio all'interno di customer orders ci avete tutte le possibilità di vedere tutti gli ordini svolti dai vostri dei vostri clienti oltretutto potete contattare direttamente attraverso whatsapp il vostro cliente che è una cosa fenomenale qui ad esempio su shipping ci avete tutto il tracciamento delle vostre consegne noi ad esempio adesso ci abbiamo sono tutti stati consegnati tutti stati consegnati c'è una valanga di ordine una roba folle il fatto sta che sono stati tutti consegnati e alcuni sono in transito poi alcuni vanno in giacenza non trovano la persona a casa si occupano loro ricontattano fanno tutto completamente loro e come vedete comunque come piattaforma ci avete praticamente tutto all'interno ad esempio su billing altra cosa molto importante vi sto facendo vedere le cose più importanti poi vi potete andare a vedere e studiare voi la piattaforma quando sarà necessario quando dovrete fare stock eccetera eccetera qui su billing ci avete tutto il costo delle vostre spedizioni quindi quanto vi sta costando spedire la vostra merce qua io ho pagato 3.300 euro dal 22 febbraio al 24 marzo all'incirca in un mese ho pagato 3.300 euro di spedizioni quindi spedire il pezzo al vostro cliente ok quindi come ben vedete il discorso della logistica è importante che voi capiate che voi non dovrete occuparvi della logistica poi al momento che incominciate a fare 10 milioni l'anno 15 milioni l'anno e avete una mole di spedizioni veramente assurda potete incominciare a pensare di fare contratti oppure io la cosa che farei è farei proprio una mia logistica interna e comincerai a comprare furgoni brandizzare furgoni e farti proprio una logistica in house però prima di arrivare a quel livello dovete avere una mole di spedizioni veramente veramente grande ok prima di quel momento conviene utilizzare piattaforme del genere ce ne sono tante di piattaforme vi ho presentato questa perché è valida conosco i proprietari ci collaboro da anni eccetera eccetera fatto sta che queste piattaforme se voi fate tanti ordini ovviamente vi abbassano anche il prezzo della spedizione e quei prezzi non li avrete da nessuna parte ok per il semplice fatto che è un conto che una società del genere che nel totale delle spedizioni che fa fa migliaia e migliaia di spedizioni e quindi i corrieri gli abbassano il prezzo abbassano il prezzo pure a voi è un conto che voi andate direttamente da GLS o da un corriere internazionale gli dite guarda io faccio mille spedizioni al mese di conseguenza il prezzo è ovvio che sarà più alto quindi il mio consiglio è sempre di utilizzare piattaforme che come vedete sono molto molto facili all'utilizzo signori siamo arrivati alla fine di questo percorso formativo vi ricordo di iscrivervi al canale e qualsiasi tipologia di domanda fatela qui sotto nei commenti perché il mio team vi risponderà in modo ovviamente metterò una persona che fa e-commerce quindi non una persona a caso sottopagato quindi una persona che fa e-commerce che si preoccuperà di rispondervi qui sotto ai commenti vi ricordo che noi abbiamo un corso un percorso formativo per ogni di questi argomenti trattati per quanto riguarda tiktok abbiamo tiktok master che vi insegna a vendere attraverso questo canale social abbiamo un master in facebook abbiamo e-com capital che è il percorso più grande in assoluto e più valido in assoluto al mondo non perché lo dico io ma perché ce lo dicono le centinaia di studenti migliaia di studenti più che altro anche perché in italia abbiamo 16.000 studenti quindi siamo veramente in molti e inoltre vi lascio anche in descrizione il contatto del mio team su whatsapp per una prima consulenza gratuita se volete sapere informazioni sui nostri percorsi se avete un'attività da digitalizzare se volete affidare la vostra attività alla nostra agency ci occupiamo tutto totalmente noi e se volete prendere un percorso mentor come sta accadendo nell'ultimo anno che siamo pieni di mentorship persone che decidono ovviamente di prendere un percorso mentor one to one con il mio team quindi cosa vuol dire che siete seguiti h24 7 giorni su 7 qualsiasi sia la vostra tipologia di obiettivo voi siete seguiti h24 dal mio team avete le zoom call dove vi confrontate create il vostro store lo scalate scalate la vostra attività eccetera eccetera ma in più avete una chat dedicata con tutti noi dove vi aiutiamo h24 7 giorni su 7 anche di notte anche a capodanno e anche il giorno di pasqua quando tutti mangiano e si attuffano di cibo direi per questo brevissimo video che abbiamo fatto vi ricordo che ci abbiamo messo all'incirca un mese e mezzo per registrarlo e per vedere cosa mettervi cosa non mettervi di cosa le persone avevano bisogno eccetera eccetera fatto sta che ci abbiamo messo all'incirca un mese e mezzo per programmarlo registrarlo farvi le lezioni vedere quando avevamo disponibilità di registrare eccetera eccetera e ve l'abbiamo messo a disposizione altra cosa molto importante in descrizione ci avete anche un link per sbloccare il 20% di ecom capital a gratis oltretutto così potete valutare e testare la nostra piattaforma proprietaria e il nostro percorso formativo di punta e nulla signori quindi per questo video è tutto e noi ci vediamo al prossimo video ciao